Per aver patrocinato questo progetto si ringraziano le altezze fantastomondiche El, Alex, Ilenia e Andrea di Le Cronache di Eileden, Denise Amaretti ed Emma Croci. Il Fantastomondico presenta Le Memorie di Barry Lyndon di William Makepeace Dackery Lettura e produzione di Francesco Zanetti Illustrazione di Lorenzo Pistacchi Il brano Sarabanda in re minore di Georg Friedrich Handel è di Horst Zohm e Music Art Strings Musica 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 Capitolo primo Le mie origini e la mia famiglia Subisco l'influsso di una tenera passione Musica Dai tempi di Adamo in poi si può dire che non vi sia mai stato nel mondo un guaio in cui non fosse mescolata una donna e da quando ha avuto origine la nostra famiglia e deve essere stato molto vicino ai tempi di Adamo tanto antichi, nobili e illustri sono i Barry come ognun sa le donne hanno avuto una parte importante nei destini della nostra razza Immagino che non vi sia in tutta l'Europa alcun gentiluomo che non abbia inteso ricordare la casata dei Barry di Barryogue nel regno d'Irlanda poiché nessun nome altrettanto famoso si può trovare nel Gwillim o nel Dosier e benché da uomo di mondo io abbia imparato a disprezzare con tutta l'anima i vantati diritti ad un'alta nobiltà di pretendenti che non hanno una genealogia più illustre di quella dell'acchè che mi lucida gli stivali e benché derida col maggior dileggio le spacconate di molti dei miei concittadini che discendono tutti dai re di Irlanda e parlano di un pezzetto di terra su cui potrebbe a malapena vivere un porco come di un feudo pure la verità mi costringe a dichiarare che la mia famiglia era la più nobile dell'isola e forse dell'universo mondo e d'altra parte i nostri possedimenti ora insignificanti a noi sottratti dalla guerra, dal tradimento, dal trascorrere del tempo dalla bizzarria degli antenati, dalla fedeltà all'antica fede e dall'antico monarca una volta erano immensi ed abbracciavano molte contee in un tempo in cui l'Irlanda era molto più ricca e prospera di oggi avrei potuto anche porre la corona irlandese sul mio stemma gentilizio ma troppi sono gli sciocchi pretendenti a questa distinzione che già la portano e l'hanno resa comune forse, chissà, se non ci fosse stata di mezzo una donna oggi la corona avrei potuto portarla io è inutile che vi mostriate increduli, io dico, perché no? se vi fosse stato un condottiero valoroso a guidare i miei concittadini invece di quei queruli buffoni che piegarono il ginocchio dinanzi a re Riccardo II essi avrebbero potuto diventare uomini liberi e se vi fosse stato un capo risoluto per affrontare quel mascalzone assassino di Oliver Cromwell avremmo potuto cacciare gli inglesi una volta per sempre ma non vi era alcun Barry in campo contro l'usurpatore anzi, il mio antenato Simon de Barry si accordò col suddetto monarca e sposò la figlia dell'allora re di Munster i cui figli egli aveva ucciso in battaglia senza pietà ma al tempo di Cromwell era troppo tardi ormai per levare il grido di guerra contro il birraio omicida anche per un capo che portasse il nome di Barry non eravamo più principi della terra la nostra infelice razza aveva perduto i suoi possedimenti un secolo prima in conseguenza del più vergognoso tradimento conosco bene il fatto poiché mia madre me ne ha spesso raccontato la storia e per di più ha compilato un albero genealogico in ricamo di lana che ha appeso nel salone giallo di Barryville dove abitiamo questo è il solo feudo che i Lyndon posseggano ora in Irlanda e fu un tempo proprietà dei miei antenati Roy Barry di Barryogue lo possedeva fin dal tempo di Elisabetta insieme con una metà di Munster i Barry in quel tempo erano sempre in lotta con gli O'Mahony ora accadde che un certo colonnello inglese passasse nel paese di Rory proprio nel giorno in cui gli O'Mahony avevano fatto una scorreria nel nostro territorio portando via un grosso bottino di bestiame e di greggi quel giovane inglese che si chiamava Roger Lyndon di Linden o Lindein venne ricevuto in maniera molto cortese da Barry ed avendo notato che egli era sul punto di fare una spedizione punitiva nella terra degli O'Mahony gli offrì il suo aiuto e quello delle sue lance e si comportò così bene a quanto pare che gli O'Mahony furono pienamente battuti tutti i beni dei Barrys recuperati anzi raddoppiati narra la vecchia cronaca a spese dei beni e del bestiame degli O'Mahony siccome si era al principio dell'inverno il giovane guerriero inglese venne invitato da Barry a trattenersi nella sua casa di Barryogue ed egli infatti rimase là per parecchi mesi ed i suoi uomini si acquietarono accanto a quelli di Barry l'uno vicino all'altro nelle casette circostanti essi si comportavano secondo il loro costume con l'insolenza più insopportabile verso gli irlandesi così che avvenivano continuamente risse ed omicidi ed il popolo deliberò di distruggerli il figlio di Barry da cui io discendo era avverso agli inglesi quanto ogni altro uomo nel suo feudo e siccome gli inglesi quando venne loro comandato di andarsene si rifiutarono di obbedire egli ed i suoi amici si consultarono insieme e decisero di distruggerli fino all'ultimo uomo ma vi era una donna a parte del complotto e questa era la figlia di Barry Costey era innamorata dell'inglese Lyndon e gli rivelò tutto il segreto e gli inglesi proditoriamente impedirono il loro giusto massacro piombando sugli inglesi e fecero a pezzi il mio antenato Fodrick Barry e molte centinaia dei suoi uomini l'odioso macello ebbe luogo al crocevia di Barrycross presso Carigna di Hull Lyndon sposò la figlia di Rodrick Barry e prese il feudo che egli lasciò e benché i discendenti di Fodrick fossero vivi e si continuino nella mia persona nella causa di fronte ai tribunali inglesi il feudo venne concesso all'inglese come è sempre avvenuto in tutti i processi in cui fossero interessati inglesi ed irlandesi nota dell'autore non siamo mai stati in grado di trovare le prove del matrimonio del mio antenato Fodrick con sua moglie non ho dubbi che sia stato Lyndon a distruggere il contratto e ad uccidere il prete ed i testimoni del matrimonio così se non fosse stato per la debolezza di una donna sarei fin dalla nascita entrato in possesso di quei feudi che più tardi dovetti acquistare grazie al mio merito come avrete occasione di sentire ma andiamo avanti con la storia della mia famiglia mio padre era molto noto nei circoli di questo regno ed in quelli di Irlanda col nome di Roaring Harry Barry si era indirizzato come molti altri figli cadetti di nobili famiglie alla carriera forense ed aveva fatto il suo tirocinio nello studio di un celebre legale di Sackville Street in Dublino per il suo ingegno superiore e per il suo amore del sapere non vi è dubbio che sarebbe divenuto una figura eminente nella sua professione se le sue qualità sociali l'amore per i divertimenti sportivi e la straordinaria grazia del suo tratto non lo avessero indirizzato verso un tipo di attività molto superiore sin da quando era segretario dell'avvocato egli manteneva sette cavalli da corsa e andava a caccia regolarmente con i cacciatori di Kildare e di Wicklow sul suo cavallo grigio, Endimione disputò poi quella famosa corsa contro il capitano Panther che è ancora ricordata dagli amanti di quello sport per ricordare quella vittoria fece dipingere uno splendido quadro che ora è appeso sopra la mensola del mio camino nella sala da pranzo di Castle Lyndon un anno dopo ebbe l'onore di cavalcare lo stesso cavallo Endimione davanti al defunto re Giorgio II a Newmarket ricevendone il premio e la benevola attenzione dell'augusto sovrano Benché fosse soltanto il secondo figlio della nostra famiglia il mio caro padre ereditò naturalmente il feudo ora ridotto soltanto alla miserabile rendita di 400 sterline l'anno perché suo fratello maggiore, lo zio Cornelius Berry detto il cavaliere guercio per una ferita che aveva ricevuto in Germania rimase fedele alla vecchia religione in cui la nostra famiglia era stata allevata e non solo prestò servizio militare all'estero onorevolmente ma combatte persino contro la sacra maestà di Giorgio II nella infelice sommossa della Scozia del 45 riparleremo più avanti del cavaliere devo essere grato della conversione di mio padre alla mia cara mamma Miss Belle Brady, figlia di Ulisses Brady di Castle Brady contea di Kerry, scudiero e giudice di pace essa era ai suoi tempi la più bella donna di Dublino e veniva chiamata da tutti l'Elegante vedendola in una riunione mio padre si innamorò perdutamente di lei ma ella non voleva sposare un papista o il segretario di un avvocato e così per amor suo essendo ancora in vigore le vecchie buone leggi il mio caro padre prese il posto dello zio Cornelius ed entrò in possesso del feudo della famiglia oltre all'amore per i begli occhi di mia madre molte persone e della migliore società contribuirono a questo felice mutamento ed ho spesso udito mia madre raccontare ridendo la storia della viura di mio padre che venne pronunciata alla taverna con grande solennità alla presenza di Sir Dick Ringwood di Lord Bugwig, del Capitano Punter e di due o tre altri giovani scapestrati della città tra uno scherzo e l'altro Harry vinse quella sera 300 monete d'oro al faraone e la mattina seguente compì le necessarie formalità per estromettere il fratello la sua conversione produsse un certo raffreddamento tra lui e lo zio Cornelius che in conseguenza si unì ai ribelli sistemata la difficoltà della religione Lord Bugwig prestò a mio padre il suo yacht che allora stava all'ancora a Pigeon House e la bella Belle Brady venne indotta a fuggire con lui in Inghilterra benché i suoi genitori fossero contrari al matrimonio ed i suoi spasimanti gliel'ho inteso dire migliaia di volte fossero i più numerosi ed i più ricchi di tutto il regno d'Irlanda si sposarono al Savoy e siccome mio nonno morì presto Harry Berry, scudiero poté entrare in possesso dei beni paterni e sostenere con dignità il nostro illustre nome a Londra ferì in duello il famoso conte Tirselin dietro Montague House fu membro dello Whites e frequentatore di tutte le mescite di cioccolata e mia madre del pari fece una vita brillante al fine, dopo il giorno del suo grande trionfo di fronte alla sua sacra maestà in Newmarket la fortuna di Harry stava ormai per essere fatta perché il grazioso monarca aveva promesso di pensare a lui ma purtroppo egli venne chiamato da un altro monarca la cui volontà non consente ritardi né rifiuti vale a dire dalla morte che colse mio padre alle corse di Chester lasciandomi orfano e senza aiuto pace alle sue ceneri egli non fu senza colpa e dissipò la parte maggiore delle proprietà della nostra famiglia ma era valente nel bere un bicchiere e nello scuotere dadi e nel guidare il suo tiro a sei da uomo alla moda non so se la sua graziosa maestà fosse molto colpita dall'improvvisa scomparsa di mio padre benché mia madre mi abbia detto che egli abbia in quell'occasione sparso qualche regale lacrima ma queste non ci aiutarono in nulla e tutto ciò che fu trovato in casa sua dalla moglie e dai creditori fu una borsa con 90 guinee che mia madre naturalmente prese insieme con lo stemma di famiglia il guardaroba di mio padre ed il suo dopo aver caricato tutto su una grande carrozza si diresse a Holyhead da dove si imbarcò per l'Irlanda il corpo di mio padre ci accompagnava sul carro funebre più bello e più ornato di pennacchi che il denaro potesse comprare infatti benché moglie e marito avessero molto spesso litigato in vita alla morte di mio padre la vedova dotata di nobile animo dimenticò tutte le divergenze e gli fece il più grande funerale che fosse mai stato visto fino a quel giorno ed eresse un monumento sopra le sue ossa monumento che io poi dovetti pagare con un'iscrizione che lo dichiarava il più saggio il più puro ed il più affezionato dei mariti per compiere questi tristi doveri verso il suo defunto signore la vedova spese quasi tutte le guinee che aveva e ne avrebbe spese molte di più se avesse dovuto soddisfare un terzo delle fatture che le vennero rimesse in occasione di quelle cerimonie ma la gente della nostra vecchia casa di Berryogue benché non amasse mio padre per il suo cambiamento di religione volle essere vicino a lui in quel momento e mancò poco non facesse a pezzi i custodi del feretro inviati da Mr. Plummer di Londra con le compiante spoglie il monumento e la cappella in chiesa erano però purtroppo tutto quanto rimaneva dei miei vasti possedimenti perché mio padre aveva venduto fino all'ultima porzione della proprietà ad un certo Notley, un avvocato ricevemmo quindi soltanto un gelido benvenuto nella nostra casa che era diventato un luogo miserevole e squallido nota dell'autore in un altro punto delle sue memorie Mr. Berry descrive la casa come uno dei più splendidi palazzi d'Europa ma questa è un'abitudine non insolita tra gli appartenenti alla sua nazione e con tutto il rispetto alla sincerità irlandese da lui tanto proclamata è noto che il nonno di Mr. Berry era avvocato e che era stato l'autore della propria fortuna lo splendore del funerale non mancò di aumentare la reputazione di donna di spirito e dalla moda della vedova Berry e quando scrisse a suo fratello Michael Brady quel degno gentiluomo immediatamente traversò il paese a cavallo per gettarsi nelle sue braccia e per invitarla in nome di sua moglie a Castle Brady Mick e Berry avevano litigato come fanno tutti gli uomini ed erano corse tra loro parole molto vivaci durante il periodo in cui Berry faceva la corte a Miss Bell ma quando Mick era venuto a Londra nel 46 si era imbattuto una volta per via con Berry aveva abitato nella sua bella casa di Clarges Street aveva perduto con lui al gioco alcune monete d'oro ed in sua compagnia aveva rotto la testa ad un paio di poliziotti tutti questi ricordi avevano molto ravvicinato mia madre e me a quel gentiluomo di buon cuore che ci ricevette quindi entrambi a braccia aperte mia madre agendo forse con saggezza non volle far subito conoscere ai suoi amici qual era la sua condizione arrivò in conseguenza su un'enorme berlina dorata che portava scolpiti immensi stemmi e venne quindi considerata dalla cognata e dal resto della contea per una persona di notevole ricchezza e di grande distinzione per un certo tempo come era giusto e conveniente mia madre dettò legge a Castelbredi dava ordini ai servitori di qua e di là e insegnava loro ciò di cui avevano bisogno vale a dire un po' di distinzione londinese e il Redmond inglese come io venivo chiamato era trattato come un piccolo lord aveva per sé una cameriera ed un paggio e l'onesto Mick pagava loro lo stipendio cosa che non aveva l'abitudine di fare neppure con i propri domestici facendo insomma tutto quanto era in suo potere per dare alla sorella un po' di conforto in tanta afflizione la mamma in cambio aveva deciso che quando i suoi affari si fossero sistemati avrebbe dato al suo cortese fratello una buona rendita per il mantenimento suo e di suo figlio ed aveva promesso di far portare da Clarges Street i suoi bei mobili per arredare le stanze alquanto malconce di Castelbredi ma avvenne che quel mascalzone del nostro padron di casa fece sequestrare fino all'ultima sedia ed all'ultima tavola che per diritto sarebbero dovute toccare alla vedova il feudo di cui ero l'erede era nelle mani di rapaci creditori ed i soli mezzi di sussistenza rimasti alla vedova ed all'orfano consistevano nel reddito di un'ipoteca di 50 sterline sulla proprietà di Lord Bugwig che aveva contratto col defunto un debito di gioco e così le liberali intenzioni di mia madre verso suo fratello non poterono essere poste in atto bisogna confessare a gran vergogna di Mrs. Brady di Castelbredi che quando venne a conoscenza della povertà della cognata dimenticò tutto il rispetto che fino a quel momento era stata solita tributarle cacciò fuori dalla porta la mia cameriera ed il mio paggio e disse a Mrs. Barry che avrebbe potuto anche seguirli a suo comodo la moglie di Mick era di una famiglia di bassa estrazione ed era d'animo gretto dopo circa un paio d'anni durante i quali aveva risparmiato quasi tutta la sua piccola rendita mia madre soddisfece il desiderio della signora Brady ma in pari tempo mostrando un risentimento giusto benché prudentemente dissimulato fece voto che non avrebbe mai più ripassato la porta di Castelbredi finché fosse viva la padrona di casa sistemò il nuovo alloggio con grande economia e considerevole gusto e mai nonostante la povertà venne meno la dignità che le era dovuta e che tutto il vicinato le tributava d'altra parte come si poteva rifiutare rispetto ad una gentildonna che aveva vissuto a Londra aveva frequentato la società più elegante ed era stata persino come essa stessa dichiarava solennemente presentata a corte questa situazione le dava il diritto che sembra essere largamente esercitato in Irlanda da quei locali che lo posseggono di guardare dall'alto in basso con disprezzo tutte le persone che non hanno avuto occasione di lasciare l'isola nativa e di vivere per qualche tempo in Inghilterra così quando la signora Brady usciva con un vestito nuovo la cognata era solita dire povera creatura come si può pensare che si intenda di moda e benché si compiacesse di essere chiamata la bella vedova e tale era infatti Mrs. Berry era ancora più soddisfatta quando la chiamavano la vedova inglese Mrs. Brady da parte sua non mancava di argomenti per risponderle era solita ripetere che il defunto Berry era un fallito e un pezzente e che tutto il mondo elegante che vedeva lo incontrava al tavolo di gioco di Lord Bugwig quel celebre fanfarone e pendaglio da forca quanto a mia madre la signora di Castle Brady faceva insinuazioni ancora più pungenti ma perché dovremmo parlare ora di queste accuse o rivangare scandali segreti vecchi ormai di cento anni regnava Giorgio II quando questi personaggi vivevano e litigavano buoni o cattivi belli o brutti ricchi o poveri essi sono ora tutti uguali e i giornali della domenica e i tribunali non ci forniscono forse ogni settimana più freschi romanzi e pettegolezzi più interessanti ad ogni modo si può affermare che la mamma dopo la morte di suo marito ed il suo ritiro in campagna visse in modo tale da sfidare ogni calunnia se mia madre era stata la ragazza più allegra del paese con metà dei giovanotti ai suoi piedi prodiga ad ognuno di essi di sorrisi ed incoraggiamenti da vedova adottò invece un contegno così dignitosamente riservato da rasentare l'alterigia e divenne rigida come una quacquera più di un uomo che era stato colpito dal fascino della fanciulla ripeté le sue offerte alla vedova ma Mrs. Berry rifiutò ogni proposta di matrimonio dichiarando di voler vivere soltanto per suo figlio e per la santa memoria del suo defunto marito santo davvero ripeteva di cattivo umore mia zia Brady Henry Berry era il più gran peccatore che si sia mai visto e tutti sanno che lui e Bell si odiavano se lei non si vuole risposare dipende dal fatto che quella furbacchiona ha qualche altra cosa in mente ed aspetta soltanto che Lord Bugwig resti vedovo ma se anche fosse stato vero che c'era di male non era la vedova di un Berry degna di sposare qualsiasi Lord d'Inghilterra e non si è sempre detto che sarebbe stata una donna a restaurare le declinanti sorti della famiglia Berry se mia madre sperava di essere lei quella donna credo che fosse un'idea perfettamente giustificabile da parte sua perché il Lord mio padrino aveva sempre per lei una grande attenzione e del resto non ho mai saputo che il desiderio della mamma di migliorare la mia posizione nel mondo avesse preso tanto profonde radici nel suo animo fino al matrimonio di sua signoria nel 57 con Miss Goldmore la figlia del ricco nababbo indiano nel frattempo abitavamo sempre a Berryville e tenendo conto della scarsità della nostra rendita ci tenevamo su bene della mezza dozzina di famiglie che formavano la congregazione di Bradystown non c'era nessuno che avesse un'aria tanto rispettabile quanto la mamma la quale benché sempre vestita a lutto in memoria del suo defunto marito badava che i suoi abiti fossero fatti in modo da dare alla sua bella persona il maggior risalto possibile ritengo che passasse almeno sei ore di ogni giorno della settimana a tagliarli guarnirli e modificarli perché fossero sempre alla moda aveva la crinolina più ampia e il più elegante falpalà ed una volta al mese in una busta con la intestazione di Lord Bugwig veniva una lettera da Londra che conteneva i resoconti più recenti della moda di laggiù la sua carnagione era così brillante che non aveva bisogno di rossetto come era di moda a quei tempi no ella diceva che lasciava rossetto e bianchetto a madame Brady e da questo il lettore può immaginare quanto le due donne si amassero la cui carnagione giallastra nessuno smalto poteva modificare in una parola era una bellezza così indiscussa che tutte le donne del paese la prendevano a modello ed i giovanotti da dieci miglia all'intorno venivano apposta a cavallo alla chiesa di Castle Brady per poterle dare un'occhiata ma se come ogni altra donna che ho visto o di cui ho inteso parlare era orgogliosa della sua bellezza per renderle giustizia è necessario dire che era ancora più orgogliosa di suo figlio mi ripeteva mille volte che ero il più bel ragazzo del mondo questione di gusti un uomo di 60 anni può ormai parlare senza troppa vanità del tempo in cui ne aveva 14 e devo riconoscere che c'erano buoni motivi per giustificare l'opinione di mia madre la maggiore soddisfazione di quella brava donna era che fossi ben vestito la domenica ed i giorni di festa andavo in giro con giacca di velluto e con la spada dall'elsa d'argento al fianco la giarrettiera d'oro al ginocchio bella come quella di qualsiasi lord del paese mia madre mi faceva i più splendidi panciotti ed avevamo molti merletti ai polsini un nastro nuovo sui capelli e quando andavamo in chiesa la domenica persino l'invidiosa mrs. Brady era costretta ad ammettere che non vi era una coppia più elegante in tutto il regno ma la signora di Castle Brady aveva motivo di soghignare poiché in queste occasioni un certo Tim che avevamo l'abitudine di chiamare mio valletto seguiva in chiesa me e mia madre portando un grosso libro di preghiere ed un bastone era vestito con la livrea di uno dei nostri paggi di Clarges Street che non gli tornava a pennello poiché Tim era un ragazzo piccolo e con le gambe storte ma benché poveri eravamo sempre nobili e non era il caso di prenderci in giro per questi accessori dovuti al nostro rango così ci avanzammo nella navata centrale della chiesa fino al nostro inginocchiatoio con gran solennità e gravità come avrebbero potuto fare la moglie ed il figlio del lord luogotenente là giunti mia madre pronunciava le risposte e gli amen con una voce alta e dignitosa che era una delizia a sentirla aveva anche una bella voce adatta per il canto in cui si era perfezionata a Londra sotto un maestro alla moda ed esercitava questo suo talento in modo tale che nella piccola congregazione non vi era quasi alcun'altra voce che osasse unirsi alla sua nel canto dei salmi in realtà mia madre aveva grandi doni in ogni campo e ritengo che fosse una delle persone più belle educate e ricche di virtù di questo mondo molto spesso me ne aveva parlato ed i vicini che notavano la sua umiltà e la sua pietà ne ricevevano una tale impressione che avrei sfidato l'uomo più diffidente a non aver fiducia in lei quando lasciammo Castelbredi andammo ad occupare una casa in Bredistown che la mamma battezzò Berryville confesso che era un appartamento molto piccolo ma noi ne tirammo tutto il profitto possibile ho ricordato già l'albero genealogico della famiglia che era appeso nel salotto che la mamma chiamava il salone giallo mentre la mia camera da letto era chiamata la camera rosa e la stanza di mamma l'appartamento arancione come ricordo bene tutto al momento del pranzo Tim suonava regolarmente una grande campana ed avevamo per bere una coppa d'argento per uno e mia madre affermava non a torto che avevo al mio posto una bottiglia di chiaretto degna di qualsiasi altro signore della regione infatti era così sebbene data la mia tenera età non mi fosse permesso bere quel vino che così raggiunse nella caraffa una considerevole età lo zio Brady nonostante le dispute di famiglia si accorse di questo fatto un giorno in cui venne per sua disgrazia a Berryville all'ora di pranzo e gustò quel nettare bisognava vedere come sputava e le smorfie che fece ma quell'onesto gentiluomo non era troppo schizzinoso in materia di vino né della compagnia in cui lo beveva si sarebbe ubriacato infatti con la stessa indifferenza col pastore o col prete cattolico nei riguardi di quest'ultimo ciò suscitava l'indignazione di mia madre la quale essendo di famiglia protestante fanatica disprezzava con tutte le sue forze quelli dell'antica fede e a malapena si sarebbe trattenuta in una stanza in cui fosse stato presente un retrogrado papista ma il cavaliere non aveva tanti scrupoli era infatti uno degli individui più simpatici semplici e di buon carattere che mai siano vissuti e passava volentieri qualche ora con la solitaria vedova quando era stanco di madame bredi a casa gli piacevo diceva molto più di qualcuno dei suoi figli e dalla fine dopo un paio d'anni acconsentì a farmi rientrare al castello quanto a mia madre però mantenne risolutamente il giuramento che aveva fatto nei riguardi della cognata proprio il giorno in cui tornai a Castelbredi si può dire in certo senso che cominciassero i miei guai mio cugino Master Mick un grosso mostro di 19 anni mi odiava e ve lo posso garantire lo ricambiavo con tutto il cuore mi insultò a pranzo rinfacciandomi la povertà di mia madre e fece ridere alle mie spalle tutte le ragazze della famiglia così quando andammo alle stalle dove Mick andava sempre a fumare la sua pipa di tabacco dopo pranzo gli dissi tutto quello che pensavo di lui e ne seguì una lotta che durò almeno 10 minuti durante i quali mi comportai da uomo e gli pestai l'occhio sinistro benché in quel tempo avessi soltanto 12 anni naturalmente egli mi batté ma una sconfitta fa poca impressione a un ragazzo in quella giovane età come io avevo provato già molte volte nelle mie battaglie con i monellacci di Bradystown nessuno dei quali durante quel periodo della mia vita era in grado di starmi a pari mio zio fu molto soddisfatto quando seppe della mia prodezza mia cugina Nora portò carta e aceto per curarmi il naso e quella sera andai a casa con una pinta di chiaretto in corpo non poco orgoglioso lasciatemelo dire di avere tenuto duro per tanto tempo contro Mick e benché continuasse a trattarmi male e fosse solito pigliarmi a legnate ogni volta che gli capitavo tra i piedi ero molto contento di stare a Castle Brady e della compagnia che trovavo laggiù dei miei cugini almeno di alcuni e della gentilezza di mio zio giacché diventavo sempre di più il suo favorito egli mi comprò un puledro e mi insegnò a cavalcare mi portava con sé a cacciare le lepri e gli uccelli e mi insegnò a tirare a volo e alla fine fui liberato anche dalla persecuzione di Mick poiché suo fratello Master Ulick ritornò dal Trinity College e siccome odiava il fratello maggiore cosa che avviene di solito nelle famiglie del bel mondo mi prese sotto la sua protezione da quel momento poiché Ulick era più grosso e più forte di Mick io il Redmond inglese come ero chiamato venne lasciato stare salvo le volte in cui veniva ad Ulick la voglia di frustarmi cosa che faceva ogni volta che lo riteneva conveniente la mia educazione del resto non venne trascurata neppure nelle parti più superflue e poiché avevo una non comune disposizione naturale per molte cose presto superai in finezza la maggior parte delle persone che mi stavano intorno avevo orecchio ed una bella voce che mia madre coltivava con cura mi insegnò anche a ballare il minuetto con grazia e gravità gettando così le fondamenta del mio futuro successo nella vita imparai anche i balli volgari per quanto forse non dovrei confessarlo nella stanza dei domestici dove potete esserne sicuri non mancava mai una cornamusa ed io venivo considerato senza rivali sia nella danza rustica che nella giga per quanto riguarda la cultura libresca ebbi sempre un gusto non comune per leggere commedie e romanzi che sono la parte fondamentale della educazione di un perfetto gentiluomo e mai lasciavo passare dal villaggio un venditore ambulante senza comprare se avevo un penny almeno un paio di ballate per quanto riguarda invece la stupida grammatica il greco il latino e simili pedanterie le ho sempre odiate fin dalla prima giovinezza e dichiarai subito francamente che non le avrei imparate questa mia intenzione la mostrai in maniera abbastanza decisa all'età di 13 anni quando capitò a mia madre un'eredità di 100 sterline da parte di mia zia Biddi Bredi e la pensò di impiegare questa somma per la mia educazione e mi mandò nella famosa accademia del dottor Tobias Tickler a Bullywacket o Beckwacket come aveva l'abitudine di dire mio zio ma sei settimane dopo essere stato consegnato a sua reverenza tornai d'improvviso a Castle Brady fesci 40 miglia a piedi per fuggire da quel luogo odioso e lasciai il dottore in uno stato simile alla poplessia il fatto è che alle piastrelle a ladri e guardie e dal pugilato ero il primo della scuola mentre non riuscivo affatto ad eccellere nello studio dei classici e dopo essere stato fustigato sette volte senza che questo facesse fare il minimo progresso al mio latino mi rifiutai di sottomettermi di nuovo trovando la cosa perfettamente inutile ad un'ottava applicazione della frusta cercate qualche altro sistema signore dissi al maestro quando stava per scudisciarmi un'altra volta ma egli non volle e allora per difendermi gli tirai in testa la lavagna e colpì il bidello scozzese con un calamaio di piombo a questo gesto tutti i ragazzi si misero a strillare di gioia mentre alcuni dei servi tentavano di fermarmi ma tirando fuori il grosso coltello a serramanico che mia cugina Nora mi aveva regalato gridai che lo avrei piantato nel panciotto del primo che avesse osato toccarmi e vi garantisco che mi lasciarono passare quella notte dormi a 20 miglia da Bollywockett nella casa di un contadino che mi diede patate e latte e dal quale più tardi regalai 100 guinee quando tornai a visitare l'Irlanda nei giorni della mia grandezza come vorrei avere ora quel denaro ma a che scopo aver rimpianti mi è capitato di dormire su letti più duri di quello su cui dormii quella notte ed ho avuto cibo più scarso di quello che mi diede l'onesto Phil Murphy la sera in cui scappai da scuola così tutta la mia carriera scolastica era durata soltanto sei settimane e dico questo per far conoscere ai genitori il valore che ha lo studio infatti ho incontrato nel mondo molti dotti topi di biblioteca specialmente un illustre vecchio dottore con gli occhi cisposi di nome Johnson che viveva in un cortile presso Fleet Street a Londra ebbene l'ho ridotto al silenzio come sto per dirvi al caffè Button ed in questo e nella poesia ed in quella che chiamo filosofia naturale o scienza della vita e nell'equitazione nella musica nel salto nel modo di fare di un perfetto gentiluomo e di un uomo di mondo posso dire che per quanto mi riguarda Redmond Berry ha di rado trovato un eguale signore dissi a Mr. Johnson nell'occasione cui alludevo era accompagnato da un certo Mr. Boswell di Scozia ed io ero stato presentato al circolo da un certo Mr. Goldsmith mio concittadino signore gli dissi rispondendo ad un'altisonante citazione in greco del grande maestro voi credete di saperne molto più di me perché citate il vostro Aristotele ed il vostro Plutone ma sapete dirmi quale cavallo vincerà ad Epsom Downs la settimana prossima? Sapete correre per sei miglia senza ripigliar fiato? Sapete colpire con la pistola dieci volte l'asso di picche senza sbagliarlo mai? Se è così parlatemi pure del vostro Aristotele e del vostro Plutone Ma non sapete con chi state parlando? gridò a questo punto il gentiluomo scozzese Mr. Boswell Tacete Mr. Boswell disse il vecchio maestro di scuola non ho diritto di seccare col mio greco questo galantuomo ed egli mi ha risposto molto bene Dottore risposì io scherzando conoscete una parola che faccia rima con Aristotele? Porto se volete osservò ridendo Mr. Goldsmith e ordinammo sei rime in Aristotele prima di lasciare il caffè quella sera Quando poi raccontai la storia questo divenne uno scherzo consueto e dallo white e dall'albero di cocco quei burloni erano soliti dire cameriere porta una rima in Aristotele del capitano Barry una volta mentre stavo sorbendo un bicchierino nell'ultimo dei due posti indicati il giovane Dick Sheridan mi chiamò un grande stagirita scherzo che non fui in grado di comprendere ma sto divagando dalla mia storia e debbo in conseguenza tornare a casa alla cara vecchia Irlanda avevo fatto conoscenza fin da allora con la gente più ragguardevole della regione e di miei modi come ho detto erano tali da poter stare alla pari con tutti loro forse vi meraviglierete che un ragazzo di campagna quale io ero educato tra piccoli proprietari irlandesi e di loro dipendenti di stalla e di fattoria potesse arrivare a possedere quel modo di fare così elegante che senza discussione mi viene da tutti riconosciuto ma il fatto è che ebbi un valente istruttore nella persona di un vecchio guardacaccia che aveva fatto il servizio militare col re di Francia a Fontenois e che mi insegnò il ballo e le belle maniere nonché un'infarinatura della lingua di quel paese insieme con l'uso della spada sia piccola che grande molte e molte volte ho camminato da ragazzo per un lungo miglio al suo fianco mentre egli mi narrava le meravigliose storie del re di Francia della brigata irlandese del maresciallo di Sassonia e dei ballerini dell'opera egli aveva anche conosciuto mio zio il cavaliere Guercio e sapeva mille raffinatezze che mi insegnava in segreto non ho mai conosciuto un uomo che potesse stargli a pari nel gioco dei dadi nel curare un cavallo nel guidarlo e nel saperlo scegliere mi insegnava gli sport virili a cominciare dalla caccia dei nidi così che considererò sempre Phil Parsell come il miglior istruttore che abbia mai avuto il suo unico difetto era quello di bere ma su questo ho sempre chiuso un occhio odiava anche mio cugino Mick come il veleno ma anche su questo punto mi era facile scusarlo sotto la guida di Phil all'età di 15 anni ero un uomo molto meglio educato dei miei cugini e credo che la natura fosse stata anche più benigna verso la mia persona alcune delle ragazze di Castle Brady come presto vi racconterò mi adoravano alle fiere e dalle corse molte delle ragazze più carine presenti dicevano che mi avrebbero voluto avere come cavaliere eppure bisogna che lo confessi non ero molto popolare in primo luogo tutti sapevano che ero povero in canna e credo che forse un po' di colpa l'avesse in questo la mia buona madre che mi aveva fatto troppo orgoglioso avevo l'abitudine di vantare coi miei compagni la mia nascita e la magnificenza delle mie carrozze dei miei giardini delle mie cantine dei miei domestici e questo davanti a gente che conosceva perfettamente la mia effettiva situazione se c'erano dei ragazzi che osavano pigliarmi in giro dovevo picchiarli a rischio di morire e più di una volta sono ritornato a casa quasi ammazzato da qualcuno o da parecchi di loro e quando mia madre mi domandava cosa era capitato rispondevo che era stata una questione di famiglia difendi il tuo nome anche col sangue reddi ragazzo mio mi diceva quella santa donna con le lacrime agli occhi ed essa avrebbe fatto lo stesso con la voce ed anche sì con le unghie e con i denti così quando avevo 15 anni non c'era più un ragazzo si può dire al di sotto dei 20 anni in un raggio di mezza dozzina di miglia che non avessi picchiato per una ragione o per un'altra c'erano i due figli del vicario di Castle Brady in realtà io non potevo associarmi con dei ragazzacci pezzenti come loro ed avemmo più di una battaglia per sapere chi si doveva scansare dal muro quando ci incontravamo in Bradystown c'era Pat Lurgan il figlio del fabbro che me le suonò quattro volte prima che venissimo a una battaglia campale in cui ebbi finalmente il sopravvento e potrei ricordare una ventina di prodezze da me fatte se questi ricordi di pugilato non fossero argomenti troppo futili per parlarne davanti a gentiluomini e dame ben nate ma c'è un altro argomento mie gentili lettrici di cui devo parlare e non è fuori posto vi piace infatti udirne discorrere giorno e notte poiché giovani e vecchie sognate e pensate soltanto a questo belle o brutte ed in fede mia non ho mai visto altro che donne belle fino a 50 anni è il soggetto più vicino al cuore di tutte voi e credo che avrete già indovinato l'enigma senza troppa fatica amore certo questa parola è formata apposta con le più dolci e morbide vocali e consonanti della nostra lingua e chi non desidera sentirne parlare almeno a mio parere non vale un fico secco la famiglia di mio zio era formata di dieci figli che secondo l'abitudine delle famiglie molto numerose erano divisi in due campi avversi in due partiti l'uno stava dalla parte della mamma mentre l'altro fiancheggiava mio zio in tutte le numerose liti che sorgevano tra il degno gentiluomo e la sua consorte la fazione di Mrs. Brady era capeggiata da Mick il maggiore che mi odiava e non amava neppure suo padre che lo teneva lontano dalla proprietà invece Ulick il secondo fratello era una creatura di suo padre ed in conseguenza Mick aveva una folle paura di lui non è necessario che ricordi i nomi di tutte le ragazze se più tardi ho avuto abbastanza guai con loro nella vita lo sa il cielo ed una di loro fu anzi la causa di tutte le mie prime sventure e la era benché certo tutte le sue sorelle si rifiutassero di riconoscerlo la bellezza della famiglia e si chiamava Miss Honoria Brady a quel tempo diceva di avere 19 anni ma siccome sapevo leggere il frontespizio della Bibbia di famiglia come qualsiasi altro era uno dei tre libri che insieme con il tavoliere del trick track costituivano la biblioteca del mio zio sapevo che era nata nel 37 e che era stata battezzata dal dottor Swift decano della chiesa di San Patrizio a Dublino per conseguenza aveva 23 anni nel tempo in cui lei ed io stavamo tanto insieme quando ripenso a lei ora capisco che non deve mai essere stata veramente bella perché la sua corporatura era piuttosto tendente al grasso e la sua bocca era molto larga il viso era lentigginoso come un uovo di pernice ed i capelli avevano il colore di una certa verdura che si mangia insieme col manzo bollito a voler usare il termine più benevolo più di una volta la mia cara madre aveva fatto fare queste osservazioni a proposito della ragazza ma allora non ci credevo anzi ero pronto a considerare Onoria come un essere angelico molto al di sopra di tutti gli angeli del suo sesso d'altra parte sappiamo benissimo che una signora esperta nella danza o nel canto non può raggiungere la perfezione senza un lungo studio e che la canzone o il minuetto che essa esegue con tanta facile grazia davanti al pubblico non è stata da lei imparata senza molta fatica e perseveranza in privato lo stesso avviene con quelle care creature che sono esperte nell'arte della civetteria Onoria per esempio stava sempre in allenamento e da questo scopo aveva preso me povero diavolo come soggetto per il suo perfezionamento così come faceva del resto con l'ispettore del dazio quando veniva per il suo giro col cameriere o col povero curato o col ragazzo del giovane farmacista di Bradystown che mi ricordo di aver picchiato una volta proprio per questa ragione se è ancora vivo gliene faccio le mie scuse povero diavolo non era certo colpa sua se era caduto vittima delle male arti di una delle più grandi civette del mondo considerando naturalmente la sua oscura vita e rustica educazione a voler dire la verità ed ogni parola di questo racconto della mia vita è improntata alla più sincera verità la mia passione per Nora o Donoria che sia cominciò in un modo molto volgare e poco romantico non le ho salvato la vita anzi una volta l'avevo quasi ammazzata come sentirete non l'avevo rimirata al chiaro di luna suonando la chitarra né l'avevo liberata da una banda di briganti come nel romanzo avviene ad Alfonso con la bella Linda Mira ma una volta dopo pranzo d'estate a Bradystown me ne andai in giardino a cogliere ribes per mangiarli come frutta e ve lo giuro sul mio onore pensavo soltanto ai ribes quando mi imbattei in Miss Nora ed in Maisie una delle sue sorelle con la quale in quel momento andava d'accordo ed erano entrambe occupate allo stesso divertimento come si dice ribes in latino Redmond mi dice lei mi stuzzicava sempre io so come si dice in latino oca rispondo io e come si dice insistè Miss Maisie insolente come un pappagallo accidenti a te rispondo io perché non avevo mai abbastanza spirito e così ci mettemmo a lavorare sull'arbusto del ribes ridendo e scherzando felici quando è possibile esserlo mentre passavamo così piacevolmente il tempo Nora fece in modo di graffiarsi il braccio che cominciò a sanguinare allora si mise a piangere mostrando quel braccio rotondo e bianco io lo fasciai e credo che mi permettesse di baciarle la mano e benché fosse la mano più grassa e malfatta che si potesse vedere considerai quel favore come il più incantevole che mi fosse mai stato concesso e tornai a casa in estasi ero un ragazzo troppo ingenuo per nascondere i sentimenti che potevo provare a quel tempo così che nessuna delle otto ragazze di Castle Brady pote fare a meno di accorgersi presto della mia passione e tutte scherzavano e si rallegravano con Nora per il suo cavaliere i tormenti della gelosia che quella crudele civetta mi fece sopportare furono orribili qualche volta mi trattava da bambino qualche altra da uomo mi piantava sempre in asso se capitava qualche estraneo in casa dopotutto mi diceva tu Redmond hai soltanto 15 anni e non hai una guinea al mondo allora le giuravo che sarei divenuto il più grande eroe che si fosse mai conosciuto fuori dall'irlanda e facevo la scommessa che prima di aver raggiunto i vent'anni avrei avuto abbastanza denaro per comprare un feudo sei volte più grande di Castle Brady naturalmente non ho mantenuta nessuna di queste sciocche promesse ma non vi è dubbio che esse ebbero molta influenza sui primi anni della mia vita e mi indussero a fare quelle grandi azioni per cui sono divenuto celebre e che verranno ora ordinatamente narrate voglio narrare però almeno un episodio così che i lettori possano conoscere che razza di tipo era Redmond Berry e quale coraggio ed indomita passione avesse in corpo non so se nessuno dei giovani all'acqua di rose del giorno d'oggi avrebbe osato fare la metà di ciò che feci io di fronte al pericolo occorre premettere che in quel tempo il Regno Unito era in stato di grande eccitazione per la minaccia che generalmente trovava credito di una invasione francese si diceva che il pretendente fosse in grande auge a Versailles che fosse stato meditato uno sbarco in Irlanda ed i nobili e la gente del popolo che era in grado di farlo in tutte le parti del Regno mostravano la loro fedeltà arruolando reggimenti di cavalieri e di fanti per resistere all'invasione Bradystown mandò una compagnia ad unirsi al reggimento di Kilwangan in cui era capitano Master Mick e ricevemmo una lettera di Master Ulick dal Trinity College che raccontava come anche l'università avesse formato un reggimento in cui egli aveva l'onore di essere caporale come li invidiavo entrambi specialmente anche quell'odioso Mick quando lo vedevo marciare alla testa dei suoi uomini nella sua giubba scarlatta ricamata con un nastro al cappello lui quella povera creatura priva di intelligenza era capitano ed io niente io che sentivo di avere tanto coraggio quanto il duca di Camberland in persona e che sapevo per di più che una giubba scarlatta mi sarebbe stata tanto bene mia madre disse che ero troppo giovane per arruolarmi nel nuovo reggimento ma il fatto era in realtà che lei era troppo povera ed il costo di una uniforme nuova avrebbe ingoiato almeno la metà della sua rendita di un anno mentre ella avrebbe voluto che suo figlio facesse una figura degna della sua nascita cavalcasse il migliore dei destrieri fosse vestito degli abiti migliori e frequentasse le compagnie più eleganti così dunque mentre tutto il paese risuonava di rumori di guerra i tre regni rimbombavano di musiche militari ed ogni uomo di merito si recava a rendere omaggio alla corte di bellona io perché povero ero costretto a restarmene a casa in giacchetta di fustagno a sospirare in segreto la gloria micchi intanto faceva la spola tra la casa e il reggimento e portava con sé molti suoi compagni le loro uniformi le loro arie spavalde mi riempivano di cruccio mentre le immancabili attenzioni che Miss Nora tributava loro mi facevano diventare quasi pazzo nessuno però pensava ad attribuire la mia tristezza alla mia gelosia verso la fanciulla ma piuttosto alla mia delusione di non aver avuto il permesso di seguire la professione delle armi una volta gli ufficiali della guardia nazionale diedero un grande ballo a Kilwangan a cui naturalmente vennero invitate tutte le signore di Castle Brady che formavano il carico completo e possibilmente brutto di un'intera carrozza siccome sapevo a quali torture la mia passione per Nora mi avrebbe sottoposto a causa della sua perpetua civetteria con gli ufficiali dichiarai per un pezzo che non sarei andato al ballo con la comitiva ma ella aveva un modo di conquistarmi contro cui ogni mia resistenza era vana proclamò solennemente che andare chiusa in carrozza le faceva sempre male e come posso andare al ballo mi disse se tu non mi porti su Daisy dietro a te sulla sella Daisy era una buona cavalla puro sangue di mio zio e da tale proposta non potei assolutamente dire di no così andammo insieme a cavallo fino a Kilwangan e mi sentivo orgoglioso come un principe poiché essa mi aveva promesso di ballare con me una controdanza ma quando il ballo fu finito quella piccola e ingrata civettuola mi dichiarò di avere completamente dimenticato il suo impegno ed infatti aveva ballato tutto quel giro con un inglese ho sopportato molti tormenti nella mia vita ma nessuno pari a quello cercò di farsi perdonare la sua trascuratezza ma non potevo farlo alcune delle ragazze più carine si offrirono di consolarmi perché ero il miglior ballerino della sala tentai ancora con lei ma senza risultato ero troppo sconvolto per continuare e così restai solo tutta la serata in preda al più vivo spasimo avrei voluto giocare ma non avevo denaro tranne la moneta d'oro che mia madre mi faceva sempre portare nella borsa senza spenderla come deve fare un gentiluomo non avevo voglia di bere ed in quel tempo non conoscevo ancora l'amaro conforto che si prova con questo ma pensavo di uccidermi di uccidere Nora ed anche più sicuramente di fare altrettanto col capitano Quinn finalmente al mattino il ballo terminò la maggior parte delle signore se ne andò nella vecchia carrozza tra ballante e scricchiolante Daisy venne portata fuori e Miss Nora prese posto dietro di me cosa che le lasciai fare senza dire parola ma non avevamo fatto nemmeno mezzo miglio fuori della città che ella cominciò a farmi smorfie e complimenti per farmi passare il cattivo umore certo è una nottata fredda caro Redmond e ti prenderai un raffreddore senza fazzoletto al collo a questa gentile osservazione fatta dalla sella posteriore la sella anteriore non diede alcuna risposta hai passato una piacevole serata con Miss Clancy Redmond ho visto che siete stati sempre insieme per tutta la notte a questa frase la sella anteriore rispose soltanto con un grugnito tra i denti e dando una sferzata a Daisy oh santo cielo fai sobbalzare Daisy e mi fai andare in terra sei troppo distratto e tu sai Redmond che sono tanto timida la sella posteriore aveva passato il braccio attorno alla vita della sella anteriore e questo le diede forse il brivido più piacevole del mondo non posso soffrire Miss Clancy lo sai rispose la sella anteriore ed ho ballato con lei soltanto soltanto perché perché la persona con cui volevo ballare è stata impegnata tutta la notte però c'erano le mie sorelle rispondeva la sella posteriore ridendo ora per l'orgoglio della sua conscia superiorità ed in quanto a me mio caro non sono stata cinque minuti in sala senza venire subito impegnata per un ballo ma eri proprio obbligata a ballare cinque volte col capitano Queen dissi io oh strano delizioso fascino della civetteria credo che Miss Nora Brady all'età di 23 anni sentisse un fremito di piacere nel pensare di avere tanto potere su un povero ragazzo innocente di 15 anni naturalmente rispose che non le importava nulla del capitano Queen ma che egli certo ballava bene e che era un bel pezzo d'uomo e che stava molto bene nella divisa del reggimento e se egli le chiedeva di ballare come poteva rifiutarlo ma hai rifiutato me Nora posso ballare con te tutti i giorni rispose Miss Nora scuotendo il capo e ballare col proprio cugino ad un ballo pubblico sembra che si faccia perché non si è trovato un cavaliere per di più continuò Nora e fu questa una crudele e dura ferita che mostrava quale potere ella aveva sopra di me e con quanta spietatezza ne usava oltre a questo Redmond il capitano Queen è un uomo e tu soltanto un ragazzo se mai lo incontrerò ancora gridai con una bestemmia vedrete chi è il migliore di noi due lo sfiderò alla spada ed alla pistola per capitano che sia un uomo davvero sfiderò ogni uomo tutti gli uomini non ho picchiato Mick Brady quando avevo soltanto 11 anni non ho battuto Tom Sullivan quel gran bestione grosso come un toro che ne ha 19 oh Nora è crudele da parte tua prendermi in giro così ma Nora quella volta aveva voglia di ridere e continuò i suoi sarcasmi dichiarò che il capitano Queen era già noto come valoroso soldato che era famoso come uomo di mondo a Londra e che poteva essere facile da parte di un Redmond parlare vantarsi e battere bidelli e ragazzi di contadini ma sfidare un capitano inglese era una cosa molto diversa poi venne a parlare dell'invasione e di questioni militari in generale del re Federico che era chiamato in quel tempo l'eroe protestante di Messie Tourot e della sua flotta di Messie Conflans e della sua squadra di minorca di come era stata attaccata e di dove stava ora ci trovammo d'accordo sul fatto che doveva essere in America e sperammo che i francesi potessero essere sonoramente battuti laggiù mi misi un po' a sospirare perché cominciavo a calmarmi e dissi che avrei desiderato molto diventare soldato a questo punto Nora ricorse al suo infallibile ah vorresti lasciarmi allora ma certo non sei abbastanza grande neppure per fare il tamburino a queste parole risposi giurando che sarei diventato soldato anzi generale mentre chiacchieravamo in questa sciocca maniera arrivamo ad un punto che da allora in poi venne conosciuto come Redmond Sleep Bridge ponte del salto di Redmond era un vecchio ponte alto sopra un torrente profondo e con le rive rocciose e mentre la cavalla Daisy col suo doppio carico stava traversando il ponte Miss Nora dando via alla sua immaginazione e ritornando di nuovo all'argomento militare scommetto che stava pensando di nuovo al capitano Quinn Miss Nora disse figuriamo ora Redmond che tu da quell'eroe che sei dovessi passare sul ponte ed il nemico fosse dall'altra parte sguainerei la spada e mi aprirei un varco come? mentre io sto sulla sella di dietro mi faresti ammazzare povera me era abitudine di quella signorina di ripetere ogni momento povera me è giusto ecco allora quello che farei salterei con Daisy giù nel fiume e la farei nuotare a valle con tutti e due fin dove i nemici non potessero seguirci un salto di venti piedi non oseresti fare una cosa simile con Daisy però dal capitano di cavalleria Black George ho inteso dire che George Quinn non finì mai la parola perché reso pazzo dal continuo ripetersi di quell'odioso monosillabo le gridai tienti stretta la mia vita e dando un colpo di sprone a Daisy in un minuto mi precipitai con Nora di sopra al parapetto nella profonda acqua sottostante non so bene perché se volevo che ci annegassimo io e Nora o se volevo compiere un atto che persino il capitano Quinn dovesse ammirare o se avevo immaginato che il nemico fosse davvero di fronte a noi non lo potrei dire ora ma il fatto è che scavalcai il parapetto il cavallo affondò fino alla testa la ragazza gridava mentre cadeva nell'acqua e gridava quando ne tornò fuori ed io la deposi a terra semi svenuta sulla riva dove fummo trovati presto dalla gente di mia zia che era tornata indietro udendo le grida tornai a casa dove mi ammalai di una febbre che mi tenne a letto per sei settimane e quando lasciai il mio giaciglio ero molto cresciuto di statura ed ancor più violentemente era aumentata la mia passione che era più forte di quanto avessi mai prima provato all'inizio della mia malattia Miss Nora era venuta abbastanza spesso al mio capezzale dimenticando per amor mio la disputa tra mia madre e la sua famiglia disputa che anche la mia buona madre si compiacque di dimenticare nella maniera più cristiana e lasciate che ve lo dica fu un non piccolo segno di bontà da parte di una donna della sua alterigia e che di solito non perdonava mai nessuno cessare per amor mio la sua ostilità nei confronti della signorina Bredi e riceverla gentilmente poiché io da quel ragazzo matto che ero desideravo e chiamavo soltanto Nora accettavo le medicine solo dalle sue mani mentre trattavo sgarbatamente e con cattive maniere la mia buona madre che mi amava più di qualsiasi altra cosa al mondo e rinunziava persino per farmi felice alle sue abitudini preferite e dalle sue giuste incipienti gelosie quando stetti bene mi avvidi che le visite di Nora si erano fatte ogni giorno più rare perché non viene domandavo irritato una dozzina di volte al giorno per rispondere a queste domande Mrs. Berry era costretta ad inventarmi le migliori scuse che poteva trovare che Nora si era slogata a una caviglia o che avevano litigato o qualche altra risposta che potesse calmarmi e molte volte ebbe la forza d'animo di andarsene col cuore spezzato sola in camera sua e di tornare col sorriso sulle labbra perché non potessi intuire la sua mortificazione d'altra parte io non facevo grandi sforzi per accertarmene e temo che anche se l'avessi scoperto non mi sarei molto commosso perché credo che il periodo dell'inizio delle virilità sia anche quello del nostro più profondo egoismo sentiamo allora il desiderio di prendere il volo di lasciare il nido fatto dai genitori cosicché né lacrime né preghiere né sentimenti di affetto possono controbilanciare il soverchiante desiderio di indipendenza deve essere stata molto triste quella mia povera madre il cielo sia buono con lei in questo periodo della mia vita più tardi essa mi ha detto spesso che la maggior pena del suo cuore era di vedere che tutte le cure e l'affetto di tanti anni venivano da me dimenticati in un minuto per amore di una piccola civetta senza cuore che scherzava con me quando non aveva miglior corteggiatore il fatto è che durante le ultime quattro settimane della mia malattia si era installato a Castle Brady niente meno che il capitano Quinn che stava facendo all'amore con Miss Nora in debita forma mia madre non osava rivelarmi questa notizia e Nora in quanto a lei potete star sicuri che avrebbe conservato il segreto sicché fu soltanto per caso che lo scopersi debbo dirvi come quella pettegola era stata un giorno a trovarmi mentre cominciavo ad alzarmi dal letto convalescente era tanto di buon umore e così graziosa e gentile con me che il mio cuore sobalzava di gioia e di felicità così che rivolsi persino una parola gentile alla mia povera madre insieme con un bacio mi sentivo tanto bene che mangiai un pollo intero e promisi a mio zio che era venuto a trovarmi di essere pronto quando sarebbe andato a cacciare le pernici ad accompagnarlo come ero solito il giorno dopo era domenica e per quel giorno avevo un progetto che ero ben deciso a mettere in atto nonostante le ingiunzioni del dottore e di mia madre secondo i quali non ero in grado di lasciare la casa perché l'aria fresca sarebbe stata per me la morte in conseguenza rimasi straordinariamente tranquillo componendo una serie di versi i primi che avessi fatto in vita mia e li riporto qui parola per parola come mi vennero in quei giorni in cui non sapevo fare di meglio e benché non siano così forbiti ed eleganti come ardeli a sollievo di un innamorato malato d'amore e quando il sole abbella i prati fioriti di margherite ed altre mie fusioni liriche che mi fecero raggiungere tanta fama negli anni seguenti mi sembrano ancora abbastanza buoni per un povero ragazzo di 15 anni la rosa di flora inviata da un giovane gentiluomo di qualità a Miss Brady di Castle Brady sulla torre di Brady fiorisce un fiore il più bel fiore che sia mai fiorito a Castle Brady vive una fanciulla e quando la ami nessuno lo sa Nora si chiama e la dea Flora le ha regalato una rosa sbocciata oh lei di Nora dice la dea Flora ho una aiuola ricca e fulgente nelle torri di Brady vi sono sette fiori ma di tutte tu sei la fanciulla più bella tutto il paese tutta la Florida e Irlanda non può produrre un tesoro che sia bello la metà quale guancia è più rossa certo la nutron le rose i suoi capelli sono d'oro fino ed il suo occhio brilla tra le palpebre come una violetta che luccichi oscura tra le gemme splendenti la tinta del giglio è certo men bianca di quel che non sia il collo di Nora vieni dolce Nora dice la dea Flora mia creatura diletta seguì il mio consiglio vi è un poeta molto bene tu lo conosci che passa la vita in profondi sospiri il giovane Redmond Berry lui devi sposare se rima e fortuna vuoi fare tornare quella domenica non appena mia madre fu andata in chiesa chiamai Phil il valletto ed insistei perché mi portasse il mio miglior vestito con cui mi abbigliai benché mi avvedessi che durante la mia malattia ero tanto cresciuto che il vestito vecchio era divenuto ormai troppo piccolo per me quindi con la mia poesia in mano corsi verso Castelbredi per la smania di vedere la mia beltà l'aria era così fresca e luminosa e gli uccelli cantavano tanto forte tra i verdi alberi che mi sentivo a mio agio quanto non ero stato da molti mesi e correvo lungo il viale mio zio aveva fatto tagliare naturalmente tutti i rami degli alberi vispo come un giovane fauno il mio cuore cominciò a battere mentre salivo i gradini erbosi della terrazza ed entravo nella sgangherata porta della sala il padrone e la padrona erano in chiesa mi disse Scru il maggiordomo dopo aver dato dietro di sé una rapida occhiata vedendo il mio aspetto trasformato e la mia figura magra e allampanata anche sei delle signorine erano in chiesa è andata anche Miss Nora chiesi no Miss Nora non c'è andata rispose Scru prendendo un'aria imbarazzata ma tuttavia piena di comprensione e dov'è? a questa domanda egli rispose o piuttosto fece finta di rispondere con l'abituale abilità irlandese e mi lasciò credere che forse era andata Kyle Wangan in sella dietro a suo fratello o che lei e sua sorella erano uscite a fare una passeggiata o che era ammalata in camera sua e mentre cercavo di venire a capo di qualche cosa Scru mi lasciò bruscamente io mi precipitai nel cortile posteriore dove sono le stalle di Castle Brady e qui trovai un dragone che fischiettava roast beef della vecchia Inghilterra mentre strigliava un cavallo d'ordinanza di chi è questo cavallo camerata? gridai camerata sarai tu rispose l'inglese il cavallo appartiene al mio capitano e lui è un buon camerata non tu non mi fermai per rompergli le ossa come avrei fatto in qualsiasi altra occasione perché un terribile sospetto mi aveva attraversato la mente e mi precipitai in giardino più presto che potei sapevo già quello che avrei visto laggiù vidi il capitano Quinn e Nora che passeggiavano per il viale insieme erano a braccetto e quel mascalzone carezzava e premeva la mano che stava comodamente sistemata sull'odioso panciotto dell'ufficiale a qualche passo da loro c'era il capitano Fagan del reggimento di Kyle Wangan che faceva la corte a Maisy la sorella di Nora non ho paura di nessuno sia uomo o spettro ma quando vidi quello spettacolo le ginocchia mi cominciarono a tremare violentemente e mi sentii tanto male che fui sul punto di cadere svenuto sull'erba vicino ad un albero contro il quale mi ero appoggiato e persi quasi la coscienza per un minuto o due poi raccolsi tutte le mie forze mi diressi verso la coppia che stava camminando a persi la lama del piccolo coltello col manico d'argento che portavo sempre nel fodero ben deciso a trapassare il corpo dei due delinquenti e ad infilarli come due piccioni non dico quali sensazioni oltre a quella della rabbia mi attraversassero la mente quanto amara fosse la mia delusione e quanto follemente selvaggia la mia disperazione ebbi l'impressione che tutto il mondo mi crollasse sotto i piedi non dubito che il mio lettore sarà stato qualche volta preso in giro dalle donne e così l'invito a ricordare le sensazioni che ha provato quando il primo colpo gli è caduto addosso no Norelia diceva il capitano perché la moda del tempo voleva che gli innamorati si chiamassero tra loro coi più romantici nomi tratti dai romanzi giuro davanti a tutti gli dèi che non ho mai provato la dolce fiamma altro che per te e per quattro altre donne prima di te ah voi uomini voi uomini eugenio rispondeva lei il vero nome di quel bestione era john la vostra passione non è uguale alla nostra noi siamo come come una pianta di cui ho sentito parlare noi portiamo un solo fiore e poi moriamo non hai mai provato simpatia per nessun altro chiese il capitano queen mai eugenio mio se non per te come puoi fare una tale domanda a una pudica ninfa adorabile norelia e gli disse portando la mano alle labbra avevo un nastro color ciliegia nora me l'aveva dato un giorno togliendoselo dal seno lo portavo sempre con me lo trassi dal petto lo gettai in faccia al capitano queen e mi precipitai su di lui col pugnaletto sguainato gridando è una bugiarda è una bugiarda capitano queen snudate la spada signore e difendetevi se siete un uomo e gridando così mi precipitai su quel mostro e lo presi per il collo mentre nora faceva echeggiare l'aria delle sue grida al rumore delle quali l'altro capitano e maisi si precipitarono verso di noi benché fossi cresciuto come la gramigna durante la malattia ed avessi raggiunto quasi la mia statura definitiva di sei piedi ero soltanto un soldo di cacio a petto dell'enorme capitano inglese che aveva spalle e polpacci quali non può vantare neppure un facchino di buff quando gli saltai addosso diventò prima tutto rosso poi straordinariamente pallido si divincolò e afferrò la spada allora che nora sopraffatta dal terrore l'abbracciò gridando è un gemio capitano queen per amor del cielo risparmia il bambino è soltanto un lattante dovrebbe essere frustato per la sua impudenza disse il capitano ma non abbiate paura mi sbredi non lo toccherò il vostro favorito è sacro per me così dicendosi chinò raccolse il fiocco di nastro che era caduto ai piedi di nora e porgendoglielo disse in tono sarcastico quando le fanciulle fanno ai giovanotti simili regali è necessario che gli altri gentiluomini si ritirino santo cielo gridò la fanciulla è soltanto un ragazzo sono un uomo protestai e ve lo proverò non ha più importanza per me del mio pappagallo o del mio cagnolino proseguì lei non posso dare un pezzo di nastro a mio cugino siete perfettamente padrona di farlo signorina continuò il capitano dategli quante iarde di nastro volete mostro esclamò la ragazza tuo padre era un sarto e stai sempre a pensare al negozio ma avrò la mia vendetta l'avrò Reddy mi lascerà insultare così davvero mi snora dico io voglio il suo sangue quanto è vero che mi chiamo Redmond chiamerò un lacchè a darti le sculacciate ragazzino disse il capitano riacquistando il dominio di sé ma in quanto a voi signorina ho l'onore di augurarvi buongiorno si tolse il cappello con ostentata cerimoniosità fece un profondo inchino ed era sul punto di andarsene quando giunse mio cugino Mick le cui orecchie erano state colpite dalle grida per Diana Jack Quinn cosa diavolo succede dice Mick Nora in lacrime lo spettro di Redmond con la spada sguainata e voi che fate un inchino vi dirò io quel che è successo rispose l'inglese ne ho abbastanza di Miss Nora ecco ed è il vostro modo di fare irlandese non ci sono abituato signore bene bene ma che c'è disse Mick con buona grazia perché era debitore a Quinn di una bella somma si può sempre sperare che adottiate i nostri usi oppure che siamo noi ad adottare quelli inglesi non è usanza inglese che le donne abbiano due innamorati e così Brady vi sarò grato se mi pagherete la somma che mi dovete mentre declino ogni pretesa nei confronti di questa signorina se le piacciono gli scolaretti lasciate pure che se li prenda oh Quinn state scherzando disse Mick non sono mai stato più serio rispose l'altro per il cielo allora state in guardia urlò Mick infame seduttore ingannatore infernale venite qui a circuire questo povero angelo sofferente conquistate il suo cuore e poi la lasciate e credete che suo fratello non la difenda sguainate subito la spada schiavo che io vi strappi il cuore dal corpo questo è un vero assassino disse Quinn balzando indietro siete due in una volta contro di me Fagan mi lascerai ammazzare così in fede mia disse il capitano Fagan che sembrava divertirsi un mondo dovete regolare da voi la vostra contesa capitano Quinn e venendo verso di me bisbigliò aspettate il vostro turno ragazzo mio poiché Mr. Quinn rinunzia alle sue pretese dissi io naturalmente non interferisco io sì signore io disse Mr. Quinn scalzandosi sempre di più allora difendetevi da uomo accidenti a voi gridò di nuovo Mick Macy porta via questa povera vittima Redmond e Fagan vedrete tra noi una bella partita ecco ora io non datemi tempo sono imbarazzato io non so che decisione prendere come il ciucco tra due mucchi di fieno disse asciutto Mr. Fagan che non sa se mangiare da una parte o dall'altra capitolo secondo nel quale dimostro di essere una persona di spirito durante questa disputa mia cugina Nora fece la sola cosa che una signora può fare in tali circostanze svenne in debita forma in quel momento io ero al colmo della mia inimicizia con Nora altrimenti mi sarei precipitato ad assisterla ma il capitano Fagan che bel tipo che era questo capitano Fagan me lo impedì dicendo vi consiglio di lasciare la signorina a se stessa Master Redmond e state certo che tornerà presto in sé e così infatti avvenne poco dopo ciò mi mostrò che Fagan conosceva abbastanza il mondo poiché dopo di allora ho visto che molte donne tornavano in sé nella medesima maniera neppure Queen si offerse di aiutarla potete starne sicuri anzi approfittando del diversivo causato dalle sue grida quel bravaccio senza fede fuggì via chi di noi deve sfidare il capitano Queen disse a Mick perché era la prima volta che avevo una questione d'onore e ne ero orgoglioso come di un abito di velluto con i merletti tuo Dio cugino Mick dobbiamo avere l'onore di castigare questo insolente inglese e mentre dicevo queste parole gli tesi la mano perché il mio cuore si era fatto più tenero verso mio cugino a causa del trionfo del momento ma egli respinse l'offerta di amicizia che gli facevo tu tu mi disse con l'ira più violenta vatti a impiccare ragazzaccio ficcanaso metti sempre il becco nei fatti degli altri erano affari tuoi venire a fare scenate a litigare qui con un gentiluomo che ha 1500 sterline l'anno oh balbettò Nora dalla panchina di pietra morirò so che morirò non mi muoverò più di qui il capitano non se n'è ancora andato gli sbigliò Fagan a queste parole Nora dandogli un'occhiata indignata balzò in piedi e si diresse in tutta fretta verso casa ma insomma continuò Mick volgendosi a me è forse affar tuo in piccione farabutto occuparti degli affari di una ragazza di questa casa ma scalzone sarai tu gridai io chiamami ancora una volta in questo modo Mick Brady e ti infilerò il mio pugnale fino all'osso ricordati te ne ho date quando avevo soltanto undici anni sono alla pari con te ora e per giove provocami ancora e ti batterò come come ha sempre fatto il tuo fratello minore un colpo ben aggiustato e vidi Mick diventare paonazzo dalla rabbia è un bel modo di entrare nelle grazie della famiglia disse Fagan in tono conciliante la ragazza è abbastanza grande per poter essere sua madre brontolò Mick grande o no risposi io ascolta questo Mick Brady e pronunciai una violenta bestemmia che non c'è bisogno di riferire qui l'uomo che sposerà Nora Brady dovrà prima passare sul mio cadavere lo vuoi capire signor mio disse Mick voltandosi frustarti vuoi dire altro che calpestare il tuo cadavere manderò Nick il guardia caccia per farlo e così dicendo se ne andò a questo punto il capitano Fagan si avvicinò a me e prendendomi gentilmente per mano disse che ero un ragazzo coraggioso e che gli piaceva il mio spirito ma quello che dice Brady è vero continuò è difficile dare consigli ad un ragazzo che sia eccitato come voi ma credetemi conosco il mondo e se vorrete seguire il mio parere più tardi non rimpiangerete di averlo seguito Nora Brady non ha un soldo e neanche voi siate ricco avete solo 15 anni mentre lei ne ha 24 fra dieci anni quando sarete in condizioni di sposarla lei sarà vecchia mio povero ragazzo non vedete che è una banderuola benché questa sia una cosa dura da dire e che non le importa nulla né di voi né di Quinn ma chi è innamorato o almeno crede di esserlo ascolta mai i buoni consigli io non li ho seguiti mai e così dissi chiaramente al capitano Fagan che Nora poteva amarmi o no come voleva ma che Quinn avrebbe dovuto combattere con me prima di sposarla lo giuravo in fede mia disse Fagan credo che siate un ragazzo in grado di mantenere la parola mi guardò fisso per un secondo o due poi andò via anche lui fischiettando un motivetto e vidi che si voltava a guardarmi mentre passava attraverso il vecchio cancello del giardino quando se ne fu andato e rimasi solo mi precipitai verso la panchina su cui Nora aveva fatto finta di svenire ed aveva lasciato il fazzoletto lo raccolsi nascosi in esso il volto e scoppiai in un diluvio di lacrime come non si era mai visto piangere nessuno al mondo il nastro lacerato che avevo gettato in viso a Quinn stava sul viale ed io rimasi lì seduto per ore ed ore e credo di essere stato in quel momento l'uomo più disgraziato di Irlanda ma com'è mutevole il mondo quando consideriamo quanto grandi ci sembrano i nostri dolori e quanto sono piccoli nella realtà quante volte pensiamo di essere sul punto di morire di dolore e quanto rapidamente dimentichiamo tutto penso che dovremmo vergognarci di noi stessi e della mutevolezza del nostro cuore perché dopo tutto in qual modo il tempo ci può portare tanta consolazione forse nel corso delle mie molteplici avventure non mi sono mai imbattuto nella donna adatta per me ed ho dimenticato dopo poco tutte le creature che avevo adorato ma credo che se mi fossi imbattuto in quella giusta l'avrei amata per sempre devo essere restato seduto alcune ore a lamentarmi sulla panca del giardino perché quando ero venuto a Castelbredi era mattina e la campana del pranzo sono come il solito alle tre risvegliandomi dai miei sogni subito raccolsi il fazzoletto e presi il nastro un'altra volta mentre passavo attraverso i locali della servitù vidi la sella del capitano ancora appesa alla porta della stalla e vidi quel brutto odioso del suo servo in giubba rossa che si dava da fare con le sguattere e le donne della cucina l'inglese è ancora qui master Redmond mi disse una delle ragazze una ragazza sentimentale dagli occhi neri che faceva il servizio alle signorine è in salotto in compagnia di un magnifico filetto di vitello andate e non vi fate mettere sotto master Redmond entrai e presi il mio posto come al solito in fondo alla grande tavola mentre il mio amico maggiordomo mi portava rapidamente un coperto ciao Reddy ragazzo mio disse mio zio in piedi e in buona salute benissimo avrebbe fatto meglio a starsene a casa con sua madre brontolò mia zia non badare a lei mi disse lo zio Brady l'oca fredda che ha mangiato a colazione le è rimasta sullo stomaco prendi un bicchierino di liquore moglie alla salute di Redmond era evidente che non sapeva cosa era successo ma Mick che era a pranzo anche lui e Ulick e quasi tutte le ragazze sembravano molto di cattivo umore e il capitano era stupefatto Miss Nora di nuovo al suo fianco era pronta a piangere il capitano Fagan era seduto e sorrideva io lo guardavo freddo come una pietra durante il pranzo mi pareva di soffocare ma ero deciso a fare buon viso a cattivo gioco e quando la tovaglia venne tolta riempì il bicchiere col vino rimasto e brindammo al re e alla chiesa come debbono fare i gentiluomini mio zio era di ottimo umore e scherzava sempre specialmente con Nora e col capitano diceva Nora dividi quest'osso di pollo col capitano vedremo chi si sposa prima John Quinn mio caro ragazzo non è necessario un bicchiere pulito per il chiaretto siamo a corto di cristalleria a Castle Brady prendi il bicchiere di Nora ed il vino non sarà più cattivo per questo e così via era al colmo dell'allegria e non capivo perché che vi fosse stata una riconciliazione tra l'infedele ragazza ed il suo innamorato dopo che erano tornati a casa seppi la verità molto presto al terzo brindisi vi era l'uso che le signore si ritirassero ma mio zio le fermò in tempo nonostante le rimostranze di Nora che diceva via papà lasciaci andare e disse no signore e signorine abbiate la cortesia di aspettare questo è un brindisi che si beve troppo di rado nella mia famiglia e vi compiacerete di ascoltarlo con tutti gli onori ecco il capitano John Queen e signora lunga vita a loro John bacia questa briconcella in fede mia hai trovato un tesoro è già stato gridai io balzando come spinto da una molla tieni la lingua a posto sciocco tieni la lingua a posto disse il grosso Ulick che stava vicino a me ma non voglio ascoltarlo è già stato preso a schiaffi questa mattina il capitano John Queen gridai l'ho già chiamato vigliacco il capitano John Queen ecco come bevo alla sua salute alla vostra salute capitano John Queen e gli gettai in faccia un bicchiere di chiaretto non so che aspetto prendesse dopo il mio gesto perché un attimo dopo anch'io ero sotto la tavola afferrato per i piedi da Ulick che mi diede un violento pugno in testa mentre cadevo ebbi appena il tempo di sentire l'urlo generale e la confusione che avveniva intorno a me perché ero troppo occupato a difendermi dai calci botte e insulti di cui Ulick mi stava gratificando sciocco gridava gran cretino patentato stupido ragazzaccio pezzente una botta ad ogni parola tieni a posto la lingua naturalmente non mi curavo di questi colpi di Ulick perché era sempre stato mio amico ed aveva sempre avuto l'abitudine di malmenarmi da quando ero nato quando riuscì a venire fuori di sotto la tavola tutte le signore se ne erano già andate ed ebbi la soddisfazione di vedere che il naso del capitano sanguinava come il mio ma il suo aveva un taglio proprio sopra il setto nasale così che la sua bellezza era stata rovinata per sempre Ulick si riprese si sedette tranquillamente riempì una coppa e spinse la bottiglia verso di me ecco a te giovane asino mi disse ingoi a questo e non ci far più sentire i tuoi stregli in nome del cielo che significa questa storia dice mio zio questo ragazzo ha di nuovo la febbre è tutta colpa tua rispose Mick con aria cupa tua e di quelli che lo hanno portato qui piantala di far baccano Mick dice Ulick voltandosi verso di lui parla come si deve a mio padre e a me e non fare in modo che ti debba insegnare le buone maniere è colpa tua ripete Mick che cosa ci sta a fare questo vagabondo qui se avessi potuto fare a modo mio l'avrei frustato e messo fuori dai piedi così bisognerebbe fare disse il capitano Quinn fareste meglio a non provarci Quinn disse Ulick che era sempre stato il mio campione poi volgendosi a suo padre continuò il fatto è signore che questo scimmiotto si è innamorato di Nora e trovando lei ed il capitano in dolci colloqui oggi in giardino è stato sul punto di ammazzare Quinn per dinci sta diventando un giovanotto disse mio zio molto di buon umore in fede mia Fagan questo ragazzo è un Brady dalla testa ai piedi vi dirò il fatto mio allora signor Brady gridò Quinn balzando in piedi sono stato grossolanamente insultato in questa casa non sono per nulla soddisfatto di come procedono le cose sono un inglese io un uomo come si deve e io io se siete stato insultato e non soddisfatto ricordatevi che siamo qua in due Quinn disse Ulick in tono aspro a queste parole il capitano ricominciò a lavarsi il naso nell'acqua e non disse più una parola signor Quinn dissi io col tono di voce più dignitoso che riuscì ad assumere potete avere soddisfazione in qualsiasi momento vi piaccia rivolgetevi a Redmond Berry scudiero di Berryville a questo discorso mio zio scoppiò a ridere come faceva sempre su ogni cosa e da questa risata si unì con mia mortificazione il capitano Fagan mi volsi quindi rapidamente verso di lui e gli feci comprendere che per quanto riguardava mio cugino Ulick che era stato il mio miglior amico per tutta la vita potevo sopportare questo ironico trattamento da parte sua ma benché fossi un ragazzo non avrei sopportato un simile trattamento più a lungo neppure da lui ed ogni altra persona che avesse osato trattarmi ugualmente avrebbe trovato in me un uomo a proprio rischio e pericolo il signor Quinn aggiunsi conosce tale fatto molto bene e se è un uomo sa dove trovarmi mio zio osservò che si stava facendo tardi e che mia madre sarebbe stata in pensiero per me uno di voi farebbe meglio ad andare a casa con lui disse rivolgendosi ai suoi figli altrimenti il ragazzo potrebbe fare qualche altra corbelleria ma Ulick disse facendo un cenno a suo padre andremo tutti e due ad accompagnare a casa Quinn non ho paura dei matti disse il capitano con un debole conato di sorriso il mio dipendente è armato ed anch'io conoscete molto bene l'uso delle armi Quinn osservò Ulick e nessuno può mettere in dubbio il vostro coraggio ma miche e dio vi accompagneremo a casa lo stesso dunque non tornerete a casa fino a domani mattina ragazzi Kyle Wangan è a buone dieci miglia di qui dormiremo nella caserma di Quinn rispose Ulick abbiamo intenzione di fermarci per una settimana laggiù grazie disse Quinn a bassa voce molto gentile da parte vostra sareste troppo solo sapete senza di noi oh sì molto solo disse Quinn e tra un'altra settimana ragazzo mio continuò Ulick e qui sussurrò qualcosa all'orecchio del capitano ed io che sorpresi le parole matrimonio parroco sentii ribollirmi nuovamente in cuore la rabbia come volete boffonchiò il capitano i cavalli furono rapidamente preparati ed i tre gentiluomini se ne andarono Fagan si fermò e quando mio zio glielo ingiunse uscì con me nel vecchio parco senza alberi disse che dopo la discussione che era avvenuta a pranzo difficilmente avrei potuto rivedere le signore quella sera ed io fui assolutamente d'accordo con lui e così uscimmo senza dir loro addio avete fatto proprio un bel lavoro master redmond mi disse come voi amico dei bredi che sapete che vostro zio si trova in gravi imbarazzi finanziari cercate di mandare a monte un matrimonio che porterebbe alla famiglia una rendita di 1500 sterline queen poi ha anche promesso di pagare le 4000 sterline di debito che imbarazzano tanto vostro zio quel povero uomo si prende una ragazza senza un soldo una ragazza che non è più bella del vostro cavallo va bene va bene non andate in collera diciamo pure che è bella in fondo è questione di gusti una ragazza che si è data da fare con tutti gli uomini di questo paese da dieci anni a questa parte senza riuscir mai a farsi sposare da nessuno e voi povero in canna come lei ragazzo di 15 anni va bene 16 se insistete un ragazzo che dovrebbe essere affezionato allo zio come ad un padre e lo sono davvero risposì io questo è il modo con cui ricambiate la sua cortesia non vi ha raccolto in casa sua quando eravate orfano e non vi ha dato senza farvi pagare affitto la vostra bella casa di Berryville e ora nel momento in cui i suoi affari sembravano mettersi a posto e gli si offriva la possibilità di passare comodamente la sua vecchiaia chi si mette in mezzo tra lui e l'agiatezza proprio voi l'uomo che tra tutti al mondo ha più obblighi verso di lui è una cosa immorale un agire da ingrato contro natura da un ragazzo di spirito come voi mi aspettavo un coraggio più vero non ho paura di nessuno al mondo esclamai io perché quest'ultima parte del discorso del capitano mi aveva piuttosto scosso e volevo naturalmente cambiare argomento come sempre succede quando quello dell'avversario è troppo forte ed io sono l'offeso capitano Fagan nessuno mai da quando è cominciato il mondo è stato trattato così guardate guardate questo nastro l'ho portato sul cuore per sei mesi l'ho tenuto addosso per tutto il tempo della febbre non lo aveva forse tolto Nora dal suo seno per darmelo non mi aveva forse baciato quando me l'aveva dato chiamandomi il suo caro Redmond si stava allenando rispose mister Fagan con una risatina conosco le donne signor mio date loro tempo e se nessun altro viene in casa si innamoreranno di uno spazzacamino c'era una signorina affermoi all'inferno la signorina gridai io ma usai una parola ancora più cruda ricordate questo succeda quello che può succedere giuro che mi batterò con l'uomo che aspira alla mano di Nora Brady lo seguirò se necessario fino in chiesa e lo sfiderò lì avrò il suo sangue o egli avrà il mio e questo nastro ne sarà impregnato sì e lo ucciderò infilerò il nastro nel suo petto ed allora ella potrà andare a riprendersi il suo dono dissi questo perché in quel momento ero molto eccitato e perché non per nulla avevo letto romanzi e commedie romantiche va bene disse Fagan dopo una pausa se così deve essere sia siete il giovane più sanguinario che abbia mai visto ma anche Queen è un tipo deciso vorreste portargli il mio cartello di sfida gli dissi pieno di ardore disse Fagan nostra madre può essere allerta qui siamo molto vicini a Berryville attenzione nemmeno una parola mia madre risposi io ed andai verso casa gonfio di orgoglio e di esultanza perché mi sarei battuto con l'inglese che odiavo tanto Tim il mio servo era venuto da Berryville quando mia madre rientrava dalla chiesa e la brava signora era stata piuttosto allarmata per la mia assenza ed in ansia per il mio ritorno ma Tim mi aveva visto andare a pranzo all'invito della sentimentale cameriera e dopo aver avuto la sua parte delle buone cose che vi erano in cucina sempre meglio fornita di quella di casa nostra era tornato indietro per informare la padrona e dirle dov'ero e senza dubbio le aveva raccontato a modo suo tutti gli avvenimenti che erano successi a Castle Brady nonostante tutte le mie precauzioni per conservare il segreto quindi ebbe il mezzo sospetto che mia madre sapesse tutto dal modo in cui mi abbracciò al mio arrivo e ricevette il nostro ospite il capitano Fagan la povera donna era un po' in ansia ed era rossa di emozione ed ogni tanto guardava fisso in volto il capitano ma non disse una parola della contesa perché aveva uno spirito nobile ed avrebbe preferito vedere impiccare uno dei suoi figli piuttosto che sottrarlo al campo dell'onore dove sono andati oggi questi nobili sentimenti 60 anni fa un uomo era un uomo nella vecchia Irlanda e la spada che portava al fianco serviva a sistemare qualsiasi divergenza tra gentiluomini per il più lieve motivo ma i buoni usi e costumi dei vecchi tempi stanno svanendo non si sente più parlare oggi di bei duelli e l'uso di quelle vili pistole al posto dell'onorevole e virile spada dei gentiluomini ha introdotto una buona dose di mascalzonaggine nella pratica del duello cosa che non potrà mai essere abbastanza deplorata quando arrivai a casa mi sentii pieno di ardore introdussi il capitano Fagan a Berryville e lo presentai a mia madre in modo maestoso e pieno di dignità dissi che il capitano doveva aver sete dopo la sua passeggiata ed ordinai a Tim di portargli immediatamente una bottiglia di Bordeaux con il sigillo giallo nonché dolci e bicchieri Tim guardò la sua padrona con grande imbarazzo ed il fatto è che sei ore prima io stesso avrei piuttosto immaginato di bruciare la casa che di poter chiedere senza permesso una bottiglia di vinello ma ora sentivo di essere un uomo e avevo il diritto di comandare anche mia madre lo comprese perché si volse a quell'individuo e gli disse asciutta non hai inteso mascalzone quello che dice il tuo padrone vai a prendere il vino i dolci i bicchieri subito ma poi perché potete essere sicuri che non dava a Tim le chiavi della nostra piccola cantina andò a prendere la bottiglia lei stessa e Tim la portò in debita forma su un vassoio d'argento la mia cara madre versò il vino e beve alla salute del capitano ma osservai che la sua mano tremava forte mentre compiva questo dovere di cortesia e la bottiglia faceva clink clink contro il bicchiere dopo aver appena assaggiato il suo bicchiere disse che aveva mal di testa e che sarebbe andata a letto e così io chiesi la sua benedizione come deve fare un figlio bene educato i moderni bellimbusti hanno dimenticato le cerimonie piene di rispetto che distinguevano i gentiluomini del mio tempo e lasciò me e il capitano Fagan a discorrere dei nostri importanti affari davvero disse il capitano non vedo altra via di uscita che uno scontro il fatto è che si è parlato molto della cosa a Castelbredi dopo la vostra aggressione contro Queen questa mattina ed egli aveva fatto voto di tagliarvi a pezzi ma le lacrime e le suppliche di Miss Honoria lo hanno indotto sebbene a malincuore a recedere dal suo proposito ora però le cose sono andate troppo in là nessun ufficiale che porti le insegne di sua maestà può ricevere un bicchiere di vino sul muso senza reagire all'insulto dovete battervi e Queen è un tipaccio robusto questo chiaretto è molto buono ad ogni modo col vostro permesso suonerei per averne un'altra bottiglia avrà occasione di darne la prova dissi non ho paura di lui in fede mia osservò il capitano credo davvero che non ne abbiate non ho mai visto in vita mia un ragazzo con tanto fegato guardate questa spada signore gli dissi io indicandone una con un'elegante impugnatura d'argento in un astuccio di zigrino bianco appena sopra la mensola del caminetto sotto il ritratto di mio padre Harry Berry con quella spada signore mio padre passò da parte a parte Mohawk o Driscoll a Dublino nel 1740 con quella spada signore si batte con Sir Huddleston Fuddleston baronetto del Hampshire e gliela immerse nel collo si batterono a cavallo con spada e pistola a Hanslow Heath ed oso credere che ne abbiate sentito parlare e queste sono le pistole erano appese ai due lati del ritratto che il valoroso Barry adoperò era assolutamente nel torto perché sotto l'influsso dell'alcol aveva insultato Lady Fuddleston nell'assemblea di Bradford ma davvero gentiluomo rifiutò di presentare le sue scuse e Sir Huddleston ricevette una palla nel cappello prima che si impegnasse con le spade sono il figlio di Harry Barry signore ed agirò come si conviene al mio nome ed alla mia qualità dammi un bacio caro ragazzo disse Fagan con le lacrime agli occhi sei proprio secondo il mio cuore finché Jack Fagan vivrà troverai sempre in lui un amico ed un padrino povero diavolo venne colpito da una palla sei mesi dopo mentre portava ordini a Lord George Sackville nella battaglia di Minden ed io persi così un buon amico ma noi non sappiamo mai ciò che l'avvenire ci riserva e così quella sera almeno la passammo allegramente prendemmo una seconda bottiglia poi una terza potevo sentire la mia povera mamma che andava giù ogni volta ma non entrò più in salotto e le mandò per mezzo del maggior domo Tim alla fine ci dividemmo ed egli si impegnò a sistemare la cosa col padrino di Quinn quella sera stessa la mattina dopo mi avrebbe notificato il luogo in cui lo scontro avrebbe dovuto aver luogo ho spesso pensato dopo di allora quanto avrebbe potuto essere diverso il mio destino se non mi fossi innamorato di Nora in così giovane età e se non avessi gettato il vino in faccia Quinn rendendo così inevitabile il duello se non fosse stato per questo sarei potuto restare in Irlanda e Miss Quinlan era un'ereditiera che abitava da appena 20 miglia da noi e Peter Bargan di Kilwangan lasciò a sua figlia Judy 700 sterline l'anno ed avrei potuto sposare l'una o l'altra delle due se avessi avuto la pazienza di aspettare qualche anno ma il mio destino era di essere un vagabondo e il mio diverbio con Quinn mi lanciò sulla via dei viaggi in giovanissima età come avrete subito occasione di sentire in vita mia non dormii mai più profondamente benché mi svegliassi un po' più presto del solito e potete star certi che il mio primo pensiero fu per il grande evento della giornata per il quale ero pienamente preparato c'erano una penna ed inchiostro nella mia stanza e non avevo forse scritto quei versi dedicati a Nora soltanto il giorno prima da quel povero sciocco innamorato che ero ora mi sedetti a scrivere un paio di lettere potevano essere le ultime pensai che scrivevo in vita mia la prima era per mia madre onorevole signora scrissi questa lettera ti sarà data solo nel caso che io vada per mano che io cada per mano del capitano Quinn che incontro oggi sul campo dell'onore con spada e pistola se muoio muoio da buon cristiano e da gentiluomo e come potrebbe essere altrimenti essendo stato educato da una madre come te perdono a tutti i miei nemici e chiedo la tua benedizione da figlio rispettoso desidero che la mia cavalla Nora che mio zio mi ha dato e che ho chiamato come la persona più infedele del suo sesso venga restituita a Castle Brady e ti chiedo di dare il mio coltello col manico d'argento a Phil Parcell il guardiacaccia presenta i miei ossequi a mio zio a Dulic e da tutte le ragazze di mia conoscenza resto il tuo obbediente figlio Redmond Barry a Nora scrissi questa lettera sarà trovata sul mio petto insieme col dono che tu mi hai dato sarà in tinta del mio sangue salvo che non lo sia con quello del capitano Quinn che odio ma perdono e sarà un bello ornamento per te il giorno del tuo matrimonio portalo e pensa a quel povero ragazzo a cui lo hai dato e che è morto come sempre è pronto a morire per amor tuo Redmond scritte queste lettere e sigillate col grande sigillo d'argento di mio padre con le armi dei Barry andai a colazione e mia madre mi stava aspettando potete starne certi non dicemmo una sola parola su ciò che stava per accadere anzi parlammo di tutto tranne che di questo di chi c'era in chiesa il giorno prima e della necessità che avevo di vestiti nuovi ora che ero diventato tanto alto disse che mi avrebbe fatto un vestito nuovo prima dell'inverno se se avesse potuto permetterselo si fermò un momento su quel se che Dio la benedica sapevo ciò che aveva in mente e poi venne a parlare del porco nero che bisognava ammazzare e del fatto che quella mattina aveva trovato macchiato il nido della gallina le cui uova mi piacevano tanto ed altre sciocchezze dello stesso genere alcune di quelle uova erano state messe in tavola per la colazione e le mangiai di buon appetito ma mentre mi servivo il sale lo versai ed allora mia madre balzò in piedi con un grido grazie a Dio disse è caduto verso di me poi avendo evidentemente il cuore troppo gonfio lasciò la stanza ah anche queste madri sono peccatrici ma vi sono altre donne simili a loro quando fu uscita andai a prendere la spada con cui mio padre aveva battuto il baronetto dell'Amshir lo credereste? la coraggiosa donna aveva legato un nastro nuovo all'Elsa perché in realtà aveva in sé il coraggio di una leonessa e di una bredi riunite poi staccai le pistole che erano sempre tenute lucide e ben oliate misi le pietre focaie nuove nel cane e presi polvere e palle per essere pronto quando sarebbe venuto il capitano c'erano del chiaretto e del pollo freddo preparati per lui su un tavolino ed anche una cassetta di bottiglie di vecchia acquavite con un paio di bicchierini su un vassoio d'argento sul quale era inciso lo stemma dei bredi alle undici arrivò il capitano Fagan a cavallo seguito da un dragone pure a cavallo fece onore alla colazione che la premura di mia madre gli aveva preparato poi disse attenzione Redmond ragazzo mio questo è un affare bizzarro la ragazza vuole sposare Queen te ne do la mia parola e puoi star sicuro che come del resto farà lei la scorderai presto sei soltanto un ragazzo Queen è disposto a considerarti tale Dublino è un bel posto e se hai voglia di fare una bella cavalcata fin laggiù e di restare in quella città per un mese ecco venti guinee a tua disposizione fai le scuse a Queen e ne sei fuori un uomo d'onore mister Fagan gli risposi io muore ma non si scusa il capitano si può andare ad impiccare prima che io mi scusi allora non resta altro che battersi la mia cavalla è sellata e pronta dissi dov'è il terreno e chi è il secondo del capitano i vostri cugini sono usciti con lui rispose mister Fagan dirò al mio domestico di portare fuori la cavalla dissi non appena vi sarete riposato Tim venne mandato a prendere la cavalla e io me ne andai senza prendere congedo da mia madre le tendine della finestra della sua camera erano abbassate e non si mossero quando montammo a cavallo e trottammo lontano ma due ore dopo avreste dovuto vedere come venne giù di corsa e sentire il grido che diede quando si strinse al cuore il figlio assolutamente in colume e senza nemmeno un graffio in corpo quello che era successo posso dirvelo ora quando arrivammo al luogo dello scontro c'erano già Ulick Mick ed il capitano Quinn tutto svolgorante nella rossa divisa del suo reggimento il gigante più grosso che abbia mai comandato una compagnia di granatieri ridevano tutti insieme tra loro a qualche scherzo e debbo dire che pensai che tutte quelle risate erano sconvenienti da parte dei miei cugini che forse potevano trovarsi ad assistere alla morte di un loro parente spero di guastare un po' questa allegria dissi con gran collera al capitano Fagan e confido di vedere questa mia spada in quel grosso corpo laggiù oh combatterete alla pistola rispose mister Fagan non siete in grado di affrontare Quinn alla spada sono in grado di affrontare chiunque alla spada dissi io oggi è impossibile che combattiate alla spada il capitano Quinn è zoppo abbattuto il ginocchio contro il cardine del cancello del parco la notte scorsa mentre tornava a casa e può appena muoverlo ora non è certo contro il cancello di Castle Brady dissi è fuori dai gangheri da dieci anni allora Fagan disse che doveva essere stato qualche altro cancello e ripete quello che aveva detto ai miei cugini e dallo stesso Quinn quando smontati dai nostri cavalli raggiungemmo quei gentiluomini e li salutammo oh sì zoppo marcio disse Ulick venendo a stringermi la mano mentre il capitano Quinn si toglieva il cappello e diventava tutto rosso ed è una bella fortuna per te Redmond ragazzo mio continuò Ulick altrimenti eri un uomo morto perché Quinn è un vero diavolo non è vero Fagan un vero turco rispose Fagan ed aggiunse non ho ancora incontrato l'uomo che abbia potuto tenere testa al capitano Quinn basta con questa storia disse Ulick sono seccato davvero digli che ti dispiace Redmond lo puoi dire facilmente se questo giovanotto se ne vuole andare a Dublino come ho proposto intervenne a questo punto Quinn non mi dispiace non chiedo scusa e andrò a Dublino subito dopo che dissi io battendo il piede in terra non c'è niente da fare allora disse Ulick a Fagan con una risata misurate il terreno Fagan dodici passi credo dieci signore disse Quinn ad alta voce e falli anche corti hai capito capitano Fagan non fate il gradasso Quinn disse Ulick in tono risentito ecco le pistole e aggiunse con una certa emozione rivolto a me Dio ti benedica ragazzo mio e quando dico tre fuoco mister Fagan mi pose in mano la pistola non una delle mie che avrebbero servito in caso di bisogno alla ripresa successiva ma una di quelle di Ulick tutto bene mi disse non aver paura a Redmond e sparagli al collo mira sotto il colletto guarda come quello scioccolo tiene aperto Mick che non aveva detto mai una parola Ulick ed il capitano si ritirarono da una parte e Ulick diede il segnale venne dato lentamente ed ebbi tutto il tempo di prendere di mira il mio uomo altre tutte e due le nostre pistole spararono contemporaneamente udì qualche cosa fischiare vicino a me poi vidi il mio antagonista che dava un grido orribile si girava all'indietro e cadeva è a terra è a terra gridarono i secondi precipitandosi verso di lui Ulick lo sollevò e Mick gli sorresse la testa è colpito qui al collo disse Mick aprendogli il colletto della giacca il sangue usciva gorgogliando sotto il colletto proprio nel punto in cui avevo mirato e ora che farai? mi disse Ulick è colpito davvero? chiese guardando Quinn con uno sguardo ostile il disgraziato non rispose ma quando Ulick gli tolse da dietro la schiena il braccio che lo sosteneva fece un altro rantolo e ricadde all'indietro questo giovanotto ha cominciato bene osservò Mick guardandomi di traverso faresti meglio affilare giovinotto prima che arrivi la polizia avevano avuto notizia dell'affare prima che lasciassimo Kalwangan è proprio morto? disse io stecchito rispose Mick allora il mondo si è liberato di un gran vigliacco disse il capitano Fagan dando al grosso corpo del caduto un calcio pieno di sdegno col suo piede è proprio finito Reddy non si muove più noi non siamo vigliacchi Fagan rispose Ulick in tono aspro anche se lo era lui fate filar via il ragazzo più presto che potete il vostro uomo andrà a prendere un carro e porterà via il corpo di questo disgraziato gentiluomo è stata una triste giornata per la nostra famiglia Redmond Berry ci hai portato via 1500 sterline l'anno è stata Nora che l'ha voluto non io risposi e tolsi il nastro che mi aveva dato dal mio panciotto poi la lettera e li posi sul corpo del capitano Quinn ecco dissi portatele questi nastri lei sa quello che vogliono dire e questo è quanto le resta di due innamorati che aveva e che ha rovinato non sentivo orrore né paura giovane come ero vedendo il mio nemico prostrato davanti a me perché sapevo che lo avevo incontrato e battuto onorevolmente in campo come conveniva ad un uomo del mio nome e del mio sangue ed ora in nome del cielo fate andare via quel giovanotto Ulick disse che sarebbe venuto via con me e galoppammo insieme senza mai tirar le briglie finché arrivamo alla porta di casa di mia madre quando fummo là Ulick disse a Tim di dar da mangiare alla cavalla perché avrei dovuto fare ancora una lunga cavalcata quel giorno e dopo un minuto ero tra le braccia della mia povera mamma non c'è bisogno che vi dica quanto fu grande il suo orgoglio e la sua soddisfazione quando seppe dalle labbra stesse di Ulick il resoconto del modo in cui mi ero comportato nel duello insiste però sul fatto che mi sarei dovuto andare a nascondere per qualche tempo e fu convenuto tra loro che avrei dovuto nascondere il nome di Barry e prendere quello di Redmond andare a Dublino e lì aspettare finché la faccenda non si fosse sistemata questo accordo non venne preso senza discussioni perché non avrei potuto essere al sicuro a Berryville diceva mia madre come mio cugino ed Ulick a Castle Brady se sbirri ed agenti non andavano mai da loro perché le guardie sarebbero state autorizzate a venire da me ma Ulick insistè sulla necessità della mia immediata partenza ed in questo argomento debbo confessarlo stavo dalla sua parte tanto ero desideroso di vedere il mondo ed anche mia madre fu costretta a riconoscere che nella nostra casetta di Berryville in mezzo al villaggio e con la sola guardia di due servi la fuga sarebbe stata impossibile così quell'anima buona fu costretta ad accettare il punto di vista di mio cugino che le promise però che l'affare sarebbe stato sistemato presto e che avrei potuto tornare da lei ah quanto poco conoscevamo ciò che la sorte teneva in serbo per me la mia cara madre aveva qualche presentimento credo che la nostra separazione sarebbe stata lunga perché mi disse che tutta la notte aveva interrogato le carte per sapere quale sarebbe stata la mia sorte nel duello e che tutti i segni predicevano una separazione poi trasse fuori una calza dal suo scrittoio e mi mise in una borsa venti guinee ne aveva in tutto soltanto venticinque mi preparò una valigetta da collocare sul dorso della cavalla in cui erano i miei vestiti la biancheria ed un necessario da viaggio d'argento che era stato di mio padre mi permise anche di portare la spada e le pistole che avevo mostrato di saper usare come un uomo ora era lei ad affrettare la mia partenza per quanto sapessi che il suo cuore era gonfio ed appena una mezz'ora dopo il mio arrivo a casa ero di nuovo sulla strada e tutto il mondo era spalancato davanti a me non c'è bisogno che dica quanto piangessero Tim e la cuoca alla mia partenza e forse anch'io avevo qualche lacrimuccia agli occhi ma nessun ragazzo di sedici anni è molto triste quando gode della libertà per la prima volta e ha venti guinee in tasca ed io cavalcavo pensando lo confesso non tanto alla dolce madre che lasciavo sola e dalla casa dietro di me quanto al domani e dalle cose meravigliose che mi avrebbe portato capitolo terzo nel quale faccio una falsa partenza nel bel mondo cavalcai quella notte fino a carlow dove mi fermai al miglior albergo e quando il padrone della locanda mi chiese qual era il mio nome gli diedi quello di mister redmond secondo le istruzioni di mio cugino e dissi che ero dei redmond della contea di waterford e che mi recavo al trinity college di dublino per completare la mia educazione vedendo il mio bell'aspetto la spada con l'elsa d'argento e la valigia ben fornita il padrone si prese la libertà di mandarmi una caraffa di chiaretto senza che l'avessi chiesta ma poi potete esserne sicuri me la fece pagare ben cara sul conto nessun gentiluomo in quel buon tempo antico andava a letto senza prendere prima di dormire una buona dose di liquore quel giorno del mio primo ingresso nel mondo mi feci un punto d'onore di agire in tutto e per tutto come un perfetto gentiluomo e vi assicuro che recitai la mia parte alla perfezione l'eccitazione degli avvenimenti della mattina la partenza da casa lo scontro col capitano Quinn sarebbero bastati a farmi girare la testa anche senza chiaretto ma a questo servì a darmi il colpo di grazia non sognai la morte di Quinn come avrebbero fatto probabilmente molti giovani di pasta frolla e del resto non ho mai avuto nessuno di questi sciocchi rimorsi dopo qualcuna delle mie partite d'onore ed ho sempre ritenuto fin dalla prima volta che se un gentiluomo rischia la vita in un virile combattimento è uno sciocco avergognarsi di aver vinto dormì a Carlo tanto sodo quanto si può dormire la mattina bevi un boccale di birra leggera e presi un panino arrostito per colazione e cambiai la prima delle mie monete d'oro per pagare il conto senza dimenticare di dare laute mance a tutti i servi come deve fare un gentiluomo cominciai così il primo giorno della mia vita nel mondo e così ho continuato nessuno è mai stato in strettezze peggiori delle mie ed io ho conosciuto la miseria più nera e la più dura povertà ma nessuno può dire di me che se avevo una guinea non fossi generoso e non la spendessi con la prodigalità di un lord non temevo il futuro pensavo che un uomo delle mie qualità talento e coraggio si sarebbe fatto strada ovunque e poi avevo in tasca 20 guinee d'oro somma che in questo sbagliavo calcolavo sarebbe durata 4 mesi almeno nel frattempo avrei potuto fare qualche cosa per raggiungere la fortuna così cavalcavo cantando tra me e me o chiacchierando con i passanti tutte le ragazze lungo la strada dicevano guarda che bel giovanotto quanto a Nora e da Castle Brady mi sembrava che tra ieri ed oggi fossero passati almeno 10 anni feci voto che non sarei mai più tornato in quel luogo se non fossi diventato un gran duomo e mantenni il voto come si vedrà al momento opportuno a quei tempi c'era più vita e più movimento di ora sulle strade maestre oggigiorno le carrozze di posta portano da un capo all'altro del regno in poche decine di ore la gente come si deve viaggiava a cavallo o in carrozze di proprietà e si perdevano tre giorni per un viaggio che oggi richiede 10 ore così non mancava mai la compagnia a chi viaggiasse verso Dublino feci parte del viaggio da Carlo a Nass con un gentiluomo ben armato che veniva da Kilkenny vestito di una giubba di fustagno verde ed oro con una benda sull'occhio e che cavalcava una magnifica giumenta mi fece le consuete domande dove ero diretto e se mia madre non aveva paura dei banditi per permettermi di viaggiare da solo giovane com'ero ma io dissi tirandone una fuori della fondina che avevo un paio di magnifiche pistole che avevano già fatto il loro servizio ed erano pronte a farlo di nuovo a questo punto mentre ci veniva incontro un uomo butterato dal vaiolo il mio compagno diede di sprone alla sua cavalla baia e mi lasciò era un animale molto più robusto del mio e per di più io non volevo stancare il mio cavallo poiché volevo arrivare a Dublino quella sera stessa in buone condizioni mentre mi avvicinavo a Kilcullen vidi un crocchio di contadini riuniti intorno ad una carrozza con un cavallo ed il mio amico dall'abito verde che galoppava a mezzo miglio lontano su per la collina un servo stava gridando al ladro al ladro con tutta la voce che aveva in corpo ma i contadini vicini ridevano del suo imbarazzo e facevano ogni sorta di scherzi sull'avventura che gli era capitata certo avreste dovuto tenerlo lontano col vostro trombone diceva uno di quei tali oh il vile fatevi bastonare dal capitano e pensare che ha un occhio solo gridava un altro la prossima volta che la signora si metterà in viaggio farà bene a lasciarvi a casa disse un terzo cos'è tutto questo chiasso giovanotti esclamai io precipitandomi a cavallo in mezzo a loro ed avendo visto una signora nella carrozza molto pallida e spaventata con qualche frustata feci filar via quei mascalzoni dalle gambe rosse cos'è accaduto signora che ha disturbato vostra signoria le dissi togliendomi il cappello e mettendo la mia giumenta di fianco al finestrino della carrozza la signora spiegò era la moglie del capitano Fitz Simons e andava a Dublino a raggiungere suo marito la sua carrozza era stata fermata da un bandito e quel gran babbeo del suo servo era caduto in ginocchio davanti a lui benché fosse armato e nonostante che ci fossero trenta persone nel campo vicino a lavorare quando quel farabutto l'aveva aggredita nessuno si era mosso per aiutarla ma invece avevano salutato il capitano così chiamavano il bandito augurandogli buona fortuna certo è l'amico dei poveri disse un tizio e buona fortuna a lui erano affari nostri chiese un altro ed un altro ancora disse soghignando che quello era il famoso capitan freni che dopo aver corrotto la giuria per farsi assolvere due giorni prima alle assise di Kilkenny era montato a cavallo alla porta della prigione ed il giorno seguente aveva già svaliggiato due avvocati che aveva trovato sul cammino dissi a quella manica di farabutti di tornare a lavorare o avrebbero assaggiato il mio scudiscio e cominciai meglio che potevo a confortare mistress Fitzsimmons della sua disgrazia avete perduto molto? tutto la borsa che conteneva più di cento guinee i gioielli la tabacchiera gli orologi ed un paio di fibbie da scarpe di diamanti del capitano la commiserai sinceramente per quella disgrazia e sentendo dal suo accento che era inglese deplorai la differenza che esisteva tra i due paesi dissi che nel nostro paese volevo dire l'Inghilterra simili infamie erano sconosciute oh anche voi siete inglese disse lei con evidente tono di sorpresa a questa frase le risposi che ero orgoglioso di esserlo e non ho mai conosciuto un vero gentiluomo tori di Irlanda che non volesse poter dire altrettanto cavalcai così a fianco della carrozza di mistress Fitzsimmons per tutta la strada fino a Nass e siccome era stata derubata della sua borsa le chiesi il permesso di prestarle un paio di monete d'oro per pagare le spese dell'albergo somma che ella si compiacque benignamente di accettare e nel medesimo tempo fu così gentile da invitarmi a condividere con lei il pranzo alle domande della signora sulla mia nascita e di miei parenti risposi che ero un giovane gentiluomo con un grosso patrimonio questo non era vero ma chi ha l'abitudine di farsi più piccolo di quello che è la mia cara madre mi aveva insegnato presto questo tipo di prudenza e una buona famiglia nella contea di Waterford che andavo a Dublino per i miei studi e che mia madre mi passava 500 sterline l'anno mistress Fitzsimmons fu del pari molto comunicativa era la figlia del generale Granby Somerset del Worcestershire di cui naturalmente io avevo sentito parlare benché non ne avessi inteso parlare affatto ero troppo beneducato per dirlo ed aveva fatto doveva confessarlo un matrimonio d'amore con il tenente Fitzgerald Fitzsimmons ero mai stato a Donegal no? che peccato il padre del capitano possedeva 100.000 acri laggiù e Fitzsimmons Burg Castle è il più bel castello di Irlanda il capitano Fitzsimmons era il figlio maggiore e benché avesse litigato con suo padre doveva ereditarne i vasti possedimenti continuò a parlarmi dei balli di Dublino dei banchetti al castello delle corse di cavalli al Phoenix dei ridotti dei veglioni così avevo sempre più voglia di prendere parte a questi divertimenti ed ero preoccupato soltanto pensando che la mia delicata posizione rendeva necessaria una certa riservatezza e mi avrebbe impedito di essere presentato alla corte di cui i Fitzsimmons erano i più eleganti frequentatori come era diverso il loro vivace ambiente dalle riunioni di Kyle Wangan frequentate dalle fantesche ad ogni sua frase ella nominava un lord o qualche persona importante parlava evidentemente francese ed italiano mentre io le avevo confessato di sapere soltanto qualche parola della prima delle due lingue e quanto al suo accento inglese forse non ero in grado di giudicarlo perché a voler dire la verità era la prima persona inglese vera che avessi mai incontrato mi raccomandò tuttavia di essere molto cauto nella scelta delle compagnie che avrei incontrato a Dublino dove abbondavano avventurieri e farabutti di ogni paese si può quindi immaginare la mia gioia e la gratitudine che provai per lei quando man mano che la nostra conversazione diventava più intima eravamo arrivati alla fine del pranzo mi offrì gentilmente di sistemarmi a casa sua dove il caro Fitzsimmons diceva avrebbe accolto con gioia il suo giovane e valoroso salvatore purtroppo signora disse io non sono riuscito a salvare niente ciò era assolutamente vero perché ero arrivato troppo tardi dopo il furto per impedire al bandito di toglierle il denaro e le perle del resto signora non era granché disse Sullivan il servo sciocco che si era tanto spaventato all'arrivo di freni e che ci stava servendo il pranzo non vi ha restituito i tredici pens di rame e l'orologio dicendo che era di princi sbecco ma la signora rimproverò l'impudente valletto e lo mandò subito fuori dalla stanza e quando se ne fu andato mi disse quello sciocco non conosce il valore di un biglietto da cento sterline che era nel portafoglio che freni mi ha tolto forse se fossi stato un po' più vecchio e con un po' più di esperienza del mondo avrei cominciato a capire che la signora Fitzsimmons non era la persona distinta che pretendeva di essere ma date le circostanze presi per buone tutte le sue storie e quando il padrone portò il conto del pranzo lo pagai con l'aria di un lord in realtà ella non fece neppure la mossa di tirar fuori le due monete d'oro che le avevo prestato dopodiché ci dirigemmo lentamente verso Dublino dove entrammo al cadere della notte lo strepitio e lo splendore delle carrozze le fiamme delle torce portate dai ragazzi il numero e la magnificenza delle case mi riempirono della maggior meraviglia tuttavia cercai di dissimulare questo sentimento secondo i consigli della mia cara madre che mi aveva detto essere segno di distinzione per un uomo non mostrar mai di meravigliarsi di niente e non ammettere mai che una casa un equipaggio o una compagnia che vede siano più splendide o più alla moda di quella che normalmente vede o frequenta casa sua ci fermammo alla fine ad una casa di aspetto piuttosto meschino ed entrammo in un corridoio molto meno pulito di quello di Berryville in cui si sentiva un odore penetrante di zuppa e di pancia un uomo grasso col viso rosso acceso senza parrucca in una veste da camera quasi a pezzi e col berretto da notte uscì dalla stanza d'ingresso ed abbracciò sua moglie poiché quell'uomo era il capitano Fitzsimmons con moltissima cordialità per di più quando vide che un forestiero la accompagnava tornò ad abbracciarla con maggiore entusiasmo di prima nel presentarmi ella continuò a dire che ero il suo salvatore e mi fece dei complimenti per il mio valore come se avessi ucciso Freni invece di arrivare quando il ladrocinio era già compiuto il capitano disse che conosceva bene ed intimamente i Redmonds di Waterford dichiarazione che mi spaventò perché non sapevo niente della famiglia a cui avevo dichiarato di appartenere ma io gli chiusi la bocca domandandogli quali dei Redmonds conosceva perché non avevo mai sentito il suo nome nella nostra famiglia disse che conosceva i Redmonds di Redmondstown oh dissi i miei sono i Redmonds di Castle Redmond e così lo misi fuori pista andai a vedere che il mio ronzino fosse ben sistemato nella stalla col cavallo e la carrozza del capitano poi tornai al mio ospite benché vi fossero su un piatto incrinato gli avanzi di una cotoletta di montone con le cipolle proprio davanti a lui il capitano disse amor mio avrei voluto essere informato del tuo arrivo perché Bob Morley ed io abbiamo appena finito il più delizioso piatto di cacciagione che sua grazia il Lord luogotenente ci abbia mai inviato con una bottiglia del miglior champagne della sua cantina conosci quel vino mia cara ma quel che è stato è stato non vale la pena di piangerci sopra che ne direste di una buona aragosta e di una bottiglia di chiaretto del migliore che ci sia in Irlanda Betty porta via questa roba dalla tavola e dai il benvenuto in casa nostra alla signora e dal nostro giovane amico non avendo spiccioli Mr. Fitzsimmons mi chiese di prestargli una moneta da 10 pence per comprare il piatto di aragosta ma la signora gli porse una delle ghinee che gli avevo dato e la diede alla ragazza dicendole di cambiarla e di procurarsi da cena ella andò via subito e riportò di resto alla padrona soltanto pochi scellini dicendo che il pescaiolo aveva tenuto il resto a saldo di un vecchio conto e tu sei stata tanto stupida da dargli la moneta d'oro strillò Mr. Fitzsimmons ho dimenticato quante centinaia di ghinee disse di aver pagato a quell'individuo durante l'anno il pranzo fu accompagnato se non da una grande eleganza di trattamento almeno da una quantità di aneddoti riguardanti le più notevoli personalità cittadine con le quali a dargli retta il capitano viveva nella più cordiale intimità per non restare indietro gli parlai dei miei feudi e della mia proprietà come se fossi stato ricco al pari di un duca gli raccontai tutte le storie della nobiltà che avevo sentito da mia madre e anche qualcuna che forse mi ero inventata ed avrei dovuto accorgermi che costui era un impostore per il solo fatto che non rilevò gli errori e le inesattezze che gli dicevo ma i giovani sono sempre troppo fiduciosi ci volle un po' di tempo prima che comprendessi che non avevo fatto una conoscenza molto desiderabile incontrando il capitano Fitzsimmons e sua moglie e quindi andai a letto congratulandomi con me stesso per la buona fortuna che avevo avuto imbattendomi proprio al principio delle mie avventure in una coppia tanto distinta anche l'aspetto della camera che mi fu assegnata avrebbe dovuto farmi immaginare che l'erede di Fitzsimmonsburg Castle contea di Donegal non si era ancora riconciliato con i suoi ricchi genitori e se fossi stato un ragazzo inglese probabilmente mi sarebbero sorti subito dubbi e sfiducia ma forse come il lettore sa non siamo troppo schizzinosi in Irlanda in fatto di pulizia come lo si è in quello schizzinoso paese di conseguenza il disordine della mia camera da letto non mi colpì troppo non avevamo forse anche noi tutti i vetri rotti e sostituiti da stracci a Castle Brady la superba magione di mio zio avevamo mai avuto laggiù una serratura alla porta o se c'era la serratura un paletto per chiuderla o un fermaglio che tenesse così nonostante se la mia camera da letto presentasse tutti questi inconvenienti ed anche qualcuno di più benché la mia coperta da letto fosse stata evidentemente un abito di broccato di mistress Fitzsimmons macchiato di grasso ed il vetro della mia toletta fosse spezzato e non più grande di una moneta da mezza corona ero talmente abituato a condizioni simili nelle case irlandesi che ritenni di trovarmi in quella di una persona distinta non vi era serratura nemmeno ai cassetti che quando si aprivano apparivano pieni dei vasetti di rossetto della mia ospite e delle sue scarpe corsetti e stracci così dovetti lasciare la mia roba nella valigia ma misi il mio necessario da viaggio d'argento sulla stracciata tovaglia del cassettone dove brillava con grande splendore quando Sullivan si fece vedere la mattina seguente gli chiesi notizie della mia cavalla ed egli mi informò che stava bene gli chiesi quindi di portarmi l'acqua calda per la barba con tono di voce forte e pieno di dignità e forse quando vi porto l'acqua dovrò portarvi anche la gatta di casa che così avrete qualche cosa a cui levare il pelo tirai una scarpa sulla testa di quel mascalzone per risposta alla sua impudenza e poi andai a raggiungere i miei amici in salotto per la colazione veni accolto con grande calore e con la stessa tovaglia che era stata usata la sera prima la riconobbi dalla traccia nera che vi aveva lasciato il piatto dello stufato irlandese e da una macchia di birra caduta vi durante la cena il mio ospite mi salutò con grande cordialità e la signora Fitzsimmons disse che avevo un aspetto che avrebbe fatto un'ottima figura al Phoenix del resto modestia a parte posso dire che a Dublino vi erano molti ragazzi più brutti di me non avevo ancora il possente torace e l'aspetto muscoloso che ho acquistato più tardi in cambio oimè delle gambe con la gotta e delle dita con l'artrite ma questo è naturale negli uomini ma ero arrivato quasi alla mia attuale altezza di sei piedi e con i miei capelli a boccoli un elegante jabot di merletto e di polsini alla camicia un gilet di seta rossa ricamato d'oro sembravo proprio il gentiluomo che ero portavo una giacca marrone con bottoni piatti che mi era diventata troppo stretta e per questo restammo d'accordo col capitano Fitzsimmons che avremmo fatto una visita al suo sarto per farmi fare una giacca più adatta alla mia corporatura non c'è bisogno che vi chieda se siete stato a vostro agio nel letto mi disse il giovane Fred Pimpleton il secondo figlio di Lord Pimpleton ci ha dormito per i sette mesi durante i quali mi ha fatto l'onore di stare con me e se egli è stato soddisfatto non so chi altro non lo dovrebbe essere dopo colazione uscimmo per vedere la città e Fitzsimmons mi presentò a molti dei suoi conoscenti che incontrammo come il suo giovane ed intimo amico mister Redmond della contea di Waterford mi presentò anche al suo cappellaio e dal suo sarto come un giovane di belle speranze e di grandi possibilità e benché dicessi a quest'ultimo che non potevo pagare a pronti contanti più di una giacca che mi tornava a pennello insisté per farmene diverse ed io non credetti di dover rifiutare anche il capitano che certo aveva bisogno di rinnovare il suo guardaroba disse al sarto di mandargli a casa un elegante giubba militare che aveva scelto poi tornammo a casa da mistress Fitzsimmons che ci portò con la sua carrozza al Phoenix Park dove c'era una rivista e dove numerosi giovani della migliore società le ronzavano attorno a tutti mi presentò come il suo salvatore del giorno prima e in vero i complimenti che ella mi fece erano tanti e tali che prima di mezz'ora ero considerato da tutti come un giovane gentiluomo di una delle migliori famiglie del paese imparentato con la più alta nobiltà cugino del capitano Fitzsimmons ed erede di 10.000 sterline l'anno Fitzsimmons assicurò di aver percorso a cavallo tutto il mio feudo palmo a palmo ed in realtà poiché voleva raccontare simili storie sul mio conto lo lasciavo fare ed anzi ero non poco compiaciuto giovane com'ero di avere tanta importanza e di passare per un grande personaggio non avevo ancora capito di essere capitato nelle mani di una banda di impostori che il capitano Fitzsimmons era soltanto un avventuriero e sua moglie una donna di nessun credito ma questi sono i pericoli a cui i giovani sono sempre esposti e per conseguenza i giovani potranno da me imparare come guardarsi mi affretto pertanto a terminare la descrizione di questo periodo della mia vita in cui gli incidenti furono dolorosi e di non grande interesse salvo che per la mia infelice persona avendo trovato certi compagni non certo del tipo più conveniente alla mia qualità il fatto è che difficilmente un giovane può capitare in mani peggiori di quelle in cui ero caduto io più tardi sono stato a Donegal e non ho mai visto il famoso castello di Fitzsimmonsburg la cui esistenza e del resto ignorata anche dai più vecchi abitanti della contea e neppure i Granby Somerset sono più conosciuti nello Hampshire la coppia nelle cui mani ero caduto era di un tipo più comune allora che oggi in cui le grandi guerre degli ultimi tempi hanno reso molto difficile ai lacche e agli scrocconi dei nobili fare i procacciatori di gradi militari e quello di scroccone in realtà era stato il mestiere originale del capitano Fitzsimmons se avessi conosciuto la sua origine naturalmente avrei preferito morire che unirmi a lui ma in quegli ingenui giorni della gioventù prendevo tutti i suoi racconti come verità e mi immaginavo di aver avuto una grande fortuna per essere stato introdotto proprio all'inizio della mia vita in una famiglia simile oimè siamo i giocattoli del destino quando penso da quali piccole circostanze hanno avuto origine tutti i grandi avvenimenti della mia vita posso appena credere di essere stato qualche cosa di diverso da un fantoccio nelle mani del fato che mi ha giocato i tiri più fantastici il capitano era stato il domestico di un gentiluomo e sua moglie non era di rango più elevato la società che questa bella coppia frequentava era del tipo ordinario a cui anche loro appartenevano e in cui gli amici sono sempre benvenuti se pagano una certa somma per il pranzo dopo pranzo potete essere sicuri che non mancavano le carte e che la compagnia che giocava non giocava soltanto per l'onore a queste riunioni partecipavano persone di ogni razza giovani ufficiali dei reggimenti di guarnigione a Dublino giovani impiegati del castello speculatori sui cavalli bevitori di vino gente che eludeva la vigilanza delle guardie notturne della città tutto quell'insieme di persone equivoche che esisteva in quel tempo a Dublino in maggiore quantità di quella che ho riscontrato in qualsiasi altra città d'Europa non ho mai visto giovanotti mettersi tanto in mostra e con tanto pochi quattrini non ho mai conosciuto dei giovani gentiluomini che avessero quello che potrei chiamare la vocazione dell'ozio e mentre un inglese con 50 sterline l'anno non può fare molto più che morire di fame o ammazzarsi di fatica come uno schiavo in qualche professione un giovane bellimbusto irlandese con la stessa somma manteneva i suoi cavalli beveva la sua bottiglia e viveva ozioso e tranquillo come un lord un medico che non aveva mai avuto un paziente si trovava fianco a fianco con un avvocato che non aveva mai avuto un cliente nessuno dei due possedeva una guinea ma sia l'uno che l'altro avevano un buon cavallo per galoppare nel parco e addosso l'abito migliore che si possa immaginare un giovane pastore che andava avanti senza mezzi molti giovani commercianti di vino che consumavano più alcol di quanto ne avessero mai comprato o venduto ed uomini di simile schiatta formavano la società in cui per mia cattiva sorte ero capitato cosa poteva accadere se non qualche guaio ad un uomo di simile compagnia e non ho parlato delle signore di quella società che erano forse anche peggio degli uomini così in un tempo breve molto breve divenni la loro preda quanto alle mie povere venti guinee in tre giorni vidi con terrore che erano ridotte ad otto i teatri e le taverne avevano aperto spaventosi vuoti nella mia borsa al gioco avevo perduto è vero un paio di monete ma vedendo che tutti quanti nella mia comitiva giocavano sulla parola e firmavano degli assegni anche io naturalmente preferì quel sistema al pagamento a pronta cassa e quando perdevo pagavo sempre in quel modo coi sarti sellai ed altri impiegavo metodi non diversi e la presentazione di Fitzsimmons mi fece molto comodo perché i commercianti avevano creduto alla sua parola a proposito del mio patrimonio ho saputo poi che quel farabutto precedentemente aveva accalapiato molti altri giovani più ricchi di me e per un po' di tempo mi fornirono tutti gli oggetti che mi compiacevo di ordinare alla fine poiché il contante diventava sempre più scarso fui costretto a mettere in pegno qualcuno degli abiti che il sarto mi aveva fornito perché non volevo separarmi dalla mia cavalla con cui tutti i giorni facevo una galoppata al parco e che avevo cara essendo un dono del mio rispettabile zio ottenni anche un po' di denaro vendendo qualche piccolo gioiello che avevo acquistato da un gioielliere che mi aveva fatto credito e così fui in grado di salvare le apparenze ancora per un po' di tempo più volte chiesi all'ufficio postale se c'erano lettere per Mr. Redmond ma non ne era arrivata nessuna e del resto ero quasi soddisfatto quando sentivo quella risposta no infatti non avevo molta voglia che mia madre venisse a conoscere la mia condotta nella stravagante vita che conducevo a Dublino tuttavia non potevo andare avanti un pezzo così che quando i miei denari furono definitivamente esauriti e feci una seconda visita al sarto per chiedergli di farmi altri vestiti e quel bel tipo brontolò nicchiò e dalla fine ebbe l'impudenza di chiedermi il pagamento di quelli che già mi aveva fornito a queste parole dopo avergli detto che gli avrei tolto la mia fornitura lo lasciai bruscamente anche l'orefice una birba di giudeo rifiutò di consegnarmi una catena d'oro di cui avevo voglia ed in conseguenza sentii per la prima volta un certo imbarazzo a rendere colma alla misura uno dei giovani gentiluomini che frequentavano la pensione di Fitzsimmons aveva ricevuto da me durante il gioco una cambiale per 18 sterline che avevo perduto con lui al picchetto ed avendo un debito verso Mr. Carbin lo stalliere aveva passato il documento nelle mani di quell'individuo immaginate dunque la mia rabbia e la mia meraviglia quando andando a prendere la mia cavalla vidi che egli si rifiutava nettamente di farla uscire dalla stalla se non avessi prima fatto fronte al mio impegno in vano gli offrì la scelta tra quattro cambiali che avevo in tasca una di Fitzsimmons per 20 sterline una del consigliere Mulligan e così via il proprietario della rimessa che era dello Yorkshire scosse la testa e rise alla vista di questi documenti e disse Master Redmond mi sembrate un bravo giovanotto di buona famiglia e di buone condizioni permettete perciò che vi dica all'orecchio che siete caduto in mani molto brutte è una vera banda di truffatori ed un gentiluomo del vostro rango e della vostra qualità non dovrebbe farsi vedere mai in simile compagnia tornate a casa fate la valigia pagatemi quella bazzecola che mi dovete montate sulla vostra cavalla e tornate dai vostri genitori è la cosa migliore che possiate fare davvero in che bel nido di farabutti ero capitato sembrava che tutte le disgrazie mi dovessero cadere addosso insieme perché mentre tornavo a casa e salivo in camera da letto triste e sconsolato trovai il capitano e sua moglie davanti a me la valigia aperta la mia roba buttata sul pavimento e le chiavi in mano di quell'odioso Fitz Simons chi dunque ho alloggiato in questa casa gridò mentre entravo nell'appartamento chi siete sir sir signore risposi io sono un gentiluomo alla pari di tanti altri qui in Irlanda siete un imbroglione giovanotto un intrigante un impostore urlò il capitano ripetete ancora queste parole e ve le ricaccerò in gola risposi zitto zitto so tirar di scherma bene quanto voi mister Redmond Barry ah cambiate colore ora il vostro segreto è conosciuto non è vero venite come una vipera nel senno delle famiglie innocenti vi presentate come erede dei miei amici Redmonds di Castle Redmond vi presentate alla nobiltà e dai borghesi di questa metropoli la pronuncia del capitano era larga e le sue parole preferibilmente lunghe vi porto dai miei fornitori che vi fanno credito e cosa trovo che avete dato impegno oggetti che avete preso nei loro negozi ho dato loro le mie garanzie signore dissi con aria dignitosa sotto qual nome disgraziato ragazzo sotto qual nome strillò la signora Fitzsimmons e da allora ad un tratto ricordai che avevo firmato i documenti Barry Redmond invece di Redmond Barry ma che altro potevo fare mia madre non aveva forse desiderato che non prendessi altro nome che quello dopo avere rivolto contro di me una tirata violentissima in cui dichiarò di avere scoperto per combinazione il mio vero nome sulla mia biancheria egli parlò della sua fiducia e del suo affetto così mal riposti e della vergogna con cui sarebbe stato obbligato a parlare ai suoi eleganti amici ed a confessar loro che aveva ospitato un impostore raccolse poi la biancheria i vestiti gli articoli da toletta d'argento ed il resto della mia roba e dichiarò che sarebbe uscito per andare a chiamare una guardia e consegnarmi alla giusta vendetta della legge durante la prima parte del suo discorso il pensiero della imprudenza di cui mi ero reso colpevole e dell'impiccio in cui mi ero cacciato mi aveva tanto imbarazzato e tanto confuso che non seppi trovare neppure una parola per rispondere agli insulti di quel bel tipo così che ero rimasto muto davanti a lui ma il senso del pericolo alla fine mi indusse all'azione sentite Fitzsimmons dissi vi dirò perché sono stato costretto ad alterare il mio nome che è Barry ed il nome migliore che vi sia in Irlanda l'ho cambiato signore perché il giorno prima di venire a Dublino ho ucciso un uomo in mortal tensione un inglese signore capitano al servizio di sua maestà e se non mi farete passare o mi ostacolerete in qualsiasi maniera il braccio che ha colpito lui è pronto a castigare anche voi e per il cielo signore o voi o Dio non lasceremo vivi questa stanza così dicendo feci balenare la mia spada come una folgore e dopo aver gridato aha e battuto forte il piede la distesi ad appena un pollice di distanza dal cuore di Fitzsimmons che fece un salto indietro e diventò pallido come un morto mentre sua moglie con un grido si precipitava tra noi due carissimo Redmond gridò calmatevi e tu Fitzsimmons non vorrai il sangue di questo povero figliolo fallo scappare in nome del cielo fallo andare via può anche andare a farsi impiccare per me disse con voce cupa Fitzsimmons e farebbe meglio a farlo in fretta perché il gioielliere ed il sarto mi hanno già chiamato una volta e saranno di nuovo qui tra poco è stato Moses il prestatore suppegno che lo ha denunciato anche io ho saputo da lui di tutti quegli imbrogli dalla qualcosa dedussi che Fitzsimmons era andato dall'ebreo per impegnare la giubba nuova di merletto che si era procurata dal sarto il giorno in cui mi aveva fatto credito per la prima volta quale fu la fine della nostra conversazione dove trovare una casa per il discendente dei Berries la mia casa paterna mi era chiusa per l'incidente del duello ero cacciato via da Dublino per una persecuzione provocata debbo confessarlo dalla mia imprudenza non avevo tempo di aspettare per scegliere nessun luogo di rifugio in cui fuggire Fitzsimmons dopo la sua lite con me lasciò la stanza brontolando ma non come un nemico sua moglie insistè perché ci stringessimo la mano e promise di non molestarmi in realtà non dovevo niente a quell'individuo anzi avevo in quel momento in tasca la sua dichiarazione per un po' di denaro perso da lui al gioco quanto alla mia amica Fitzsimmons essa si sedette sul letto e ad un tratto scoppiò in un dirotto pianto aveva le sue colpe ma il cuore buono e benché tutto il suo patrimonio al mondo consistesse soltanto in tre scellini e quattro pence di rame la povera diavola me le volle dare prima che la lasciassi per andarmene dove? avevo già preso una decisione in città vi era una ventina di gruppi di reclutamento che andavano in cerca di uomini desiderosi di raggiungere le nostre valorose truppe in America e in Germania sapevo dove trovarne uno essendo amico di un sergente che avevo conosciuto ad una rivista a Phoenix Park in cui mi aveva mostrato come un giovane modello per coloro che desideravano recarsi al campo per la qualcosa gli avevo offerto da bere diedi uno dei miei cellini a Sullivan il maggiordomo dei Fitzsimmons e dopo essermi precipitato in strada mi affrettai a recarmi alla piccola barriera in cui aveva il suo quartier generale il mio amico e prima che fossero passati dieci minuti mi aveva arruolato al soldo di sua maestà gli dissi francamente che ero un giovane gentiluomo in imbarazzo che avevo ucciso un ufficiale in duello e che ero ansioso di lasciare il paese ma non c'era neanche bisogno che perdessi tempo a dare spiegazioni re Giorgio aveva troppo bisogno di uomini per potersi informare da che parte venivano ed un individuo della mia statura disse il sergente era sempre il benvenuto e del resto mi disse che non avrei potuto scegliere un momento migliore un trasporto era alla fonda a Dan Liri ed aspettava il vento e da bordo di quella nave su cui mi imbarcai quella sera feci alcune sorprendenti scoperte che saranno narrate nel prossimo capitolo capitolo quarto in cui Barry ha una visione nuova della gloria militare non ho mai provato altro piacere fuori di quello di una buona compagnia e odio tutte le descrizioni di una vita mediocre in conseguenza il racconto relativo all'ambiente in cui ero venuto a trovarmi allora deve essere breve e il suo stesso ricordo mi è profondamente sgradevole ah il pensiero di quell'orribile buco nero in cui eravamo confinati noi altri soldati delle disgraziate creature di cui ero costretto a subire la compagnia dei villani dei vagabondi dei borsaiuoli che avevano cercato nel servizio militare un rifugio contro la miseria o la legge come in sostanza avevo fatto anch'io è sufficiente a farmi vergognare di me stesso anche ora e mi sale il rossore sulle mie vecchie guance quando penso che sono stato costretto a restare non poco tempo in simile compagnia mi sarei dato alla disperazione se non che per fortuna accaddero alcuni eventi che mi sollevarono lo spirito e mi consolarono in certo modo delle mie sventure la prima delle consolazioni che provai fu una bella lite avvenuta il giorno dopo il mio arrivo sulla nave da trasporto con un grosso individuo dai capelli rossi un vero mostro un portatore di sedie della spiaggia di Bath ora arruolatosi per sfuggire ad una moglie litigiosa la quale per quanto egli fosse un pugilatore era sempre stata per lui un avversario difficile non appena questo individuo mi ricordo che si chiamava Tull era sfuggito dalle mani della lavandaia sua consorte gli si erano risvegliati il coraggio e la ferocia naturale ed era divenuto il tiranno di tutti coloro che gli stavano attorno tutte le reclute specialmente erano oggetto dei suoi insulti brutali e dei suoi cattivi trattamenti io non avevo denari come ho detto e stavo seduto con aria molto sconsolata davanti a un piatto di prosciutto rancido e di biscotto ammuffito che ci era stato distribuito come rancio quando venne il mio turno di servirmi da bere e mi venne messo davanti come agli altri del resto una tazza di stagno sporca che conteneva un po' più di mezza pinta di rum allungato con acqua il recipiente era tanto sporco e unto che non potei fare a meno di rivolgermi all'uomo che distribuiva il rancio e dirgli compagno portami un bicchiere pulito a queste parole tutti quei mascalzoni che mi stavano attorno diedero in uno scoppio di risa e più forte di tutti naturalmente sghignazzava Tull portate a quel signore un tovagliolo per le mani e servitegli una scodella di zuppa di tartaruga gridava quel mostro che stava seduto o meglio semi sdraiato sulla panca di fronte a me e mentre diceva così prese ad un tratto la mia tazza di grog e la vuotò tra gli applausi degli altri se vuoi farlo arrabbiare sfottilo a proposito di sua moglie la lavandaia che lo picchia bisbigliò a questo punto al mio orecchio un altro degno compare un lampionaio in ritiro che seccato dal suo mestiere aveva scelto la vita militare è un tovagliolo lavato da tua moglie mister Tull dissi io mi hanno detto che spesso ti ha strofinato ben bene la faccia con quello sfottilo perché non ha voluto vederla ieri quando è venuta a bordo continuò il portatorcia e così continuai a scherzare con allusioni a base di saponata beccate di gallina e ferri da stiro che fecero andare in collera quell'uomo e fecero nascere una bella lite tra noi ci saremmo precipitati subito l'un contro l'altro ma un paio di soghignanti fucilieri di marina che stavano di guardia alla porta per timore che ci pentissimo dell'affare che avevamo fatto ed avessimo fantasia di fuggire vennero avanti e si interposero tra noi con le baionette inastate il sergente discese dalla scala avendo sentito la disputa e finì col dichiarare amabilmente che potevamo batterci a pugni da uomini se ci faceva piacere e che il frapponte sarebbe stato sgombrato a questo scopo ma l'uso della box come la chiamano gli inglesi non era ancora generale in Irlanda e così venne stabilito che ci saremmo battuti con un paio di randelli e con una di queste rustiche armi finì quel prepotente in quattro minuti poiché gli diedi sulla stupida zucca un colpo tale che lo lasciò senza vita sul ponte senza ricevere in cambio nemmeno un'ammaccatura questa vittoria sul gallo di quel vile pollaio mi fece avere il rispetto di quella compagnia di mascalzoni di cui ormai anch'io facevo parte e servì a risollevarmi lo spirito che altrimenti sarebbe stato assai abbattuto la mia posizione poi divenne presto più sopportabile in conseguenza dell'arrivo a bordo della nostra nave di un vecchio amico questi non era altri che il mio padrino nel fatale duello che mi aveva lanciato tanto presto nel mondo il capitano Fagan c'era un giovane nobiluomo che possedeva una compagnia nel nostro reggimento i fanti di Gale e che preferiva le delizie del mall e dei circoli ai pericoli di una dura campagna egli aveva dato in conseguenza a Fagan la possibilità di un cambio l'altro non avendo altro patrimonio che la sua spada era stato lieto di accettare il sergente ci stava facendo fare l'esercizio sul ponte i marinai e gli ufficiali del trasporto ci guardavano sogghignando quando approdò una barca con a bordo il nostro capitano e benché sobbalzassi e diventassi rosso quando egli riconobbe me un discendente dei Berris in quella umiliante posizione vi posso assicurare che la comparsa del volto di Fagan mi fu molto gradita perché ero sicuro che avevo vicino a me un amico prima ero tanto malinconico che avrei certamente disertato se ne avessi avuto i mezzi e se non vi fossero stati gli inevitabili fanti di marina a far la guardia per impedire ogni possibilità di fuga Fagan con un'occhiata mostrò di avermi riconosciuto ma non dette di questo fatto alcuna dimostrazione pubblica solo due giorni dopo quando avevamo già detto addio alla vecchia Irlanda e ci trovavamo in alto mare mi chiamò nella sua cabina e dopo avermi stretto la mano con grande cordialità mi diede notizie della mia famiglia che molto desideravo ho avuto tue notizie a Dublino mi disse ed in fede mia hai cominciato presto da degno figlio di tuo padre ed io credo che non avresti potuto far meglio di quello che hai fatto ma perché non hai scritto a casa alla tua povera madre ti ha mandato una mezza dozzina di lettere a Dublino gli dissi che avevo chiesto le lettere all'ufficio postale ma non ve ne era nessuna per mister Redmond non mi piaceva di aggiungere che mi ero vergognato dopo la mia prima settimana di scrivere a mia madre possiamo scrivere per mezzo del pilota disse lui che ci lascerà tra due ore e puoi dirle che sei salvo e che hai sposato la Bruna Bess nota di traduzione sposare la Bruna Bess è un'espressione militaresca corrispondente al nostro essere sotto la naia sospirai quando l'udi parlare di sposalizio e allora disse con una risata mi accorgo che stai pensando ancora ad una certa signorina di Bradystown sta bene Miss Brady risposi ed in realtà potevo appena pronunciare queste parole perché effettivamente pensavo a lei e per quanto l'avessi un po' dimenticata nelle follie di Dublino mi accorgevo che l'avversità faceva tornare a galla tutto il mio affetto ci sono soltanto sette Miss Brady ora rispose Fagan con voce solenne la povera Nora mio Dio che ne è stato di lei pensai che il dolore l'avesse uccisa se la prese tanto per la tua partenza che fu costretta a consolarsi prendendo marito ora è mistress John Quinn mistress John Quinn c'è dunque un altro John Quinn chiesi io sbalordito per la notizia no è lo stesso ragazzo mio è guarito della sua ferita la palla con cui lo hai colpito non era tale da fargli male era fatta soltanto di stoppa credi proprio che i Bredis si volessero far sfuggire una rendita di 1500 sterline l'anno e quindi Fagan mi disse che per mandarmi fuori dai piedi poiché il vile capitano inglese non avrebbe mai consentito al matrimonio per paura di me avevano combinato il piano del finto duello ma tu lo hai colpito in pieno Redmond e con una bella palla imbottita di stoppa e quel povero diavolo si è tanto spaventato che c'è voluta un'ora per farlo tornare in sé più tardi abbiamo raccontato la storia a tua madre che ci ha fatto una bella scenata ha mandato una decina di lettere a Dublino per richiamarti ma credo che te le abbia indirizzate col tuo vero nome col quale tu non hai mai pensato di chiederle vile dissi per quanto lo confesso fossi molto sollevato al pensiero di non averlo ucciso ed i Bredis di Castle Brady hanno consentito ad ammettere un codardo simile in una delle più antiche ed onorevoli famiglie del mondo ha pagato tutta l'ipoteca di tuo zio disse Fagan e ha dato a Nora una carrozza a sei cavalli è sul punto di vendere la sua compagnia e il tenente Ulick Brady della milizia sta per comprarla quel vigliacchissimo individuo è divenuto il pilastro della famiglia di tuo zio ed in fede mia come affare è stato veramente buono poi ridendo mi disse che Mick ed Ulick non lo avevano mai perso di vista allo scopo di non farlo scappare in Inghilterra prima che il matrimonio fosse celebrato e la coppia felice viaggiasse alla volta di Dublino hai bisogno di qualche soldo ragazzo mio continuò il capitano di buon umore puoi trovare credito presso di me perché io ho avuto un paio di centinaia di sterline da Mr. Queen per la parte che ho recitato e finché dureranno non mancherai mai di niente e così mi fece mettere a sedere a scrivere una lettera a mia madre cosa che feci subito in termini sinceri e pieni di pentimento le dichiarai che avevo fatto molte sciocchezze che non avevo capito fino a quel momento il fatale errore che stavo commettendo quando mi ero imbarcato per la Germania come volontario la lettera era appena finita quando il pilota gridò che stava per tornare a terra e partì portando con sé oltre ai miei gli estremi addii agli amici della vecchia Irlanda di parecchie persone ansiose e preoccupate benché sia stato chiamato capitano Barry per molti anni della mia vita e sia stato conosciuto con tale titolo dalle maggiori personalità d'Europa devo confessare che non ho più diritto a tale qualifica della maggior parte dei gentiluomini che l'assumono e non ho mai avuto diritto alle spalline né ad alcun grado militare più elevato che quello dei galloni del più modesto caporale venne nominato caporale da Fagan durante il nostro viaggio verso la foce dell'elba ed il mio grado venne confermato sulla terraferma mi era stato promesso il grado di sotto ufficiale e forse anche quello di alfiere se mi fossi distinto ma il destino non volle che restassi a lungo soldato inglese come si vedrà presto nel frattempo la nostra traversata fu molto favorevole le mie avventure erano state narrate da Fagan ai suoi colleghi ufficiali che mi trattavano con cortesia mentre la vittoria sul grosso portatore di sedie mi aveva procurato il rispetto dei miei camerati del frapponte incoraggiato e molto esortato da Fagan facevo il mio servizio con grande zelo ma benché fossi gentile e mi mostrassi di buon carattere con i miei compagni non potei mai consentire a fare amicizia con simili volgari individui e del resto venivo di solito chiamato da loro my lord credo che il soprannome l'avesse trovato il portavoce un gaio farabutto che mi aveva dato per primo questo titolo ed io sentii che potevo meritare quella distinzione con lo stesso diritto di qualunque pari del regno ci vorrebbe uno storico o un filosofo assai più acuto di quanto lo sia io per esporre le cause della famosa guerra dei sette anni in cui era impegnata l'Europa del resto la sua origine mi è sembrata sempre molto complicata e di libri scritti su tale argomento tanto difficili oscuri che di rado ho capito qualche cosa di più alla fine di un capitolo che al principio e di conseguenza grazierò il lettore di ogni mia personale disquisizione sull'argomento tutto quello che so è che il vecchio amore di sua maestà per i suoi domini dell'annover lo aveva reso impopolare nel suo regno inglese e che Mr. Pitt era alla testa del partito contrario alla guerra in Germania ma ad un tratto quando Mr. Pitt fu diventato ministro il resto dell'impero applaudì alla guerra molto più di quanto non l'avesse odiata prima le vittorie di Dettingen e di Krefeld erano sulle bocche di tutti e l'eroe protestante come eravamo soliti chiamare il vecchio ateo Federico II di Prussia veniva da noi adorato come un santo pochissimo tempo dopo il giorno in cui eravamo stati sul punto di fargli la guerra alleati con l'imperatrice regina ora però eravamo dalla parte di Federico l'imperatrice i francesi gli svedesi ed i russi erano contro di noi e mi ricordo che quando le notizie della battaglia di Lys giunsero al nostro remoto quartiere d'Irlanda la considerammo un trionfo per la causa del protestantesimo e facemmo fuochi e falò di gioia e ci fecero una predica in chiesa e celebrammo il compleanno del re di Prussia in tale occasione mio zio si ubriacò come faceva del resto in tutti questi casi la maggior parte dei poveri diavoli che si erano arruolati con me erano naturalmente papisti l'esercito inglese era pieno di tal gente che usciva dal nostro inesauribile paese e questi in realtà combattevano le battaglie del protestantesimo come Federico che faceva sentire la sua forza ai protestanti svedesi e ai protestanti sassoni come ai russi della chiesa greca e alle truppe papiste dell'imperatore e del re di Francia fu contro queste ultime che vennero impiegati gli ausiliari inglesi e si sa che qualunque sia la causa della lite un inglese ed un francese combattono sempre volentieri tra loro sbarcammo dunque a Cuxhaven e prima di aver passato un mese nell'elettorato ero trasformato in un robusto e valente soldato ed avendo una naturale attitudine per gli esercizi militari ero presto diventato esperto negli esercizi quanto più il vecchio sergente del reggimento è bello sognare guerre gloriose stando comodamente a casa propria in poltrona o anche farle da ufficiale circondate da grandi gentiluomini elegantemente vestiti ed incoraggiati da speranze di promozioni ma queste speranze non sorridono ai poveri diavoli in lacere divise la ruvida stoffa delle nostre giubbe rosse mi faceva vergognare quando vedevo avvicinarsi un ufficiale e la mia anima tremava tutta quando andando in giro sentivo le loro voci mentre sedevano allegramente al tavolo della mensa il mio orgoglio si rivoltava quando ero obbligato ad impiastrarmi i capelli di farina e sego di candele invece di usare la pomata adatta ai gentiluomini sì i miei gusti sono sempre stati elevati e alla moda e l'orribile compagnia in cui ero caduto mi ripugnava quali probabilità avevo di una promozione nessuno dei miei parenti aveva danari per comprarmi il grado così che il mio spirito divenne presto tanto abbattuto che desideravo una battaglia generale e una palla che mi finisse mentre facevo voti che mi capitasse l'occasione di disertare quando penso che io discendente dei re d'irlanda veni minacciato di fustigazione da un mascalzoncello appena uscito dal collegio di Eton quando penso che costui mi offrì di fargli da attendente e che nell'una nell'altra volta l'ho ammazzato la prima volta scoppiai in lacrime non mi vergogno di confessarlo ed ebbi gravi tentazioni di suicidio tanto grande era stata la mia mortificazione ma il mio bravo amico Fagan mi venne in aiuto anche in questa circostanza con qualche frase di consolazione molto tempestiva mio povero ragazzo disse non devi prendere la cosa così sul tragico la fustigazione è soltanto una disgrazia relativa il giovane sottotenente Fakenham è stato fustigato anche lui alla scuola di Eton appena un mese fa e scommetterei che le sue cicatrici non si sono ancora chiuse in gamba ragazzo mio fai il tuo dovere comportati da gentiluomo e non ti potrà capitare niente di male seppi più tardi che il mio difensore aveva richiamato mister Fakenham molto severamente al dovere per la sua minaccia e gli aveva detto che in futuro avrebbe considerato un contegno simile come un'offesa personale di conseguenza il giovane sottotenente fu per qualche tempo più cortese quanto ai sergenti avevo detto ad uno di loro che se mi avesse colpito gli avrei fatto la pelle chiunque egli fosse e qualunque potesse essere la pena derivante da questo fatto ed in fede mia il mio discorso era sembrato così sincero che li aveva convinti tutti e così finché rimasi in servizio nell'esercito inglese le spalle di Redmond Barry non servirono mai da tamburo in vero ero in tali condizioni di collera e di disperazione che ero ridotto quasi agli estremi e mi sembrava di udir suonare la mia marcia funebre benché fossi sicuro di essere ancora vivo quando fui promosso caporale alcuni dei miei malanni diminuirono andavo per speciale concessione alla mensa dei sergenti ed ero solito invitarli a bere ma perdevo al gioco con quei farabutti rimettendoci il denaro che il mio buon amico mister Fagan puntualmente mi forniva il nostro reggimento che era accantonato tra Stade e Luneburg ricevette presto l'ordine di marciare a sud verso il Reno perché era giunta notizia che il nostro grande generale il principe Ferdinando di Brunswick era stato sconfitto no non sconfitto ma respinto nel suo attacco contro i francesi guidati dal duca di Broglie a Bergen presso Francoforte sul meno ed era stato obbligato a ripiegare poiché gli alleati si ritiravano i francesi venivano avanti e conducevano una vigorosa offensiva contro l'elettorato del nostro grazioso monarca nell'Hannover minacciando di occuparlo come avevano fatto prima quando Destré aveva battuto l'eroe di Culloden il valoroso duca di Camberland e lo aveva costretto a fermare la capitolazione di Closter Zeven un'avanzata nell'Hannover provocava sempre una grande agitazione nel regal seno del re d'Inghilterra altre truppe ci vennero mandate come rinforzo aiuti in denaro passarono attraverso le nostre schiere per raggiungere il re di Prussia nostro alleato e benché nonostante i rinforzi l'esercito del principe Ferdinando fosse molto più debole di quello del nemico invasore pure noi avevamo il vantaggio di migliori rifornimenti e di uno dei più grandi generali del mondo e vorrei poter aggiungere del valore britannico ma a meno di questo si parla e meglio è lord George Sackville non si coprì precisamente di Alloria a Minden altrimenti avremmo riportato là una delle più grandi vittorie dei tempi moderni gettandosi tra i francesi e l'interno dell'elettorato il principe Ferdinando saggiamente prese possesso della città libera di Brema che divenne il suo magazzino e la sua piazza d'armi e attorno ad essa raccolse tutte le sue truppe preparandosi a combattere la famosa battaglia di Minden se queste memorie non avessero come elemento dominante la verità e non volessi scrivere una sola parola senza che la mia esperienza personale conferisse loro la massima garanzia potrei facilmente diventare il protagonista di qualche strana e popolare avventura e secondo la moda dei romanzieri introdurrei i miei lettori presso i grandi personaggi di quel notevole periodo storico queste persone i romanzieri voglio dire se prendono come protagonista un tamburino o uno spazzino combinano le cose in modo da farlo stare in contatto con i più grandi signori ed i più noti personaggi dell'impero e scommetto che nessuno di loro nel descrivere la battaglia di Minden farebbe a meno di mettere in primo piano il principe Ferdinando e lord George Sackville e lord Granby sarebbe stato facile per me raccontare che ero presente quando venne dato ordine a lord George di lanciare alla carica la cavalleria per completare la rotta dei francesi e quando egli rifiutò di farlo diminuendo in conseguenza la portata della grande vittoria ma il fatto è che ero due miglia lontano dalla cavalleria quando ebbe luogo la fatale esitazione di sua signoria e nessuno di noi soldati in linea seppe quello che era successo fino a che non cominciammo a parlarne la sera dopo la battaglia attorno alle marmitte del rancio prima di riposare dalle fatiche di una giornata di battaglia duramente combattuta quel giorno non vidi nessuno di grado più alto del mio colonnello salvo un paio di ufficiali di ordinanza che galoppavano nel fumo nessuno dalla nostra parte cioè un povero caporale quale io avevo allora la disgrazia di essere non è generalmente invitato nella compagnia dei comandanti e dei grandi ma in compenso vi assicuro vidi molte buone compagnie di francesi perché i reggimenti di Lorena e di il Royal Cravat ci caricarono tutto il giorno ed in quella sorta di mele se ne danno e se ne prendono da tutte e due le parti non mi piace vantarmi ma non posso fare a meno di dire che feci una conoscenza molto intima col colonnello delle cravat perché gli ficcai nel corpo la baionetta e feci fuori anche un povero piccolo sottotenente così giovane morbido e piccolino che credo lo avrebbe spacciato un colpo del codino della mia parrucca invece del calcio del mio moschetto con cui lo abbattei uccisi oltre a questi quattro altri ufficiali e soldati e nella tasca del povero sottotenente trovai una borsa con quattordici luigi d'oro ed una scatola d'argento piena di bonbon il primo di questi regali mi fu molto gradito se la gente raccontasse la storia delle battaglie in questa maniera tanto semplice credo che la causa della verità non ne soffrirebbe per questo tutto quello che so della battaglia di minden salvo quello che ho imparato dai libri è detto qui sopra la scatola d'argento di bonbon del sottotenente e la sua borsa piena d'oro la faccia livida di quel povero diavolo mentre cadeva le grida degli uomini della mia compagnia della mia compagnia mentre andavo a sparargli sotto un vivace fuoco le loro grida e le loro bestemmie quando venimmo corpo a corpo con i francesi sono in realtà ricordi non molto degni che è meglio sorvolare rapidamente quando il mio buon amico Fagan cadde colpito da una fucilata un suo collega capitano suo grande amico si volse al tenente Rosen e disse Fagan è caduto Rosen ecco la tua compagnia fu questo tutto l'epitaffio che toccò al mio buon protettore avrei voluto lasciarti cento guinee Redmond furono le ultime parole che mi rivolse ma ho avuto una maledetta scalogna la notte scorsa al faraone mi diede una breve stretta di mano e quindi poiché era stato dato l'ordine di avanzare lo lasciai quando torniamo sulle nostre antiche posizioni ciò che facemmo presto giaceva ancora là ma era morto qualcuno dei nostri gli aveva già tolto le spalline e senza dubbio gli aveva anche rubato la borsa come divengono mascalzoni e farabutti gli uomini in guerra è bello per i gentiluomini parlare dell'età della cavalleria ma ricordate quei bruti morti di fame che i cavalieri guidavano uomini allevati nella miseria completamente ignoranti abituati ad inorgoglirsi solo per fatti di sangue uomini che non avevano altri divertimenti che l'ubriachezza le gozzoviglie ed il saccheggio questi ignobili strumenti i nostri grandi guerrieri ed i nostri grandi re hanno fatto il loro sanguinoso lavoro nel mondo e mentre per esempio nel momento attuale stiamo ammirando il grande Federico così lo chiamiamo la sua filosofia e il suo genio militare io che l'ho servito e sono stato dietro le scene di cui quel grande spettacolo è composto posso guardarlo soltanto con orrore quanti addendi di crimini di miseria di schiavitù occorrono per formare quel totale che si chiama la gloria mi ricordo che un certo giorno circa tre settimane dopo la battaglia di Minden alcuni di noi erano entrati in una fattoria dove una vecchia e le sue figlie ci servirono tremando del vino ci ubriacamo con quel vino e la casa subito dopo andò in fiamme e immaginate il dolore di quel disgraziato che sopraggiunse in tempo soltanto per cercare inutilmente la sua casa e la sua famiglia capitolo quinto nel quale Barry cerca di tenersi lontano il più possibile dalla gloria militare sono costretto a confessare che dopo la morte del mio protettore il capitano Fagan cominciai a comportarmi nel peggiore dei modi e mi procurai una pessima compagnia essendo anche egli un rude soldato di ventura Fagan non era mai stato il favorito tra gli ufficiali del reggimento che disprezzavano gli irlandesi come qualche volta sanno fare gli inglesi ed erano soliti prenderlo in giro per il suo accento largo e per le sue rustiche e bizzarre maniere ero stato insolente con uno o due di loro ed avevo evitato la punizione soltanto per sua intercessione specialmente il suo successore Rosen non aveva simpatia per me e mise un altro al posto di sergente rimasto vacante nella compagnia dopo la battaglia di Minden questo atto di giustizia mi rese il servizio militare sempre più sgradevole ed invece di cercare di conquistarmi la simpatia dei miei superiori e di vincere la loro cattiva volontà con la mia buona condotta pensavo soltanto al mezzo di rendermi la vita più facile e mi attaccavo a tutti i divertimenti e alle distrazioni che potevo in un paese straniero col nemico davanti a noi e la popolazione sottoposta continuamente a vessazioni e attributi ora da una parte ed ora dall'altra erano permesse alle truppe innumerevoli irregolarità che non sarebbero state consentite in tempi più pacifici scesi a poco a poco a mescolarmi con i sergenti e da condividere i loro divertimenti bere e giocare erano mi dispiace dirlo i nostri passatempi favoriti ed io mi gettai su quella strada con tanta foga che nonostante fossi un ragazzo di appena 17 anni li superai tutti nelle più rischiose ribalderie eppure posso assicurarvi che erano molto progrediti in ogni branca della scienza della perversità sarei certamente caduto nelle mani del prevosto maresciallo se fossi rimasto più a lungo nell'esercito ma accadde un incidente che mi fece allontanare dal servizio militare in una maniera piuttosto originale l'anno in cui morì Giorgio II il nostro reggimento ebbe l'onore di partecipare alla battaglia di Warburg dove il marchese di Granby ed i suoi cavalleggeri risollevarono il discredito in cui era caduta la cavalleria dopo la cattiva prova di Lord George Sackville a Minden e dove il principe Ferdinando disfece completamente i francesi durante l'azione il mio tenente Feikenham di Feikenham il gentiluomo che dobbiamo ricordarcene mi aveva minacciato di fustigazione venne colpito da una palla di moschetto nel fianco non aveva dimostrato di mancare di coraggio né in questa né in qualsiasi altra occasione in cui era stato chiamato ad agire contro i francesi ma questa era la sua prima ferita ed il giovane gentiluomo ne fu veramente spaventato offrì cinque guinee per essere portato in città cosa che era molto difficile fare ma io ed un altro lo avvolgemmo dentro un mantello e lo trasportammo in un posto di aspetto decente in cui potemmo metterlo a letto e dove un giovane chirurgo che non desiderava di meglio che allontanarsi dal fuoco dei moschetti andò subito a curare la sua ferita per entrare in quella casa fumo costretti sono obbligato a confessarlo a sparare nella serratura con le nostre armi questa violenta intimazione fece scendere alla porta un abitante della casa una donna giovane e graziosa con gli occhi neri che abitava lì col vecchio padre mezzo cieco un Jagdmeister in ritiro del duca di Kassel quando i francesi erano in città la casa del Meinherr aveva sofferto come quelle dei suoi vicini e da prima quella gente non sembrò molto soddisfatta di accoglierci come suoi ospiti ma il nostro modo di bussare alla porta ebbe l'effetto di ottenere una pronta risposta e Mr. Fakenham togliendo un paio di ghinee da una borsa molto piena convinse facilmente gli abitanti che avevano a che fare con persone di riguardo dopo aver lasciato il dottore tutto lieto di fermarsi col suo paziente che mi aveva pagato la ricompensa stabilita stavo tornando al mio reggimento con l'altro mio compagno non senza aver rivolto nel mio gergo tedesco alcuni meritati complimenti alla bellezza degli occhi neri di Warburg pensavo con non poca invidia come sarebbe stato comodo essere alloggiato lì quando il soldato che era con me tagliò corto alle mie fantasticherie affacciando l'idea che avrei dovuto dividere con lui le cinque ghinee che il tenente mi aveva dato questa è la tua parte gli dissi dando al compare una moneta ed è anche troppo perché sono stato io il capo della spedizione ma lui con un'orribile bestemmia dichiarò che dovevamo fare a metà e quando gli dissi di andare in un posto che non nomino quel tipo alzò il moschetto e con il fondo del calcio mi tirò una botta che mi lasciò privo di sensi sul terreno quando mi svegliai dal mio stordimento mi accorsi che perdevo sangue da una larga ferita alla testa ed ebbi appena il tempo di ritornare alla casa in cui avevo lasciato il tenente che caddi di nuovo svenuto davanti alla porta qui devo essere stato scoperto dal chirurgo mentre usciva perché quando mi risvegliai una seconda volta mi ritrovai nella stanza terrena della casa sorretto dalla ragazza con gli occhi neri mentre il chirurgo mi stava facendo un abbondante salasso al braccio nella stanza c'era un altro letto in cui era stato deposto il tenente e che era normalmente occupato da Gretel la serva mentre Lyschen così si chiamava la mia bella aveva fino a quel momento dormito sul letto in cui giaceva l'ufficiale ferito chi state mettendo in quel letto chiese l'ufficiale in tono languido in tedesco perché la palla gli era stata estratta dal fianco con molto dolore e perdita di sangue gli risposero che era il caporale che lo aveva portato lì un capovale esclamò lui in inglese buttatelo fuovi potete essere certi che mi sentii molto lusingato da queste parole ma eravamo troppo deboli per farci dei complimenti o dei dispetti l'uno con l'altro ed io venni messo a letto con cura e mentre venivo spogliato ebbi modo di accertarmi che le mie tasche erano già state perquisite dal soldato inglese dopo che mi aveva dato quella botta in testa comunque ero in un buon alloggio subito la signorina che mi ospitava mi portò una bibita rinfrescante e mentre la prendevo non potei fare a meno di premere la dolce mano che me la porgeva ed in verità questo segno della mia gratitudine non mi sembrò che le fosse sgradito la nostra intimità non diminuì con l'aumentare della conoscenza trovai che l'ishen era la più tenera delle infermiere quando qualche leccornia veniva portata al tenente ferito ne veniva sempre mandata una parte al letto opposto al suo ciò che seccava non poco quel lavaro individuo la sua malattia fu lunga il secondo giorno gli venne la febbre e per molte notti ebbe il delirio mi ricordo che quando un ufficiale superiore venne ad ispezionare i nostri quartieri con l'intenzione probabilmente di farsi assegnare l'alloggio lì le grida e le parole insensate del paziente fuori di sé lo colpirono tanto che si ritirò alquanto spaventato io stavo seduto molto a mio agio nella stanza più bassa dell'appartamento perché la mia ferita era quasi guarita e soltanto quando l'ufficiale mi chiese con voce rude perché non ero al mio reggimento cominciai a riflettere quanto era comoda per me quella sistemazione e che stavo molto meglio qui che a strisciare sotto un'odiosa tenda con un gruppo di soldati brilli o in giro a fare la ronda di notte o ad alzarmi molto prima del levar del sole per l'istruzione il delirio di Mr. Fakenham mi diede un'idea e decisi da quel momento in poi di diventare matto avevo conosciuto da ragazzo a Bradystown un povero diavolo che si chiamava Bill il vagabondo e da ragazzo spesso avevo imitato per divertimento i suoi sciocchi movimenti così che ora potei di nuovo metterli in pratica quella sera feci un tentativo con Lishen e la salutai con un grido ed una smorfia tali che la spaventarono tanto da farle quasi perdere i sensi e quando venne qualcuno ero in preda al delirio il colpo alla testa mi aveva evidentemente scombussolato il cervello ed il dottore fu pronto ad attestare questo fatto una sera gli sussurrai all'orecchio che ero Giulio Cesare e lo consideravo la mia amata sposa la regina Cleopatra cosicché mi riuscì di convincerlo della mia follia anche perché se sua maestà la regina fosse stata come il mio Esculapio avrebbe dovuto avere una barba color carota cosa che è piuttosto rara in Egitto un movimento da parte dei francesi provocò una rapida ritirata delle nostre truppe la città venne sgombrata salvo che da pochi prussiani i cui chirurghi dovevano assistere i feriti rimasti sul luogo e noi quando fossimo guariti avremmo dovuto tornare ai nostri reggimenti decisi che non avrei mai più raggiunto il mio la mia intenzione era di dirigermi in Olanda che era quasi il solo paese che fosse rimasto neutrale in Europa a quei tempi e di lì trovare un passaggio per una qualsiasi località dell'Inghilterra e tornare a casa alla vecchia cara Bradystown se Mr. Fakenham è ancora vivo devo fargli le mie scuse per il mio modo di agire ma lui era molto ricco e mi aveva trattato molto male cercai di mettere paura al suo servo che veniva ad assisterlo dopo l'affare di Warburg e da allora in poi mi fu qualche volta permesso di assistere il paziente che mi trattava sempre con disprezzo ma il mio scopo era di poter stare con lui da solo e sopportavo la sua brutalità con la massima cortesia e dolcezza mentre pensavo al modo di riavere la sua fiducia e del resto non ero la sola persona della casa verso cui il degno gentiluomo fosse scortese dava ordini per diritto e per traverso alla bella Lyschen le faceva una corte importuna diceva male delle minestre che gli serviva si arrabbiava per le sue omelette e brontolava per il denaro che doveva darle per il suo mantenimento cosicché la nostra ospite lo detestava almeno quanto ritengo senza vanità aveva simpatia per me del resto a voler dire la verità avevo fatto molto all'amore con lei durante la mia permanenza sotto il suo tetto e del resto questo è sempre stato il mio modo di agire con le donne di qualsiasi età e grado di bellezza per un uomo che si vuol far strada nel mondo quelle care creature possono sempre essere utili in un modo o nell'altro se respingono la vostra passione non importa ad ogni modo non si offendono della vostra dichiarazione e vi guardano soltanto con occhi più gentili a causa della vostra disgrazia per quanto riguarda Lyschen le avevo narrato una storia talmente patetica della mia vita una storia molto più romantica di quella che ho narrato qui poiché con lei non mi ero limitato alla pura verità come invece sono stato costretto a fare in queste pagine che avevo interamente conquistato il cuore della povera ragazza e per di più avevo fatto sotto la sua guida notevoli progressi nella lingua tedesca non mi considerate crudele senza cuore signore mie il cuore di Lyschen era come molte città di quel circondario in cui abitava ed era stato preso d'assedio e occupato molte volte prima che venissi io all'assalto ora inalberava i colori francesi ora il grigio e giallo sassone ora il nero e bianco prussiano a seconda dei casi una donna che affida il suo cuore ad un giovanotto in uniforme deve prepararsi a cambiare amanti con grande rapidità altrimenti la sua vita sarebbe molto triste il chirurgo tedesco che ci visitava dopo la partenza degli inglesi non si preoccupò di venirci a trovare a casa più di un paio di volte durante la mia convalescenza ed io ebbi cura per un certo mio motivo di riceverlo quasi all'oscuro nonostante il disturbo che ciò arrecava a mister Fakenham che giaceva lì ma dissi che la luce mi dava una terribile noia agli occhi dopo il colpo che avevo avuto alla testa e così quando venne il dottore mi copersi la testa di un panno e gli dissi che ero una mummia egiziana o qualche altra sciocchezza del genere allo scopo di restare in carattere cos'è questa sciocchezza che vai dicendo della mummia egiziana vagazzaccio mi chiese mister Fakenham di cattivo umore oh lo saprete presto signore gli risposio la seconda volta che aspettavo che venisse il dottore invece di riceverlo nella stanza buia avvolto di fazzoletti ebbi cura di farmi trovare nella stanza terrena e stavo giocando a carte con l'ischen quando entrò il chirurgo mi ero impadronito di una giacca da camera del tenente e di qualche altro oggetto del suo guardaroba che mi stava molto bene e mi lusingo di dirlo non faceva sfigurare il mio aspetto di gentiluomo buongiorno caporale disse il dottore piuttosto burbero rispondendo al mio sorridente saluto caporale tenente prego risposi dando un'occhiata di intesa all'ischen che non avevo ancora messo a parte dell'intrigo come tenente chiese il chirurgo credevo che il tenente fosse parola mia mi fate un bell'onore gridai ridendo mi avete confuso col caporale matto del primo piano quel bel tipo ha preteso una volta o due anche di essere un ufficiale ma la mia gentile ospite qui potrà ben dirvi cos'è ieri diceva di essere il principe ferdinando precisò l'ischen il giorno in cui siete venuto diceva di essere una mummia egizia davvero disse il dottore me ne ricordo ma sapete tenente che nei miei appunti avevo fatto uno sbaglio tra voi due non parlate della sua malattia quello di su è calmo ora l'ischen ed io ridemmo di questo errore come della cosa più buffa del mondo e quando il chirurgo salì di sopra per esaminare il paziente gli raccomandai di non parlargli dell'argomento della sua malattia perché era molto eccitabile il lettore avrà capito dalla conversazione sopra riportata quale era in realtà il mio piano ero deciso a fuggire ed a fuggire con la personalità del tenente feikenham intendevo portargli via la fisionomia quale che fosse e farne uso per far fronte alle mie imperiose necessità era truffa e furto se volete perché gli presi tutto il denaro ed i vestiti non mi curo di nasconderlo ma sapevo che non avrei potuto compiere la fuga senza la sua borsa ed il suo nome di qui cominciò il mio disegno di prendere possesso dell'una e dell'altro mentre il tenente giaceva ancora a letto al piano superiore non avevo affatto esitato a mettermi la sua uniforme specialmente dopo aver avuto cura di informarmi dal dottore se era rimasto in città nessuno dei nostri uomini che potesse riconoscermi ma non vi era nessuno di cui avessi inteso parlare e così pian piano facevo le mie passeggiatine con madame lichen vestito dell'uniforme del tenente facevo ricerca di un cavallo che volevo acquistare e mi ero andato a presentare al comandante della piazza come il tenente feikenham del reggimento dei fanti del galles convalescente ed ero stato invitato a pranzo dagli ufficiali del reggimento prussiano alla pessima mensa che avevano come avrebbe tempestato feikenham e come si sarebbe arrabbiato se avesse saputo l'uso che facevo del suo nome ogni qual volta quel degno gentiluomo mi faceva qualche domanda sul conto dei suoi vestiti ciò che avveniva sempre con grandi bestemmie e minacce di farmi fustigare al reggimento per la mia disattenzione io con l'aria più rispettosa possibile lo informavo che erano stati messi da parte in perfetto ordine al piano di sotto e in realtà li avevo bene impacchettati ed erano pronti per il giorno in cui avevo deciso di partire le carte e il denaro però egli li teneva sotto il cuscino e siccome avevo comprato un cavallo era necessario che lo pagassi ordinai quindi che mi fosse portato l'animale ad una data ora e che avrei allora pagato il venditore passerò sopra ai miei addi alla mia gentile ospite che furono davvero pieni di lacrime poi con tutto il mio pensiero teso alla grande azione che stavo per compiere salì al piano di sopra nella stanza di Feikenham vestito nella grande uniforme del reggimento e col suo berretto calcato sull'occhio sinistro grande farabutto gridò lui alternando alle parole violente bestemmie cane ribelle perché ti sei vestito nella grande uniforme del mio reggimento quanto avevo che mi chiamo Feikenham quando torneremo al reggimento ti favo uscire l'anima di corpo mi sono promosso signor tenente dissi con un soghigno e sono venuto a prender congedo da voi poi mi diressi verso il suo letto e dichiarai voglio che mi diate le vostre carte e la borsa dette queste parole misi la mano sotto il cuscino a questo punto Feikenham cacciò uno strillo che avrebbe potuto richiamare tutta la guarnigione sulle mie tracce basta signore dissi io basta col chiasso o siete un uomo morto presi un fazzoletto e glielo legai stretto sulla bocca in modo quasi da soffocarlo poi spingendo avanti le maniche della camicia le annodai insieme e lo lasciai così dopo aver preso le carte e la borsa e vi posso assicurare che gli augurai gentilmente il buongiorno è il caporale matto dissi alla gente che si era riunita al piano di sotto attirata dal rumore che veniva dalla camera del malato e così dopo aver preso congedo dal vecchio Jagdmeister cieco ed aver dato un addio non vi so dire quanto tenero a sua figlia montai sull'animale che avevo appena acquistato e mentre me ne andavo le sentinelle mi presentarono le armi alle porte della città sentivo di essere nell'ambiente che mi si addiceva ed ero ben deciso a non decadere mai più dal mio rango di gentiluomo presi dapprima la via di Brema dove era il nostro esercito e dichiarai di portare rapporti e lettere del comandante prussiano di Warburg al quartier generale ma non appena fui fuori dalla vista delle sentinelle avanzate voltai la briglia e mi diressi al galoppo nel territorio dell'Asia-Cassel che per fortuna non è molto lontano da Warburg e vi posso assicurare che fui ben lieto di vedere sulla barriera del confine le strisce blu e rosse che mi indicavano che ero fuori del territorio occupato dai nostri connazionali mi diressi a Adhoff e poi il giorno dopo a Cassel dicendo che ero l'atore di dispacci per il principe Enrico poi al Bassoreno e mi fermai al miglior albergo del luogo dove pranzavano anche gli ufficiali della guarnigione quei signori mi offrirono i vini migliori di cui la ditta disponeva perché io ero deciso a conservare l'aspetto del gentiluomo inglese e parlavo loro dei miei feudi in Inghilterra con tanta facondia che quasi quasi credevo anch'io alle storielle che inventavo mi fu chiesto persino di prender parte ad una riunione a Wilhelmshoe il palazzo dell'elettore e ballai un minuetto con l'amabile figlia del maresciallo Hof e persi qualche moneta con sua eccellenza il primo cacciatore di sua altezza alla nostra tavola in albergo vi era un ufficiale prussiano che mi trattava con grande cortesia e mi faceva mille domande sull'Inghilterra ed io rispondevo meglio che potevo ma a questo meglio sono costretto a dirlo era piuttosto mediocre non sapevo niente dell'Inghilterra della corte e delle famiglie nobili di laggiù ma spinto dalla vanagloria e dalla gioventù e dalle tendenze che avevo in quei tempi ma di cui sono da lungo tempo corretto di vantarmi e di parlare in modo non sempre aderente alla verità inventai mille storie che gli narrai gli descrissi il re e di ministri dissi che l'ambasciatore britannico a Berlino era mio zio e promisi al mio amico una lettera di raccomandazione per lui quando l'ufficiale mi chiese il nome di mio zio non ero in grado di dirgli il nome vero e così gli dissi che si chiamava O'Grady nome che poteva andar bene come qualsiasi altro e del resto quelli di Kilbaliowen con Thea di Cork sono per quello che ho sentito dire una famiglia nobile quanto le migliori del mondo quanto alle storie sul mio reggimento naturalmente non mi mancavano avrei voluto che anche le altre storie fossero state altrettanto autentiche la mattina lasciai Kassel il mio amico prussiano venne da me con un volto molto sorridente e disse che era anche lui diretto a Düsseldorf dove avevo detto che mi portava la mia strada così viaggiammo insieme fianco a fianco il paese era desolato in modo da non potersi descrivere il principe nei cui domini eravamo era noto per essere il più spietato venditore di uomini della Germania aveva venduto sempre ad ogni incanto e durante i primi cinque anni della guerra che fu poi chiamata guerra dei sette anni aveva talmente esaurito i maschi del suo principato che i campi restavano incolti persino i ragazzi di dodici anni erano mandati alla guerra ed ho visto mandri e di quei disgraziati che marciavano avanti guidati da pochi graduati sotto il comando di un sergente annoveriano dalla giubba rossa o con un sottofficiale prussiano che li accompagnava con alcuni di questi il mio compagno scambiò dei segni di saluto offende il mio sentimento disse essere obbligato a trattare con quei mascalzoni ma le dure necessità della guerra richiedono continuamente uomini e quindi rendono necessari questi reclutatori che voi vedete far mercato di carne umana il nostro governo da 25 dollari per ogni uomo che gli portiamo per uomini robusti per uomini come voi aggiunse ridendo arriverebbero persino a 100 al tempo del vecchio re federico guglielmo per voi ne avrebbero pagati anche mille quando egli aveva il suo reggimento di giganti che il nostro attuale monarca ha sciolto ne conoscevo uno dissi che ha servito con voi eravamo soliti chiamarlo Morgan Prussia davvero chi era questo Morgan Prussia ecco un robusto granatiere dei nostri che nell'anno vera era stato rapito non so come dai vostri reclutatori delinquenti disse il mio amico e avevano osato prendere un inglese in realtà era un irlandese e troppo furbo per loro come sentirete Morgan dunque venne preso e arruolato nella guardia dei giganti ed era il più alto di tutti i giganti che erano laggiù molti di quei mostri si lamentavano per abitudine della loro vita delle fustigazioni e dei loro lunghi servizi e della scarsizza della paga ma Morgan non si lamentava mai è molto meglio diceva ingrassare qui a Berlino che morir di fame a T-Prairie dove è T-Prairie chiese il mio compagno è proprio quello che chiesero gli amici di Morgan è un bel distretto in Irlanda la cui capitale è la magnifica città di Clonmel una città lasciate che ve lo dica signore inferiore soltanto a Dublino e a Londra e molto più splendida di qualsiasi altra sul continente ecco Morgan disse che il luogo della sua nascita era vicino a quella città e la sola cosa che lo rendeva infelice nella sua attuale condizione era il pensiero che i suoi fratelli morivano di fame a casa mentre avrebbero potuto stare molto meglio al servizio di sua maestà in fede mia dice Morgan al sergente a cui dava questa notizia mio fratello Bin sarebbe un bel sergente delle guardie davvero Bin è alto come te? gli domandò il sergente alto come me? davvero? pensate signore che sono il più basso della mia famiglia siamo in sei Bin è il più alto di tutti oh di gran lunga il più alto sette piedi dalle piante al capo quanto è vero che mi chiamo Morgan possiamo mandare a cercare questi tuoi fratelli? voi no da quando io sono stato ingannato da uno di questi signori col bastone essi hanno una mortale antipatia contro tutti i sergenti rispose Morgan ma è un vero peccato che non vogliano venire che spettacolo sarebbe Bin sotto il berretto da granatiere non parlò mai più in nessun momento dei suoi fratelli ma soltanto sospirava come se lamentasse il loro duro destino però la storia venne raccontata dal sergente agli ufficiali e dagli ufficiali al re in persona e sua maestà venne preso da tanta curiosità che ha consentì subito a che Morgan fosse lasciato andare a casa perché potesse tornare con i suoi sei giganteschi fratelli ed erano proprio così grandi come Morgan aveva dato a intendere chiese il mio compagno non potei fare a meno di ridere della sua ingenuità credete proprio gridai che Morgan sia tornato indietro no no una volta libero era troppo intelligente per fare questo comprò una bella fattoria a T. Prairie col denaro che gli era stato dato per arruolare i suoi fratelli e credo che pochi uomini della guardia ne abbiano mai tratto tanto profitto il capitano prussiano rise molto di questa storia disse che gli inglesi erano la gente più intelligente del mondo e dalla mia messa a punto riconobbe che gli irlandesi lo erano anche di più continuammo a cavalcare molto soddisfatti l'uno dell'altro perché egli aveva mille storie di guerra da raccontarmi sull'astuzia e sul valore di Federico e sulle mille fughe e vittorie e sconfitte queste appena meno gloriose delle vittorie attraverso le quali il re era passato ora che ero diventato un gentiluomo potevo ascoltare con ammirazione questi racconti eppure il sentimento di cui ho parlato alla fine dello scorso capitolo era ancora vivo nella mia mente appena tre settimane prima quando ricordavo che il generale conquistava la gloria ed il povero soldato soltanto insulti e bastonate a proposito a chi portate quei dispacci? chiese l'ufficiale era un'altra domanda pericolosa a cui decisi di rispondere a casaccio al generale rolls avevo visto il generale un anno prima e mi era rimasto in mente il suo nome il mio amico sembrò molto soddisfatto di questa risposta e continuammo la nostra cavalcata fino al cadere della notte quando essendo stanchi i nostri cavalli decidemmo di fare una sosta qui c'è un buonissimo albergo disse il capitano mentre ci dirigevamo verso un luogo che a me sembrò straordinariamente isolato può essere un albergo molto buono per la Germania risposi ma non sarebbe nemmeno passabile nella vecchia Irlanda Corbach è soltanto ad una lega di qua andiamo a Corbach volete vedere la più amabile donna d'Europa disse l'ufficiale ah vecchio libertino vedo che questo vi fa impressione a voler dire il vero una proposta simile era sempre benvenuta e non mi vergogno di confessarlo queste persone sono proprietari e terrieri continuò il capitano ed anche albergatori il luogo infatti somigliava più ad una fattoria che un albergo entrammo attraverso un grande cancello in un cortile circondato da un muro rotondo ad un'estremità del quale era un edificio in rovina dai colori cupi nel cortile vi erano un paio di furgoni coperti ed i loro cavalli erano sistemati sotto una tettoia là vicino per il cortile gironzolavano alcuni uomini ed un paio di sergenti in uniforme prussiana che portarono entrambi la mano al berretto vedendo il mio amico capitano questa formalità consueta non mi colpì affatto come cosa straordinaria ma l'aspetto dell'albergo aveva qualcosa di eccezionalmente freddo e repulsivo cosicché notai che gli uomini chiudevano i grandi cancelli da cui eravamo entrati pattuglie di cavalieri francesi disse il capitano erano in giro per il paese e non si prendevano mai troppe precauzioni contro quei delinquenti andammo a pranzo dopo che due sergenti si presero cura dei nostri cavalli il capitano diede anche ordine che uno di loro portasse la mia valigia nella camera da letto promisi a quel degno individuo un bicchiere di schnapps per ricompensarlo della sua fatica ordinammo un piatto di uova fritte e prosciutto ad una vecchia schifosa che venne a servirci al posto dell'amabile creatura che mi aspettavo di vedere ed il capitano disse ridendo davvero il nostro pranzo è frugale ma un soldato ha molte volte di peggio dopo essersi tolto il cappello il cinturone ed i guanti con grande cerimoniosità si sedette per mangiare non vogli restargli indietro in cortesia e misi la mia spada al sicuro sul vecchio cassettone dove aveva poggiato la sua la ripugnante vecchia sopra ricordata ci portò una caraffa di vino che sapeva molto d'aceto e questo oltre alla sua bruttezza mi fece diventare di cattivo umore dov'è la bellezza che mi avete promesso dissi non appena la vecchia strega aveva lasciato la stanza beh rispose lui ridendo e guardandomi fisso è stato uno scherzo ero stanco e non volevo andare più avanti non vi è qui nessuna donna più bella di quella se ella non vuole cedere alle vostre voglie amico mio dovrete aspettare un po' questo fatto aumentò il mio malumore sulla mia parola signore disse in tono asciutto credo che abbiate agito molto male ho agito come ho creduto opportuno rispose il capitano signore replicai sono un ufficiale britannico questa è una menzogna gridò l'altro sei un disertore sei un impostore l'ho capito bene in queste ultime tre ore l'avevo sospettato ieri i miei uomini hanno saputo che un uomo è fuggito da Farburg ed io ho pensato che quell'uomo fossi tu le tue menzogne e le tue sciocchezze me l'hanno confermato hai la pretesa di portare dispacci ad un generale che è morto da dieci mesi hai uno zio che è ambasciatore e di cui non sai neppure il nome ti vuoi unire a noi e arruolarti o vuoi essere riconsegnato ai tuoi nell'una nell'altra risposì io balzando su di lui come una tigre ma agile com'era si era già messo prontamente in guardia trasse dalla tasca due pistole ne sparò una e disse stando dall'altro capo della tavola dove si era messo per ripararsi fai un passo avanti e ti fico questa palottola nel cervello un momento dopo la porta si spalancò ed entrarono due sergenti armati di moschetto e baionetta per dare manforte al loro compagno il gioco era fatto lasciai cadere un coltello di cui mi ero armato perché la vecchia strega portando il vino aveva tolto dal cassettone la mia spada mi arruolo volontario dissi ora ti comporti da bravo ragazzo che nome devo mettere sull'elenco scrivete Redmond Berry di Belli Berry risposi in tono altero discendente dai re di Irlanda sono stato una volta con la brigata irlandese di Roche disse il reclutatore soghignando ed ho intentato inutilmente di scoprire qualcuno tra i pochi tuoi compatrioti che erano nella brigata che non discendesse dai re di Irlanda signore dissi re o no sono un gentiluomo come avete potuto vedere o ne troverete molti nel nostro corpo rispose il capitano sempre soghignando tammi le tue carte signor gentiluomo e fammi federe chi sei davvero siccome il mio portafoglio conteneva dei biglietti di banca come pure le carte di mister Fakenham non volevo dargli la mia roba sospettando e ben a ragione che fosse soltanto un pretesto da parte del capitano per prenderla e tenersela vi deve importare molto poco risposi quello che risulta dalle mie carte private mi sono arruolato col nome di Redmond Berry dammele subito gridò il capitano alzando il bastone non ve le darò risposi io cane ti ribelli gridò lui e nel medesimo tempo mi diede un colpo in pieno viso col bastone che ebbe il risultato da lui previsto di provocare una lotta io mi gettai in avanti per strappargli il bastone ma i due sergenti si gettarono addosso a me e fui gettato per terra dove rimasi senza sensi avendo battuto il punto in cui avevo avuto la precedente ferita sanguinavo abbondantemente quando rinvenni la mia giacca ricamata mi era stata strappata di dosso la borsa e le carte erano sparite e le mani mi erano state legate dietro la schiena il grande ed illustre Federico aveva decine di questi cacciatori di schiavi attorno alle frontiere del suo regno che subornavano i soldati e rapivano i contadini e non esitavano di fronte ad alcun delitto per fornire i suoi brillanti reggimenti di carne da cannone e non posso fare a meno di raccontare qui non senza soddisfazione il destino che alla fine si abbatté su quel crudele mascalzone che violando tutte le leggi dell'amicizia e della camerateria era riuscito a mettermi in trappola quell'individuo era una persona di ottima famiglia e di ben nota intelligenza e coraggio ma che aveva una viva tendenza per il gioco e la prodigalità e trovava il suo mestiere di ingaggiatore di reclute molto più conveniente che la sua paga di secondo capitano di linea anche il sovrano probabilmente trovava i suoi servizi più utili in questa specialità si chiamava signor de Galgenstein ed era uno dei più abili fra coloro che praticavano questo infame commercio parlava tutte le lingue e conosceva tutti i paesi ed in conseguenza non aveva avuto alcuna difficoltà a smascherare un ingenuo giovanotto vanesio come me verso il 1765 però giunse alla fine che si era meritata viveva in quel tempo a Kelle di fronte a Strasburgo ed aveva l'abitudine di fare una passeggiata fino al ponte e di attaccare discorso con gli avamposti francesi aveva l'abitudine di promettere ad essi mari e monti come dicono i francesi se fossero andati a prestare servizio in Prussia un giorno c'era sul ponte un superbo granatiere francese Galgenstein gli si accostò e gli promise almeno il comando di una compagnia se si fosse arruolato sotto Federico chiedetelo al mio compagno laggiù disse il granatiere non posso far niente senza di lui siamo nati e cresciuti insieme siamo della stessa compagnia dormiamo nella stessa stanza ed andiamo sempre in coppia se vorrà andare e diventare anche lui capitano verrò anch'io fai venire il tuo compagno a Kelle disse Galgenstein tutto contento ti offrirò il migliore dei pranzi e ti prometto che vi farò contenti tutti e due non sarebbe meglio che gli parlaste sul ponte disse il granatiere non oso lasciare il mio posto ma voi dovete soltanto passare ed esporgli la cosa Galgenstein dopo avere un po' parlamentato oltrepassò la sentinella ma ad un tratto lo prese il panico e tornò sui suoi passi ma il granatiere puntò la baionetta al petto del prussiano e lo costrinse a fermarsi era suo prigioniero il prussiano però vedendo il pericolo fece un salto sopra il ponte e si gettò nel reno dove però lo seguì l'intrepida sentinella dopo aver buttato il moschetto il francese era il migliore nuotatore dei due afferrò il reclutatore e lo portò a Strasburgo dall'altra parte del fiume e lo consegnò ai suoi superiori meriteresti di essere e fuscilato disse il generale al granatiere per abbandono del posto e delle armi ma meriti una ricompensa per il tuo atto di coraggio e di audacia il re preferisce compensarti e l'uomo ricevette denari e promozione per quanto riguarda Galgenstein egli declinò la sua qualità di nobile e di capitano al servizio della Prussia e vennero fatte indagini a Berlino per sapere se le sue dichiarazioni erano vere ma Federico benché facesse largo uso di uomini di questo tipo ufficiali che seducevano i sudditi dei suoi alleati non poteva riconoscere ufficialmente questa sua vergogna da Berlino giunsero lettere di risposta per dire che nel regno esisteva quella famiglia ma che la persona che dichiarava di appartenervi era un impostore perché tutti gli ufficiali che portavano quel nome erano al loro reggimento o al loro posto fu la sentenza di morte di Galgenstein che venne impiccato come spia a Strasburgo mettetelo nel carro con gli altri disse non appena ebbi ripreso i sensi capitolo sesto il furgone degli arruolatori episodi di vita militare il furgone coperto verso cui mi era stato dato l'ordine di dirigermi era fermo come ho detto nel cortile della fattoria ed aveva vicino un altro sgangherato veicolo della stessa specie l'uno e l'altro erano colmi di una moltitudine di uomini che il crudele ingaggiatore che mi aveva catturato aveva arruolato sotto le bandiere del glorioso Federico potei vedere alla luce delle lanterne delle sentinelle mentre mi gettavano sulla paglia una dozzina di figure nere gettate insieme l'una sull'altra in quella orribile prigione mobile dove ero confinato un grido ed una bestemmia del vicino che mi stava di fronte mi fecero capire che era ferito anche più gravemente di me e durante tutta quella orribile notte i gemiti ed i singhiozzi dei poveri diavoli tenuti nell'identica prigionia facevano un doloroso e ininterrotto coro che mi impedì di cercare nel sonno sollievo dai miei mali a mezzanotte per quello che ne posso giudicare vennero attaccati i cavalli ai furgoni e le scricchiolanti e traballanti macchine si misero in moto un paio di soldati armati fino ai denti erano seduti a cassetta del carro e le loro facce cupe apparivano ogni tanto insieme alle loro lanterne attraverso la cortina di tela quando volevano contare il numero dei prigionieri quei bruti erano mezzo ubriachi e cantavano canzoni di amore e di guerra come o gretchen mein teubchen mein herzen strumpet mein canon mein herrpauk und meine musket prinze eugen der edle ritte e simili le loro grida selvagge e di loro jodel stonavano penosamente con i gemiti di noi altri poveri prigionieri nei furgoni molte volte di poi ho sentito cantare questi motivi in marcia o nelle camerate delle caserme o attorno ai fuochi di notte prima di addormentarmi nonostante tutto però non ero tanto infelice come ero stato al mio primo arruolamento in Irlanda almeno pensavo se sono degradato a semplice soldato non vi sarà nessuno di mia conoscenza testimone della mia vergogna e questo è sempre stato un punto a cui ho dato molta importanza non vi sarebbe stato nessuno a dire ecco il giovane Redmond Berry il discendente dei Berry l'elegante giovanotto di Dublino che si allaccia il cinturone e si trova sotto la naia se non fosse stato per questo rispetto umano per cui è necessario che ogni persona come si deve tratti gli altri in condizione di parità io per parte mia sarei sempre stato contento anche nella posizione più umile ora in quel momento a tutti gli effetti eravamo tanto lontani dal mondo quanto nelle solitudini della Siberia o nell'isola di Robinson Crusoe e tra me e me ragionavo così ora sei stato preso ed è perfettamente inutile lamentarsi sfrutta meglio che puoi la tua situazione e prendine tutti i vantaggi che ne puoi trarre vi sono mille occasioni di saccheggio eccetera che si offrono ad un soldato in tempo di guerra da cui si può ricavare piacere e profitto usane e sta tranquillo oltre a ciò sei intelligente bello e valoroso in maniera straordinaria e chissà che non possa ottenere qualche promozione dal tuo nuovo servizio in questa filosofica maniera consideravo le mie disgrazie ed ero deciso a non farmi sopraffare da esse e sopportavo le ferite e la testa rotta con perfetta grandezza d'animo quest'ultimo però era un male per resistere al quale ci voleva una non scarsa forza di resistenza perché i sobbalzi del furgone erano terribili ed ogni scossa mi provocava una tale palpitazione al cervello che credevo mi stesse per uscire dal cranio quando spuntò il giorno vidi che l'uomo che mi stava accanto un individuo magro e coi capelli gialli vestito di nero aveva un cuscino di paglia sotto la testa sei ferito compagno gli chiesi grazie al signore mi rispose sono stato colpito nel corpo e nello spirito e ammacato in molte membra però non sono ferito e tu povero giovane sono ferito alla testa dissi e voglio il tuo cuscino dammelo ho un coltello a serramanico in tasca mentre dicevo queste parole gli rivolsi un'occhiata terribile volendo dire che a meno che non cedesse alla mia intimazione gli avrei fatto sentire il sapore del mio acciaio volevo infatti fargli capire stai in guardia alla guerra se alla guerra e non sono fatto di pasta frolla te lo avrei dato senza bisogno di minacce amico disse l'uomo dai capelli gialli in tono dolce e mi porse il sacchetto di paglia si piegò all'indietro nel carro il più comodamente che poteva e cominciò a ripetere ein festeburg ist unser got dal che conclusi che ero capitato in compagnia di un parruco i sobbalzi del furgone gli incidenti del viaggio le varie esclamazioni e movimenti dei passeggeri mostravano che razza di compagnia composita eravamo ogni tanto un abitante del paese scoppiava in lacrime si sentiva una voce dire in francese oh mon dieu mon dieu mentre un altro paio di persone della stessa nazionalità proferivano bestemmie e chiacchieravano senza tregua ed una certa allusione agli occhi propri e da quelli degli altri proveniente da un tipaccio robusto in un angolo all'estremità del carro mi fece capire che nel nostro gruppo vi era certamente anche un inglese ma presto mi vennero risparmiate la noia e la fatica del viaggio nonostante il cuscino del pastore urtai violentemente col capo che mi batteva dolorosamente contro una fiancata del furgone e cominciai a sanguinare di nuovo mi sentivo come se avessi la testa vuota mi ricordo solo di aver preso un sorso d'acqua qua e là di essermi fermato una volta in una città fortificata dove un ufficiale ci aveva contati tutto il resto del viaggio lo passai in uno stato di stordimento e di sonnolenza e quando mi risvegliai mi trovai a giacere in un letto di ospedale con una suora in cuffia bianca che mi guardava essi sono in tristi tenebre spirituali disse una voce dal letto accanto al mio quando la suora ebbe finito le sue cortesi occupazioni sono nella notte dell'errore eppure vi è la luce della fede in quelle povere creature era il mio compagno del furgone degli arruolatori la sua faccia larga spuntava sotto il bianco berretto da notte nel letto vicino come anche tu qui Herr Pastor dissi soltanto aspirante pastore rispose il berretto da notte bianco ma sia lodato il cielo finalmente sei tornato in te hai passato delle brutte giornate hai parlato in inglese lingua che conosco bene dell'irlanda e di una signorina e di Mick e di un'altra signorina e di una casa in fiamme e dei granatieri britannici su cui hai cantato parte di una ballata e di una quantità di altre cose riguardanti senza dubbio la tua storia personale è una storia molto strana dissi e forse non c'è uomo al mondo della mia condizione le cui disgrazie possono essere paragonate alle mie non nascondo che sono disposto a vantarmi della mia nascita e delle mie parentele perché ho sempre trovato che se un uomo non cerca di farsi una buona stampa da solo non gliela faranno di certo gli amici va bene rispose il mio compagno di ospedale non ho alcun dubbio che la tua sia una storia strana e sarò lieto di sentirla prima o poi ma per il momento non ti è permesso di parlare molto perché hai avuto la febbre per un pezzo ed il tuo esaurimento è grande dove siamo chiesi l'aspirante parroco mi informò che eravamo nel vescovato e nella città di fulda attualmente occupata dalle truppe del principe enrico vi era stata una scaramuccia con una pattuglia di francesi vicino alla città ed una schioppettata era entrata nel furgone ed il povero aspirante era rimasto ferito poiché il lettore conosce già la mia storia non mi prenderò la pena di ripeterla né di raccontare quelle fantasiose aggiunte che elargì al mio compagno di sventura ma confesso di avergli detto che la nostra era la più grande famiglia di Irlanda che avevamo il più bel palazzo che eravamo enormemente ricchi imparentati a tutta l'alta nobiltà che discendevamo dagli antichi re eccetera e con mia sorpresa mi accorsi che il mio interlocutore conosceva molte più cose di me sull'Irlanda quando per esempio parlai della mia discendenza da quale stirpe di re mi chiese oh risposi io che non ho mai avuto una memoria molto precisa per le date dai re più antichi di tutti come potete ricostruire il vostro albero genealogico fino ai figli di Japheth certo che lo posso risposi io ed anche più su fino a Nabucodonosor se volete capisco disse il bravo uomo sorridendo che voi considerate queste vecchie leggende con incredulità questi partolani e nemediani di cui i vostri scrittori fanno menzione volentieri non possono certamente essere considerati appartenenti alla storia vera e propria ne credo che i racconti che li concernono abbiano maggior fondamento delle leggende relative a Giuseppe di Arimatea e dal re Bruto che prevalse due secoli dopo nell'isola sorella e a questo punto cominciò un discorso sui Fenici gli Sciti ed i Goti i Tuath di Danan Tacito ed il re MacNeil e queste furono a voler dire la verità le prime notizie che ebbi sul conto di questi personaggi quanto all'inglese lo parlava bene come me ed era padrone così mi disse di altre sette lingue perché avendo citato il solito verso latino che sapevo quello del poeta Omero che dice as in presenti perfectum fumat in avi cominciò a parlarmi nella lingua dei romani ed in conseguenza fui costretto a dirgli che noi in Irlanda la pronunciavamo in modo diverso e così terminammo la conversazione la storia di quel mio bravo amico era curiosa ed è necessario raccontarla per mostrare di quale composito materiale le nostre leve fossero formate sono mi disse sassone di nascita e mio padre era pastore nel villaggio di Pfannkuchen dove appresi i primi rudimenti del sapere a 16 anni ora ne ho 23 conoscevo sulla punta teletita le lingue creca e latina col francese l'inglese l'arabo e l'ebraico ed essendo venuto in possesso di un legato di 100 risdalleri somma di gran lunga sufficiente a pagare i miei corsi universitari andai alla famosa accademia di Göttingen dove dedicai quattro anni allo studio delle scienze esatte e della teologia imparai per di più quelle raffinatezze di vita montana che sono necessarie presi un maestro di danza al prezzo di un Groschen a lezione segui un corso di scherma da un esperto francese e corsi di alta equitazione da un celebre maestro nell'arte del cavalcare penso che un uomo deve conoscere tutto per quel che è in suo potere che dovrebbe completare il suo ciclo di esperienze ed una scienza essendo necessaria quanto un'altra è necessario che secondo le sue possibilità si impratichisca di tutte confesso di essermi trovato disadato a molti rami di cultura umanistica in quanto distinta da quella spirituale benché non sia del parere che questa distinzione sia sempre corretta provai a ballare sulla corda con un artista boemo che era venuto alla nostra accademia ma in queste esperimento fallì essendomi rotto in malo modo il naso in una caduta che feci provai anche a guidare un tiro a quattro che uno studente inglese Herr Graf Lord von Martingale aveva portato all'università ma anche in questo esperimento fallì e dinanzi alla porta opposta al Berliner Gate rovesciai la carrozza con dentro l'amica di sua signoria Fraulein Miss Kitty Codlins sta votando lezioni di lingua tedesca al giovane Lord quando accade questo incidente e lui in conseguenza mi licenziò i miei mezzi non mi permettevano più di continuare questo curriculum mi perdonerete il gioco di parole altrimenti senza dubbio sarei presto stato in grado di occupare un posto in qualsiasi ipodromo del mondo e di reggere le redini come era solito dire quell'ord di elevata nascita alla perfezione all'università discussi una tesi sulla quadratura del circolo che credo vi avrebbe interessato e sosteni una disputa in arabo contro il professor Stumpf in cui si disse che io avevo avuto la meglio conoscevo naturalmente le lingue dell'Europa meridionale e per una persona che abbia buone basi di sanscrito le lingue del nord non presentano alcuna difficoltà se vi siete mai cimentato con lo russo avrete visto anche voi che si tratta di un gioco da ragazzi ed è sempre stato per me motivo di rimpianto di non aver potuto acquistare una più profonda conoscenza del cinese per poterlo parlare e per risolvere il problema che avevo deciso di passare in Inghilterra e di imbarcarmi su una delle navi della compagnia inglese che vanno a Canton non sono per mio carattere un risparmiatore così che il mio piccolo patrimonio di cento ristalleri che avrebbe servito a mantenere per una ventina d'anni una persona prudente bastò appena per cinque anni di studio dopodiché i miei studi furono interrotti i miei allievi se ne antarono e fui costretto a dedicare la maggior parte del mio tempo a risuolare le scarpe per risparmiare denaro e poter poi riprendere in futuro i miei corsi accatemici durante questo periodo fui preso d'affetto qui l'aspirante parroco sospirò un poco per una persona che benché non fosse pella ed avesse l'età di 40 anni mi ispirava una profonda simpatia ed un mese dopo il mio buon amico e protettore il vice retore dell'università dottor Nasenbrum mi informò che il parroco T. Rumpelwitz era morto e mi chiese se avessi voglia di recitare un sermone di prova poiché questo modo di guadagnarmi la vita avrebbe accelerato la mia unione con Amalia acconsentì di gran cuore e preparai il discorso se volete ve lo posso recitare no? e confiterò soltanto il riassunto della esposizione in generale per continuare però il racconto della mia vita che è ora molto vicina alla conclusione o come dovrei dire più correttamente che è quasi giunta all'attuale periodo vi dirò che predicai quel sermone a Rumpelwitz e credo di aver messo a punto in maniera abbastanza soddisfacente la questione babilonese predicai di fronte al Herr Baron e dalla sua nobile famiglia ed alcuni distinti funzionari che abitavano il suo castello maister dottor Moser di Halle fece il suo discorso dopo il mio la sera ma per quanto la sua esercitazione fosse totta e facesse uso di un passo di Ignazio che dimostrò di essere un'evidente interpolazione non credo che il suo sermone abbia avuto tanto successo quanto ne aveva avuto il mio né che i Rumpelwitzesi lo gradissero altrettanto dopo il sermone tutti noi candidati parrucici diricemmo insieme alla chiesa a Rumpelwitz e pranziamo all'ecramente al cervo azzurro mentre eravamo così occupati entrò un cameriere e mi disse che una persona lì fuori voleva parlare ad uno dei reverendi a quello alto questa frase poteva riferirsi soltanto a me perché la mia testa superava le spalle di tutti gli altri reverendi signori presenti uscii fuori per vedere chi era la persona che desiderava parlare con me e trovai un uomo che non ebbe difficoltà a riconoscere come appartenente alla religione ebraica signore mi disse l'ebreo ho sentito da un amico che era oggi nella vostra chiesa i punti principali dell'amirevole discorso che avete l'ha pronunciato mi ha colpito profondamente molto profondamente vi sono però ancora un paio di punti su cui sono in dubbio e se vostro onore volesse avere la condiscendenza di illuminarmi su quelli credo credo che Salomon Hirsch si farebbe convertire dalla vostra eloquenza quali sono questi punti mio buon amico gli chiesi e gli esposi i ventiquattro capi del mio sermone chiedendogli su quale di essi verdevano i suoi tubi avevamo camminato su e giù davanti all'albergo mentre aveva luogo la nostra conversazione ma siccome le finestre erano aperte e i miei compagni avevano già sentito il discorso la mattina mi chiesero con una certa insistenza di non ripeterlo proprio in quel punto io quindi mi allontanai col mio discepolo e a sua richiesta cominciai da capo il sermone perché la mia memoria è abbastanza buona e sono in grado di ripetere qualsiasi libro che abbia letto tre volte ripetei allora sotto gli alberi nella calma luce della luna quel discorso che avevo pronunciato sotto il bruciante sole di mezzogiorno il mio israelita mi interrompeva soltanto con esclamazioni che indicavano sorpresa assenso meraviglia ammirazione e convinzioni crescenti prodigioso diceva wunderschön osservava la conclusione di qualche passo eloquente in una parola esaurì tutte le interiezioni laudative che esistono nella nostra lingua e quale uomo si rifiuta di accettare i complimenti credo che avevamo camminato per tu Emilia quando giunsi al terzo capo ed il mio compagno mi pregò di entrare in casa sua alla quale noi eravamo ora vicini e di prendere un bicchiere di birra altra cosa alla quale non sono mai contrario quella casa amico mio era l'albergo in cui anche tu sei giudico giusto sei stato preso non appena entrai in quel luogo tre arruolatori mi si cetarono addosso mi dissero che ero un disertore e che ero loro prigioniero e mi imposero di consegnare loro le mie carte ed il mio denaro ciò che io feci pur dichiarando solenemente il mio carattere sacro i miei peni consistevano nel manoscritto del mio sermone in una lettera di raccomandazione del pro-rettore Nasenbrun che attestava la mia identità ed in tre groschen e quattro pennings di rame stavo già nel caro da venti ore quando anche tu sei arrivato in quella casa l'ufficiale francese che ti sta di fronte e che ha strilato quando gli hai pestato il piede perché era ferito venne portato poco prima del tuo arrivo era stato preso con le spaline e l'uniforme ed aveva dichiarato il suo grado e qualità ma era solo credo avesse qualche intrigo amoroso con una signora assiana e che per questo fosse appunto andato a girellare senza scorta e siccome alle persone nelle cui mani era caduto una recluta era più utile di un prigioniero fu costretto a condividere il nostro destino non è il primo delle molte decine che sono state catturate così uno dei cuochi di Messie de Soubise tre attori di una compagnia che stava al campo francese molti disertori delle truppe inglesi uomini che sono fuciti perché è stato loro tetto che al servizio della Prussia non si usava la fustigazione e tre olandesi sono stati pure presi e tu dissi io che eri sul punto di cominciare una vita come si deve che hai tanta cultura non sei indignato per questo oltraggio sono sassone rispose il candidato e non credo che serva a nulla indignarsi il nostro governo è stato schiacciato in questi cinque anni sotto il tallone di Federico e potrei forse sperare maggiore pietà del gran mogol del resto a voler dire la verità non sono scontento della mia sorte ho vissuto per tanti anni con un soldo di pane che la razione del soldato mi sembra un lusso non mi importa di ricevere più o meno colpi di pastone tutti questi mali sono passeggeri e di conseguenza sopportabili non ucciderò mai con l'aiuto di tio nessuno in combattimento ma sono ansioso di sperimentare su me stesso gli effetti della passione della guerra che ha avuto un'influenza così grande sulla razza umana per una ragione analoga ero deciso a sposare Amalia perché un uomo non è un completo mensch se non è padre di famiglia essere tale è una condizione della sua esistenza e quindi un tovere della sua educazione ma Amalia può aspettare e al riparo dal bisogno in realtà essendo cuoca della frau Protectorin Nasembrum la sposa del mio degno patrono ho con me un paio di libri che nessuno ha pensato di portarmi via ed un altro nel mio cuore che è il più bello di tutti se il cielo vorrà che finisca la mia esistenza qui prima che possa proseguire i miei studi che motivo ho di lamentarmi prego Dio di non sbagliarmi ma credo di non aver fatto male a nessuno e di non aver commesso alcun peccato mortale se ne ho so dove guardare per trovare perdono e se muoio come ho detto senza sapere tutto quello che avrei desiderato imparare non mi troverò in condizione di imparare tutto e cosa può desiderare di più un'anima umana scusa se ho fatto uso troppe volte della parola io nel mio discorso concluse l'aspirante pastore ma quando si parla di se stessi questa è la maniera più breve e più semplice di parlare in questo forse benché io odi l'egocentrismo ritengo che il mio amico avesse ragione benché avesse dichiarato di essere un individuo con poco spirito con nessun'altra ambizione tranne quella di conoscere il contenuto di pochi libri ammuffiti credo che quell'uomo avesse in sé molti elementi buoni specialmente la fermezza con cui sopportava le sue disgrazie molti di grandissimo coraggio sono spesso senza difesa contro di esse ed è noto che si danno alla disperazione per un pranzo riuscito male o si abbattono per una giacca strappata ai gomiti la mia massima è di sopportare tutto di contentarsi dell'acqua se non si può avere il borgogna e se non c'è il velluto a pagarsi della lana più ordinaria ma il borgogna ed il velluto sono migliori bien entendu ed è sciocco quell'uomo che non prende il meglio quando la lotta è aperta tuttavia i capi del sermone che il mio amico teologo aveva l'intenzione di infliggermi non vennero mai recitati poiché subito dopo la nostra uscita dall'ospedale egli venne spedito ad un reggimento accantonato il più lontano possibile dalla sua terra nativa in pomerania mentre io venne destinato al reggimento di biulov che aveva il suo quartier generale a berlino i reggimenti prussiani cambiano di rado le loro guarnigioni come fanno i nostri perché la paura delle diserzioni è tanto grande che è necessario conoscere personalmente tutti gli individui in servizio ed in tempo di pace gli uomini vivono e muoiono nella stessa città questo non aumenta come si può facilmente immaginare i divertimenti della vita del soldato dico queste cose per paura che qualche giovane gentiluomo come me sia preso dalla fantasia della vita militare ritenendo che la vita del semplice soldato sia sopportabile e spero che queste parole rappresentino la esatta descrizione delle sofferenze morali di noi altri poveri diavoli nei ranghi non appena fummo guariti venimmo allontanati dalle suore e dall'ospedale e inviati alla città prigione di Fulda dove fummo trattati come schiavi e criminali con gli artiglieri con le micce accese alle porte dei cortili e dei grandi dormitori scuri dove giacevano centinaia di noi finché non erano spediti alle varie destinazioni si vide presto all'istruzione quali erano tra noi i vecchi soldati e quali le reclute e per i primi mentre stavamo in prigione vi fu un po' più di tolleranza benché se possibile la sorveglianza fosse ancora maggiore su quei disgraziati dall'anima infranta che erano stati costretti o indotti ad arruolarsi nel servizio militare per descrivere i tipi riuniti qui ci vorrebbe la matita di M. Gilrai vi erano uomini di tutte le nazioni e condizioni gli inglesi facevano il pugilato e si comportavano da padroni i francesi giocavano a carte ballavano e tiravano di scherma i pesanti tedeschi fumavano la pipa e bevevano birra se riuscivano a procurarsela quelli che avevano qualche cosa da rischiare giocavano ed in questi giochi io fui abbastanza fortunato perché pur non avendo un soldo quando ero entrato al deposito ero stato derubato fino all'ultimo soldo della mia proprietà da quei mascalzoni di reclutatori vinsi quasi un dollaro alla prima partita a carte con uno dei francesi che non aveva pensato a chiedermi se avrei potuto pagare in caso di sconfitta questo è almeno il vantaggio di avere un aspetto da gentiluomo tale aspetto infatti mi ha salvato molte volte procurandomi credito quando la mia fortuna era al suo livello più basso fra i francesi vi era uno splendido uomo e valoroso soldato il cui vero nome nessuno seppe mai ma la cui ultima storia fece non poca sensazione quando fu conosciuta nell'esercito prussiano se bellezza e coraggio sono indizi di nobiltà benché abbia visto molti brutti come cani e grandissimi vigliacchi nel mondo della noblesse questo francese doveva avere appartenuto ad una delle più grandi famiglie di Francia tanto splendido e nobile era il suo modo di fare e tanto superba la sua persona era alto un po' meno di me biondo mentre io sono Bruno e se possibile era anche più di me largo di spalle era il solo uomo che abbia incontrato che potesse battermi al fioretto con cui mi colpì quattro volte contro tre alla sciabola però avrei potuto farlo a pezzi e sapevo saltare meglio in lungo e portare pesi maggiori di lui ma questo però è egocentrismo questo francese con cui mi legai in intima amicizia perché in realtà eravamo i due cucchi del deposito e nessuno dei due aveva sentimenti di bassa gelosia veniva chiamato in mancanza di un nome migliore Leblondin a causa della sua carnagione non era un disertore ma era venuto dal bassoreno e dai vescovati così almeno credo la fortuna gli era stata contraria al gioco e altri mezzi di esistenza gli erano stati negati credo che al suo paese lo aspettasse la bastiglia se fosse venuta la fantasia di tornarvi aveva una passione in consulta per il gioco e per l'alcol e così avevamo l'uno per l'altro una grande simpatia ma quando era eccitato dall'uno o dall'altro faceva paura io per parte mia posso sopportare senza batter ciglio sia la sfortuna nel gioco che il vino per conseguenza avevo su di lui un notevole vantaggio nelle nostre partite e gli vincevo denaro a sufficienza per poter sostenere la mia posizione aveva fuori dalla caserma una moglie che lo dico in confidenza era la causa delle sue disgrazie e della separazione della sua famiglia ed essa aveva l'abitudine di venirlo a trovare due o tre volte la settimana e non veniva mai a mani vuote era una donnina piccola con gli occhi lucenti le cui occhiate avevano fatto girare la testa a tutti quell'uomo era inquadrato in un reggimento che era accantonato a Nis in Slesia che è soltanto a breve distanza dalla frontiera austriaca conservava sempre il suo prestigio per il suo carattere e la sua intelligenza ed era il capo della repubblica segreta del reggimento che esiste sempre a fianco della regolare gerarchia militare era un soldato ammirevole come ho detto ma prepotente dissoluto ed ubriacone un uomo di questo tipo salvo che non abbia cura di adulare e lusingare gli ufficiali cosa che io facevo sempre è certo di incontrare la loro antipatia il nostro capitano infatti era il peggior nemico di Leblondin e le sue punizioni erano frequenti e severe sua moglie e le donne del reggimento questo avveniva dopo la pace avevano l'abitudine di fare un piccolo commercio di contrabbando attraverso la frontiera austriaca e sul loro traffico si chiudeva un occhio sia dall'una che dall'altra parte obbedendo agli ordini di suo marito questa donna da ognuna delle sue escursioni portava indietro una piccola quantità di polvere e palle roba che non viene distribuita ai soldati prussiani e che doveva essere conservata in un luogo segreto fino al momento del bisogno ma dovevano averne bisogno ed anche presto Leblondin aveva organizzato una grande straordinaria congiura non sapevamo fin dove arrivasse né quante centinaia o migliaia di persone comprendesse tra noi soldati però si raccontavano strane storie intorno a questo complotto perché la voce si spargeva di guarnigione in guarnigione nonostante tutti gli sforzi del governo per farla tacere davvero fatela tacere sono stato anch'io uno del popolo ho visto la ribellione irlandese e conosco bene la massoneria dei poveri era divenuto lui in persona il capo del complotto non teneva però né documenti scritti né lettere nessuno dei cospiratori comunicava con gli altri se non per tramite del francese ma lui personalmente dava i suoi ordini a tutti aveva stabilito che la ribellione generale della guarnigione avvenisse alle dodici precise di un giorno determinato i posti di guardia della città dovevano essere occupati le sentinelle fatte a pezzi e chissà il resto alcuni dei nostri dicevano che la cospirazione aveva ramificazioni in tutta la Slesia e che le Blondin sarebbe stato fatto generale al servizio dell'Austria alle dodici di fronte al posto di guardia della Bömer Torre di Nice una trentina di uomini oziavano senza essersi neppure completamente vestiti e il francese stava vicino alla sentinella del posto di guardia ed affilava un'accetta col manico di legno su una pietra quando batterono le dodici si alzò spaccò la testa della sentinella con un colpo d'ascia e i trenta uomini si precipitarono nel corpo di guardia si impadronirono delle armi che c'erano e si diressero tutti insieme verso la porta la sentinella cercò di abbassare la sbarra ma il francese si precipitò su di essa e con un altro colpo d'ascia le tagliò la mano con cui teneva la catena vedendo un gruppo di uomini che uscivano armati gli uomini di guardia che stavano fuori dalla porta si precipitarono in mezzo alla strada per impedire loro il passaggio ma i trenta uomini del francese spararono una raffica e li caricarono alla baionetta alcuni caddero altri fuggirono e di trenta passarono la frontiera è soltanto ad una lega da Nisse ed essi vi si diressero rapidamente ma in città era stato dato l'allarme e ciò che compromise tutto fu il fatto che l'orologio su cui si era regolato il francese andava un quarto d'ora avanti sugli orologi della città venne battuta la donata generale le truppe furono chiamate alle armi e così gli uomini che avrebbero dovuto attaccare gli altri posti di guardia furono obbligati a rientrare nei ranghi ed il loro progetto fallì questo fatto però rese dal pari impossibile la scoperta dei cospiratori perché nessuno poteva tradire il suo compagno senza naturalmente dichiararsi anche egli colpevole la cavalleria venne lanciata all'inseguimento del francese e dei trenta fuggiaschi che nel frattempo avevano fatto molto cammino verso la frontiera boema quando i cavalli li raggiunsero si voltarono li accolsero con una scarica e con la baionetta e li respinsero gli austriaci erano fuori dalle barriere e guardavano il conflitto con grande interesse le donne che erano anch'esse in attesa portarono altre munizioni a questi intrepidi disertori ed essi resistettero ai dragoni e li respinsero parecchie volte ma in questi epici ed inutili combattimenti si era perduto molto tempo così che arrivò alla fine un battaglione e circondò quei trenta valorosi allora il destino di quei poveri diavoli fu deciso combatterono con la furia della disperazione nessuno di loro domandò la resa quando le munizioni furono finite combatterono all'arma bianca e furono tutti colpiti di palla o di baionetta nel punto in cui stavano il francese fu l'ultimo ad essere colpito ricevette una palla nel fianco e cadde ed in queste condizioni venne sopraffatto dopo che aveva ucciso l'ufficiale che si era fatto avanti per primo per arrestarlo lui e di pochissimi tra i suoi compagni che erano sopravvissuti vennero riportati a Nice ed egli come capo e distigatore dell'ammutinamento venne portato di fronte ad un consiglio di guerra rifiutò di rispondere a tutte le domande che gli furono fatte sul suo vero nome e la sua famiglia cosa importa sapere chi sono disse mi avete preso e mi fucile rete il mio nome non mi salverebbe anche se fosse un nome illustre nello stesso modo rifiutò di fare qualsiasi rivelazione sul complotto è tutta opera mia disse ognuno di quelli che avevo ingaggiato conosceva soltanto me ed ignorava tutti gli altri suoi compagni il segreto è solo mio e morirà con me quando gli ufficiali gli chiesero quale era la ragione che lo aveva indotto ad organizzare un delitto così orrendo rispose sono state la vostra infernale brutalità e tirannia siete tutti mascellai delinquenti tigri e dovete soltanto alla vigliaccheria dei vostri uomini di non essere già stati assassinati da un pezzo a questo punto il suo capitano esplose nelle più furiose imprecazioni contro il ferito e precipitandosi su di lui gli diede un forte colpo col pugno ma Leblondin nonostante che fosse ferito si impadronì della baionetta di uno dei soldati che lo sostenevano e la immerse nel petto dell'ufficiale mascalzone carogna esclamò avrò avuto almeno la consolazione di mandarti all'inferno prima di morire venne fucilato quello stesso giorno dichiarò di voler scrivere al re se gli ufficiali acconsentivano a rimettere la sua lettera sigillata nelle mani del mastro di posta ma essi ebbero senza dubbio paura che egli raccontasse qualche cosa che li mettesse in colpa e rifiutarono di dargli il permesso ma nel successivo rapporto Federico li trattò si disse con grande severità e li rimproverò per non avere esaudito la richiesta del francese però siccome era interesse del re mettere a tacere la cosa come ho detto prima non se ne parlo più non se ne parlo più ma centomila soldati dell'esercito lo sapevano e più di uno di noi brindò alla memoria del francese come a quella di un martire della causa del soldato vi sarà senza dubbio qualche lettore che si scandalizzerà di tutto questo dicendo che incoraggio la insubordinazione e faccio l'apologia dell'assassinio se questi lettori avessero fatto servizio come soldati semplici dal 1760 al 1765 non si sentirebbero autorizzati a fare alcuna obiezione quell'uomo uccise due sentinelle per riconquistare la libertà ma quante centinaia di migliaia di suoi sudditi e di austriaci fece uccidere il re Federico perché gli era preso il capriccio della Slesia era stata la maledetta tirannia del suo sistema ad affilare l'ascia che aveva accoppato le sentinelle di Nis e così gli ufficiali dall'ora in poi stettero in guardia e ci pensarono un po' di più prima di far sentire a quei poveri diavoli il loro bastone potrei raccontare molte storie sull'esercito ma essendo stato io stesso soldato tutte le mie simpatie sono per la truppa e senza dubbio si direbbe che i miei discorsi hanno tendenze immorali e farò quindi meglio ad essere breve pensate alla mia sorpresa mentre ero al deposito quando un giorno sento risuonare al mio orecchio una voce ben nota e sento un gentiluomo magro che veniva portato dentro da un paio di soldati e che aveva ricevuto alcune staffilate sulle spalle da uno di loro dire in un buon inglese tu farabutto infernale mi vendicherò di tutto questo scriverò al mio ambasciatore quanto è vero che mi chiamo Feikenham di Feikenham a queste parole scoppiai a ridere era il mio vecchio amico nella mia vecchia giubba da caporale Lyshen aveva giurato onestamente che lui era davvero e per certo un soldato ed il povero diavolo era stato portato via ed era stato trasformato in un soldato come noi ma io non sono maligno di carattere e dopo aver fatto ridere tutta la camerata con la storia del modo in cui avevo ingannato quel povero diavolo gli diedi un consiglio che gli fece ottenere la libertà andate dall'ufficiale di ispezione gli dissi una volta che vi abbiano arruolato nell'esercito prussiano è finita per voi non vi libererete mai più andate subito dal comandante del deposito promettetegli cento cinquecento guinee per essere messo in libertà ditegli che il capitano arruolatore ha le vostre carte ed il vostro portafoglio e questo è vero soprattutto dimostrategli che avete il mezzo di pagare il denaro che gli avete promesso e vi garantisco che sarete libero fece come gli avevo consigliato e quando ci mettemmo in marcia mister Fakenham trovò il mezzo di farsi ricoverare in ospedale e mentre era all'ospedale la questione fu sistemata nel modo che avevo raccomandato tuttavia era stato sul punto di perdere la libertà per la sua tirchieria nel mercanteggiare e non dimostrò mai la minima gratitudine verso di me suo benefattore non voglio fare alcun romantico racconto della guerra dei sette anni alla fine della guerra l'esercito prussiano tanto rinomato per il suo disciplinato valore aveva come ufficiali e sotto ufficiali dei nativi della Prussia è vero ma era composto per la maggior parte da uomini arruolati o rapiti come me da quasi tutte le nazioni d'Europa il numero di disertori dall'una e dall'altra parte era enorme soltanto nel mio reggimento quello di Biulov prima della guerra vi erano non meno di 600 francesi e mentre marciavano fuori di Berlino per la campagna uno di quegli individui aveva un vecchio piffero su cui suonava una canzone francese ed i suoi compagni ballavano piuttosto che camminare dietro di lui cantando Nous allons en France due anni dopo quando ritornarono a Berlino erano rimasti soltanto sei uomini di quelli che erano partiti in origine gli altri avevano disertato o erano morti in combattimento la vita che conduceva il soldato semplice era spaventosa per qualsiasi persona che non avesse coraggio e resistenza di ferro ogni tre uomini vi era un caporale che marciava dietro di loro ed usava senza pietà il bastone così che si era soliti dire che in combattimento vi fosse una prima riga di soldati ed una seconda riga di caporali e di sergenti che li mandavano avanti molti uomini si davano a spaventosi atti di disperazione dopo queste incessanti persecuzioni e torture ed in molti reggimenti dell'esercito si era diffusa una consuetudine orribile che per qualche tempo procurò al governo gravi preoccupazioni era lo strano ed orribile rito della uccisione dei bambini gli uomini avevano l'abitudine di dire che la vita era insopportabile ma che il suicidio era un delitto per evitarlo e farla finita con la insopportabile tristezza della loro condizione il piano migliore era di uccidere un bambino piccolo che era innocente e quindi sicuro di andare in cielo e così si consideravano liberi della colpa dell'omicidio il re stesso l'eroe saggio e filosofo il principe che aveva sempre la liberalità sulle labbra e affettava orrore per la pena di morte si spaventò di questa tremenda protesta contro la sua mostruosa tirannia da parte dei disgraziati che aveva rapito ma il solo mezzo che trovò per rimediare a questo male fu di proibire severamente che questi criminali fossero assistiti da un ecclesiastico di qualsiasi confessione e di negare loro ogni conforto religioso i castighi erano incessanti ogni ufficiale aveva la facoltà di infliggerli ed in pace erano anche più crudeli che in guerra infatti quando venne la pace il re compì l'epurazione di tutti gli ufficiali che non erano nobili quali che fossero stati i loro servizi chiamava un capitano di fronte alla sua compagnia e diceva non è nobile mandatelo via avevamo paura di lui però e stavamo di fronte a lui come bestie selvagge di fronte al domatore ho visto gli uomini più valorosi dell'esercito piangere come bambini sotto i colpi della verga ho visto un sottotenentino di 15 anni chiamare fuori dalle righe un uomo di 50 un uomo che era stato in cento battaglie che rimase lì presentando le armi piangendo ed urlando come un bambino mentre quel mascalzoncello lo colpiva sulle braccia e sulle gambe con la verga in un giorno di combattimento quell'uomo avrebbe osato qualsiasi cosa allora poteva anche avere i bottoni storti e nessuno se ne incaricava ma quando lo avevano fatto lottare come una bestia selvaggia lo frustavano per insubordinazione quasi tutti fra noi urlavano a perdifiato e quasi nessuno poteva sopportare la punizione l'ufficiale francese di cui vi ho parlato e che era stato preso con me era nella mia compagnia e venne fustigato come un cane lo incontrai a Versailles vent'anni dopo e diventò pallido come se si sentisse male quando gli parlai di quei tempi lontani per l'amor di Dio disse non mi parlate di quel periodo anche ora qualche volta mi sveglio tremando e piangendo per quel che mi riguarda dopo un breve periodo in cui debbo confessarlo gustai anch'io il bastone come i miei compagni dopo che ebbi avuto occasione di mostrarmi soldato valoroso ed abile scelsi il sistema che avevo già adottato nell'esercito inglese per impedire altre umiliazioni di carattere personale mi legai una pallottola intorno al collo e non mi diedi la pena di nasconderla e dichiarai che sarebbe stata per l'uomo o per l'ufficiale che mi avesse fatto punire e vi era nel mio aspetto qualche cosa che lo fece credere ai miei superiori perché la pallottola mi era già servita per uccidere un colonnello austriaco e l'avrei elargita ad un prussiano senza alcun rimorso che cosa mi importava delle loro liti o se l'aquila sotto cui marciavo aveva una testa sola o due tutto quello che dissi fu nessuno troverà che manco al mio dovere ma nessuno mai deve alzare la mano su di me e mi attenni a questo concetto finché rimasi in servizio non ho intenzione di fare la storia delle battaglie della prussia più di quanto ne abbia avuta di fare quelle sostenute al servizio dell'inghilterra feci il mio dovere in queste come in quelle e nel frattempo i miei baffi erano cresciuti in modo da raggiungere una lunghezza decente così che io a vent'anni se non ero il più valoroso il più intelligente ed il più bel soldato dell'esercito prussiano ero debbo confessarlo il più briccone mi ero abituato alle condizioni dell'animale da combattimento il giorno della battaglia ero selvaggio e felice fuori del campo mi prendevo tutte le soddisfazioni che potevo e non ero troppo schizzinoso sul modo di procurarmele la verità però è che tra noi vi era un tono sociale un po' più elevato che tra quegli stupidi idioti dell'esercito inglese ed il nostro servizio era di solito tanto rigido che ci lasciava poco tempo per fare baldoria io che sono molto bruno e di carnagione scura venivo chiamato dai miei compagni l'inglese nero o Schwarzer Engländer o anche il diavolo inglese se c'era da fare qualche servizio ero certo che toccava a me ottenevo frequenti gratifiche in denaro ma nessuna promozione ed il giorno dopo a quello in cui avevo ucciso il colonnello austriaco un enorme ufficiale degli ulani che avevo attaccato da solo e a piedi il generale Byulov comandante del mio reggimento mi diede due federici d'oro davanti alla truppa schierata e mi disse ora ti do questa ricompensa ma temo che ti farai impiccare un giorno o l'altro spesi quel denaro e quello che avevo trovato sul corpo del colonnello fino all'ultimo Groschen quella sera stessa con alcuni allegri compagni e fino a quando la guerra finì non fui mai senza almeno un dollaro nella borsa capitolo settimo Barry conduce vita di guarnigione e vi trova molti amici dopo la guerra il nostro reggimento fu accantonato nella capitale la meno noiosa forse di tutte le città della Prussia il che non significa che fosse allegra il nostro servizio sempre duro ci lasciava ogni giorno poche ore libere in cui potevamo prendere qualche svago se avevamo i mezzi per pagarcelo molti dei nostri andavano a lavorare in mestieri manuali ma a me non capitò nessuna occasione del genere e per di più il mio onore me lo avrebbe impedito perché essendo un gentiluomo non avrei potuto sporcarmi le mani con un'occupazione servile ma la nostra paga era appena sufficiente a impedirci di morire di fame e siccome ho sempre avuto molta voglia di divertirmi e la situazione in cui ci trovavamo ora nel cuore della capitale ci impediva di ricorrere all'espediente di levar tributi solito in tempo di guerra fui costretto ad adottare il solo mezzo che mi fosse rimasto per provvedere alle mie spese in una parola divenni l'ordonanz o meglio il gentiluomo militare di fiducia del mio capitano avevo respinto quest'offerta quattro anni prima quando mi era stata fatta mentre ero al servizio dell'Inghilterra ma in un paese straniero è tutt'altro affare e poi a dire la verità dopo cinque anni di servizio militare l'orgoglio di un uomo si sottomette a mortificazioni che gli riuscirebbero intollerabili in libertà il capitano era un giovanotto che si era distinto durante la guerra altrimenti non sarebbe stato promosso a quel grado tanto presto era per di più nipote ed erede del ministro della polizia il signor de Potsdorf parentela che senza dubbio aveva favorito la promozione di quel giovane gentiluomo il capitano de Potsdorf era un ufficiale abbastanza severo nelle riviste ed in caserma ma era persona molto suscettibile all'adulazione me lo cattivai anzitutto per il modo in cui gli annodavo i capelli a coda ed in realtà era il meglio vestito di tutto il reggimento ed in seguito ottenne la sua fiducia con mille piccole astuzie e complimenti che da gentiluomo par mio sapevo sempre come impiegare era un buon tempone e si dava alla bella vita assai più apertamente di molti di coloro che stavano nella monotona corte del re era generoso non badava alla borsa ed aveva un grande affetto per il vino del Reno tutte qualità che sinceramente condividevo e dalle quali naturalmente traevo profitto non era molto amato al reggimento perché si riteneva che avesse relazioni troppo intime con lo zio ministro della polizia a cui si diceva riferiva tutte le notizie del corpo ben presto entrai nelle grazie dell'ufficiale e venni a conoscenza della maggior parte dei suoi affari così mi vennero risparmiate molte istruzioni e parate di cui altrimenti nessuno mi avrebbe alleggerito ed ottenni un gran numero di guadagni occasionali che mi permisero di fare buona figura e di comparire con un certo eclat in una certa sebbene debbo confessarlo molto umile società di Berlino ero sempre uno speciale favorito delle signore ed il mio modo di fare con loro era tanto cortese che non si capacitavano come avessi ottenuto al reggimento lo spaventoso soprannome di diavolo nero non è tanto nero come lo si dipinge dicevo ridendo e la maggior parte delle signore erano d'accordo nel riconoscere che il soldato era bene educato almeno quanto il capitano e come avrebbe potuto essere altrimenti tenendo conto della mia educazione e della mia nascita quando fui entrato a sufficienza nelle sue grazie gli chiesi il permesso di scrivere una lettera in Irlanda alla mia povera madre non le avevo dato mie notizie da molti anni infatti le lettere dei soldati stranieri non venivano mai accettate dalla posta per timore di richiami e di seccature da parte dei loro parenti all'estero il capitano mi promise di trovare il modo di spedire la lettera e siccome sapevo che l'avrebbe aperta ebbi cura di dargliela non sigillata mostrando così la mia fiducia in lui ma la lettera come potete immaginare era scritta in modo che nessun danno poteva venire a colui che l'aveva scritta nel caso che fosse stata intercettata chiedevo perdono alla mia onorevole madre per essere fuggito di casa dicevo che sapevo bene che le stravaganze e la follia di cui avevo dato prova nel paese natio rendevano impossibile il mio ritorno colà ma ella però doveva esser lieta di sapere che stavo bene e che ero felice al servizio del più grande monarca del mondo e che la vita del soldato era molto piacevole aggiunsi che avevo trovato un benevolo protettore e patrono e che speravo che un giorno o l'altro egli avrebbe fatto qualche cosa per me benché sapessi bene che non era in condizione di far niente la pregavo di ricordarmi a tutte le ragazze di Castle Brady e le nominai tutte da Biddy a Becky e mi firmai come in verità ero il suo affezionato figlio Redmond Berry della compagnia del capitano Potsdorf del reggimento di fanteria Biulovic di guarnigione a Berlino le raccontai anche una storiella divertente del re che aveva fatto rotolare a calci il cancelliere e tre giudici giù per le scale come lo avevo visto fare un giorno in cui ero di guardia a Potsdam e le dissi che speravo che presto ci fosse un'altra guerra durante la quale avrei potuto essere promosso ufficiale dalla mia lettera avreste potuto credere che fossi l'individuo più felice del mondo e non ero affatto dispiacente di ingannare su questo punto la mia buona genitrice ero sicuro che la mia lettera sarebbe stata letta ed infatti il capitano Potsdorf cominciò a farmi domande qualche giorno dopo sulla mia famiglia ed io tutto considerato gli raccontai le cose con sufficiente esattezza ero il cadetto di una buona famiglia ma mia madre era quasi rovinata ed aveva appena abbastanza da mantenere le mie otto sorelle che avevo nominato alla lettera ero stato a studiare legge a Dublino dove mi ero ingolfato nei debiti e nelle cattive compagnie avevo ucciso un uomo in duello e sarei stato impiccato o fatto mettere in prigione dai suoi potenti amici se fossi ritornato mi ero arruolato nell'esercito inglese finché mi si era presentata un'occasione di fuggire a cui non avevo saputo resistere a questo punto gli raccontai la storia di Mr. Fakenham di Fakenham in modo tale che il mio padrone venne preso da un convulso di risa e mi disse poi che aveva ripetuto questa storia a Madame de Cameque la sera alla riunione e tutti erano desiderosi di poter dare un'occhiata al giovane Engländer c'era anche l'ambasciatore inglese chiesi in tono molto allarmato e aggiunsi per amor del cielo signore non gli dite il mio nome potrebbe chiedere l'estradizione e non ho nessuna voglia di essere impiccato proprio nel mio caro paese natio Potsdorff ridendo disse che avrebbe avuto cura che restassi dove ero e da questo punto gli giurai eterna gratitudine qualche giorno dopo con un viso piuttosto serio mi disse Redmond ho parlato di te al nostro colonnello ed ho espresso la mia meraviglia che un individuo del tuo coraggio e della tua capacità non abbia avuto promozioni durante la guerra ma il comandante mi ha detto che ti aveva messo gli occhi a tosso che sei un soldato valoroso e che è evidente che vieni da un buon ceppo che nessuno nel reggimento per quello che lo riguarda ha fatto meno mancanze verso di lui ma che nessuno ha meritato la promozione meno di te sei pigro vizioso e senza principi hai fatto del male a quasi tutti i tuoi compagni e nonostante la tua intelligenza ed il tuo valore e nonostante la tua intelligenza ed il tuo valore era sicuro che non avresti combinato nulla di buono Signore dissi molto meravigliato che alcun uomo mortale si fosse fatto una tale opinione di me spero che il generale Bulov si sia sbagliato a proposito del mio carattere sono capitato in cattiva compagnia è vero ma ho fatto soltanto quello che hanno fatto gli altri soldati e soprattutto non ho mai avuto prima d'ora un buon amico ed un protettore a cui far vedere che meritavo una sorte migliore il generale può dire che sono uno scampaforca e può lasciarmi andare all'inferno ma state sicuro di questo andrò all'inferno servendo voi vedi che questo discorso faceva piacere al mio protettore e siccome ero molto discreto e gli ero utile in mille servizi delicati si legò presto a me con sincero attaccamento un giorno o piuttosto una notte mentre era in tetatet con la signora di tabax rating fondose per esempio io ma non vale la pena di parlare di cose che oggi non interessano più a nessuno quattro mesi dopo la lettera mandata a mia madre ricevetti in una busta diretta al capitano la risposta che fece nascere nella mia mente un vivo desiderio della casa ed una malinconia che non saprei descrivere non avevo rivisto da cinque anni la calligrafia della cara donna tutti i vecchi giorni ed il tramonto sui vecchi verdi campi d'irlanda ed il suo amore e mio zio e Phil Parsell e tutto quello che avevo fatto e pensato mi tornarono in mente mentre leggevo quella lettera e quando rimasi solo mi misi a piangere su quel foglio come non avevo più fatto dal giorno in cui Nora mi aveva canzonato come sapete ebbi cura di non mostrare i miei sentimenti al reggimento e al mio capitano ma quella notte in cui dovevo andare a prendere il tè alla Garden House fuori dalla Brandenburg Gate con Fräulein Lothen la dama di compagnia della Tabaxeratin non ebbi coraggio di andarci ma la pregai di volermi tenere per scusato e me ne andai a letto presto in caserma da cui ora andavo dentro e fuori quando volevo e passai tutta la notte a piangere ed a pensare alla cara Irlanda il giorno seguente il mio spirito tornò a sollevarsi riscossi un vaglia da dieci guinee che mia madre mi aveva mandato nella lettera e diedi un fantastico trattenimento ad alcune persone di mia conoscenza la lettera di quella cara creatura era tutta inzuppata di lacrime piena di cancellature e scritta nel modo più incoerente diceva di essere contenta di sapere che ero agli ordini di un principe protestante benché temesse che egli non fosse proprio sulla retta via quella retta via che diceva essa aveva avuto la fortuna benedetta di trovare col reverendo Joshua Jowles sotto la guida del quale si trovava ora disse che questo reverendo era una navicella preziosa eletta un dolce unguento ed una preziosa scatola di spigionardo ed usava un gran numero di frasi che non potevo capire ma in mezzo a tutto questo gergo incomprensibile mi era chiara una cosa che la cara creatura amava ancora suo figlio e pensava a lui e pregava giorno e notte per il suo selvaggio Redmond non è successo molte volte ad un povero diavolo durante la solitaria guardia notturna o nel dolore nella malattia nella prigionia di pensare che proprio in quel minuto molto probabilmente sua madre sta pregando per lui io spesso ho avuto questi pensieri e non ve ne sono di più consolanti ed è quasi un bene che non vengano quando si è in compagnia perché come si diventerebbe allora una comitiva di ragazzi allegri muta come il corteo che segue un funerale vi garantisco quella sera bevi alla salute di mia madre con una grande coppa di vino e vissi come un signore finché non mi finirono i soldi si era proprio spremuta per mandarmeli come mi disse poi e mister jowles era molto seccato con lei per questo fatto benché spendessi rapidamente il denaro di quella cara creatura non mi ci volle molto per guadagnarne di più infatti avevo cento maniere di procacciarmelo da quando ero divenuto il favorito universale del capitano e dei suoi amici ora era madame fondose che mi dava un federico d'oro per averle portato un mazzo di fiori o una lettera del capitano ora invece era il vecchio consigliere privato che mi offriva una bottiglia di vino del reno e mi faceva scivolare in mano un dollaro o due allo scopo di farsi dare qualche informazione sulla liaison tra il mio capitano e sua moglie ma benché non fossi tanto sciocco da non prendere il suo denaro potete essere certi che non ero tanto privo di onore da tradire il mio benefattore così che il consigliere riuscì a sapere molto poco da me quando il capitano e la signora rupero i loro rapporti ed egli cominciò a fare la corte alla ricca figlia del ministro d'olanda non so quante mai lettere e guinee la sfortunata tabac saratin mi consegnò perché le riportassi l'amante ma questi ritorni sono rari in amore ed il capitano si contentava di fare grandi risate ai suoi sospiri stantii e i suoi tentativi di ritorno nella casa di Minher Van Guldensack mi ero reso così simpatico per diritto e per traverso ero diventato quasi un intimo e venni a conoscenza di un paio di segreti di stato cosa di cui il mio capitano fu molto sorpreso e compiaciuto egli riferiva infatti queste bagatelle a suo zio ministro della polizia che senza dubbio ne traeva vantaggio e così cominciai ad essere ricevuto in maniera molto confidenziale dalla famiglia Potsdorf ed ero diventato un soldato soltanto di nome perché mi era stato permesso di vestirmi in abiti borghesi che erano ve lo posso assicurare molto eleganti e di divertirmi in mille modi cosa che quei poveri diavoli dei miei camerati mi invidiavano i sergenti poi erano cortesi con me come se fossi un ufficiale sarebbe stato strano pensare che i loro galloni dessero loro il diritto di offendere una persona che era il braccio destro del nipote del ministro vi era nella mia compagnia un giovane che si chiamava Kurz che a dispetto del nome era alto almeno sei piedi e dal quale avevo salvato la vita durante la guerra in diverse occasioni questo ragazzo dopo che gli ebbe raccontato una delle mie avventure non fece altro niente meno che darmi della spia e del confidente e mi impose di non dargli più del tu come si usa tra i giovani quando sono intimi non potevo far altro che sfidarlo ma non avevo con lui alcun rancore lo disarmai in un batter d'occhio e mentre gli facevo volare la spada sopra la testa gli dissi Kurz hai mai conosciuto nessuno che sia colpevole di un'azione meschina e che si comporti come faccio ora io? questo episodio ridusse al silenzio anche gli altri mormoratori e dopo di allora nessuno mi prese più in giro nessuno può immaginare che per una persona della mia qualità fosse divertente aspettare nelle anticamere ed ascoltare la conversazione di lacchè e di facchini ma ciò non era più umiliante che stare nella camera in caserma cosa che non c'è bisogno di dirlo mi faceva male al cuore le mie proteste di simpatia per l'esercito erano dirette soltanto a gettare polvere negli occhi del mio padrone sospiravo il momento in cui avrei potuto farla finita con questa schiavitù sapevo di essere nato per fare una grande figura nel mondo se fossi stato uno della guarnigione di Nice avrei cercato la strada verso la libertà nello stesso modo tenuto dal valoroso francese ma qui ci voleva soltanto l'astuzia per mettermi in grado di raggiungere il mio scopo e non ero quindi giustificato se ne facevo uso il mio piano era questo dovevo rendermi tanto necessario a Messie de Potzdorf che egli mi avrebbe dato la libertà una volta libero in grazia della mia elegante persona e della mia buona famiglia avrei fatto ciò che avevano fatto prima di me diecimila gentiluomini irlandesi avrei sposato una signora con un buon patrimonio ed una buona posizione la prova che ero se non disinteressato almeno spinto da una nobile ambizione è questa vi era a Berlino la vedova di un grasso droghiere con 600 talleri di rendita ed un buon giro di affari che cominciò a dirmi che avrebbe pagato il mio congedo se l'avessi sposata ma le dissi francamente che non ero nato per fare il droghiere e così rifiutai nella maniera più assoluta la via verso la libertà che essa mi offriva ed ero grato ai miei padroni più grato di quanto essi non fossero con me il capitano aveva debiti e molti impegni con gli ebrei a cui aveva dato delle cambiali pagabili alla morte dello zio il vecchio Harry von Potsdorf vedendo la fiducia che suo nipote aveva in me mi offrì un compenso per sapere come stessero davvero gli affari del giovanotto ma cosa feci io informai del fatto Messie George von Potsdorf e compilammo d'accordo una lista di piccoli debiti tanto modesta che in realtà calmò lo zio invece di farlo arrabbiare così che egli li pagò lieto di cavarsela così a buon mercato ebbi un bel contraccambio di questa fedeltà una mattina il vecchio era chiuso nel suo gabinetto col nipote aveva l'abitudine di venire a prendere notizie piccanti su ciò che facevano i giovani ufficiali del reggimento se questo e quello giocavano o chi aveva intrighi amorosi con chi chi era stato al ridotto in una certa notte chi aveva debiti e chi no perché il re voleva sapere gli affari di tutti gli ufficiali dell'esercito io ero stato mandato con una lettera dal marquise d'arjan che poi sposò mademoiselle Cochoix l'attrice ed avendo incontrato il marchese dopo pochi passi di strada gli avevo dato il mio messaggio ed ero tornato all'alloggio del capitano lui e il suo degno zio avevano fatto oggetto della loro conversazione la mia indegna persona è nobile sentì che diceva il capitano bah rispondeva lo zio che avrei voluto strangolare per la sua impertinenza tutti questi pezzenti irlandesi quando si arruolano raccontano la stessa storia è stato rapito dal Galgenstein riprese l'altro un tisertore rapito disse messie Potzdorf la bella affaire però ho promesso a quel ragazzo di interessarmi per il suo congedo e sono sicuro che potrà essere utile hai chiesto il suo congedo rispose il più vecchio ridendo bon dieu sei un modello di onestà non arriverai mai al mio posto ciorce se non sei un po' più furbo di quanto non lo sei stato ora serviti di quel giovane finché ti fa piacere a buone maniere ed un contegno franco può dire bugie con una faccia tosta che non ho mai oltrepassata nemmeno io e compatte mi dici con la miseria quel mascalzone non manca di buone qualità ma è vanesio spendacione e bavard finché tieni sospeso su di lui il recimento in terrorem puoi fare quello che vuoi ma se lo lasci andare è tipo da darti lo sgambetto limitati a fargli delle promesse promettili di farlo generale se vuoi che diavolo te ne importa vi sono abbastanza spie in questa città anche senza di lui era dunque in questo modo che venivano considerati i servizi che avevo reso a Messie de Potzdorf da quell'ingrato individuo usci dalla stanza con lo spirito molto turbato pensando che un altro dei miei più cari sogni era così svanito e che la speranza di uscire dall'esercito essendo utile al capitano era assolutamente vana per qualche tempo la mia disperazione fu tale che pensai di sposare la vedova ma ai soldati non era permesso di contrarre matrimonio senza il permesso diretto del re ed era molto dubbio che sua maestà avrebbe consentito ad un giovane di 22 anni l'uomo più bello del suo esercito di accoppiarsi con una vedova sessantenne dalla faccia foruncolosa che aveva ormai superato l'età in cui il suo matrimonio poteva moltiplicare i sudditi di sua maestà questa speranza di libertà era dunque vana né potevo sperare di acquistare il mio riscatto a meno che qualche anima caritatevole non mi prestasse una buona somma di denaro nonostante che come ho detto ne avessi una buona quantità ho sempre avuto per tutta la vita una tendenza irresistibile a spendere ed è tanta la mia generosità nel disporre del denaro che ho sempre avuto debiti da quando sono nato il mio capitano quello scaltro ma scalzone mi diede una versione molto differente della sua conversazione con lo zio nonostante che io sapessi bene quale era quella vera mi disse ridendo Redmond ho parlato al ministro a proposito dei tuoi servizi e la tua fortuna è fatta ti faremo uscire dall'esercito ti daremo un incarico nell'ufficio di polizia e ti daremo la funzione di ispettore del buon costume ed in conclusione ti faremo muovere in un ambiente migliore di quello in cui la sorte ti ha messo da qualche tempo benché non credessi nemmeno a una parola di questo discorso mostrai di esserne molto commosso e naturalmente giurai eterna gratitudine al capitano per la sua cortesia verso il povero esule irlandese il tuo servizio presso il ministro Tolanda mi ha molto soddisfatto vi è un'altra circostanza in cui ti puoi rendere utile per noi e se hai successo avrai la tua ricompensa sì ne è sicuro qual è questo servizio signore disse io farò qualunque cosa per un padrone tanto cortese è venuto da poco a Berlino disse il capitano un centiluomo al servizio dell'imperatrice regina che si fa chiamare Chevalier de Balibari e porta il nastro rosso e la stella dell'ordine dello sperone del papa parla indifferentemente italiano e francese ma abbiamo motivo di credere che questo messiere de Balibari sia nativo del tuo paese in Irlanda non hai mai sentito un nome come Balibari in Irlanda? Balibari Balibari un lampo improvviso mi traversò la mente no signore non ho mai inteso questo nome devi entrare al suo servizio naturalmente non devi sapere una parola di inglese e se il cavaliere ti fate le domande sul tuo accento straniero digli che sei ungherese il servo che è venuto con lui sarà mandato via oggi e la persona a cui si è rivolto per avere un fedele domestico ti raccomanderà sei ungherese ed hai prestato servizio nella guerra dei sette anni hai lasciato l'esercito a causa della debolezza dei tuoi lombi hai fatto servizio per due anni con Messie de Quellenberg ora lui è con l'esercito in Slesia ma il tuo certificato è firmato da lui poi sei stato con il dottor Mopsius che darà tutte le sue informazioni se ce ne sarà bisogno anche il padrone dello star hotel dirà che sei un bravo ragazzo per quanto poco possa servire la sua attestazione quanto al resto della tua storia puoi sistemarla come ti pare e farla romantica o piccante come ti detta la tua fantasia cerca però di ottenere la fiducia del cavaliere provocando la sua compassione gioca molto e vince conosci bene le carte? soltanto un poco come tutti i soldati credevo che fossi molto esperto devi osservare se il cavaliere para se para lo abbiamo in pugno vede continuamente gli invitati di Inghilterra e di Austria e giovanotti di tutti i ministeri pranzano spesso a casa sua stai attento a tutto quello che dicono se qualcuno di loro e soprattutto se si gioca sulla parola se una volta potrai leggere le sue lettere private fallo naturalmente però per quelle che fanno per posta non c'è bisogno che ci perdi tempo le guardiamo noi ma non lo lasciar scrivere mai un biglietto senza cercare di sapere a chi va e per mezzo di quale tramite o messacero dormi con le chiavi della cassetta dei suoi dispacci attaccata al collo con un nastro fenti federici per te se riesci ad avere l'impronta della chiave naturalmente andrai da lui in borghese datti una bella spazzolata alla cipria dei capelli e tienli legati semplicemente con un nastro i paffi naturalmente li devi radere dopo avermi dato queste istruzioni ed una piccolissima regalia il capitano se ne andò quando tornai a salutarlo si divertì molto al cambiamento del mio aspetto mi ero rasato i baffi non senza un certo dispiacere perché erano neri come lambra ed arricciati con eleganza mi ero tolto dai capelli l'odioso grasso e farina che avevo sempre detestato avevo indossato una giacca francese grigia molto seria calzoncini di satè nero un panciotto marrone di felpa ed un cappello senza coccarda sembravo remissivo ed umile come deve essere un domestico in cerca di impiego e credo che i compagni stessi del mio reggimento che stava ora passando la rivista a Potsdam non mi avrebbero riconosciuto così conciato andai allo star hotel dove alloggiava lo straniero ed il cuore mi batteva per l'ansia e qualche cosa mi diceva che questo che questo chevalier non era altri che berri de belli berri il fratello maggiore di mio padre che era stato privato del suo feudo in conseguenza della sua ostinazione nell'aderire alla superstizione romana prima di andare a presentarmi andai nelle remise a dare un'occhiata alla sua carrozza aveva lo stemma dei berri si c'era fiocco rosso in campo d'argento con quattro conchiglie agli angoli l'antico stemma della mia casa era dipinto in uno stemma grande quanto il mio cappello su una carrozza elegante abbondantemente dorata sormontato da una coroncina e sostenuto da otto o nove cupidi cornucopie e cestini di fiori secondo la bizzarra moda araldica di quei tempi doveva essere proprio lui mi sentivo quasi venir meno mentre salivo le scale dovevo presentarmi davanti a mio zio nell'aspetto di servo tu sei il giovanotto che Messie de Sebach ha raccomandato feci un inchino e gli porsi la lettera di quel gentiluomo che il mio capitano aveva avuto cura di fornirmi mentre la guardava ebbi tutto il tempo di esaminarlo mio zio era un uomo sulla sessantina indossava una vistosa giacca e brache di velluto color albicocca ed un panciotto di saten bianco ricamato in oro come la giacca attraverso il petto gli passava il nastro di porpora dell'ordine dello sperone e la stella dell'ordine una stella enorme gli brillava al petto aveva anelli a tutte le dita un paio di orologi nei taschini un ricco diamante solitaire nel nastro nero che gli circondava il collo e che finiva al sacchetto della parruca i suoi manichini e le sue gale erano ornati con un profluvio di merletti ricchissimi aveva calze di seta rose e arrotolate sopra il ginocchio e legate con giarrettiere d'oro ed enormi fermagli di diamanti alle sue scarpe col tacco rosso una spada montata in oro in una guaina di pelle di pesce bianca ed un cappello con ricchi merletti ed ornato di penne bianche stavano sul tavolo accanto a lui e completavano il costume di questo splendido gentiluomo come altezza era presso a poco uguale a me vale a dire sei piedi e mezzo ed un pollice i suoi lineamenti erano molto simili ai miei ed era estremamente distingue tuttavia portava uno degli occhi coperto da una benda nera ed in faccia si metteva un po' di vernice bianca e rossa cosa che a quei tempi non era un ornamento insolito un paio di baffi gli ricadevano sul labbro nascondendo una bocca che più tardi mi accorsi a avere una espressione piuttosto sgradevole quando poi si tolse la barba potetti osservare che i denti superiori sporgevano troppo ed il suo volto mostrava sempre un sorriso fisso spettrale che non era affatto gradevole fu molto imprudente da parte mia ma quando vidi lo splendore del suo aspetto e la nobiltà del suo modo di fare sentii che mi era impossibile mantenere davanti a lui il mio travestimento e quando mi disse ah sei ungherese vedo non potei resistere più a lungo e dissi signore sono irlandese e mi chiamo Redmond Berry di Belli Berry mentre parlavo scoppiai in lacrime non saprei dire perché ma non avevo visto nessuno della mia famiglia e della mia stirpe da sei anni ed il mio cuore desiderava di trovarne qualcuno capitolo ottavo Berry dà l'addio alla carriera militare voi che non siete mai stati fuori del vostro paese non potete sapere che cosa sia il sentire in prigionia la voce di un amico e vi sono molti che non potranno comprendere la causa dello scoppio di tutti i miei sentimenti che come ho confessato ebbe luogo alla visita di mio zio nemmeno per un minuto egli pensò a mettere in dubbio la verità di quanto dicevo madre di dio gridò è il figlio di mio fratello Harry e credo che anche il suo cuore fosse commosso come il mio avendo trovato così all'improvviso uno dei suoi parenti perché anche lui era un esule della patria ed una voce amica uno sguardo lo riportava con la memoria nel suo vecchio paese e dagli antichi giorni della sua infanzia darei cinque anni di vita per rivederli disse dopo avermi accarezzato con molto calore cosa gli chiesi io come rispose i campi verdi ed il fiume e la vecchia torre rotonda ed il cimitero di belli berri è stata una vergogna da parte di tuo padre di sfarsi di quella terra caro Redmond che ha portato per tanto tempo il suo nome poi cominciò a farmi domande circa la mia storia e gliene diedi un resoconto abbastanza lungo e durante questa il degno gentiluomo rise molte volte e disse che ero un berri dalla testa ai piedi a metà della mia storia egli mi interruppe per farmi mettere accanto a lui e confrontare la nostra altezza e da queste misurazioni vidi che la nostra statura era quasi la stessa ma che mio zio aveva un ginocchio rigido che lo faceva camminare in maniera caratteristica durante il corso della mia narrazione si profuse in un centinaio di esclamazioni di pietà di cortesia di simpatia esclamava benedetti i santi e madre del cielo e benedetta maria continuamente e per conseguenza conclusi giustamente che era ancora devotamente attaccato all'antica fede cattolica della nostra famiglia con qualche difficoltà cominciai a spiegargli l'ultima parte della mia storia vale a dire che mi ero messo al suo servizio per tener d'occhio le sue azioni sulle quali dovevo dare informazioni ad un certo ufficio quando gli dissi con molte esitazioni questo fatto scoppiò a ridere e sembrò divertirsi straordinariamente di questo scherzo ma scalzoni disse credono di pescarmi non è vero ma in realtà Redmond la mia sola congiura è un banco di faraone ma il re è tanto sospettoso che vede una spia in ogni persona che viene nella sua miserabile capitale qui in mezzo a questo deserto di sabbia ah ragazzo mio ti farò vedere Parigi e Vienna gli dissi che non vi era nulla che desiderassi di più che di vedere qualche altra città tranne Berlino e che sarei stato felice di liberarmi di questo odioso servizio militare ed infatti ritenevo basandomi sulla sua splendida apparenza dai soprammobili che stavano nella stanza dalla carrozza dorata nella remise che mio zio fosse un uomo di grande ricchezza e che avrebbe potuto comprare una dozzina anzi un intero reggimento di sostituti allo scopo di riscattare la mia libertà ma mi ingannavo nei miei calcoli sul conto suo come la sua storia che egli mi raccontò rapidamente mi fece vedere sono stato in giro per il mondo mi disse dal 1742 quando mio fratello tuo padre possa il cielo perdonarlo mi portò via sotto il naso il feudo di famiglia diventando eretico allo scopo di sposare quella borbottona di tua madre ma oramai quello che è stato è stato è probabile del resto che avrei dissipato anch'io quella piccola proprietà come fece lui al posto mio e che avrei cominciato soltanto un anno o due dopo la vita che ho condotto dopo aver lasciato l'Irlanda ragazzo mio sono stato al servizio di tutti e si ha detto tra noi ho debiti in tutte le capitali d'Europa ho fatto un paio di campagne con i panduri sotto l'austriaco trenc sono stato capitano della guardia di sua santità il papa ho fatto la campagna di scozia col principe di galles un tipaccio mio caro che si occupava più della sua amante e della sua bottiglia di acquavite che della corona dei tre regni ho servito in spagna ed in piemonte ma sono stato una pietra che ruzzola mio buon amico il gioco il gioco è stato la mia rovina questo e le belle donne qui fece una smorfia che debbo confessarlo lo rese tutt'altro che bello ed oltre a questo le sue guance tinte di rossetto erano tutte striate per le lacrime che aveva versato quando mi aveva ricevuto le donne mi hanno reso sciocco mio caro Redmond sono una creatura dolce di cuore ed in questo momento a 62 anni non ho maggior dominio di me stesso di quando Peggy o Dwyer mi prese in giro a 16 anni in fede mia dico io ridendo credo che questa sia una malattia di famiglia e gli raccontai con suo grande divertimento la mia romantica passione per la mia cugina Nora Brady dopodiché riprese il suo racconto le carte sono ora il mio solo mezzo di vita qualche volta ho fortuna ed allora investo il denaro in queste bagatelle che vedi è ricchezza vedi Redmond ed il solo modo in cui riesco a trattenere qualche cosa presso di me quando invece la fortuna mi si mette contro ebbene mio caro i miei diamanti vanno al monte di pietà e mi metto addosso fondi di bicchiere l'amico Mosè l'orefice mi farà una visita proprio oggi perché la fortuna mi è stata contraria tutta la settimana passata e devo far denaro per il banco di stasera conosci le carte? risposi che sapevo giocare come fanno i soldati ma non avevo una grande abilità devi impratichirti questa mattina ragazzo mio disse e ti insegnerò un paio di cosette che vale la pena sapere naturalmente fui lieto di avere questa occasione di acquistare un po' di cultura e mi dichiarai felice di ricevere le istruzioni di mio zio ma il racconto che il cavaliere aveva fatto della sua vita mi aveva colpito in modo piuttosto sgradevole tutto quello che possedeva aveva detto lo portava indosso la carrozza con la bella doratura faceva anch'essa parte dei suoi mezzi di lavoro aveva una specie di incarico da parte della corte austriaca doveva scoprire se una certa quantità di ducati falsi di cui erano state seguite le tracce fino a Berlino provenivano dal tesoro del re ma lo scopo vero di Messie dei belli berri era il gioco vi era un giovane attaché dell'ambasciata inglese Lord Dusses che più tardi divenne visconte e conte di Krabs nella nobiltà inglese che giocava forte avendo udito notizie della passione di questo giovane nobiluomo inglese mio zio che era allora a Praga si era deciso a visitare Berlino per sfidarlo vi è una specie di cavalleria tra i cavalieri del dado la fama di grandi giocatori si sparge per tutta l'Europa ho saputo che il cavaliere Casanova per esempio ha fatto un viaggio di 600 miglia da Parigi a Torino allo scopo di incontrare Mr. Charles Fox che era allora soltanto l'elegante figlio di My Lord Holland e divenne più tardi il più grande degli oratori e degli statisti europei stabilimmo che io avrei continuato a fare la parte del valletto ed in presenza di estranei avrei mostrato di non conoscere una parola di inglese che avrei dato un'occhiata agli onori che erano in mano dei giocatori mentre servivo lo champagne ed il punch avendo un colpo d'occhio molto acuto ed una grande attitudine naturale fui presto in grado di dare a mio zio un valido aiuto contro i suoi avversari al tavolo verde qualche persona scrupolosa può affettare indignazione di fronte alla franchezza di queste confessioni ma il cielo abbia pietà di lei credete che una persona che ha perso vinto centomila sterline al gioco non vorrà approfittare dei vantaggi di cui gode il suo vicino sono tutti gli stessi ma sono soltanto gli sciocchi stupidi che barano che ricorrono ai volgari espedienti dei dadi contraffatti e delle carte segnate uomini come questi finiranno certo male un giorno o l'altro e non sono degni di giocare in compagnia di gentiluomini come si deve il mio consiglio alle persone che vedono tale gente volgare ricorrere a queste astuzie è naturalmente di contraccambiarle finché giocano insieme ma mai mai più avere niente a che fare con loro bisogna giocare forte e con onore naturalmente non abbattersi quando si perde e soprattutto non inorgoglirsi quando si vince come fanno le persone meschine e del resto con tutta l'abilità e di vantaggi possibili vincere è sempre una cosa problematica ho visto dei perfetti ignoranti che non conoscevano le carte più dell'ebraico pelarvi 500 sterline in pochi giri di carte ho visto un gentiluomo ed il suo compare giocare contro un altro col suo compare non si è mai sicuri in questi casi e quando si considera il tempo ed il lavoro perduti l'ingegnosità l'ansia il dispendio di denaro necessario la molteplicità di grossi debiti a cui si va incontro perché si possono trovare dei mascalzoni privi di onore intorno ad un tavolo di gioco come in qualsiasi altro luogo del mondo sostengo per quello che mi riguarda che la professione di giocatore è cattiva e del resto di rado ho trovato qualcuno che alla fine ne abbia tratto profitto ma ora scrivo con l'esperienza di un uomo di mondo nel tempo di cui parlo ero un ragazzo affascinato dall'idea della ricchezza che rispettava certo anche troppo la maggiore età dello zio e la sua superiore posizione nella vita non vi è bisogno qui di raccontare in tutti i particolari i piccoli accordi che avevamo preso tra noi i giocatori del giorno d'oggi non hanno bisogno di essere eruditi ma la semplicità era il nostro segreto tutto quello che ottiene successo è semplice se per esempio toglievo la polvere da una sedia col mio tovagliolo era per mostrare che l'avversario era forte a quadri se gli davo una leggera spinta aveva asso e re se dicevo pancio vino signore voleva dire che aveva cuori se invece dicevo vino o pancia significava fiori se mi soffiavo il naso era per indicare che c'era un altro compare impiegato dall'avversario ed allora vi assicuro che avevano luogo dei veri prodigi di abilità lord d'ursaise benché fosse tanto giovane aveva grande abilità ed intelligenza in ogni genere di giochi di carte e soltanto quando mi accorsi che frank punter che veniva con lui sbadigliava tre volte quando il cavaliere aveva l'asso di briscola compresi che eravamo degni l'uno dell'altro come era in realtà la mia simulata stupidità era perfetta ed ero solito far ridere di tale contegno messie de pozdorf quando andavo a fargli i miei piccoli rapporti alla garden house fuori della città dove mi dava appuntamento questi rapporti naturalmente venivano concordati tra me e mio zio in precedenza avevo istruzioni e questa è sempre la cosa migliore di dirgli tanto di verità quanto il mio racconto poteva sopportarne quando per esempio mi domandava che cosa fa il cavaliere la mattina va in chiesa regolarmente era molto religioso e dopo aver udito la messa torna a casa per la colazione poi va a prendere una boccata d'aria nella sua carrozza fino all'ora di pranzo che viene servito a mezzogiorno dopo pranzo scrive le sue lettere se ha qualche lettera da scrivere ma c'è poco da ricavare su questa strada le sue lettere sono dirette all'inviato d'Austria con cui è in corrispondenza ma che non lo riconosce ufficialmente essendo scritte in inglese naturalmente guardo sopra le sue spalle generalmente scrive per chiedere denaro dice che ne ha bisogno per corrompere i segretari del tesoro allo scopo di trovare da dove provengono i ducati falsificati ma in realtà ne ha bisogno per giocare la sera quando fa la sua partita con Carl Sabigi l'appaltatore dell'otto con gli attaché di Russia con due dell'ambasciata inglese Lord Dulceis e Panther che giocano un jeu d'infer e qualche altro la stessa compagnia si riunisce ogni sera a cena dirà dove è qualche signora quelle che vengono sono principalmente signore francesi appartenenti al Coppe de Ballet vince spesso ma non sempre Lord Dulceis è un giocatore molto abile qualche volta viene il cavaliere Elliot ministro inglese ed in questo caso i segretari non giocano Messie de Balibari va anche a pranzo dai diplomatici ma petit comité non nei giorni di grande ricevimento Casalbigi credo è il suo compare al gioco ha vinto fino a poco tempo fa ma la settimana passata ha dato impegno il suo solitaire per 400 ducati lui e gli attaché inglesi parlano spesso nella loro lingua insieme sì lui e l'invitato hanno parlato ieri per più di un'ora e mezzo sulla nuova danseuse e sui disordini d'America principalmente però della nuova danseuse si sarà visto che le mie informazioni erano molto minuziose ed accurate anche se non molto importanti ma così come erano venivano riferite alle orecchie del famoso eroe guerriero il filosofo di Saint-Souci e così non vi era straniero che entrasse nella capitale le cui azioni non fossero del pari spiate e riferite a Federico il Grande finché il gioco si limitò ai giovani addetti alle varie ambasciate sua maestà non si curò di impedirlo anzi incoraggiava il gioco in tutte le missioni diplomatiche sapendo bene che un uomo in imbarazzi finanziari può essere fatto parlare molto facilmente e che un rouleau di Federici dato a tempo procura spesso un segreto che ne vale molte migliaia in questo modo ottenne qualche documento dell'ambasciata francese e non ho alcun dubbio che Lord de Seys gli avrebbe fornito informazioni al medesimo prezzo se il suo capo non avesse conosciuto molto bene il carattere di quel giovanotto e non avesse fatto fare il lavoro della missione come sempre avviene in consimili casi ad un giudizioso roturier mentre i brillanti giovani sangue blu del suo seguito portavano a spasso i loro ricami dorati ai balli o strofinavano i loro manichini di Meshlen sui tavoli verdi del faraone ho visto da allora in poi ventine di simili giovani rampolli ho visto loro e di loro principali e mondie come sono stupidi quanto sono sciocchi frivoli teste vuote belli imbusti se c'è al mondo una menzogna questa è la diplomazia e come si può supporre che se la carriera fosse così difficile come vorrebbero farci credere le loro solenni buste rosse e gli uomini coperti di decorazioni si sceglierebbero invariabilmente per essa quei ragazzini dalla faccia rosea appena usciti dalla scuola con nessun'altra qualità che il titolo della mamma ed abili nella migliore delle ipotesi soltanto a giudicare una carrozza un nuovo ballo o una scarpa ben lucida quando però si seppe da parte degli ufficiali della guarnigione che vi era in città una tavola di faraone essi fecero di tutto per essere ammessi al gioco e nonostante i miei consigli in contrario mio zio non si oppose a permettere l'ingresso a quei gentiluomini ed un paio di volte ripulì loro la borsa di una buona somma di denaro in vano gli dissi che avrei dovuto riferire la notizia al mio capitano perché i miei compagni non avrebbero fatto a meno di parlare ed egli sarebbe venuto a conoscenza del pasticcio anche senza le mie informazioni diglielo disse mio zio ti manderanno via risposi ed allora che sarà di me stai pure tranquillo disse l'altro con un sorriso non ti lascerò indietro stanne sicuro vai a dare un'ultima occhiata alla tua caserma e stai tranquillo dai un addio ai tuoi amici di berlino quei poveri diavoli chissà come piangeranno quando sapranno che sei fuori del paese e stai certo che come è vero che mi chiamo berli verrai fuori di qui ma come zio dissi ricordati mister feikenham di feikenham rispose con intenzione questo avrebbe dovuto farti capire come vai a prendere una delle mie parrucche apri la scatola dei dispacci dove stanno i grandi segreti della cancelleria austriaca tirati giù il cappello sulla fronte sbattiti questa benda sull'occhio ed appiccicati questi baffi e ora guardati allo specchio il cavaliere de balibari dissi io scoppiando a ridere e cominciai a camminare per la stanza alla sua maniera come se avessi un ginocchio rigido il giorno seguente quando andai a fare il mio rapporto a monsieur de potsdorf gli riferì dei giovani ufficiali prussiani che erano stati lì a giocare negli ultimi tempi ed egli rispose come mi ero aspettato che il re aveva deciso di mandare il cavaliere fuori del paese è un sordido avaraccio risposio ho avuto da lui soltanto tre federici in due mesi e spero che vi ricorderete la vostra promessa di farmi fare carriera bene tre federici sono anche troppi per le notizie che hai pescato disse il capitano sogghignando non è colpa mia se non c'è stato di più risposi quando deve andarsene signore dopo domani mi hai detto che va in carrozza dopo colazione e prima di pranzo quando uscirà fuori della carrozza due gendarme monteranno a cassetta ed il cocchiere riceverà l'ordine di partire e il suo bagaglio signore dissi o gli sarà spetito dopo con comodo ho una foglia matta di dare un'occhiata a quella scatola rossa che contiene le sue carte e da mezzogiorno dopo la rivista sarò all'albergo non tirai una parola a nessuno a proposito di questo affare ed aspetterai nelle stanze del cavaliere fino al mio arrivo dobbiamo forzare quella scatola sei un cane da caccia stupido altrimenti avresti preso la chiave da un pezzo pregai il capitano di conservarmi la sua benevolenza e così presi congedo da lui la notte seguente misi un paio di pistole sotto il sedile della carrozza ma credo che le avventure del giorno seguente siano degne dell'onore di un capitolo a parte capitolo nono faccio la mia comparsa nel mondo in maniera confacente al mio nome ed al mio lignaggio la fortuna sorrise alla partenza di messie de balibari e gli permise di vincere una bella somma al suo banco di faraone alle dieci della mattina seguente la carrozza del cavaliere balibari si fermò come al solito alla porta del suo albergo ed il cavaliere che stava alla finestra vedendo arrivare la vettura discese le scale nella sua consueta maniera dignitosa dov'è dov'è quel mascalzone del mio ambroso disse dandosi un'occhiata attorno e non trovando il servitore che gli apriva lo sportello abbasserò io gli scalini per vostro onore disse un gendarme che stava in piedi vicino alla carrozza e non appena il cavaliere fu entrato la guardia saltò su accanto a lui mentre un'altra saliva a cassetta vicino al cocchiere che fece partire il veicolo buon dio disse il cavaliere che storia è questa siamo diretti alla frontiera disse il gendarme toccandosi il cappello è una vergogna un'infamia chiedo di essere accompagnato a casa dell'ambasciatore d'Austria ho l'ordine di imbavagliare vostro onore se crida disse il gendarme tutta l'Europa sentirà parlare di questo oltraggio disse il cavaliere infuriato come volete rispose la guardia e poi tutti e due si chiusero nel più profondo silenzio il silenzio non venne mai rotto tra Berlino e Potsdam luogo che il cavaliere attraversò mentre sua maestà stava passando in rivista le sue guardie e i reggimenti di Biulov Zitwitz e Henkel di Donnesmark mentre il cavaliere passava sua maestà il re alzò il cappello e disse qu'il ne desson pas je lui souhaite un bon voyage il cavaliere di Balibari rispose alla cortesia con un profondo inchino non avevano passato Potsdam da molto tempo quando boom cominciò a tuonare il cannone d'allarme è un disertore disse la guardia è possibile rispose il cavaliere e si sprofondò di nuovo nella carrozza sentendo il rimbombo del cannone la gente usciva in frotte sulla strada con fucili da caccia e forconi nella speranza di catturare il fuggiasco i gendarme sembravano molto desiderosi di restare liberi per poterlo cercare anch'essi il premio per chi portava un disertore era 50 corone confessate signore disse il cavaliere all'ufficiale di polizia che era in carrozza con lui che desiderate liberarvi di me da cui non potete ricavare niente e mettervi a caccia del disertore che vi può portare 50 corone di premio perché non dite al postiglione di accelerare potrete sbarcarmi alla frontiera e ritornare alla vostra caccia il più presto possibile l'ufficiale disse al postiglione di accelerare ma la strada sembrava al cavaliere lunga oltre ogni limite della sopportazione un paio di volte credette di udire il rumore di cavalli che galoppavano dietro di loro i suoi cavalli non sembrava andassero a più di due miglia all'ora ma ci andavano alla fine comparvero le sbarre bianche e nere nei pressi di Brooke e dalla parte opposta quelle verdi e gialle della Sassonia i doganieri sassoni uscirono non ho bagaglio disse il cavaliere questo signore non ha contrabbando dissero le guardie prussiane sghignazzando e presero congedo dal prigioniero con molto rispetto il cavaliere di Balibari diede loro una moneta da un federico signori disse vi auguro una buona giornata vorreste avere la compiacenza di andare alla casa da cui sono uscito questa mattina e dire al mio domestico di mandarmi il bagaglio ai tre re a Dresda poi dopo aver ordinato cavalli freschi il cavaliere continuò il viaggio per quella capitale non c'è bisogno che vi dica che io ero il cavaliere dal cavaliere de Balibari a Redmond Barry scudiero gentilhomme anglais all'hotel de Troie Couronne a Dresda in Sassonia Caro nipote Redmond questa lettera ti giungerà per mezzo di una mano sicura vale a dire per mezzo di Mr. Lampit della missione inglese che ha conoscenza come tutta Berlino lo sarà presto della tua meravigliosa storia solo che ne conosce soltanto la metà vale a dire che si sa soltanto che un disertore se ne è andato con i miei vestiti e sono tutti in ammirazione della tua intelligenza e della tua audacia ti confesso che per due ore dopo la tua partenza sono rimasto a letto con non poca trepidazione temendo che sua maestà non avesse il ghilibizzo di mandarmi a Spandau per la bagatella di cui eravamo entrambi colpevoli ma anche per questo caso avevo preso le mie precauzioni avevo scritto una veritiera storia che tu eri stato mandato a spiarmi e che poi avevi scoperto di essere mio stretto parente che eri stato rapito e costretto al servizio militare e che avevamo deciso di effettuare tutti e due un tentativo di fuga si sarebbe riso tanto sul conto del re che non avrebbe mai osato alzare neppure un dito contro di me che cosa avrebbe detto messie de Voltaire su un simile atto di tirannia ma era un giorno fortunato e tutto è andato come desideravo mentre ero ancora a letto due ore e mezzo dopo la tua partenza è entrato il tuo ex capitano Potsdorf Redmond dice nel suo tono imperioso di ufficiale tedesco sei qui? nessuna risposta quel mascalzone se ne è andato dice e si dirige alla mia cassetta rossa dove tengo le lettere d'amore l'occhialino che ho l'abitudine di portare con me i miei dadi favoriti con cui ho vinto 13 mani a Praga le mie due dentiere di Parigi e di miei altri oggetti personali che tu ben conosci prima ha provato con un mazzo di chiavi ma nessuna si adattava alla piccola serratura inglese allora il mio gentiluomo tira fuori di tasca scalpello e martello e comincia a lavorare come un ladro professionista ed alla fine spalanca la mia piccola cassetta era venuto il momento di agire mi precipito addosso a lui armato di un'enorme brocca gli piombo addosso senza far rumore proprio nel momento in cui aveva aperto la cassetta e con tutte le mie forze gli do un tal colpo sulla testa che la brocca va in frantumi mentre il mio capitano cade a terra in un breve deliquio credevo di averlo ammazzato allora mi attacco a tutti i campanelli della casa grido bestemmio urlo alladro alladro padrone assassini al fuoco tutto il servitorame arriva a precipizio per le scale dov'è il mio domestico grido chi osa derubarmi in pieno giorno guardate questo mascalzone che ho sorpreso nell'atto di fracassare la mia cassetta mandate a chiamare la polizia mandate a chiamare sua eccellenza il ministro d'austria tutta l'europa conoscerà questo insulto benedetto il cielo dice il padrone e abbiamo visto uscire tre ore fa io dico ma come signore sono rimasto a letto tutta la mattina sono malato ho chiamato il medico non sono uscito di casa questa mattina dov'è quel mascalzone di ambrose ma basta dove sono i miei vestiti e la mia parrucca perché stavo davanti a loro in veste da camera e calze col berretto da notte in testa ho capito ho capito io dice una camerierina ambrose è uscito col vestito di vostro onore e col mio denaro il mio denaro dico io dov'è la mia borsa con 48 federici ma c'è rimasto uno di quei mascalzoni guardie arrestatelo è il capitano Erf von Potzdorf dice il padrone sempre più meravigliato come un gentiluomo che forza la mia cassetta con martello e scalpello è impossibile Erf von Potzdorf stava frattanto tornando alla vita con un bozzo sul cranio grande come una sottocoppa le guardie lo portarono via e mandai a chiamare il giudice per fare un process verbal dell'accaduto e ne chiesi una copia che mandai di filato al mio ambasciatore il giorno seguente rimasi chiuso nella mia stanza ed un giudice un generale ed una schiera di avvocati ufficiali e funzionari erano attorno a me per calmarmi confondermi minacciarmi e adularmi dissi che era vero che mi avevi detto di essere stato rapito e costretto al servizio militare ma che pensavo che fossi stato congedato e che avevo avuto le migliori raccomandazioni feci appello al ministro d'Austria che fu costretto a venire in mio aiuto e per farla corta il povero Potsdorf è ora in rotta per Spandau e suo zio il vecchio Potsdorf mi ha portato 500 luigi con l'umile richiesta di compiacermi di lasciare Berlino e mettere a tacere questa storia penosa sarò da te alle tre corone il giorno dopo quello in cui avrai ricevuto questa lettera invita a pranzo mister Lampit non risparmiare il denaro sei mio figlio tutti a Dresda conoscono tuo zio che ti ama tanto il cavaliere de Balibari attraverso queste straordinarie vicissitudini fui di nuovo libero e mi rafforzai nella decisione che avevo già preso di non cadere mai più nelle mani di alcun reclutatore e di essere dall'ora in poi per sempre un gentiluomo con questa buona somma di denaro e con un buon giro di fortuna che ci accompagnò in quel momento fummo in grado di fare una non indegna figura mio zio mi raggiunse presto all'albergo di Dresda dove facendo finta di essere ammalato ero rimasto tranquillo fino al suo arrivo e siccome il cavaliere de Balibari era in particolare favore alla corte di Dresda essendo stato intimo amico del defunto monarca l'elettore re di Polonia il più dissoluto ed il più simpatico dei principi europei potei entrare rapidamente nella migliore società sassone dove posso dire che la mia persona ed il mio modo di fare e la singolarità delle avventure di cui ero stato il protagonista mi fecero accogliere nel modo migliore non vi era riunione della nobiltà cui i due gentiluomini di Balibari non venissero invitati ebbi l'onore di baciare la mano all'elettore e di essere graziosamente ricevuto a corte e scrissi a casa mia a mia madre una tale sfolgorante descrizione della mia prosperità che quella buona creatura fu quasi sul punto di dimenticare il suo celestiale benessere ed il suo confessore il reverendo Joshua Jowles per venire da me in Germania ma viaggiare a quei tempi era una cosa molto difficile e così mi fu risparmiato l'arrivo della buona signora credo che l'anima di Harry Berry mio padre che fu sempre tanto gentile nel suo modo di fare debba essersi rallegrata moltissimo nel vedere la posizione che ora occupavo tutte le donne erano ansiose di ricevermi tutti gli uomini erano gelosi di me mi riunivo familiarmente con duchi e conti a pranzo ballavo minuetti con baronesse molto ben nate e se stesse si definiscono in Germania in questa assurda maniera con simpatiche eccellenze ed anche con altezze e serenità chi poteva competere col brillante giovane nobile irlandese chi poteva pensare che appena sette settimane prima ero stato un semplice ma mi vergognavo di pensarci uno dei momenti più divertenti della mia vita fu un grande gala al palazzo dell'elettore in cui ebbi l'onore di ballare una polonaise niente di meno che con la margravia di Bayreuth la sorella del vecchio fritz del vecchio fritz di cui avevo indossato l'orrenda livrea grigio blu di cui avevo lustrato i cinturoni con terra da pipe e di cui avevo ingozzato per cinque anni le abominevoli razioni di cattiva birra e di sauerkraut avendo vinto al gioco una carrozza inglese da un gentiluomo italiano mio zio fece dipingere il nostro stemma sugli sportelli in un modo più splendido che mai sormontato siccome discendevamo dagli antichi re da una corona irlandese della più splendida forma e della più bella doratura avevo fatto incidere questa corona a guisa di sigillo su un grosso anello con pietra diametista che portavo all'anulare e non mi vergogno di confessare che avevo l'abitudine di dire che questo gioiello apparteneva alla mia famiglia da molte migliaia di anni essendo stato in origine di proprietà di un mio diretto antenato la compianta maestà di re briano boru o berri scommetto che molti motti della consulta araldica non sono più autentici di quanto non lo fosse il mio da prima il ministro ed i gentiluomini dell'albergo d'inghilterra avevano l'abitudine di essere un po' contegnosi verso i due nobili irlandesi e discutevano le nostre pretese al titolo il ministro era figlio di un lord è vero ma era anche nipote di un droghiere e così glielo dissi al ballo mascherato del conte lobcoviz mio zio infatti da quel nobile gentiluomo che era conosceva l'albero genealogico di qualsiasi famiglia più in vista in europa diceva che questa era la sola cultura conveniente ad un gentiluomo e quando non giocavamo a carte passavamo le ore sul guillim o sul dosier a leggere le genealogie ad imparare i blasoni e da renderci edotti delle parentele della nostra classe oimè questa nobile scienza è caduta oggi in discredito come anche le carte studi e passatempi senza i quali io concepisco appena che possa esistere un uomo distinto un gentiluomo la mia prima questione d'onore con un uomo di gran mondo fu appunto a causa della mia nobiltà col giovane sir ramford boomford dell'ambasciata inglese mio zio nel medesimo tempo mandò un cartello al ministro che rifiutò di venire colpì sir ramford alla gamba tra le lacrime di gioia di mio zio che mi aveva accompagnato sul terreno vi assicuro che nessuno di quei giovani gentiluomini fece più domande sulla autenticità del mio albero genealogico ne rise più della mia corona che vita deliziosa conducevamo ora sapevo di essere nato gentiluomo per il modo delicato con cui trattavo gli affari perché certo si trattava di affari infatti anche la vita ad un gentiluomo non è tutta un piacere e posso assicurare ogni persona di bassa nascita che abbia l'occasione di leggermi che noi i migliori dobbiamo lavorare quanto loro mi alzavo è vero a mezzogiorno ma non ero stato forse al tavolo da gioco fino a molto dopo la mezzanotte molte volte venivamo a casa per andare a letto quando le truppe si mettevano in marcia per la rivista del mattino e oh come mi faceva bene al cuore sentire le trombe che suonavano la sveglia prima dello spuntar dell'alba e vedere i reggimenti che marciavano per andare all'istruzione e pensare che non ero più legato a quella disciplina ma riportato alla mia situazione naturale mi ci ero ambientato subito come se non avessi mai fatto nient'altro in vita mia avevo un gentiluomo per seguirmi un friseur francese per aggiustarmi i capelli la mattina conoscevo il gusto della cioccolata quasi per intuito e sapevo distinguere il vino spagnolo da quello francese prima di aver passato una settimana nella mia nuova posizione portavo anelli su tutte le dita orologi in tutti e due i taschini bastoni gioielli e tabacchiere di ogni sorta ed ognuna superava l'altra in eleganza avevo miglior gusto naturale per i merletti e la porcellana di qualsiasi persona che abbia mai conosciuta sapevo giudicare un cavallo bene quanto qualsiasi mercante ebreo della germania ero senza rivali nel tiro a segno e negli esercizi atletici non sapevo scriverli ma sapevo parlare francese e tedesco con abilità avevo almeno dodici abiti completi tre riccamente ricamati d'oro due con merletti d'argento una pelliccia di velluto color granata coi bordi di zibellino uno di merletto francese grigio argento orlato di cincillà avevo vestaglie da mattino di damasco prendevo lezioni di chitarra e cantavo alla perfezione motivi francesi dove era in realtà un gentiluomo più perfetto di redmond de balibari tutti questi lussi confaccenti alla mia situazione non si potevano naturalmente ottenere senza credito e denaro per procurarci i quali poiché il nostro patrimonio era stato mandato in rovina dai nostri antenati e noi eravamo troppo al di sopra del volgo e delle basse vicende e delle mutevoli fortune del commercio mio zio teneva un banco di faraone eravamo in società con un fiorentino ben noto in tutte le corti d'europa il conte Alessandro Pippi il più abile giocatore che abbia mai visto ma egli alla fine si dimostrò un vero mascalzone e scoprì che anche la sua contea era tutta un'impostura mio zio aveva un arto impedito come ho detto Pippi come tutti gli impostori era un vigliacco fu soltanto l'abilità senza pari che avevo nel maneggiare la spada e la prontezza con cui l'usavo che mantennero la reputazione della ditta per così dire e ridussero al silenzio più di un giocatore timido che aveva delle esitazioni sul pagamento delle sue perdite noi giocavamo sempre sulla parola con tutti con ogni persona cioè di onore e di nobile lignaggio noi non chiedevamo mai con insistenza alle nostre vincite e non rifiutavamo di ricevere biglietti con tanto di firma in luogo dell'oro ma guai a quell'uomo che non faceva fronte all'impegno quando la nota giungeva alla scadenza allora Redmond de Balivari lo aspettava con il suo conto e vi posso assicurare che ci furono pochi debiti inesigibili per contro i gentiluomini ci erano grati della nostra correttezza e la nostra reputazione sul punto dell'onore restava immacolata in tempi più recenti un volgare pregiudizio nazionale ha cercato di gettare un'ombra sul carattere degli uomini d'onore che si danno al gioco come professione ma io parlo del buon tempo antico in Europa prima che la vigliaccheria della aristocrazia francese in quella vergognosa rivoluzione che la servita a dovere portasse discredito e rovina sulla nostra classe sociale essi dimostrano disgusto per gli uomini che si danno al gioco ma vorrei sapere che cosa il loro modo di vivere ha di più onorevole del nostro la gente di cambio che specula al rialzo e dal ribasso e compra e vende e si impegna in prestiti a lungo termine e si vale dei segreti di stato che cosa è se non un giocatore il commerciante che traffica in tè e sego è forse qualche cosa di meglio le balle di sporco indaco sono i suoi dadi le sue carte si distribuiscono una volta l'anno invece che ogni dieci minuti ed il mare è il suo tavolo verde chiamate onorevole la professione legale in cui un uomo mente per qualsiasi offerta mente il povero per avere una mancia dal ricco mente chi è nel giusto perché anche lui deve tenere discorsi arzigogolati chiamate onorevole il dottore il cerusico pretenzioso che non crede nelle ricette che prescrive e prende le vostre ghinee per dirvi all'orecchio che è proprio una bella giornata e poi disprezzate un galantuomo che siede davanti a un tavolo verde e sfida tutti quelli che vengono il suo denaro contro il loro la sua fortuna contro la loro dal vostro moderno mondo morale costui viene proscritto è una congiura delle classi medie contro i gentiluomini si può scivolare oggi soltanto sul piano inclinato del bottegaio io dico che il gioco era un'istituzione cavalleresca ed ha fatto naufragio insieme con gli altri privilegi degli uomini di buona nascita quando il cavaliere di St. Gal tenne impegnato un avversario per sei ore e mezzo senza lasciare il tavolo non credete che abbia mostrato coraggio e non avevano sangue migliore e più brillanti occhi d'Europa sfolgoranti sul tavolo quando mio zio ed io tenevamo le carte ed il banco contro qualche terribile giocatore che arrischiava solo la millesima parte dei suoi milioni mentre tutto quello che noi avevamo era sul tappeto quando ci impegnammo contro quell'audace Alexis Koslovsky e vincemmo 7000 Luigi in un sol colpo se avessimo perduto saremmo stati ridotti all'elemosina il giorno dopo ma perse lui e nel peggiore dei casi significò un villaggio e qualche centinaio di servi impegno quando a Terplitz il duca di Carland fece entrare 14 lacchè ognuno con 4 borse di fiorini e sfidò il banco a giocare contro le borse sigillate che cosa gli chiedemmo signore dicemmo noi abbiamo soltanto 80.000 fiorini al banco o 200.000 a tre mesi se le borse di vostra altezza non contengono più di 80.000 possiamo incontrarvi e così facemmo e dopo 11 ore di gioco in cui il nostro banco si ridusse una volta a 203 ducati gli vincemmo 17.000 fiorini questo non rassomiglia all'audacia e questa professione non richiede intelligenza perseveranza e valore 4 teste coronate guardavano il gioco ed una principessa imperiale quando voltai l'asso di cuori e feci paroli scoppiò in lacrime nessun uomo sul continente europeo aveva allora una posizione migliore di Redmond Berry e quando il duca di Carland perdette si compiacque di dire che avevamo vinto nobilmente così era e spendemmo mai tanto nobilmente quanto avevamo vinto in questo periodo mio zio che assisteva regolarmente ogni giorno alla messa non metteva mai meno di 10 fiorini nella cassetta delle elemosine dovunque andassimo i tavernieri ci ricevevano meglio dei principi reali avevamo l'abitudine di regalare il cibo avanzato ai nostri pranzi e dalle nostre cene a ventine di mendicanti che ci benedicevano chiunque mi teneva il cavallo o mi lustrava gli stivali riceveva un ducato per la sua fatica ero posso dirlo l'autore della nostra comune buona fortuna perché avevo introdotto l'audacia nel nostro modo di giocare Pippi era un individuo di animo meschino che si comportava sempre vilmente quando cominciava a vincere anche mio zio parlo di lui con grande rispetto era troppo devoto e troppo scrupoloso al gioco per vincere forte il suo coraggio morale era fuori questione ma la sua audacia non era sufficiente entrambi i miei maggiori soci in conseguenza mi riconobbero come loro capo e di qui derivò lo stile di magnificenza che ho descritto ho ricordato sua altezza imperiale la principessa Federica Amelia che fu colpita dal mio successo e penserò sempre con gratitudine alla protezione di cui quella augusta signora mi onorò era straordinariamente appassionata al gioco come lo erano le signore di quasi tutte le corti d'Europa a quel tempo e ciò ci dava spesso non poco fastidio perché a dire la verità alle signore piace molto giocare ma non pagare il punto d'onore non è compreso dal gentil sesso e solo con la maggiore difficoltà nelle nostre peregrinazioni nelle varie corti dell'Europa settentrionale le tenevamo lontane dal nostro tavolo era una fatica riscuotere il loro denaro se perdevano e se pagavano impedire loro di usare subito dopo i più furiosi e straordinari mezzi di vendetta in quei giorni della nostra grande fortuna calcolai che perdemmo non meno di 14.000 Luigi per tali mancati pagamenti una principessa di una casa ducale ci diede fondi di bicchiere invece dei diamanti che aveva solennemente detto di darci impegno un'altra organizzò un furto di gioielli della corona e ci avrebbe accusato del furto se non fosse stato per la precauzione presa dal Pippi che aveva conservato una nota di mano di sua altezza serenissima e l'aveva mandata al suo ambasciatore per questa precauzione credo ci salvammo la testa una terza signora di alto rango ma non principesco dopo che le ebbi vinta una considerevole somma in perle e diamanti mandò il suo amante con una banda di sicari ad aggredirmi e fu soltanto per il mio straordinario coraggio abilità e buona fortuna che riuscì a sfuggire a quei farabutti ferito anch'io ma dopo aver lasciato il capo degli aggressori morto sul terreno la mia spada gli entrò nell'occhio e glielo sfondò ed i mascalzoni che erano con lui vedendo cadere il loro capo fuggirono avrebbero potuto finirmi perché non avevo più altre armi con cui difendermi come si sarà visto la nostra vita nonostante il suo splendore era piena di grandi pericoli e difficoltà e richiedeva molto talento e coraggio per arrivare al successo e spesso quando eravamo in piena vena di successo eravamo allontanati dal nostro terreno di lavoro per qualche improvviso capriccio di un principe regnante per qualche intrigo di un amante delusa o per qualche lite col ministro della polizia se quest'ultimo personaggio non riceveva qualche mancia o non vinceva niente di più facile per noi che di ricevere un improvviso ordine di partenza e così per forza di cose vivevamo una vita vagabonda ed agitata benché i guadagni di una simile vita siano come ho detto molto grandi anche le spese sono enormi il nostro aspetto e il nostro modo di vivere erano troppo splendidi per la ristretta mente di pippi che quasi sempre gridava contro la mia stravaganza benché fosse obbligato ad ammettere che la sua meschinità e parsimonia non ci avrebbero mai portato le grandi vittorie che avevo ottenuto con la mia generosità nonostante i nostri successi il nostro capitale non era grande quel discorso al duca di carland ad esempio era stato una bravata almeno per quanto riguardava i 200.000 fiorini a tre mesi non avevamo credito e non possedevamo altro denaro che quello sul tavolo e saremmo stati costretti a fuggire se sua altezza avesse vinto ed accettato le nostre cambiali qualche volta anche ci riducevamo molto vicino all'osso un banco dà quasi la certezza ma ogni tanto può avvenire una giornata nera e le persone che hanno coraggio nella buona fortuna dovrebbero almeno affrontare bene quella cattiva cose credetemi difficili entrambe ma la prima di più una di queste cattive sorti ci piombò addosso nel territorio del duca di Badem a Mannheim Pippi che era sempre in cerca di affari mi offrì di tenere un banco all'albergo in cui ci eravamo fermati e dove cenavano gli ufficiali dei corazzieri del duca ed in conseguenza facemmo un piccolo gioco e alcune disgraziate Corone e Luigi cambiarono di mano credo anzi con un certo vantaggio di quei poveri gentiluomini dell'esercito che sono certo i più poveri diavoli che esistano sotto il sole ma quando si dice la cattiva sorte un paio di studentelli della vicina università di Heidelberg che erano stati mandati a Mannheim a riscuotere il trimestre della loro rendita e così avevano con loro qualche centinaio di dollari vennero introdotti al nostro tavolo e non avendo mai giocato prima di allora cominciarono a vincere come sempre succede siccome ci si era messa la cattiva fortuna erano anche ubriachi ed ho spesso visto che i calcoli più sottili falliscono contro l'ubriachezza giocavano in una maniera assolutamente pazza eppure vincevano sempre ogni carta che voltavano era a loro favore avevano vinto un centinaio di Luigi in dieci minuti e vedendo che Pippi cominciava ad arrabbiarsi e che la fortuna ci era contraria stavo per chiudere il banco dicendo che si era giocato solo per scherzo e che ne avevamo abbastanza ma Pippi che quel giorno aveva litigato con me era deciso a continuare e la conclusione fu che gli studenti giocarono e vinsero sempre di più poi prestarono denaro agli ufficiali che cominciarono anch'essi a vincere ed in questo ignobile modo in una stanza di taverna piena di fumo di tabacco attraverso un tavolo macchiato di birra e di liquori contro un gruppo di subalterni affamati ed un paio di studenti in berbi tre dei più abili e rinomati giocatori d'Europa persero 1700 Luigi arrossisco ancora quando ci penso fu come Carlo II o Riccardo cuor di leone che caddero davanti a una piccola fortezza per una mano ignota come scrisse il mio amico mister Johnson anzi in realtà fu una disfatta anche più vergognosa né questa fu la sola disfatta quando i nostri poveri conquistatori se ne furono andati soddisfatti del tesoro che la fortuna aveva loro gettato nelle mani uno di questi studenti si chiamava il barone de Clotts forse lo stesso che più tardi perdette la testa sul patibolo di Parigi Pippi riprese la lite della mattina e tra noi passarono parole un po' troppo pesanti tra l'altro ricordo di avergli tirato uno sgabbello in testa e di essere stato sul punto di buttarlo fuori dalla finestra ma mio zio che aveva conservato il suo sangue freddo e che stava facendo la quaresima con la sua consueta solennità si interpose tra noi cosicché ebbe luogo la riconciliazione Pippi si scusò e confessò di avere avuto torto avrei dovuto dubitare però della sincerità di quell'italiano traditore in realtà non ho mai creduto ad una sola parola che abbia detto in vita sua e non so perché fossi così sciocco da fidarmi di lui ed andarmene a letto lasciandogli la chiave della cassetta del nostro denaro conteneva dopo le nostre perdite coi corazzieri circa 8000 sterline in denaro e cambiali Pippi insiste perché la nostra riconciliazione fosse ratificata con una coppa di vino caldo e non ho dubbio che abbia messo nel liquore qualche droga soporifera perché mio zio ed io dormimmo entrambi fino a molto tardi la mattina seguente e ci svegliammo con un violento mal di testa e febbre non lasciamo il letto fino a mezzogiorno Pippi se n'era andato da 12 ore lasciandoci vuoto il tesoro e a sua giustificazione una specie di calcolo con cui dimostrava di portar via soltanto quella che era la sua parte di profitto e che tutte le perdite comuni erano state subite senza il suo consenso così dopo 18 mesi dovevamo ricominciare da capo ma mi abbattei forse? no il nostro guardaroba valeva ancora una grossa somma di denaro perché i gentiluomini a quei tempi non vestivano come gli impiegati delle parrocchie ed una persona di mondo portava spesso addosso un abito ed una serie di ornamenti che farebbero la fortuna di un negoziante così senza perdere un sol minuto o dire una sola parola di rabbia il carattere di mio zio da questo punto di vista era ammirevole o permettere che il segreto della nostra perdita fosse noto a qualsiasi persona mortale mettemmo impegno tre quarti dei nostri gioielli ed abiti da Moses Love il banchiere e col prodotto di questo affare e col nostro denaro spicciolo personale che ammontava in tutto a meno di 800 Luigi scendemmo di nuovo in campo capitolo decimo altri giri della fortuna non voglio intrattenere i miei lettori con un resoconto della mia carriera professionale di giocatore più di quanto non lo abbia fatto con gli aneddoti della mia vita di militare potrei riempire dei volumi con racconti di questo genere se ne avessi l'intenzione ma in questo modo ci vorrebbero anni prima che il mio racconto venisse alla fine e chissà in quale momento potrò essere chiamato a farla finita ho la gotta il reumatismo i calcoli ed il fegato fuorisesto ho due o tre ferite sul mio corpo che mi fanno male e ogni tanto mi danno un dolore insopportabile e cento altri sintomi di prossima fine questi sono gli effetti del tempo della malattia e della vita libera su una delle costituzioni più robuste e dei corpi più belli che si siano mai visti al mondo ah non soffrivo di nessuna di queste malattie nel 1766 quando in Europa non vi era nessuno di spirito più allegro e più splendido nel suo modo di fare del giovane Redmond Berry prima del tradimento di quel farabutto di Pippi avevo visitato molte delle migliori corti d'Europa specialmente le più piccole in cui il gioco era incoraggiato ed i professori di quella scienza erano sempre i benvenuti nei principati ecclesiastici del Reno eravamo particolarmente ben ricevuti non ho mai conosciuto corti più belle e più allegre di quelle degli elettori di Treveri e di Colonia dove vi erano anche maggiore splendore ed allegria che a Vienna e di gran lunga di più che in quella maledetta corte caserma di Berlino la corte dell'arciduchessa governatrice del Netherlands era parimenti un luogo regale per noi cavalieri del Dado e galanti devoti della fortuna invece nella cupa Olanda o nelle micregnose repubbliche svizzere era impossibile che un galantuomo si guadagnasse la vita senza venire molestato dopo il nostro incidente a Mannheim mio zio ed io ci dirigemmo al ducato di X il lettore può individuare il luogo abbastanza facilmente ma io non ho intenzione di stampare in tutte le lettere i nomi di alcune persone illustri nella cui compagnia mi trovai allora e tra le quali ebbi l'avventura di correre una strana e tragica avventura non vi era corte in Europa in cui gli stranieri fossero meglio accorti che quella del nobile duca di X non vi era piacere più largamente offerto e più splendidamente goduto il principe non abitava nella sua capitale di S ma imitando da ogni punto di vista il cerimoniale della corte di Versailles si era costruito un magnifico palazzo ad alcune leghe dalla capitale ed attorno al palazzo una superba città aristocratica abitata interamente dai suoi nobili e dai funzionari della sua sontuosa corte il popolo veniva spremuto abbastanza duramente a voler dire la verità per mantenere questo splendore perché i domini di sua altezza erano piccoli e così saggiamente egli viveva in una specie di splendido isolamento e mostrava di rado il suo volto nella capitale né vedeva altre persone che i suoi fedeli domestici e funzionari il suo palazzo ed i giardini di Ludwig's Lust erano esattamente sul modello francese due volte la settimana vi erano ricevimenti a corte e gran gala di corte due volte al mese vi era il teatro d'opera più magnifico che esistesse fuori dalla Francia ed un balletto che non aveva rivali in splendore per esso sua altezza grande amatore della musica e della danza spendeva somme prodigiose può darsi che dipendesse dal fatto che era molto giovane ma mi sembra di non aver mai più visto una simile riunione di brillanti bellezze come quelle che figuravano in quel tempo sul palcoscenico del teatro di corte nei grandi balli mitologici che erano allora di moda ed in cui si vedeva Marte in scarpine col tacco rosso e parrucca e venere con nei e guardinfante dicono che il costume non fosse corretto e da allora in poi lo hanno cambiato ma per parte mia non ho mai visto una venere più graziosa di Corali che era la prima ballerina e non trovavo alcun difetto nelle ninfe che la seguivano con code e falde e cipria questi spettacoli d'opera avevano luogo di solito due volte alla settimana e dopo di essi qualche grande ufficiale della corte offriva una serata con una cena brillante e le scatole dei dadi risuonavano dappertutto e tutti quanti giocavano ho visto fino a 70 tavoli da gioco sistemati nella grande galleria di Ludwigslust oltre al banco di Faraone ed il duca stesso si compiaceva di venire a giocare e vinceva e perdeva con uno splendore veramente regale fu qui che venimmo dopo l'incidente di Mannheim la nobiltà della corte si compiacque di dichiarare che la nostra reputazione ci aveva preceduti e di due gentiluomini irlandesi vennero accolti molto bene la prima notte a corte perdemmo 740 dei nostri 800 Luigi ma la sera seguente al tavolo del maresciallo di corte io ne vinsi 1300 di più potete essere sicuri che facemmo in modo che nessuno si accorgesse di quanto eravamo stati vicini alla rovina la sera prima anzi io mi guadagnai le simpatie di tutti col mio elegante modo di perdere ed il ministro delle finanze in persona accettò una nota di 400 Ducati tratta da me sul maggiordomo di Ballybury Castle nel regno di Irlanda nota che per fortuna rivinsi a sua eccellenza il giorno seguente insieme con una considerevole somma a pronti contanti in quella nobile corte tutti erano giocatori potevamo vedere i lacchè nelle ducali anticamere al lavoro con i loro sporchi mazzi di carte il cocchiere ed i portatori di lettighe giocavano nel cortile mentre i loro padroni puntavano nei saloni del piano nobile e mi è stato detto che cuochi e sguatteri tenevano un banco in cui uno di loro un pasticcere italiano fece una bella fortuna egli comprò più tardi un marchesato romano e suo figlio affigurato come uno dei più eleganti tra i forestieri illustri di Londra quei poveri diavoli dei soldati giocavano la loro paga quando l'avevano cosa che avveniva di rado e credo che non vi fosse ufficiale nei reggimenti della guardia che non avesse in tasca le carte ed era più difficile che dimenticasse i dadi che il cinturone della spada tra gente come quella si era come corsaro contro corsaro sarebbe stata una follia fare quello che si chiama gioco leale i gentiluomini di Belliberry sarebbero stati sciocchi davvero a comportarsi da colombe in un simile nido di sparvieri nessuno se non gli uomini di coraggio e di ingegno può vivere e prosperare in una società in cui tutti sono audaci e intelligenti e qui mio zio ed io fummo all'altezza della situazione ed anche più che all'altezza il duca era vedovo o piuttosto dopo la morte della duchessa regnante aveva contratto un matrimonio morganatico con una signora che aveva egli stesso fatta nobile e che considerava un complimento tale era la morale di quei tempi di essere chiamata la Dubarrì del nord si era sposato molto giovane e suo figlio il principe ereditario si può dire che fosse già il vero sovrano politico dello stato perché il duca regnante era più amante del piacere che della politica e preferiva di gran lunga parlare col suo gran cacciatore e col direttore dell'opera che coi ministri e gli ambasciatori il principe ereditario che chiamerò il principe Victor era di un carattere molto diverso da quello del suo augusto genitore aveva fatto le guerre di successione e dei sette anni con grande onore al servizio dell'imperatrice era di umore cupo compariva di rado a corte salvo quando il cerimoniale lo richiedeva e viveva quasi solo in un'ala del palazzo in cui si dedicava agli studi più severi essendo un grande astronomo e chimico anche lui aveva la passione allora tanto comune in tutta l'Europa di andare alla ricerca della pietra filosofale e mio zio rimpiangeva spesso di non avere nessuna infarinatura di alchimia come il famoso balsamo che si faceva chiamare Cagliostro il conte di Saint Germain ed altri individui che avevano ottenuto grandi somme dal duca Victor per aiutarlo nella sua ricerca del grande segreto i suoi divertimenti consistevano nell'andare a caccia e nel passare in rivista alle truppe se non fosse stato per lui e se il carattere remissivo di suo padre non gli fosse stato d'aiuto l'esercito avrebbe passato tutto il giorno a giocare a carte e così era bene che si lasciasse governare il prudente principe il duca Victor aveva allora 50 anni e sua moglie la principessa Olivia ne aveva 23 erano sposati da 7 anni e nei primi 5 anni della loro unione la principessa gli aveva dato un figlio ed una figlia l'austera morale ed il modo di fare brusco l'aspetto cupo e poco piacevole del marito erano poco adatti a lusingare la brillante ed affascinante giovane sposa che era stata educata nel sud era imparentata con la casa ducale di esse e aveva passato due anni a Parigi sotto la tutela delle figlie di sua maestà cristianissima essa era la vita e l'anima della corte di X la più allegra tra le persone allegre l'idolo del suo augusto suocero e in realtà di tutta la corte non era bella ma piacente non intelligente ma ugualmente affascinante sia nella sua conversazione che nel suo aspetto era stravagante oltre ogni misura tanto falsa che non ci si poteva fidare di lei ma la sua debolezza era più avvincente delle virtù delle altre donne il suo egoismo più delizioso della generosità delle altre non ho mai conosciuto una donna che abbia avuto dei difetti tanto attraenti era solita mandare in rovina la gente eppure tutti l'amavano il mio vecchio zio l'aveva vista barare alle ombre e le aveva fatto vincere 400 luigi senza resisterle affatto i suoi capricci con gli impiegati e le signore della sua casa erano senza tregua ma essi l'adoravano era la sola della famiglia regnante che il popolo amasse non usciva mai senza che la sua carrozza fosse seguita da grida di acclamazione e per essere generosa con coloro che l'applaudivano si faceva prestare fino all'ultimo soldo dalle sue povere dame d'onore che non rimborsava mai nei primi tempi suo marito fu affascinato da lei come lo erano tutti gli altri ma i suoi capricci provocarono alla fine spaventosi scoppi di collera da parte di lui e alla fine il suo allontanamento benché interrotto da quasi folli ritorni d'amore era ormai quasi completo parlo di sua altezza reale con perfetta buona fede ed ammirazione benché io potrei essere scusato se la giudicassi severamente considerando l'opinione che ella aveva di me avendo essa detto che il vecchio monsieur de balibari era un perfetto gentiluomo di antico stampo ma che il più giovane aveva modi da vetturale questa parola ha dato luogo a diverse interpretazioni ma posso permettermi di pensare che la frase era stata detta a mio sfavore oltre a questo aveva per me una ragione di antipatia che ora sentirete cinque anni nell'esercito e la mia lunga esperienza del mondo avevano ormai completamente disperso tutte quelle romantiche idee riguardanti l'amore con cui avevo cominciato la vita ed avevo deciso così come si conviene ai gentiluomini sono soltanto le persone di bassa nascita che si sposano per amore di consolidare la mia fortuna con un buon matrimonio nel corso delle nostre peregrinazioni mio zio ed io avevamo fatto molti tentativi per mettere in atto questo progetto ma avevamo avuto parecchie delusioni che non vale la pena di ricordare qui che mi avevano impedito di fare un matrimonio come quello che ritenevo conveniente ad un uomo della mia nascita abilità ed aspetto le signore sul continente non hanno l'abitudine di farsi rapire così come si usa in Inghilterra abitudine di cui molti onorevoli gentiluomini del mio paese hanno largamente profittato e nel matrimonio intervengono tutori cerimonie e difficoltà di ogni genere il vero amore non può mai avere il suo corso e le povere donne non possono concedere il loro onesto cuore ai galanti giovani che le hanno conquistate ora venivano richieste garanzie ora il mio albero genealogico ed i miei titoli non sembravano soddisfacenti benché avessi la pianta e l'elenco delle rendite dei feudi di Belli Berry e la genealogia della famiglia fino al re Brian Boru o Berry fosse chiaramente disegnata sulla carta ora era una signorina che veniva sbattuta in un convento perché era pronta a cadere nelle mie braccia in un'altra occasione quando una ricca vedova dei Paesi Bassi era proprio sul punto di farmi signore di un magnifico feudo nelle fiandre venne un ordine della polizia che mi sloggiava da Bruxelles con un'ora di preavviso e che rappresentò il funerale del mio castello in aria ma Dix ebbi occasione di giocare un grosso gioco e lo avrei anche vinto se non fosse stato per una disastrosa catastrofe che sconvolse il mio destino nella casa della principessa ereditaria vi era una fanciulla di 19 anni che possedeva il patrimonio più grosso di tutto il ducato la contessa Ida così si chiamava era figlia di un ex ministro e favorito di sua altezza il duca di X e la duchessa che le aveva fatto l'onore di essere sua madrina alla nascita alla morte di suo padre l'aveva presa sotto la sua augusta tutela e protezione a 16 anni l'aveva portata nel suo castello dove in quel periodo le era stato permesso di risiedere ed era stata addetta alla persona della principessa Olivia come una delle damigelle d'onore di sua altezza la zia della contessa Ida che dirigeva la sua casa durante la sua minore età le aveva scioccamente permesso di contrarre una passione per un suo cugino tedesco un sottotenente senza un soldo in uno dei reggimenti di fanteria del ducato che si era lusingato di essere in grado di conquistare un così ricco premio e se non fosse stato un idiota stolto e stupido avendo il vantaggio di vederla in continuazione di non aver rivali vicino a sé e di essere in intime relazioni con tutta la parentela avrebbe potuto facilmente con un matrimonio segreto assicurarsi la contessina e i suoi beni ma egli condusse le cose così da sciocco che non solo le permise di lasciare il suo ritiro per venire a corte per un anno e prendere il suo posto nella casa della principessa Olivia ma per di più il mio giovane gentiluomo non ebbe riguardo di presentarsi una mattina a levarsi del duca con le spalline lustrate e la giubba di panno logoro a fare in debita forma a sua altezza come tutore della signorina la richiesta della mano della più ricca ereditiera dei suoi domini la debolezza di carattere del buon principe era tale che siccome la contessa Ida stessa era tanto disposta al matrimonio quanto il suo stupido cugino si sarebbe lasciato andare a permettere le nozze se la principessa Olivia non lo avesse indotto ad opporsi e non avesse spinto il duca a mettere un veto perentorio alle speranze del giovanotto la causa di questo rifiuto è ancora oggi ignota non si era ancora presentato nessun altro pretendente alla mano della signorina e i due innamorati continuarono a tenere corrispondenza tra loro sperando che il tempo avrebbe portato un cambiamento nelle risoluzioni di sua altezza ma ad un tratto il tenente venne trasferito in uno di quei reggimenti che il principe aveva l'abitudine di vendere alle grandi potenze allora in guerra questo commercio militare costituiva la parte principale delle rendite di sua altezza e degli altri principi in quel periodo e la loro relazione fu così bruscamente spezzata era strano che la principessa Olivia avesse preso questo atteggiamento verso una ragazza che era stata la sua favorita anzi da principio per quelle idee romantiche sentimentali che quasi tutte le donne hanno essa aveva un po' incoraggiato la contessa Ida e il suo spiantato innamorato ma poi ad un tratto si era voltata contro di loro ed anziché favorire la contessina come aveva fatto fino ad allora passò a perseguitarla con tutte le forme di odio che una donna possa inventare non vi era fine alla ingegnosità delle sue torture al veleno della sua lingua all'amarezza del suo sarcasmo e del suo dileggio quando arrivai per la prima volta alla corte di X i giovanotti avevano soprannominato la ragazza la Dume Grefin la contessa stupida di solito essa taceva bella ma pallida con uno sguardo sciocco e duro non aveva alcun interesse per i divertimenti della città e sembrava in mezzo alle feste come la testa di morto che a quanto si dice i romani erano soliti tenere alla loro tavola si sussurrava che un giovane gentiluomo di origine francese il cavalier de Magny scudiero del principe ereditario e che si trovava a Parigi quando la principessa Olivia si era sposata con lui per procura laggiù fosse il pretendente della ricca contessa Ida ma non era stata fatta ancora nessuna dichiarazione ufficiale del genere e si bisbigliava di qualche sporco intrigo che più tardi ricevette una spaventosa conferma questo de Magny era il nipote di un vecchio ufficiale generale al servizio del duca il barone de Magny il padre del barone aveva lasciato la Francia al tempo dell'espulsione dei protestanti dopo la revoca dell'editto di Nantes e aveva preso servizio ad Ix dove era morto gli era succeduto il figlio che diversamente da quanto accadde alla maggior parte dei gentiluomini di origine francese che ho conosciuto era un calvinista cupo e freddo rigido nel compimento dei suoi doveri contegnoso nel suo modo di fare che si mescolava poco con la corte ed era intimo amico e favorito del duca Victor a cui egli assomigliava come carattere il cavaliere suo nipote invece era un vero francese era nato in Francia dove suo padre aveva tenuto un incarico diplomatico al servizio del duca si era mescolato alla più brillante società delle più allegre corti del mondo ed aveva da raccontarci infinite storielle sui piaceri delle petit maison sui segreti del Parc Hausser e sulla selvaggia sfrenatezza di Richelieu e dei suoi compagni nota a margine Richelieu tipico rappresentante dell'aristocrazia mondana e corrotta del tempo di Luigi XV da non confondere col cardinale di Richelieu si era quasi rovinato al gioco come aveva fatto suo padre prima di lui perché fuori di portata del cupo vecchio barone di Germania figlio e nipote avevano condotto la vita più sfrenata era tornato a Parigi subito dopo l'ammasciata che era stata mandata laggiù in occasione del matrimonio della principessa e fu ricevuto con molta freddezza dal vecchio nonno che però gli pagò ancora una volta i debiti e gli procurò un impiego nella casa del duca il cavaliere de Magny divenne presto grande favorito del suo augusto signore portava con sé le mode e l'allegria di Parigi era l'ideatore di tutte le mascherate e di tutti i balli il reclutatore delle ballerine del balletto e di gran lunga il giovane gentiluomo più brillante e splendido della corte dopo qualche settimana della nostra permanenza a Ludwigslust il vecchio barone de Magny cercò di farci mandar via dal ducato ma la sua voce non era abbastanza forte da superare la voce pubblica che ci era favorevole e il de Magny specialmente prese le nostre parti davanti a sua altezza quando la questione fu dibattuta in sua presenza l'amore del gioco del cavaliere non lo aveva abbandonato frequentava regolarmente il nostro banco dove giocò per qualche tempo con una discreta fortuna e poi quando cominciò a perdere pagava con una regolarità sorprendente per coloro che conoscevano la scarsità dei suoi mezzi in confronto allo splendore del suo aspetto anche su altezza la principessa Olivia era molto appassionata del gioco in una mezza dozzina di occasioni quando tenevamo banco a corte potei accorgermi della sua passione per il gioco ma potei vedere cioè lo vide mio zio che aveva sempre il cervello a posto molto di più vi era una relazione tra Messie de Magny e quella illustre signora se sua altezza non è innamorata di quel piccolo francese mi disse una sera mio zio dopo il gioco possa io perdere la vista dell'occhio che mi è rimasto e a noi che ce ne importa signore disse io che ce ne importa disse mio zio guardandomi fisso in volto sei così ingenuo da non capire che cosa ce ne importi può essere la tua fortuna se sai starci dietro e possiamo riavere i feudi dei berri in due anni ragazzo mio com'è questa storia chiesi ancora imbarazzato mio zio mi disse in tono secco fai giocare Magny non importa che paghi prendi le sue cambiali a vista più ci deve meglio è ma soprattutto fallo giocare non può pagare neppure uno scellino risposì io gli ebrei non sconteranno le sue tratte nemmeno al cento per cento tanto meglio vedremo che uso potremmo farne rispose il vecchio gentiluomo e debbo confessare che il piano che aveva fatto era brillante e intelligente ed anche geniale dovevo indurre Magny a giocare fin qui non c'erano grandi difficoltà eravamo diventati intimi perché egli era un eccellente sportivo come me ed avevamo l'uno per l'altro una notevole amicizia se egli vedeva una scatola di dadi era impossibile impedirgli di prenderla in mano la prendeva con la stessa naturalezza di un bambino quando prende i dolci da principio vinse poi cominciò a perdere poi io giocai denaro contro i gioielli che portava addosso gingilli di famiglia disse ma in realtà di considerevole valore mi pregò tuttavia di non farne uso nel ducato e io diedi la mia parola d'onore su questo punto e la mantenni dai gioielli passò a giocare su biglietti di impegno e siccome non era permesso giocare a credito alle tavole di corte ed in pubblico fu molto lieto di avere un'occasione per soddisfare alla sua passione in privato stavo con lui per ore intere nel mio padiglione che avevo mobilitato alla maniera orientale in modo splendido e giocavamo ai dadi finché non veniva per lui il momento di andare a corte a fare il suo servizio ed in questo modo passavamo un giorno dopo l'altro mi portò altri gioielli una collana di perle un antico medaglione di smeraldi ed altre bagatelle come garanzia per le sue perdite perché non c'è bisogno di dire che non avrei giocato con lui per tutto questo tempo se fosse stato lui a vincere ma dopo una settimana la fortuna si accanì talmente contro di lui che egli divenne mio debitore per una somma prodigiosa non mi importa di ricordarne l'esatto ammontare era tale che non avrei pensato che egli potesse pagarla perché dunque allora continuavo a giocare perché sprecare le giornate in un gioco segreto che era un vero fallimento quando altrove si potevano fare affari molto più proficui debbo confessare sinceramente la ragione che mi spingeva volevo vincere a monsieur de Magny non il suo denaro ma la sua presunta sposa la contessa Ida chi può dire che non avessi il diritto di usare qualsiasi stratagemma in questa questione d'amore ma perché usare la parola amore io volevo il denaro di quella signorina l'amavo quindi molto più di Magny l'amavo quasi quanto una pudica vergine di 17 anni ama il vecchio lord di 70 che la sposa seguivo in questo l'abitudine del mondo con questo matrimonio avrei raggiunto la mia fortuna avevo l'abitudine di farmi dare da Magny dopo le sue perdite un'amichevole lettera di riconoscimento che suonava pressa poco così mio caro monsieur de Balibari riconosco di avere perduto oggi a Lanzichenecco o a Picchetto o ai Dadi secondo i casi perché lo dominavo a qualunque gioco facessimo la somma di 300 ducati e considererò come una grande cortesia da parte vostra consentire a tenere in sospeso il debito fino al giorno in cui potrete riceverne il pagamento dal vostro grato ed umile servitore quanto ai gioielli che mi aveva portato avevo preso la precauzione ma questa era stata un'idea di mio zio ed anche molto buona di farmene fare un inventario con una lettera che mi pregava di ricevere quelle bagatelle come parziale pagamento della somma di denaro che mi doveva quando lo ebbi messo in una posizione tale da venire incontro alle mie intenzioni gli parlai con grande serietà e senza alcuna riserva proprio come un uomo di mondo deve fare con un altro mio caro amico gli dissi non ti farò un così cattivo complimento da ritenerti capace di credere che tu possa andare avanti un pezzo a giocare in questo modo e anche io viceversa possa essere in alcun modo soddisfatto di fare collezione di un numero più o meno grande di pezzi di carta muniti della tua firma e di una serie di cambiali a vista che io so che non potrai mai pagare non ti sdegnare e non ti arrabbiare perché tu sai che Redmond Berry è tuo maestro anche alla spada oltre a questo non sono tanto sciocco da battermi con un uomo che mi deve tanto denaro ma ascolta con calma quello che ti devo proporre hai avuto molta confidenza in me durante l'amicizia intima che si è formata tra noi in quest'ultimo mese ed io conosco completamente i tuoi affari personali hai dato al nonno la tua parola d'onore di non giocare più sulla parola e sai bene come l'hai mantenuta e sai anche che ti diserederebbe se conoscesse la verità e poi anche supponendo che morisse domani i suoi beni non sono sufficienti a pagare la somma che mi devi e se tu non fai l'arrendevole con me diventi un pezzente ed un fallito sua altezza la principessa Olivia non ti nega niente non voglio sapere perché ma lasciami dire che mi sono accorto di questo fatto quando abbiamo cominciato a giocare insieme vuoi essere fatto barone ciambellano con il gran cordone dell'ordine balbettò il povero diavolo la principessa può tutto col duca non ho alcuna obiezione dissi contro il nastro giallo e la chiave d'oro benché un gentiluomo della casa dei belli berri si occupi poco dei titoli della nobiltà tedesca ma non è questo che voglio tu mio caro non mi hai nascosto alcuno dei tuoi segreti mi hai detto che con difficoltà ha indotto la principessa Olivia ad acconsentire al progetto della tua unione con la grefin ida che non ami so bene io chi è quella che ami messie de balibari disse il cavaliere sconfitto non poteva più resistermi la verità cominciava a balenargli davanti cominci a capire continuai su altezza la principessa dichiarai in tono sarcastico non sarà molto dispiacente se romperai la tua relazione con la stupida contessa io non sono un ammiratore di quella signorina più di quello che lo sia tu ma voglio i suoi beni ho giocato per conquistarli ed ho vinto e ti restituirò le tue cambiali e 500 ducati il giorno in cui mi sarò sposato il giorno in cui io avrò sposato la contessa rispose il cavaliere sperando di conquistarmi sarò in grado di avere il denaro per soddisfare dieci volte le tue richieste e questo era vero perché la proprietà della contessa poteva avere un valore di quasi mezzo milione di sterline in moneta nostra ed allora soddisferò i miei obblighi verso di te frattanto se tu mi dai fastidio con minacce o mi insulti di nuovo come hai fatto ora farò uso di quella influenza che come dici possiedo e ti farò cacciar via dal ducato come lo sei stato dal netherlands lo scorso anno suonai il campanello molto tranquillamente zamor dissi ad un negro grande e grosso vestito da turco che aveva l'abitudine di seguirmi quando sentirai suonare il campanello la seconda volta porterai questo pacchetto al maresciallo di corte questo a sua eccellenza il generale de magny e questo lo porterai nelle mani di uno degli scudieri di sua altezza il principe ereditario aspetta in anticamera e non andartene con questi pacchetti se non suono un'altra volta quando il negro si fu ritirato mi volsi a monsieur de magny e dissi sappi cavaliere che il primo pacchetto contiene una tua lettera diretta a me che dichiara i tuoi debiti e mi promette solennemente il pagamento della somma che mi devi è accompagnata da un documento firmato da me perché mi aspettavo un po' di resistenza da parte tua che dichiara che il mio onore è stato chiamato in causa e domanda quindi che il documento venga presentato al tuo augusto signore a sua altezza il secondo pacchetto è per tuo nonno e contiene la lettera in cui ti dichiari suo erede e chiede conferma del fatto l'ultimo pacchetto è per sua altezza il duca ereditario aggiunsi guardandolo in modo severo e contiene lo smeraldo che gustavo adolfo ha dato alla sua principessa e che tu mi hai gabellato per un tuo gioiello di famiglia la tua influenza presso sua altezza deve essere molto grande davvero aggiunsi se hai potuto estorcerle un gioiello come quello e se hai potuto far sì che allo scopo di pagare i tuoi debiti ti abbia affidato un segreto da cui dipendono tutte e due le vostre teste ma scalzone disse il francese quasi gelato per la rabbia e la paura vuoi compromettere la principessa messie de magny risposi con un sogginio no dirò soltanto che hai rubato il gioiello credevo proprio che le cose fossero andate così e che l'infelice ed infatuata principessa non si fosse neppure accorta del furto altro che molto tempo dopo che era stato commesso come fossimo venuti a sapere la storia dello smeraldo è una cosa molto semplice e siccome avevamo bisogno di denaro perché le mie occupazioni col de magny facevano sì che il nostro banco fosse molto trascurato mio zio aveva portato quelle bagatelle del cavaliere impegno a manheim l'ebreo che fece il prestito su di esse conosceva la storia dello smeraldo e quando chiese come sua altezza era giunta a separarsene mio zio con grande intelligenza prese la storia al punto in cui l'aveva trovata disse che la principessa era molto appassionata del gioco ma che non sempre le riusciva comodo di pagare ed in conseguenza lo smeraldo era venuto nelle nostre mani saggiamente lo riportò con sé ad esse per quanto riguarda gli altri gioielli che il cavaliere ci aveva dato impegno non erano di particolare interesse e non solo non sapevo che provenissero da sua altezza ma questa è una congettura che faccio soltanto ora lo sfortunato giovanotto doveva avere un carattere alquanto vile perché quando lo accusai del furto non fece uso delle mie due pistole che per caso si trovavano davanti a lui per mandare all'altro mondo il suo accusatore e se stesso ormai che era rovinato con tale imprudenza e deprecabile mancanza di precauzioni da parte sua e della sventurata signora che si era abbandonata a questo inetto doveva aver capito che la scoperta era inevitabile ma era scritto che questo spaventoso destino si sarebbe compiuto invece di finire da uomo egli piegò davanti a me coi nervi spezzati e gettandosi su un divano scoppiò in lacrime e cominciò ad invocare come un matto tutti i santi perché lo aiutassero come se i santi potessero interessarsi del destino di uno straccione come lui vedi che non avevo più niente da temere da lui e richiamato Zamor il mio negro dissi che avrei consegnato i pacchetti io stesso e li riposi nel mio escritoire ed avendo così guadagnato il primo punto agii come sempre faccio molto generosamente verso di lui dissi che per sicurezza avrei mandato lo smeraldo fuori del paese ma mi impegnavo sul mio onore a restituirlo alla duchessa senza alcun compenso pecuniario il giorno in cui mi avesse ottenuto il consenso del sovrano alla mia unione con la contessa ida questo spiegherà abbastanza chiaramente almeno spero il gioco che stavo giocando e benché qualche rigido moralista possa muovere obiezioni alla sua correttezza dico che tutto è lecito in amore e che le persone povere come me non possono permettersi di essere troppo schizzinose sul modo di guadagnarsi da vivere i grandi ed i ricchi sono sempre ben accolti con grandi sorrisi sullo scalone del mondo ma i poveri che hanno aspirazioni debbono arrampicarsi sulle pareti o spingersi lottando su scale di servizio o strusciare come talpe lungo le fogne della casa non importa se sporche o strette purché portino in alto i pigri senza ambizioni asseriscono che non vale la pena di arrivare in cima abbandonano la lotta e dichiarano di essere filosofi io dico che sono codardi poveri di spirito a che cosa serve la vita se non per ottenere onori e questi sono tanto indispensabili che vogliamo raggiungerli ad ogni modo il modo che si poteva seguire per ottenere il ritiro di Magny venne proposto da me e tutto fu condotto in modo da non urtare il sentimento di delicatezza delle due parti feci prendere la contessa Ida indisparte da Magny il quale le tenne questo discorso signora benché non mi sia mai dichiarato vostro ammiratore voi la corte avete avuto sufficienti prove della mia considerazione per voi e la mia domanda sarebbe stata lo so appoggiata da sua altezza vostro augusto tutore so che è volontà del duca che le mie attenzioni siano accolte favorevolmente ma poiché il tempo non è riuscito a modificare l'affetto che avete posto altrove e poiché ho troppo buonsenso per costringere una signora del vostro nome e del vostro rango ad unirsi a me contro la sua volontà il piano migliore è che io vi faccia per la forma una proposta non autorizzata da sua altezza che voi mi rispondiate come sono spiacente di sapere che il vostro cuore vi detta negativamente dopodiché formalmente cesserò di farvi la corte dichiarando che dopo un rifiuto nulla nemmeno la volontà del duca potrebbe indurmi a continuare nelle mie insistenze la contessa Ida quasi piangeva nel sentire queste parole di Messie de Magny e le venivano le lacrime agli occhi e gli disse mentre gli prendeva la mano per la prima volta e lo ringraziava per la delicatezza della sua proposta non sapeva che il francese era assolutamente incapace di simili forme di delicatezza e che il garbato modo in cui dichiarava di cessare la sua corte era tutto di mia invenzione non appena si fu ritirato fu a farmi o farmi avanti con cautela piano per non mettere in allarme la ragazza ma tuttavia con viva fermezza tanto da convincerla che il piano di unirsi con il suo straccione di innamorato il sottotenente era destinato al fallimento la principessa Olivia fu abbastanza brava da compiere in mio favore la necessaria parte del piano ed avvertì solennemente la contessa Ida che nonostante che Messie de Magny si fosse ritirato ed avesse smesso di farle la corte sua altezza e il suo tutore l'avrebbe fatta sposare soltanto con chi riteneva adatto e che essa doveva dimenticare per sempre il suo adoratore con le pezze ai gomiti in realtà non riuscivo neppure a capire come quel pezzante straccione avesse mai avuto l'audacia di farle una proposta indubbiamente era di nobile famiglia ma quali altre qualità aveva quando il cavaliere de Magny si fu ritirato potete star certi che si presentarono alla contessa Ida numerosi altri pretendenti e tra questi il vostro umile servitore il cadetto di Belliberry in questo periodo venne tenuto un carousel o torneo ad imitazione degli antichi scontri della cavalleria in cui i cavalieri si colpivano tra loro o infilavano un anello ed in questa occasione mi vestì di uno splendido costume romano vale a dire un elmo d'argento una parrucca ondeggiante una corazza di cuoio dorato con grandi ricami un mantello di lucente velluto blu e dei mezzi stivali di marocchino cremisi ed in questo abito feci correre il mio cavallo baio Brian infilzai i tre anelli e vinsi il premio su tutto il seguito del duca e sulla nobiltà dei paesi circonvicini che era accorsa allo spettacolo una corona di alloro dorato era il premio del vincitore e doveva essergli consegnata dalla dama che egli avrebbe scelto così galoppai fino alla galleria in cui la contessa ida era seduta dietro alla principessa ereditaria e dopo averla chiamata per nome ad alta voce seppure con grazia la pregai di incoronarmi di sua mano e così mi proclamai di fronte a tutta la Germania per così dire suo pretendente notai che ella diventò molto pallida mentre la principessa diventava rossa ma la contessa ida finì per incoronarmi dopodiché dato di sprone al cavallo galoppai intorno alla pista per salutare sua altezza il duca dalla parte opposta e feci col mio baio i più meravigliosi esercizi il mio successo come si può immaginare non aumentò la mia popolarità tra i giovani al seguito del duca mi chiamavano avventuriero mascalzone giocatore coi dadi piombati e con un centinaio almeno di simili complimenti ma io avevo modo di ridurre al silenzio questa gente affrontai il conte di Schmetterling il più ricco e coraggioso dei giovanotti che sembravano avere qualche pretesa sulla contessa ida e lo insultai pubblicamente al ridotto gettandogli le carte in faccia il giorno seguente percorsi 35 miglia a cavallo nel territorio dell'elettore di B mi incontrai con monsieur de Schmetterling e gli infilai due volte la spada attraverso il corpo poi tornai indietro sempre a cavallo col mio secondo monsieur de Magny e mi presentai al huist della duchessa quella sera stessa Magny da principio non era stato molto soddisfatto di accompagnarmi ma io insistei perché mi facesse da padrino e così dovette appoggiare la mia sfida subito dopo aver reso il mio omaggio a sua altezza me ne andai dalla contessa Ida e le feci un marcato e profondo inchino guardando la fissa in volto mentre ella diventava rosso cremisi e poi diedi un'occhiata intorno a tutti gli uomini che formavano il suo circolo finché ma fu li feci andar via tutti avevo dato istruzioni a Magny di dire da per tutto che la contessa era pazzamente innamorata di me commissione che insieme a molte altre da me affidategli il povero diavolo fu costretto ad eseguire faceva piuttosto una sotte figure come dicono i francesi agendo come mio sostenitore lodandomi da per tutto ed accompagnandomi sempre lui che era stato l'arbitro della mode fino al mio arrivo lui che riteneva che l'albero genealogico dei baroni de Magny quegli straccioni fosse superiore alla razza dei grandi rei irlandesi da cui io discendevo che mi aveva preso in giro cento volte come spadaccino e disertore e mi aveva chiamato un volgare nobiluccio irlandese ora avevo la mia vendetta da gentiluomo e ne approfittavo ero solito chiamarlo nelle comitive più eleganti col suo nome di battesimo di Maxime dicevo bonjour Maxime comment va tu in modo che la principessa potesse sentirmi e lo potevo vedere mordersi le labbra per la rabbia e l'umiliazione ma lo tenevo in pugno lui e anche sua altezza io il povero soldato del reggimento di Biulov e questa è una prova di quanto possono fare il genio e la perseveranza e dovrebbe servire di avviso ai grandi di non aver secret se possono mai riuscirvi sapevo che la principessa mi odiava ma che cosa me ne importava essa sapeva che sapevo tutto e credo che il suo pregiudizio contro di me fosse tanto forte da farle credere che fossi un mascalzone indelicato capace di tradire una signora cosa che io avrei sempre evitato di fare sicché tremava davanti a me come una bambina davanti al maestro di scuola tuttavia secondo il suo modo tutto femminile mi faceva ogni sorta di scherzi e di dispetti nei giorni di ricevimento mi chiedeva notizie del mio palazzo in Irlanda e dei re miei antenati e mi domandava se quando ero soldato semplice nel reggimento dei fanti di Biulov i miei regali parenti si erano interposti per riscattarmi e se il bastone veniva laggiù amministrato in maniera elegante tutto per mortificarmi ma il cielo vi benedica potevo farle delle concessioni in pubblico ed ero solito riderle in faccia mentre ella continuava i suoi scherzi ed i suoi frizzi mi prendevo il divertimento di guardare il povero magnì e di vedere come lui li sopportava il povero diavolo temeva che potessi scoppiare sotto i sarcasmi della principessa e dire tutto ma la mia vendetta quando la principessa mi attaccava era di dire qualche cosa di amaro a lui passandogliela come fanno i ragazzi a scuola e questo era quello che urtava di più sua altezza fremeva quando attaccavo magnì come se avessi detto qualche cosa di offensivo per lei e benché mi odiasse poi in privato mi domandava scusa e benché il suo orgoglio stesse qualche volta per prendere il sopravvento in lei pure la prudenza obbligava la magnifica principessa ad umiliarsi davanti al povero ragazzo irlandese senza un soldo non appena magnì ebbe formalmente ritirate le sue pretese sulla contessa ida la principessa tornò di nuovo a mostrare il suo favore per questa signorina e mostrò di avere molta simpatia per lei per rendere loro giustizia non so quale delle due mi odiasse di più la principessa che era tutto ardore fuoco e civetteria o la contessa che era tutto contegno e dignità quest'ultima specialmente mostrava per me la più grande antipatia eppure dopo tutto l'avevo lusingata del mio meglio ero uno degli uomini più belli d'europa e avrei sfidato qualsiasi bell'imbusto della corte a misurare il torace o la gamba con me ma non mi curavo di nessuno dei suoi sciocchi pregiudizi ed ero deciso a vincerla e ad addomesticarla anche contro la sua volontà forse agivo a causa del suo fascino personale e delle sue qualità no era molto bianca sottile miope alta e asciutta mentre i miei gusti sono proprio l'opposto quanto alla sua intelligenza non c'era da meravigliarsi se una povera creatura che aveva avuto una passioncella per un sottotenente disgraziato ed incenci non potesse mai apprezzare me era il suo patrimonio che volevo per quanto riguardava lei sarebbe stato calunniare il mio gusto di uomo di mondo pensare che essa mi potesse davvero piacere capitolo undicesimo in cui la fortuna si rivolta contro Barry le mie speranze di ottenere la mano di una delle più ricche ereditiere della Germania erano ormai entro i limiti delle possibilità umane e per quanto i miei meriti e la mia prudenza personale potevano assicurare la mia fortuna proprio sul punto di realizzarsi ero ammesso negli appartamenti della principessa tutte le volte che mi presentavo ed avevo tutte le possibilità che desideravo di incontrarvi la contessa Ida non posso affermare che la mi ricevesse con particolari segni di favore gli affetti di quella giovane sciocchina erano come ho già detto ignobilmente impegnati altrove e per quanto la mia persona e i miei modi potessero essere affascinanti non c'era da aspettarsi che la potesse dimenticare tutto ad un tratto il suo spasimante per amore del giovincello gentiluomo irlandese che le rivolgeva ai suoi omaggi ma le piccole ripulse che ricevevo erano ben lungi dallo scoraggiarmi avevo amici potenti che mi avrebbero aiutato nell'impresa e sapevo che presto o tardi la vittoria sarebbe stata mia in sostanza aspettavo soltanto il momento adatto per rendere la mia corte più incalzante chi avrebbe potuto prevedere il terribile colpo che sovrastava alla mia illustre protettrice e che doveva coinvolgermi almeno in parte nella sua rovina per un certo tempo tutto sembrò assolutamente favorevole ai miei desideri e nonostante la poca inclinazione della contessa Ida per me sarebbe stato più facile farla rientrare in sé di quanto forse si potrebbe supporre in uno sciocco paese costituzionale come l'Inghilterra dove la gente non viene allevata con quegli assoluti sentimenti di obbedienza alla regalità che erano abituali in Europa all'epoca in cui io ero giovanotto ho già spiegato come attraverso Magny io avessi la principessa per così dire ai miei piedi sua altezza non aveva che da sollecitare il matrimonio presso il vecchio duca sul quale aveva una influenza illimitata e da assicurarsi l'appoggio della contessa di Lillian Garten era questo il romantico titolo della sposa morganatica di sua altezza e l'arrendevole vecchio avrebbe dato gli ordini per il matrimonio a cui la sua pupilla avrebbe dovuto obbedire per forza anche madame di Lillian Garten nella sua posizione era estremamente sollecita di rendersi gradita alla principessa Olivia che un giorno o l'altro avrebbe potuto essere chiamata ad occupare il trono il vecchio duca era apoplettico traballante ed eccessivamente amante della bella vita alla sua scomparsa la sua vedova avrebbe trovato estremamente necessario l'appoggio della duchessa Olivia c'era quindi una stretta intesa reciproca tra le due dame e il mondo diceva che la principessa ereditaria era già in debito verso la favorita per essere stata aiutata da lei in diverse occasioni la sua altezza aveva ottenuto per il tramite della contessa parecchi generosi prestiti in denaro per pagare i suoi svariati debiti ed era abbastanza buona da esercitare la sua graziosa influenza su madame de Lilian Garten allo scopo di raggiungere per me lo scopo così caro al mio cuore non si immagini che io potessi raggiungere i miei fini senza continue dimostrazioni di cattiva volontà e rifiuti da parte di Magny ma io mantenevo risolutamente il mio programma ed avevo in mano i mezzi per vincere l'ostinazione di quel debole giovanotto posso anche dire senza alcuna vanità che se l'alta e potente principessa mi detestava la contessa de Lilian Garten benché fosse di origine estremamente bassa si diceva aveva gusti migliori e mi ammirava ci fece spesso l'onore di partecipare ad una delle nostre partite di faraone e dichiarava che io ero l'uomo più seducente del ducato tutto quello che mi chiese fu di provare la mia nobiltà ed io mi feci venire da Vienna un albero genealogico che avrebbe soddisfatto la persona più esigente in materia effettivamente che cosa avrebbe avuto a temere un uomo che discendeva dai berri e dai bredi da un qualsiasi fond di Germania per essere anche più sicuro in proposito promisi a Madame de Lilian Garten 10.000 Luigi il giorno del mio matrimonio ed ella sapeva che non avevo mai mancato alla mia parola di giocatore e le promisi solennemente che se avessi dovuto anche pagarci sopra il 50% di interessi avrei trovato quel denaro così grazie ai miei talenti alla mia onestà e dalla mia intelligenza io mi ero procurato considerando che era un povero esule senza appoggi dei protettori molto potenti persino sua altezza il duca Victor era favorevolmente disposto verso di me perché il suo cavallo favorito si ammalò di vertigini ed io gli diedi una pozione come soleva darne mio zio Bredi ai suoi cavalli e lo guarì e dopo questo sua altezza si compiacque di darmi frequenti segni di distinzione mi invitò alle sue partite di caccia dove io mostrai di essere un eccellente sportivo e un paio di volte si degnò di parlarmi delle mie possibilità nella vita deplorando che mi fossi dato al gioco e che non avessi adottato un modo più regolare di far carriera signore dissi io se volete permettermi di parlare francamente a vostra altezza il gioco è per me soltanto un mezzo per raggiungere un fine dove sarei ora senza di esso sarei ancora semplice soldato fra i granatieri di re Federico io provengo da una razza che ha dato al mio paese dei principi ma le persecuzioni li hanno privati dei loro vasti domini la fedeltà di mio zio alle sue antiche convinzioni religiose lo ha bandito dal nostro paese anche io avevo deciso di cercare di far carriera nel servizio militare ma le insolenze e i maltrattamenti che ricevetti per mano degli inglesi non erano tali da essere sopportati da un gentiluomo di nascita elevata sicché fuggì dal loro servizio ma solo per cadere in un'altra prigionia sotto ogni aspetto ancora più senza speranze quando la mia buona stella mi mandò un salvatore nella persona di mio zio e il mio spirito e la mia bravura mi misero in grado di valermi dei modi di sfuggirvi che mi erano possibili da allora noi abbiamo vissuto non lo nascondo grazie al gioco ma chi può dire che io abbia fatto del male eppure se potessi trovarmi un'occupazione onorevole e di mezzi di sussistenza assicurati non toccherei più una carta salvo che per divertimento come fa qualsiasi gentiluomo supplico vostra altezza di far fare indagini dal vostro rappresentante diplomatico a Berlino se io non mi sono comportato in ogni circostanza come un valoroso soldato sento di avere talenti di un genere più elevato e sarei orgoglioso di avere un'occasione per esercitarli se come non dubito la mia fortuna mi permetterà di metterli in evidenza il candore di questa dichiarazione colpì grandemente sua altezza e lo impressionò in mio favore ed egli si compiacque di dire che mi credeva e sarebbe stato lieto di essermi amico avendo così dalla mia parte i due duchi la duchessa e la favorita in auge c'era ogni probabilità che riuscissi ad ottenere il gran premio e secondo tutti i calcoli dell'umana prudenza avrei dovuto essere mentre scrivo queste righe principe dell'impero ma la mia mala sorte mi perseguitò in una corsa in cui io non ero menomamente da biasimare l'infelice attaccamento della duchessa olivia a quel debole sciocco e codardo francese era penoso assistere alle dimostrazioni di questo amore quanto fu poi terribile pensare alla sua fine la principessa non ne faceva mistero se Magni diceva una parola ad una dama della sua corte si ingelosiva e assaliva con tutta la furia della sua lingua il disgraziato colpevole gli mandava una mezza dozzina di biglietti al giorno quando egli arrivava unendosi al suo circolo o ai cortigiani se teneva corte ella si illuminava in volto in modo che tutti potevano accorgersene c'era da meravigliarsi che suo marito non si fosse già accorto da un pezzo della infedeltà di lei ma il principe Victor era di natura così elevata e rigida che non avrebbe potuto credere che ella si abbassasse tanto al di sotto del suo rango da dimenticare la sua virtù e ho sentito dire che quando gli furono fatte delle insinuazioni sull'evidente parzialità che la principessa mostrava per lo scudiero la sua risposta fu un secco ordine di non essere più disturbato in proposito la principessa è un po' leggera e gli disse è stata allevata ad una corte frivola ma la sua leggerezza non va al di là della civetteria una colpa è impossibile essa ha la sua nascita il mio nome ed i suoi figli a difenderla e se ne andava a cavallo per le sue ispezioni militari e restava assente per settimane o si ritirava nei suoi appartamenti e vi rimaneva chiuso per giornate intere faceva la sua comparsa soltanto per rendere omaggio alla levee di sua altezza o per darle il braccio alle feste ufficiali di corte dove il cerimoniale richiedeva la sua presenza era un uomo di gusti volgari ed io l'ho visto nel suo giardino privato con la sua figura sgraziata correre e giocare a palla con la figliola e il figlioletto che trovava ogni giorno una dozzina di pretesti per andare a vedere i nobili fanciulli venivano condotti dalla madre tutte le mattine durante la sua toilette ma essa li riceveva con grande indifferenza salvo che in un'occasione quando il piccolo duca Ludwig si mise la sua uniforme di colonnello degli ussari perché il suo padrino l'imperatore Leopoldo gli aveva fatto dono di un reggimento allora per un giorno o due la duchessa Olivia si innamorò del ragazzino ma se ne stancò ben presto come un bambino di un nuovo giocattolo ricordo che un giorno nel circolo mattutino un po' del rossetto della principessa si sparse sulla manica della bianca giacchettina della divisa di suo figlio e Lea diede un sonoro schiaffo al povero piccolo che se ne andò tutto in lacrime oh quanti guai combinano le donne a questo mondo in quali dispiaceri gli uomini vengono messi leggermente con volti sorridenti spesso senza avere neppure la scusa della passione ma soltanto per fatuità vanità e smargiassata gli uomini scherzano con queste terribili armi a doppio taglio come se non potessero far loro alcun male ma io che ho conosciuto la vita più di molti altri uomini io se avessi un figlio mi inginocchierei davanti a lui a pregarlo di evitare la donna che è peggio del veleno un solo intrigo e tutta la vostra vita è in pericolo voi non sapete mai quando il male può precipitare su di voi e i guai di intere famiglie e la rovina di innocenti creature che vi sono molto care possono essere cagionate da un vostro momento di follia quando io vidi che il disgraziato Messie de Magny sembrava assolutamente perduto a onta di tutto quello che avevo contro di lui insistetti perché scappasse egli aveva le sue stanze nel palazzo nelle soffitte sopra gli appartamenti della principessa il fabbricato era molto vasto e accoglieva quasi una popolazione di nobili dipendenti dalla famiglia ducale ma quel giovane pazzo e infatuato non si volle muovere benché non avesse neppure la scusa dell'amore per trattenersi come guarda storto diceva della principessa e come è deforme crede che non ci si accorga della sua deformità mi scrive versi presi da Gresset o da Crebillon e si immagina che io li creda originali ma non sono più suoi di quanto non lo siano i suoi capelli in questo modo il disgraziato ragazzo danzava sull'abisso che si spalancava sotto di lui io credo che il suo maggior piacere nel fare all'amore con la principessa fosse che poteva scrivere delle sue vittorie ai suoi amici delle Petit Maison di Parigi dove desiderava ardentemente di essere considerato un uomo di spirito e un vainqueur de dame vedendo la temerarietà del giovane e i rischi della sua posizione divenni molto dubitoso che il mio piccolo progetto giungesse a una fine soddisfacente ed insistetti caldamente presso di lui in proposito le mie sollecitazioni avevano generalmente molto successo con lui non occorre dirlo a causa della particolare natura dei nostri rapporti in realtà quel povero diavolo non poteva rifiutarmi nulla come io solevo dirgli spesso ridendo con sua scarsissima soddisfazione ma io facevo uso con lui più che di minacce o della mia legittima influenza di delicatezza e di generosità e a riprova di questo posso citare il fatto che promisi di restituire alla principessa lo smeraldo di famiglia che come ho narrato nel capitolo precedente avevo vinto al gioco al suo spregiudicato ammiratore questo fu fatto col consenso di mio zio e fu uno degli abituali atti di prudenza e di preveggenza che distinguono quell'uomo così abile vedi di accelerare la faccenda adesso Redmond ragazzo mio insistette lui quest'affare tra sua altezza e magnì può finire male per tutti e due e presto anche e che probabilità avrai di conquistarti la contessa allora adesso è il momento tuo conquista la esposa la prima della fine del mese e avremo vinto la partita e andremo a vivere da nobili nel nostro castello di suabia sbarazzati anche di quello smeraldo aggiunse se dovesse accadere un incidente sarebbe un brutto deposito da farsi trovare in mano fu questo che mi decise a rinunciare alla proprietà del gioiello da cui debbo confessarlo ero piuttosto restio a separarmi ma fu una fortuna per tutti e due che lo avessi fatto come sentirete subito nel frattempo dunque io insistevo presso magnì e parlai io stesso energicamente alla contessa di Lillian Garten che promise formalmente di trasmettere la mia richiesta a sua altezza il duca regnante e monsieur de Magny fu istruito per indurre la principessa Olivia a fare l'identica richiesta in mio favore al vecchio sovrano tutto questo fu fatto le due dame insistettero col principe sua altezza ad una cena di ostriche e champagne fu indotta da consentire e sua altezza la principessa ereditaria mi fece l'onore di comunicare personalmente alla contessa Ida che era volere del principe che essa sposasse il giovane nobile irlandese il cavaliere Redmond di Balibari la comunicazione fu fatta in mia presenza e benché la giovane contessa esclamasse mai cadendo svenuta ai piedi della sua signora io ve lo assicuro non mi preoccupai affatto di questa piccola dimostrazione di schizzinosa sensibilità e sentii anzi che la mia vittoria era assicurata quella sera diedi al cavaliere De Magnillo Smeraldo che egli promise di restituire alla principessa ed ora la sola difficoltà sulla mia strada era il principe ereditario di cui suo padre sua moglie e la favorita avevano tutti ugualmente paura poteva non essere disposto a permettere che la più ricca ereditiera del suo ducato fosse portata via da un nobile ma non ricco straniero ci voleva tempo per spiegare la faccenda al principe Victor la principessa doveva trovarlo in un momento di buon umore egli aveva ancora giorni di infatuazione in cui non sapeva rifiutare nulla a sua moglie e il nostro piano era di aspettarne uno o di trovare una qualsiasi altra occasione che potesse presentarsi ma era destino che la principessa non vedesse mai più il marito ai suoi piedi come era stato spesso un tempo il fatto stava preparando una terribile fine alle sue follie ed alle mie speranze ad onta delle solenni promesse fattemi Magne non restituì mai lo smeraldo alla principessa Olivia egli aveva sentito dire in un casuale scambio di parole con me che mio zio ed io eravamo stati in rapporto con Meister Moses Love il banchiere di Heidelberg che ci aveva pagato bene i nostri gioielli e quello stolto giovane trovò un pretesto per recarsi laggiù e gli offrì il gioiello impegno Moses Love riconobbe subito lo smeraldo e diede a Magne la somma che quest'ultimo gli chiese e il cavaliere la perdette immediatamente al gioco naturalmente senza farci sapere in che modo era venuto in possesso di un simile capitale noi dal canto nostro supponemmo che fosse stato rifornito dal suo banchiere abituale la principessa e molti rotoli delle sue monete d'oro trovarono la strada del nostro gruzzoletto quando tenemmo il nostro banco di faraone alle feste di corte nei nostri appartamenti o in quelli di Madame de Lillian Garten che in quelle occasioni ci fece l'onore di fare a metà con noi così il denaro di Magny sfumò ben presto ma benché l'ebreo si tenesse il suo gioiello che rappresentava senza dubbio tre volte il valore della somma che aveva prestato su quella garanzia non si contentò di trarre soltanto quel profitto dal suo infelice creditore su cui cominciò subito ad esercitare la propria influenza i suoi conoscenti ebrei di X agenti di cambio banchieri mercanti di cavalli che vivevano attorno alla corte dovettero dire al loro confratello di Heidelberg quali erano i rapporti di Magny con la principessa e quel forfante decise di trarne profitto e di spremere tutte e due le vittime mio zio ed io nel frattempo nuotavamo sull'alta marea della fortuna prosperando con le nostre carte e con la partita matrimoniale anche più grossa che stavamo giocando senza accorgerci minimamente della miccia che avevamo sotto i piedi prima che fosse passato un mese l'ebreo cominciò a tormentare Magny si presentò di persona ad X e chiese ulteriori interessi incontanti altrimenti avrebbe dovuto vendere lo smeraldo Magny trovò del denaro per lui la principessa aiutò ancora il suo vile innamorato ma il successo della prima richiesta riuscì solo a rendere la seconda più esorbitante io non so quanto denaro fu pagato ed estorto su quel disgraziato smeraldo ma fu la causa della rovina di tutti noi una notte tenevamo il nostro tavolo come al solito dalla contessa dell'Iliangarten e Magny trovandosi in fondi comunque se li fosse procurati tirava fuori i rotoli di monete uno dopo l'altro e giocava con la sua sfortuna abituale nel bel mezzo della partita gli fu portato un biglietto che egli lesse diventando pallidissimo nello scorrerlo ma in quel momento la fortuna gli era contraria e alzando piuttosto ansiosamente lo sguardo all'orologio egli partecipò a qualche altro giro di carte fino a che avendo suppongo perduto il suo ultimo rotolo si alzò con una selvaggia bestemmia che spaventò qualcuno della raffinata compagnia lì raccolta e lasciò la stanza si udì dall'i fuori un gran scalpitare di cavalli ma noi eravamo troppo occupati nelle nostre faccende per fare attenzione a quel rumore e continuamo la nostra partita ad un tratto qualcuno entrò nella sala da gioco e disse alla contessa ecco una strana storia è stato assassinato un ebreo nella Kaiserward ma gli è stato arrestato mentre usciva dalla stanza tutta la compagnia si levò di scatto udendo questa strana notizia e noi levammo il banco per quella sera Magny era stato seduto vicino a me durante il gioco mio zio teneva banco ed io pagavo e riscuotevo il denaro e guardando sotto la sedia vidi che c'era un foglietto spiegazzato che raccolsi e lessi era quello che gli era stato consegnato poco prima e diceva così se avete fatto una cosa simile prendete il cavallo d'ordinanza con cui vi sarà recato questo è il migliore della mia stalla ci sono cento luigi in ciascuna delle due fondine e le pistole sono cariche tutte e due le vie vi sono aperte e voi sapete quello che intendo dire entro un quarto d'ora conoscerò il nostro destino se io debbo essere disonorato e sopravvivervi se siete un colpevole e un codardo o se siete ancora degno del nome di M la calligrafia era quella del vecchio generale de Magny e mio zio ed io tornandocene a casa nel buio dopo aver fatto e diviso quella sera con la contessa dell'Iliangarten dei guadagni non indifferenti sentimmo i nostri trionfi fortemente scossi nello scorrere quella lettera Magny ha derubato l'ebreo ci chiedemmo o il suo intrigo è stato scoperto tanto in un caso che nell'altro le mie pretese alla mano della contessa Ida stavano probabilmente per incontrare serie difficoltà ed io cominciai a sentire che la mia gran carta era giocata e forse perduta ebbene era perduta benché io dica ancora oggi che era stata giocata bene e con abilità dopo cena perché per timore di conseguenze noi non cenavamo mai durante il gioco divenni così agitato nel pensare a quello che stava succedendo che decisi di recarmi in città verso la mezzanotte a indagare qual era il vero motivo dell'arresto di Magny ma alla porta c'era una sentinella che mi comunicò che io e mio zio eravamo in stato d'arresto fumo lasciati nei nostri appartamenti per sei settimane guardati così rigidamente che una fuga era impossibile anche se l'avessimo desiderato ma essendo innocenti non avevamo nulla da temere il nostro genere di vita era noto a tutti e noi desideravamo e ricercavamo un'inchiesta grandi e tragici avvenimenti si verificarono durante quelle sei settimane e di essi benché ne udissimo le linee generali come tutta l'Europa quando fummo rilasciati dalla nostra prigionia eravamo ben lungi da comprendere tutti i particolari che io conobbi solo molti anni dopo eccoli come mi furono raccontati dalla dama che era forse fra tutti quella che probabilmente li conosceva meglio ma sarà opportuno fare di questo racconto il contenuto di un altro capitolo capitolo dodicesimo contiene la tragica storia della principessa di X più di vent'anni dopo gli avvenimenti narrati nei precedenti capitoli io stavo passeggiando con Lady Lyndon sulla rotonda di Ranelach eravamo nel 1790 l'emigrazione della Francia era già cominciata i vecchi conti e le marchese affollavano le nostre spiagge non affamati e miserabili come li vedemmo qualche anno dopo ma ancora indisturbati e ancora portavano con sé qualche traccia della splendidezza propria della loro nazione io stavo passeggiando con Lady Lyndon che gelosa in modo speciale e sempre desiderosa di infastidirmi scoprì una dama straniera che mi stava evidentemente osservando e naturalmente chiese chi fosse quell'orribile olandese così grassa che mi sbirciava in quel modo io non la riconoscevo assolutamente avevo però la sensazione di aver visto da qualche parte il viso di quella signora che era adesso come diceva mia moglie enormemente grassa e pesante ma non potevo riconoscere nella proprietaria di quella faccia una persona che ai suoi tempi era stata fra le più belle donne della Germania non si trattava ad altri che di Madame de Liliengarten l'amica o come altri dicevano la moglie morganatica del vecchio duca di X il padre del duca Victor essa aveva lasciato X pochi mesi dopo la dipartita del vecchio duca e se n'era andata a Parigi avevo sentito dire dove un avventuriero senza principi l'aveva sposata per il suo denaro ma aveva nonostante questo conservato sempre il suo titolo quasi regale e pretendeva fra le risa dei parigini che frequentavano la sua casa gli onori e il cerimoniale spettanti alla vedova di un sovrano aveva un trono nella sua sala principale e veniva chiamata altezza dai domestici e da tutti coloro che volevano farle la corte o farsi prestare denaro da lei i chiacchieroni dicevano che beveva piuttosto abbondantemente ed effettivamente il suo viso portava i segni di questa abitudine ed aveva perduto la rosea schietta ed allegra bellezza che aveva affascinato il sovrano che l'aveva fatta nobile benché essa non mi rivolgesse la parola nel circolo di Ranelach io in quel periodo ero conosciuto quanto il principe di Galles ed essa non ebbe difficoltà a trovare la mia casa in Berkeley Square dove mi mandò un biglietto la mattina dopo una vecchia amica di Monsieur de Balibarie diceva il biglietto in pessimo francese desidera ardentemente di rivedere il cavaliere e di parlare con lui dei bei tempi andati Rosina de Lillian Garten può Redmond Balibarie averla dimenticata sarà in casa in Leicester Fields tutta la mattina in attesa di qualcuno che vent'anni fa non sarebbe certo mancato all'appuntamento era Rosina di Lillian Garten davvero una Rosina così pienamente sbocciata come raramente ne ho viste la trovai in un decoroso primo piano di Leicester Square quella povera creatura cadde molto più in basso in seguito intenta a bere un tè che odorava fortemente di Brandy e dopo i primi saluti che sarebbero ancora più noiosi a riferire di quanto non sia stato Farley e diverse altre chiacchiere e la mi fece in breve il seguente racconto degli avvenimenti di X che posso benissimo intitolare La tragedia della principessa voi vi ricordate di Messie de Geldern il ministro di polizia era di origine olandese e per di più di una famiglia di ebrei olandesi benché tutti fossero a conoscenza di questa macchia sul suo blasone egli si adirava mortalmente se la sua origine veniva anche soltanto sospettata e tentava di supplire alle colpe di suo padre con eccessive dimostrazioni di religiosità e con le più austere pratiche di devozione andava in chiesa tutte le mattine si confessava una volta alla settimana e odiava ebrei e protestanti quanto un inquisitore non perdeva mai un'occasione di provare la sua sincerità perseguitando gli uni o gli altri ogni volta che se ne presentava l'occasione odiava mortalmente la principessa perché sua altezza lo aveva offeso con qualche scherzo intorno alla sua origine aveva fatto togliere di davanti a lui il maiale a tavola o lo aveva colpito con altre sciocchezzuole e provava una violenta animosità contro il vecchio barone de Magny sia per la sua qualità di protestante sia perché quest'ultimo con aria altera gli aveva voltato pubblicamente le spalle considerandolo un truffatore e una spia così Geldern aveva una ragione d'odio per rovinare la principessa ed io sono convinta che avesse anche un altro motivo più forte l'interesse ricordate che il duca dopo la morte della sua prima moglie sposò una principessa della casa di F Geldern comperò due anni dopo un bel palazzo ed io sono convinta che lo abbia comperato col denaro che gli fu dato dalla famiglia di F per concludere il matrimonio non era nei desideri di Geldern andare dal principe Victor e riferire a sua altezza una faccenda che tutti conoscevano sapeva che la persona che avesse portato al principe informazioni così disastrose sarebbe stata rovinata per sempre nella stima del principe il suo scopo dunque era di lasciare che la faccenda si chiarisse da sé agli occhi di sua altezza ma quando il momento fu maturo pensò di cercare un mezzo per attuare il suo piano aveva spie nelle case del vecchio e del giovane magnì ma questo voi naturalmente lo sapete con la vostra esperienza delle abitudini del continente il vostro negro mi pare che si chiamasse Zamor soleva venire a farmi rapporto tutte le mattine ed io solevo intrattenere il caro vecchio duca con le storie delle vostre partite a picchetto e ad adi la mattina e delle discussioni e degli intrighi fra voi e vostro zio imponevano contributi di questo genere a tutti ad x per divertire il caro vecchio e il valletto di messier de magny soleva riferire tanto a me che a messier de geldern io conoscevo il fatto dello smeraldo dato impegno e fu dal mio tesoro personale che la povera principessa attrasse i fondi che dovevano essere spesi per quell'odioso löve e per quell'anche più indegno giovane cavaliere che la principessa potesse fidarsi di quest'ultimo come insisteva a fare è al di là della mia comprensione ma non c'è infatuazione pari a quella di una donna innamorata e voi avrete osservato mio caro messiere de balibari che il nostro sesso generalmente dedica la propria attenzione agli uomini peggiori non sempre signora protesta io anche il vostro umile servo ha suscitato molte simpatie non vedo come questo possa intaccare la verità della mia affermazione disse seccamente la vecchia signora e continuò il suo racconto l'ebreo che era in possesso dello smeraldo aveva avuto parecchi abboccamenti con la principessa e alla fine gli fu offerto un riscatto così cospicuo che decise di restituire il pegno e gli commise l'inconcepibile imprudenza di portare con sé lo smeraldo a X e si recò da Magny al quale la principessa aveva fornito il denaro per riscattare il pegno e che era effettivamente pronto a pagarlo il loro incontro avvenne negli appartamenti di Magny dove il suo domestico sorprese la loro conversazione fino all'ultima parola il giovane che era sempre così completamente trascurato in fatto di denaro quando ne aveva fu così pronto ad offrirlo che l'oeve aumentò le sue richieste ed ebbe il coraggio di chiedere il doppio della somma precedentemente stabilita allora il cavaliere perdette la pazienza si slanciò su quel briccone ed era sul punto di ucciderlo quando molto opportunamente il cameriere si precipitò dentro e lo salvò costui aveva udito ogni parola della conversazione tra i due litiganti e l'ebreo volò terrorizzato fra le sue braccia Magny uomo lesto e passionale ma non violento lasciò che il servo conducesse da basso quel furfante e non ci pensò più forse non gli dispiaceva di essersi liberato di lui e di rimanere in possesso di una forte somma di denaro quattromila ducati con cui poteva tentare la fortuna ancora una volta e voi sapete che egli lo fece al vostro tavolo quella sera stessa vostra signoria fece a metà signora dissi io e voi sapete quanto poco mi curavo delle mie vincite il domestico condusse l'ebreo tutto tremante fuori dal palazzo e non appena lo ebbe visto sistemato in casa di un suo correligionario dove aveva l'abitudine di recarsi se ne andò all'ufficio di sua eccellenza il ministro di polizia e gli narrò parola per parola la conversazione che aveva avuto luogo fra l'ebreo e il suo padrone Gelder ne espresse la massima soddisfazione per la prudenza e la fedeltà della sua spia gli diede una borsa con 30 ducati e promise di ricompensarlo generosamente come a volte i grandi promettono di ricompensare coloro che si fanno loro strumenti ma voi messiere Balibari sapete quanto raramente queste promesse vengono mantenute ora va e cerca di sapere disse messiere de Geldern quando è che l'ebreo si propone di ritornare a casa o se si pentirà e prenderà quel denaro l'uomo andò ad eseguire la commissione nel frattempo per rendere la faccenda più sicura Geldern combinò una partita a casa mia invitando voi a tener banco come potete ricordare e trovò il mezzo nello stesso tempo di far sapere a Maxime de Magny che ci sarebbe stato banco di faraone da Madame de Liliengarten era un genere d'invito che il povero ragazzo non rifiutava mai ricordavo benissimo i fatti e seguitai ad ascoltare stupefatto dall'abilità dell'invernale ministro di polizia la spia ritornò dalla commissione datagli presso Löwe e dichiarò che aveva fatto indagini tra i domestici della casa in cui alloggiava il banchiere di Heidelberg e che era intenzione di quest'ultimo lasciare X quel pomeriggio stesso viaggiava solo su un vecchio cavallo vestito in maniera modestissima secondo le abitudini della sua gente Johan disse il ministro battendo sulla spalla alla spia assai lusingata da quel gesto sono sempre più sono sempre più soddisfatto di te ho pensato da quando mi hai lasciato alla tua intelligenza e alla fedeltà con cui mi hai servito e troverò presto un'occasione per sistemarti secondo i tuoi meriti che strada prenderà quel briccone di ebreo va ad Erre stasera e deve passare per il Kaiserwald sei coraggioso Johan Kerner vostra eccellenza si fidi di me disse l'uomo con gli occhi scintillanti ho servito nella guerra dei sette anni e non ho mai mancato al mio dovere allora stammi a sentire bisogna togliere lo smeraldo a quell'ebreo semplicemente nel tenerlo quel furfante ha commesso un reato di alto tradimento all'uomo che mi porterà quello smeraldo io giuro che darò 500 luigi tu capisci perché è necessario che sia restituito a sua altezza non c'è bisogno che dica altro lo avrete stasera signore disse l'uomo naturalmente vostra eccellenza mi tirerà fuori dai guai in caso di incidenti diamine rispose il ministro ti darò la metà della somma anticipata tanta è la confidenza che ho in te un incidente è impossibile se prendi accuratamente le tue misure ci sono quattro leghe di bosco e l'ebreo cammina ad agio sarà notte prima che arrivi diciamo al vecchio powder wheel nel bosco che cosa ti impedisce di tendere una corda attraverso la strada e di trattare con lui laggiù ritorna da me stasera stessa se incontri qualcuno della pattuglia di le volpi sono scappate è la parola d'ordine per stanotte ti lasceranno passare senza far domande l'uomo se ne andò soddisfattissimo dell'incarico e mentre magni stava perdendo il suo denaro al nostro banco di faraone il suo domestico in agguato attendeva l'ebreo nel luogo che si chiama powder wheel nel kaiserwald il cavallo dell'ebreo inciampò in una corda che era stata tesa attraverso la strada e mentre il cavaliere rotolava in terra lamentandosi johan kerner si precipitò su di lui mascherato con la pistola in mano chiedendogli il suo denaro non aveva intenzione di uccidere l'ebreo credo a meno che la sua resistenza non rendesse necessario ricorrere a mezzi estremi e infatti non commise nessun assassino del genere perché mentre l'ebreo strillando chiedeva pietà e il suo assalitore lo minacciava con una pistola arrivò una squadra in pattuglia e si impadronì del predone e del ferito kerner lanciò una bestemmia siete arrivato troppo presto disse al sergente di polizia le volpi sono scappate ma qualcuna è stata presa ribatte il sergente con assoluta indifferenza e gli legò le mani con la corda che lui stesso aveva teso attraverso la strada per far cadere in trappola l'ebreo fu caricato dietro un poliziotto l'oeve fu sistemato nello stesso modo e così la compagnia ritornò in città al cadere della notte furono condotti immediatamente al quartiere di polizia e siccome avvenne che si trovasse lì il capo furono interrogati da sua eccellenza in persona furono perquisiti rigorosamente tutti e due all'ebreo furono tolte le carte e gli scrigni il gioiello fu trovato in un taschino segreto quanto alla spia il ministro guardandolo con ira disse diamine questo è il domestico del cavaliere de Magny uno degli scudieri di sua altezza e senza ascoltare una parola a discolpa del povero diavolo spaventatissimo ordinò che fosse rinchiuso e isolato poi chiesto il suo cavallo si recò agli appartamenti del principe e chiese udienza immediata quando fu ammesso gli presentò lo smeraldo questo gioiello disse è stato trovato sulla persona di un ebreo di Heidelberg che in questi ultimi tempi è stato qui ripetutamente ed ha avuto molto a che fare con lo scudiero di sua altezza il cavaliere de Magny questo pomeriggio il domestico del cavaliere è uscito dalla casa del suo padrone accompagnato dall'ebreo ed è stato udito a far domande sulla strada che l'altro intendeva prendere per tornare a casa lo ha seguito o piuttosto lo ha preceduto ed è stato trovato nell'atto di minacciare la sua vittima con una pistola dalla mia polizia nel Kaiservald l'uomo non confesserà nulla ma nel frugarlo è stata trovata sulla sua persona una forte somma in oro e benché io provi molto dispiacere nel sostenere una simile opinione ed implicare nella faccenda un gentiluomo del carattere del nome di Messie de Magny debbo dichiarare che è nostro dovere interrogare il cavaliere circa quest'affare dato che Messie de Magny è al servizio personale di vostra altezza e gode della sua fiducia almeno così ho sentito dire non mi azzarderei ad arrestarlo senza il permesso di vostra altezza il grande scudiero di sua altezza un amico del vecchio barone de Magny che era presente all'incontro non appena ebbe udito la strana notizia si affrettò ad andare dal vecchio generale con la terribile nuova del supposto delitto di suo nipote forse a sua altezza stessa non dispiaceva che il suo vecchio amico e maestro avesse la possibilità di salvare la sua famiglia dalla disgrazia in tutti i modi a Messie de Hengst il grande scudiero fu permesso di recarsi indisturbato dal barone e di comunicargli l'accusa che pendeva sul disgraziato cavaliere è da pensare che egli si aspettasse qualche spaventosa catastrofe del genere perché dopo aver udito il racconto di Hengst come quest'ultimo poi mi riferì disse soltanto sia fatta la volontà del cielo e per qualche tempo rifiutò di fare neppure un passo in proposito soltanto dalle insistenze del suo amico fu indotto poi a scrivere la lettera che Maxime de Magny ricevette al nostro tavolo da gioco mentre questi era lì a dissipare il denaro della principessa la polizia perquisiva il suo appartamento dove vennero scoperte un centinaio di prove non della sua colpevolezza circa il furto ma della sua colpevole relazione con la principessa doni e appassionate lettere di lei copie della corrispondenza di lui con i suoi giovani amici di Parigi che il ministro di polizia lesse attentamente e poi sigillò accuratamente tutte insieme per sua altezza il principe Victor non ho nessun dubbio che le abbia lette benché nel consegnarle al principe ereditario Geldern dicesse che obbedendo agli ordini di sua altezza aveva raccolto tutte le carte del cavaliere ma che non aveva bisogno di dire che sul suo onore lui stesso Geldern non aveva esaminato quei documenti i suoi contrasti con i due signori de Magny erano noti pregava quindi sua altezza di servirsi di un altro funzionario per giudicare le accuse fatte al giovane cavaliere tutto questo accadeva mentre il cavaliere era intento a giocare il corso della fortuna voi avevate molta fortuna in quei giorni messiere de Balibari gli era contrario rimase lì finché perdette i suoi 4000 ducati ricevette il biglietto di suo zio e tale era l'eccitazione dello sfortunato giocatore che dopo averlo ricevuto discese nella corte dove il cavallo lo aspettava prese arbitrariamente il denaro che il povero vecchio gentiluomo aveva messo nelle bisacce della sella lo portò di sopra lo giocò e lo perdette e quando uscì di nuovo dalla stanza per fuggire era troppo tardi fu tratto in arresto in fondo alle scale di casa mia mentre voi eravate sul punto di andare a casa vostra quando entrò scortato dai soldati mandati ad arrestarlo il vecchio generale che stava aspettando fu lietissimo di vederlo e si gettò tra le braccia del ragazzo baciandolo per la prima volta da molti anni poi disse singhiozzando eccolo qui signori grazie a Dio non è colpevole del furto e ricadde in una poltrona in uno scoppio di emozione penoso a vedersi fu detto poi da tutti coloro che erano presenti da parte di un uomo così coraggioso e noto per essere tanto freddo e rigido furto esclamò il giovanotto giuro davanti a Dio che non ne sono colpevole e si svolse tra loro una scena di riconciliazione e quasi commovente prima che lo sfortunato giovane fosse condotto dal corpo di guardia nella prigione che era destinato a non lasciare più quella sera il duca guardò le carte che Geldern gli aveva portato poco dopo aver cominciato a leggere senza dubbio ordinò il vostro arresto perché voi foste presi a mezzanotte Magni alle dieci e dopo questo il vecchio barone de Magni aveva visto sua altezza protestando l'innocenza di suo nipote e il principe lo aveva ricevuto molto graziosamente e gentilmente sua altezza disse che non aveva alcun dubbio che il giovane fosse innocente la sua nascita e il suo sangue rendevano impossibile un simile delitto ma i sospetti contro di lui erano troppo forti si sapeva che quel giorno era stato chiuso con l'ebreo che aveva ricevuto una fortissima somma di denaro che aveva dissipato al giuoco e che senza dubbio gli era stata imprestata dall'ebreo che gli aveva spedito dietro il suo domestico il quale si era informato dell'ora della partenza dell'ebreo si era appostato ad aspettarlo e lo aveva assistito per derubarlo i sospetti contro il cavaliere erano così forti che la giustizia comune richiedeva il suo arresto ma nel frattempo finché non si fosse discolpato sarebbe stato tenuto in una prigionia non disonorevole e si sarebbe avuto ogni riguardo per il suo nome e per i servizi del suo rispettabile AVO con questa assicurazione e con una calda steretta di mano il principe aveva lasciato il vecchio generale de Magny quella sera e il veterano si ritirò a riposare quasi consolato e fiducioso nel possibile e immediato rilascio di Maxime ma al mattino prima dell'alba il principe Victor che aveva trascorso tutta la notte a leggere quelle carte chiamò impetuosamente il paggio che dormiva nella stanza accanto attraverso la porta gli ordinò di prendere i cavalli che erano tenuti sempre pronti nelle stalle e gettando un pacco di lettere in uno scrigno disse al paggio di seguirlo a cavallo con lo scrigno il giovane Messie de Weissenborn lo raccontò ad una giovinetta che apparteneva allora alla mia casa e che adesso è Madame de Weissenborn e madre di una decina di figliuoli il paggio disse che mai si era visto un cambiamento come quello avvenuto al suo augusto padrone nel corso di una sola notte aveva gli occhi iniettati di sangue la faccia livida gli abiti in disordine e lui che aveva sempre fatto la sua apparizione alle parate vestito con la stessa precisione di qualsiasi sergente delle sue truppe lo si poteva vedere galoppare per le strade deserte all'albeggiare senza cappello con i capelli senza cipria svolazzanti come quelli di un pazzo il paggio con lo scrigno delle lettere faceva rimbombare il selciato dietro il suo padrone non era facile seguirlo cavalcarono dal palazzo alla città e attraverso la città ai quartieri del generale le sentinelle che erano alla porta furono spaventate dalla strana figura che si precipitava verso l'alloggio del generale e senza riconoscerla incrociarono le baionette e si rifiutarono di farlo entrare pazzi disse Weissenborn è il principe si attaccarono al campanello come se si trattasse di un incendio e finalmente la porta venne aperta dal portiere e sua altezza salì di corsa alla camera dal letto del generale seguito dal paggio con lo scrigno magni magni gridò il principe imperversando contro la porta chiusa alzatevi e alla domanda del vecchio dall'interno rispose sono io Victor il principe alzatevi immediatamente la porta venne aperta dal generale in veste da camera e il principe entrò il paggio portò dentro lo scrigno e fu pregato di aspettare fuori e così fece ma dalla camera da letto di Messie de Magni c'erano due porte di cui la grande serviva per entrare nella sua stanza e la più piccola conduceva come abitudine nelle nostre case in un gabinetto che comunica con l'alcova in cui è il letto il giovane de Weissenborn trovò quest'ultima porta aperta e così pote benissimo sentire e vedere tutto quello che succedeva dentro la camera il generale con un certo nervosismo chiese qual era la ragione di una visita così mattutina da parte di sua altezza a questa domanda il principe non rispose per qualche istante altro che fissandolo ferocemente e camminando a grandi passi su e giù per la stanza alla fine disse ecco la ragione battendo il pugno sullo scrigno e siccome aveva dimenticato di portarne la chiave andò un momento verso la porta dicendo forse la chiave la Weissenborn ma poi vedendo sulla stufa uno dei cuto de chasse del generale lo prese e disse andrà bene anche questo e si mise al lavoro per aprire il cofanetto rosso con la lama del coltello da caccia la punta si spezzò ed egli lanciò una bestemmia ma continuò ad armeggiare con la lama spezzata che si mostrò più adatta alla bisogna del lungo e appuntito coltello e finalmente riuscì a schiantare il coperchio del cofanetto qual è la ragione disse ghignando eccola qui la ragione leggete questo c'è dell'altra ragione leggete questo ce n'è dell'altra no non questa è il ritratto di qualcun'altra ma questo è il suo conoscete questo Magni è di mia moglie della principessa perché mai voi e la vostra dannata razza siete venuti dalla Francia a sfogare la vostra infernale malvagità dovunque posavate il piede e a rovinare oneste famiglie tedesche cos'altro avete avuto mai voi e i vostri dalla mia famiglia se non confidenza e cortesie noi vi abbiamo dato una casa e una patria quando non ne avevate più ed ecco la nostra ricompensa e gettò un pacco di carte davanti al vecchio generale che vide immediatamente la verità la conosceva già da molto tempo probabilmente e ricadde sulla sua poltrona coprendosi la faccia il principe seguitò a parlare gesticolando e quasi urlando se un uomo vi avesse fatto una simile ingiuria Magni prima che voi diveniste padre di quel mascalzone falsario e giocatore avreste ben saputo come vendicarvi voi lo avreste ucciso sì lo avreste ucciso ma me chi mi aiuterà a vendicarmi io non ho pari miei non posso incontrarmi sul terreno con quel cane di francese quel ruffiano di Versailles e ucciderlo come se avesse compiuto questo tradimento ai danni di uno del suo stesso rango il sangue di Maxime de Magni disse orgogliosamente il vecchio gentiluomo vale quanto quello di qualsiasi altro principe della cristianità posso io prendermi quel sangue ruggì il principe voi lo sapete che non posso io non posso avere gli stessi privilegi di qualsiasi altro gentiluomo d'Europa che cosa devo fare guardate Magni io ero pazzo quando sono venuto qui non sapevo quello che facevo voi mi avete servito per trent'anni mi avete salvato la vita due volte non ci sono che giocatori e donnacce qui intorno al mio vecchio padre né donne né uomini onesti voi siete l'unico voi mi avete salvato la vita ditemi voi cosa debbo fare così dopo aver insultato Messie de Magni il povero principe mezzo impazzito finì col supplicarlo e alla fine si buttò addirittura in terra in uno scoppio di pianto il vecchio Magni uno degli uomini più rigidi e freddi abitualmente quando vide quest'esplosione di sentimenti da parte del principe si agitò tanto quanto il suo padrone almeno così mi disse il mio informatore dalla sua altezza e dalla sua freddezza il vecchio piombò improvvisamente nella piagnucolosa lamentosità dell'estrema vecchiaia perdette ogni senso di dignità si buttò in ginocchio ed esplose in ogni sorta di appassionati e incoerenti tentativi di consolazione a un punto tale che Weissenborn disse che non poté sopportare la vista di questa scena e ne distolse lo sguardo ma da quello che seguì in pochi giorni noi possiamo immaginare le conclusioni di quel lungo incontro il principe quando si allontanò dalla conversazione col suo vecchio servitore dimenticò il suo fatale cofanetto di carte e rimandò indietro il paggio a prenderlo il generale era in ginocchio nella stanza e pregava quando il giovane entrò e fece appena una mossa e si guardò attorno selvaggiamente quando l'altro prese l'oggetto il principe a cavallo si recò al suo casino di caccia a tre leghe da X e tre giorni dopo Maxime de Magny morì misteriosamente in prigione dopo aver confessato che era implicato nel tentativo di derubare l'ebreo e che l'aveva fatta finita con la vita per vergogna del proprio disonore ma quello che non si sa è che fu il generale stesso che diede il veleno a suo nipote si disse persino che fosse lui che lo aveva ucciso in prigione con un colpo di pistola invece non fu così il generale de Magny portò a suo nipote la droga che doveva farlo uscire da questa vita dimostrò allo sciagurato giovane che il suo destino era inevitabile e che sarebbe stato inevitabilmente pubblico se non avesse deciso di anticipare da se stesso la punizione e con queste parole lo lasciò ma il disgraziato non era d'accordo e solo quando ebbe esaurito qualsiasi possibilità di scampare come sentirete adesso la vita di quella sciagurata creatura volse al suo termine quanto al generale de Magny cadde in uno stato di rimbambimento quasi completo poco tempo dopo la morte di suo nipote e la scomparsa del mio onorevole duca dopo che sua altezza il principe ebbe sposato la principessa Mary di F mentre passeggiavamo insieme nel giardino inglese essi incontrarono una volta il vecchio Magny che passeggiava al sole nella poltrona a rotelle in cui veniva portato fuori di solito dopo il suo attacco di paralisi questa è mia moglie Magny disse il principe affettuosamente prendendo la mano del veterano e aggiunse volgendosi alla principessa il generale de Magny mi ha salvato la vita durante la guerra dei sette anni come l'avete ripresa disse il vecchio allora vorrei che mi rideste anche il mio povero Maxime aveva completamente dimenticato la morte della povera principessa Olivia e il principe molto rabbuiato passò oltre ed ora aggiunse Madame de Liliengarten ho soltanto un'altra storia ancora più cupa da raccontarvi la morte della principessa Olivia è anche più orribile del racconto che ho finito ora di farvi e con questa premessa la vecchia dama riprese il suo racconto il fatto della gentile ma debole principessa fu affrettato se non causato dalla vigliaccheria di Magny egli trovò modo di mettersi in comunicazione con lei dalla prigione e sua altezza che non era ancora apertamente in disgrazia perché il duca per riguardo alla famiglia insisteva nell'accusare Magny soltanto di tentato furto fece i più disperati sforzi per liberarlo e per corrompere i cancelli per corrompere i carcerieri che dovevano lasciarlo scappare era così agitata che perdette qualsiasi pazienza e prudenza nell'esecuzione di tutti i progetti che poteva aver fatto per la liberazione di Magny suo marito era inesorabile e aveva disposto in modo che la prigione del cavaliere fosse sorvegliata strettamente perché qualsiasi tentativo di fuga fosse impossibile e la offrì dei gioielli di stato impegno al banchiere di corte che naturalmente fu costretto a rifiutare l'affare si disse anche che si mettesse in ginocchio davanti a Geldern il ministro di polizia offrendogli Dio sa cosa impegno infine si recò piangendo dal mio povero caro vecchio duca che per la sua età i suoi malanni e le sue abitudini tranquille era assolutamente inadatto a sopportare scene di carattere così violento e che in conseguenza dell'agitazione sollevata nel suo augusto seno dalla frenetica violenza e dal dolore di lei ebbe un attacco durante il quale fui sul punto di perderlo e che la sua cara vita sia stata portata immaturamente alla fine da tutte quelle storie io non ne dubito minimamente perché il buon pasticcio di Strasburgo a causa del quale dissero che era morto non gli avrebbe mai fatto male né son certa se non fosse stato per il colpo che il suo povero tenero cuore ricevette dagli insoliti avvenimenti cui fu costretto a prender parte tutti i movimenti di sua altezza erano accuratamente anche se non apertamente sorvegliati da suo marito il principe Victor il quale recatosi a far visita al suo augusto padre gli dichiarò severamente che se sua altezza il mio duca avesse osato dare aiuto alla principessa nei suoi sforzi per liberare Magny lui il principe Victor avrebbe accusato pubblicamente la principessa e il suo amante di alto tradimento e avrebbe preso dei provvedimenti con la dieta per rimuovere dal trono suo padre come incapace di regnare quindi ogni intromissione da parte nostra era vana e Magny fu lasciato al suo destino e soggiunse come sapete assai subitaneamente Geldern ministro di polizia Hengst grande scudiero e il colonnello della guardia del principe si recarono a visitare il giovane in prigione due giorni dopo che suo nonno era stato a trovarlo e si era lasciato dietro la fiala di veleno che il colpevole non aveva il coraggio di adoperare e Geldern fece sapere al giovane che se non avesse preso spontaneamente l'acqua di Lauro Ceraso fornita gli dal vecchio Magny sarebbero stati immediatamente usati nei suoi riguardi mezzi di morte più violenti e che una schiera di granatieri aspettava nel cortile per compiere la sua esecuzione di fronte a questo Magny nel più pietoso stato di avvilimento dopo essersi trascinato in ginocchio per la stanza da un ufficiale all'altro piangendo e strillando di terrore alla fine disperato beve il veleno e pochi minuti dopo non fu più che un cadavere così finì quello sciagurato giovane la sua morte fu resa di pubblica ragione nella gazzetta di corte due giorni dopo un trafiletto diceva che Messiede colpito dal rimorso per aver tentato di assassinare l'ebreo si era dato da se stesso la morte col veleno in prigione e seguiva un ammonimento a tutti i giovani nobili del ducato perché si astenessero dal terribile peccato del gioco dal terribile peccato del gioco che era stato che era stato la causa della rovina del giovane e aveva coperto di dolore di dolore irreparabile i capelli grigi di uno dei più nobili e onorati servitori del duca il funerale si compì con decorosa semplicità e vi assistette il generale de Magny la carrozza dei due duchi e tutti i principali personaggi della corte passarono poi a far visita al generale il giorno dopo egli assistette come al solito alla parata sulla piazza dell'arsenale e il duca Victor che aveva ispezionato gli edifici ne uscì appoggiato al braccio del vecchio e valoroso guerriero egli si dimostrò particolarmente grazioso col vecchio e ripetea ai suoi ufficiali la storia tante volte raccontata di come a Rosbach quando l'esercito di X combatteva con le truppe del disgraziato Subis il generale si era gettato davanti ad un dragone francese che stringeva molto da vicino sua altezza sulla strada aveva ricevuto il colpo diretto al suo signore ed aveva ucciso l'assalitore e fece allusione al motto di famiglia Magni Sant'Ache dicendo che così era sempre stato col suo prode amico e maestro nelle armi questo discorso commosse molto tutti i presenti ad eccezione del vecchio generale che si inchinò soltanto senza aprir bocca ma quando tornò a casa lo si udì borbottare Magni Sant'Ache Magni Sant'Ache e quella notte ebbe un attacco di paralisi da cui non si riprese più che in parte la notizia della morte di Maxima era stata in qualche modo tenuta nascosta alla principessa fino a quel momento era stata persino stampata una gazzetta senza il paragrafo contenente la relazione del suo suicidio ma a lungo andare non so come ella lo venne a sapere e quando lo seppe mi dissero le sue dame mandò un grido e cadde come colpita a morte poi rimase lì discinta e scarmigliata come una pazza fu portata a letto dove il suo medico la visitò constatando che era stata colpita da una febbre cerebrale il principe mandava a chiedere continuamente notizie e giudicando dal fatto che dava ordini perché il suo castello di Schlagenfels venisse preparato e ammobiliato non ho alcun dubbio che fosse sua intenzione confinarla laggiù come era stato fatto con l'infelice sorella di sua maestà britannica a Zell e la mandò ripetutamente a chiedere di essere ricevuta da sua altezza ma questi rifiutò dicendo che l'avrebbe vista quando si fosse abbastanza rimessa in salute ad una delle appassionate lettere di lei egli mandò in risposta a un pacchetto che quando fu aperto mostrò di contenere lo smeraldo che era stato la causa attorno alla quale si era svolto tutto quello scuro intrigo questa volta sua altezza divenne addirittura frenetica giurò in presenza di tutte le sue dame che un ricciolo dei capelli del suo caro Maxime era per lei più prezioso di tutti i gioielli del mondo sonò per far chiamare la sua carrozza e disse che sarebbe andata a baciare la tomba di lui proclamò l'innocenza del martire assassinato e richiamò la punizione del cielo e la collera della sua famiglia sull'assassino di lui assassino di lui nell'udire questi discorsi che naturalmente gli venivano tutti regolarmente riportati si dice che il principe lanciasse uno dei suoi terribili sguardi e dicesse questa storia non può durare a lungo tutto quel giorno e il giorno seguente la principessa li passò nel dettare le lettere più appassionate al principe suo padre ai re di francia napoli e spagna suoi parenti e a tutti gli altri rami della sua famiglia supplicandoli con le parole più incoerenti di proteggerla contro quel carnefice e quell'assassino di suo marito facendo la persona di lui oggetto dei più folli rimproveri e confessando nello stesso tempo il suo amore per l'assassinato Magni in vano le dame che le erano fedeli le fecero notare l'inutilità di queste lettere la pericolosa follia della confessione che contenevano ella insistette a scriverne e soleva affidarle alla sua seconda cameriera una francese sua altezza era sempre particolarmente affezionata a coloro che appartenevano a questa nazione che aveva la chiave della sua cassettina e portava tutte quelle lettere a Geldern salvo il fatto che non si tenevano ricevimenti pubblici le cose si svolgevano attorno alla principessa col cerimoniale consueto alle sue dame era permesso di attendere al suo servizio e di compiere i loro doveri abituali verso la persona di sua altezza i soli uomini ammessi però erano i suoi domestici il medico e il cappellano e un giorno che essa voleva discendere in giardino un heiduc che faceva la guardia alla porta disse a sua altezza che era ordine del principe che essa restasse nei suoi appartamenti questi appartamenti terminano come forse ricorderete sul grande ballatoio dello scalone di marmo di Schloss X e l'ingresso alle stanze del principe Victor è di fronte a quello della principessa sul medesimo pianerottolo è uno spazio vasto pieno di divani e di panchettini e i gentiluomini e gli ufficiali addetti al duca solevano farne una specie di anticamera e rendere omaggio a sua altezza lì quando egli vi passava uscendo alla parata delle undici nello stesso momento gli heiduc che erano nelle stanze della principessa sollevano venire fuori con le loro alabarde a fare il presentatarm al principe Victor e la stessa cerimonia veniva compiuta dalla parte degli appartamenti di lui quando uscivano i paggi ad annunciare l'arrivo di sua altezza i paggi solevano venire fuori a dire il principe signori e i tamburi battevano nel vestibolo e i gentiluomini che stavano aspettando sui banchi che correvano lungo la balaustra si alzavano in piedi e siccome il suo destino la spingeva verso la morte un giorno la principessa quando le sue guardie si mossero per uscire e comprese da questo che il principe si tratteneva come era sua abitudine sul pianerottolo conversando con i suoi gentiluomini un tempo soleva attraversare l'appartamento della principessa e andare a baciarle la mano la principessa che era stata agitatissima tutta la mattina lamentandosi del caldo e insistendo che tutte le porte dell'appartamento fossero lasciate aperte e dando segni di una follia che io penso fosse ormai evidente si precipitò impetuosamente verso le porte mentre passavano le guardie le spalancò e prima che si potesse dirle una parola o che le sue dame potessero seguirla fu alla presenza del duca victor che stava chiacchierando come al solito sul pianerottolo e mettendosi fra lui e lo scalone cominciò ad apostrofarlo con frenetica vehemenza sappiate signori gridò che quest'uomo è un assassino e un mentitore che egli prepara intrighi ai danni di onorevoli gentiluomini e li fa uccidere in prigione sappiate che anch'io sono imprigionata e pavento il medesimo destino lo stesso carnefice che uccise Maxime de Magny può ogni notte mettermi il coltello alla gola io faccio appello a voi e a tutti i re d'europa miei regali parenti domando di essere liberata da questo vile tiranno da questo menzognero traditore e scongiuro tutti voi gentiluomini d'onore di portare queste lettere ai miei parenti e di dir loro da chi le avete avute e a questo punto l'infelice donna cominciò a gettare tutto attorno lettere in mezzo a quella folla attonita che nessuno si chinea a raccoglierle gridò il principe con voce di tuono Madame de Gleim voi avreste dovuto sorvegliare meglio la vostra ammalata chiamate i medici della principessa il cervello di sua altezza è sconvolto signori abbiate la bontà di ritirarvi e il principe rimase sul pianerottolo mentre i gentiluomini discendevano lo scalone dicendo risolutamente alla sentinella soldato se si muove colpiscila con la tua alabarda e il principe rimase sul pianerottolo mentre i gentiluomini discendevano lo scalone dicendo risolutamente alla sentinella soldato se si muove colpiscila con la tua alabarda e a queste parole il soldato puntò la sua arma al petto della principessa che spaventata indietreggiò di scatto e rientrò nei suoi appartamenti adesso messie de weissenborn disse il principe raccogliete tutte quelle carte e il principe rientrò nei propri appartamenti preceduto dai suoi paggi e non li lasciò fino a che non ebbe visto bruciare sul fuoco fin l'ultima di quelle lettere il giorno dopo la gazzetta di corte conteneva un bollettino firmato da tre medici in cui si dichiarava che sua altezza la principessa ereditaria era ammalata di infiammazione cerebrale e aveva passato una notte insonne agitata un giorno dopo l'altro vennero pubblicate notizie simili tutte le sue dame all'infuori di due furono dispensate dal servizio vennero messe sentinelle dentro e fuori delle sue porte le sue finestre furono assicurate in modo che fosse impossibile fuggire da quella parte e voi sapete che cosa accadde dieci giorni dopo le campane della chiesa suonarono per tutta la notte e furono richieste le preghiere dei fedeli per una persona in extremis al mattino apparve la solita gazzetta listata al lutto che partecipava che l'alta e potente principessa olivia maria ferdinanda consorte di sua altezza serenissima victor lui emmanuel principe ereditario di x era deceduta la sera del 24 gennaio 1769 ma sapete voi in che modo essa morì signore anche questo è un mistero weissenborn il paggio ebbe parte in questa cupa tragedia e il segreto era così terribile che mai credetemi fino alla morte del principe victor io ebbi il coraggio di rivelarlo dopo il fatale scandalo che aveva fatto la principessa il principe mandò a chiamare weissenborn e vincolandolo al segreto col più solenne dei giuramenti lo infranse solo con sua moglie molti anni dopo e in vero non c'è segreto al mondo che le donne non possano conoscere se vogliono lo mandò a fare la seguente misteriosa commissione sulla riva del fiume kell disse sua altezza di fronte a strasburgo abita un uomo di cui troverete facilmente l'abitazione col suo nome messie de strasburg chiederete di lui tranquillamente cercando di non farvi notare forse a questo scopo farete meglio ad andare addirittura a strasburgo dove quella persona è ben conosciuta porterete con voi un compagno di cui possiate fidarvi nella maniera più assoluta la vita di entrambi ricordatelo dipende dalla vostra segretezza cercherete un momento in cui messie de strasburg è solo e soltanto in compagnia del domestico che vive con lui io stesso sono stato per caso a far visita a quest'uomo durante il mio ritorno da parigi cinque anni fa ed è questo che mi induce a mandarlo a chiamare nella mia attuale situazione farete fermare la carrozza alla sua porta di notte e voi ed il vostro compagno entrerete in casa sua mascherati e gli offrirete una borsa con cento luigi promettendogli il doppio di questa somma al suo ritorno dalla spedizione se rifiuta dovete usare la forza e portarmelo qui minacciandolo di morte immediata se rifiuta di seguirvi lo metterete nella carrozza con gli sportelli chiusi e l'uno o l'altro di voi non lo perderà mai di vista per tutta la strada minacciandolo di morte se si mostra o grida lo alloggerete qui nella vecchia torre dove ci sarà una camera preparata per lui e quando avrà fatto il suo lavoro lo ricondurrete a casa sua con la stessa rapidità e segretezza con cui lo avrete portato sin qui questi furono i misteriosi ordini che il principe victor diede al suo paggio e weissenborn scegliendosi per compagno nella spedizione il luogotenente bartenstein partì per il suo singolare viaggio tutto questo mentre il palazzo viveva nel silenzio come sotto l'incubo di un lutto e nella gazzetta di corte apparivano i bollettini che annunciavano il proseguimento della malattia della principessa benché essa avesse solo poche persone ad assisterla si narravano storie strane e piene di particolari sui progressi del suo male che era quasi impazzita che aveva tentato di uccidersi che immaginava di essere non so quante persone differenti furono mandati dei corrieri espressi alla sua famiglia per informarla dello stato di lei e inviati pubblicamente dei corrieri a vienna e a parigi per richiedere l'assistenza di medici specializzati nella cura delle malattie del cervello ma questa pretesa ansia era solo una finta non si ebbe mai in realtà l'intenzione di far guarire la principessa il giorno in cui weissenborn e bartenstein ritornarono dalla loro spedizione fu annunciato che sua altezza la principessa era molto peggiorata quella notte corse voce in città che era in agonia invece quella notte la sfortunata donna stava tentando la fuga essa aveva una fiducia illimitata nella cameriera francese che la serviva e il piano di fuga fu preparato fra lei e questa donna la principessa prese i suoi gioielli in uno scrigno fu rimessa in opera per lei una porta segreta che si apriva in una delle stanze e conduceva le fu detto al cancello esterno del palazzo e le fu portata una lettera facendole capire che proveniva dal duca suo suocero in cui si diceva che erano stati preparati una carrozza e dei cavalli che l'avrebbero portata a b un paese da cui avrebbe potuto comunicare con la sua famiglia e mettersi in salvo la sventurata dama fiduciosa nella sua guardiana si avventurò nella spedizione il passaggio si apriva attraverso i muri dalla parte moderna del palazzo e terminava effettivamente nella vecchia aul tower come era chiamata nel muro esterno in seguito la torre fu abbattuta per buone ragioni ad un certo punto la candela che la cameriera portava si spense e la principessa fu sul punto di mettersi a gridare per il terrore ma si sentì prendere per la mano ed una voce ingiunse un attimo dopo un uomo mascherato era il duca in persona si precipitò su di lei la imbavagliò con un fazzoletto le furono legati mani e piedi ed essa fu portata tramortita dal terrore in una camera avvolta dove fu messa vicino ad una persona che aspettava lì e legata in una poltrona la stessa maschera che l'aveva imbavagliata venne a denudarle il collo e disse sarebbe meglio farlo ora che è svenuta forse effettivamente sarebbe stato meglio perché quando essa si riebbe dallo svenimento e il suo confessore che era presente si avanzò e tentò di prepararla alla spaventosa morte che stava per esserle data e dallo stato in cui stava per entrare quando ella tornò in sé dico fu soltanto per mettersi a gridare come una pazza per maledire il duca chiamandolo carnefice e tiranno e per invocare magnì il suo caro magnì a questo punto il duca calmissimo disse possa dio avere pietà della sua anima peccatrice e lui il confessore e geldern che era presente si misero in ginocchio poi sua altezza fece un cenno col fazzoletto e mentre weissenbornas veniva messie de strasburg afferrando i neri capelli di lei separò il capo di olivia che continuava a gridare dal suo miserabile corpo peccatore possa il cielo aver pietà dell'anima sua questa fu la storia che mi raccontò madame de liliangarten e il lettore non avrà difficoltà a ricavarne la parte che riguardava me e mio zio dopo sei settimane d'arresti fumo messi in libertà ma con l'ordine di lasciare immediatamente il ducato anzi con una scorta di dragoni che ci condusse alla frontiera tutto quello che possedevamo ci fu permesso di venderlo e di realizzarlo in denaro ma non ci fu pagato nessuno dei nostri crediti di gioco e tutte le mie speranze sulla contessa ida finirono così miseramente quando il duca victor salì sul trono cosa che accadde quando sei mesi dopo un colpo apoplettico portò via il vecchio sovrano suo padre tutte le vecchie buone usanze di x furono troncate e il gioco proibito l'opera e il balletto chiusi definitivamente e i reggimenti venduti dal vecchio duca richiamati dal loro servizio all'estero con essi tornò quello straccione del cugino della mia contessa il tenente e la sposò non so se siano stati felici o no ma è certo che una donna così povera di spirito non meritava delle grandi soddisfazioni il duca victor ora regnante si risposò egli stesso quattro anni dopo la scomparsa della sua prima moglie e geldern benché non fosse più il ministro di polizia si costruì il gran palazzo di cui parlava madame de lilliengarten quel che successe degli attori secondari di questa grande tragedia chi può saperlo solo messie de strasburg fu restituito ai suoi compiti degli altri dell'ebreo della cameriera della spia di magny non so nulla questi piccoli strumenti di cui i grandi personaggi si servono nelle loro imprese generalmente si rompono nell'adoperarli ed io non ho mai sentito dire che coloro che se ne servono abbiano molti riguardi verso di loro quando hanno terminato il loro compito capitolo tredicesimo continuo la mia carriera di uomo di mondo trovo che ho già riempito decine e decine di pagine eppure mi rimane ancora da raccontare gran parte del più interessante periodo della mia storia cioè quello che descrive il mio soggiorno nei regni d'inghilterra e d'irlanda e la importantissima parte che vi rappresentai quando vivevo tra i più illustri personaggi di quei paesi e non ero certo il meno distinto di quel brillante circolo allo scopo di rendere debitamente giustizia a questa parte delle mie memorie dunque cosa che è più importante di quanto non possano essere le mie avventure all'estero benché io potrei riempire dei volumi con interessanti descrizioni di queste taglierò corto con il resoconto dei miei viaggi in europa e dei miei successi alle corti del continente al fine di parlare di quel che mi capitò in patria basti dire che non c'è capitale in europa all'infuori di quella pezzente città di berlino in cui il giovane cavaliere di balibari non sia stato conosciuto ed ammirato e dove non abbia fatto parlare di sé i più valorosi uomini i più nobili e i più belli vinsi 80.000 rubli a potionkin al palazzo d'inverno a pietroburgo e quel birbante d'un favorito non me li pagò mai ho avuto l'onore di vedere sua altezza reale il cavaliere carlo edoardo ubriaco come qualsiasi facchino a roma mio zio fece parecchie partite a biliardo col celebre lord si a spa e vi assicuro che non ne uscì sconfitto anzi con uno dei nostri stratagemmi facemmo ridere tutti alle spalle di sua signoria e ottenemmo anche qualcosa di più sostanzioso mai lord non sapeva che il cavaliere berri aveva sempre avuto un occhio cieco e quando un giorno mio zio scherzosamente fece una scommessa con lui che lo avrebbe vinto a biliardo con una benda su un occhio il nobile lord credendo di batterci era uno dei giocatori più arrabbiati che si ha mai vissuto accettò la scommessa e gli vincemmo una bella somma ne occorre che io faccia menzione dei miei successi tra la parte più bella della razza umana uno dei più compiti alti atletici e bei gentiluomini d'europa quale ero allora un giovane del mio aspetto dico non poteva fare a meno di avere certe possibilità che una persona del mio spirito sapeva benissimo come adoperare ma su questi soggetti io sono assolutamente muto incantevole shuvalov zotarska dagli occhi neri bruna valdes tenera hangnaim brillante lanjac o cuori gentili che così forte batteste a quei tempi per il giovane ardente gentiluomo irlandese dove siete ora benché i miei capelli siano ormai grigi e il mio cuore gelido per gli anni per la noia le delusioni il tradimento degli amici pure io non ho che da sprofondarmi nella mia poltrona e pensare ed ecco che quelle dolci figure risorgono dinanzi a me uscendo dal passato coi loro sorrisi le loro gentilezze e di loro occhi teneri e sfavillanti non ci sono più donne come quelle ormai non più modi come i loro guardate quel branco di donne ai ricevimenti del principe impalati nei loro rigidi sacchetti di seta bianca col seno più basso delle braccia e paragonate le alle graziose figure d'un tempo diamine quando io ballavo con corali della giacca i festeggiamenti per la nascita del primo delfino a versaille il cerchio delle sue sottane aveva 18 piedi di circonferenza e i tacchi delle sue deliziose scarpine erano alti tre pollici dal suolo il merletto del mio jabot valeva mille corone e di bottoni della mia giacca di velluto color amaranto costavano da soli 80.000 sterline guardate che differenza adesso i gentiluomini sono vestiti come pugilatori qua queri o cocchieri di piazza e le signore non sono vestite affatto non c'è più eleganza non c'è più raffinatezza nulla più della cavalleria del vecchio mondo di cui io rappresento una parte pensate alla moda di londra capeggiata da un brummel un figlio di nessuno una bassa creatura che non sa danzare un minuetto più di quanto io non sappia parlare le lingue dei pelli rosse che non sa neppure spezzare il collo a una bottiglia da gentiluomo che non ha mai dimostrato di essere un uomo con la spada alla mano come noi solevamo mostrarci ai bei tempi d'una volta prima che quel volgare corso sconvolgesse tutta la nobiltà del mondo o rivedere ancora una volta la bruna valdes come quel giorno che la incontrai alla sua prima uscita in carrozza in gran pompa con i suoi otto muli ed il suo seguito di gentiluomini lungo il giallo manzanarre o un'altra passeggiata in carrozza con la hengenheim nella slitta dorata sulla neve di sassonia falsa come era la shuvalov era meglio essere presi in giro da lei che adorati da qualsiasi altra donna non posso pensare a nessuna di loro senza tenerezza ho un ricciolo di ciascuna di loro nel mio povero piccolo museo di ricordi e voi conservate i miei care anime che avete sopravvissuto ai guai e alle tempeste di quasi mezzo secolo com'è mutato ora il colore dei miei capelli dal giorno in cui la zotarska se li mise al collo dopo il mio duello col conte biernaschi a varsavia non tenevo mai dei miserabili libri di conti a quei tempi non avevo debiti pagavo come un re tutto quello che prendevo e prendevo tutto quello che volevo le mie entrate dovevano essere molto larghe i miei passatempi e di miei equipaggi erano quelli di un gentiluomo di posizione elevata che nessun briccone si permetta di soghignare perché rapì e sposai milè di lindon come sentirete subito e di chiamarmi avventuriero o di dire che io ero uno spiantato e che quel matrimonio fu tra persone di condizioni molto diverse spiantato io avevo tutta la ricchezza d'europa ai miei ordini avventuriero altrettanto può esserlo un abile avvocato o un prode soldato come è un avventuriero qualsiasi uomo che fa da sé la sua fortuna la mia professione era il gioco in cui allora non avevo rivali nessun uomo poteva competere con me sul tappeto verde in tutta l'europa e il mio reddito era altrettanto sicuro quando stavo bene in salute nell'esercizio della mia professione quanto quello di una persona che riscuote il suo 3 per cento o di qualsiasi grasso gentiluomo di campagna che trae il reddito dalle sue terre il raccolto non è più sicuro degli effetti dell'abilità la messe è una probabilità proprio come una partita a carte giocata da un bravo giocatore può esserci la siccità o il gelo o una scandinata e la posta è perduta ma l'uno è un avventuriero proprio quanto l'altro nell'evocare il ricordo di quelle belle gentile creature io provo soltanto piacere vorrei poter dire altrettanto del ricordo di un'altra dama che d'ora in poi rappresenterà una parte importante nel dramma della mia vita voglio dire la contessa di lindon di cui feci la fatale conoscenza a spa poco dopo che gli avvenimenti descritti nello scorso capitolo mi avevano fatto lasciare la germania onoria contessa di lindon viscontessa di bullington in inghilterra baronessa di castle lindon nel regno d'irlanda era tanto conosciuta nel gran mondo ai suoi tempi che non c'è quasi bisogno che io entri nella storia della sua famiglia che si può trovare in ogni perage che possa capitare tra le mani del lettore era non occorre che io lo dica contessa viscontessa e baronessa per diritto personale i suoi possedimenti nel devon e nella cornovaglia erano tra i più estesi da quelle parti e le sue proprietà irlandesi non erano meno magnifiche ad esse abbiamo già fatto allusione nella primissima parte di queste memorie perché si stendevano proprio vicino alle mie proprietà paterne nel regno d'irlanda anzi le ingiuste confische al tempo di elisabetta e di suo padre avevano diminuito i miei terreni aggiungendoli alla già vasta proprietà della famiglia lindon la contessa quando la vidi per la prima volta nella società di spa era la moglie di un suo cugino il molto onorevole sir reginald lindon cavaliere del bagno ministro di giorgio secondo e poi di giorgio terzo presso parecchie delle minori corti d'europa sir charles lindon era rinomato come uomo di spirito e bon vivant aveva scritto versi d'amore contro hanbury williams e scambiato satire con george selwyn era un uomo diverti come harry walpole e con lui e con mr gray aveva fatto parte del gran giro in una parola era citato come uno dei più eleganti e compiti gentiluomini del suo tempo io feci la conoscenza di questo gentiluomo come al solito al tavolo da gioco di cui egli era un assiduo frequentatore davvero non si poteva non ammirare lo spirito ed il coraggio con cui si dedicava al suo passatempo favorito perché quantunque tormentato dalla gotta e da una quantità di altri malanni quel povero storpio che veniva portato attorno in una poltrona a rotelle e in preda dolori terribili potevate vederlo tutti i giorni e tutte le sere al suo posto davanti al delizioso tappeto verde e se come accadeva spesso aveva le mani troppo deboli o troppo infiammate per tenere il bussolotto dei dadi giocava ugualmente facendo gettare i dadi per conto suo a un domestico o a un amico a me piace un simile spirito indomito in un uomo i più grandi successi nella vita sono stati raggiunti con un indomabile perseveranza di questo genere io ero a quell'epoca uno dei personaggi più conosciuti d'europa e la fama delle mie imprese dei miei duelli del mio coraggio al gioco faceva affollare la gente intorno a me tutte le volte che comparivo in società potrei mostrare pacchi su pacchi di biglietti profumati per provare che questa sollecitudine nel volermi conoscere non si limitava soltanto ai gentiluomini ma il fatto è che odio vantarmi e parlo di me stesso solo quando è necessario per riferire le mie avventure le più singolari di qualsiasi uomo sia vissuto in europa bene io feci per la prima volta la conoscenza di sir charles lindon in occasione di una partita di picchetto nella quale il molto onorevole cavaliere mi vinse 700 monete d'oro in questo gioco egli era quasi alla mia altezza ed io le perdetti con molta buona grazia e le pagai le pagai proprio puntualmente ve lo assicuro in realtà lo dico per me stesso perdere denaro al gioco non mi ha mai fatto sentire antipatia verso il vincitore e ogni volta che ho trovato qualcuno che mi era superiore sono sempre stato pronto a riconoscerlo e a rendergli omaggio lindon fu molto orgoglioso di avere sconfitto una persona così celebre e si stabilì fra noi una specie di intimità che però per un certo tempo non andò al di là delle gentilezze che ci si scambiavano durante i bagni termali e delle conversazioni attraverso il tavolo da gioco quando si faceva uno spuntino ma poi andò gradatamente aumentando fino a che fui ammesso alla sua più privata amicizia era una persona dal linguaggio molto franco la nobiltà a quei tempi era molto più orgogliosa di adesso e soleva parlarmi nel suo modo scorrevole e altero al diavolo mister barri voi non avete maniere più raffinate di un barbiere ed io credo che il mio domestico negro abbia ricevuto maggior istruzione di voi ma siete un giovanotto originale e pieno di coraggio e mi piacete perché sembrate deciso ad andare al diavolo in un modo tutto vostro io lo ringraziavo ridendo del complimento e gli dicevo che dato che lui sarebbe andato all'altro mondo molto più presto di me gli sarei stato molto grato se mi avesse fatto trovare un posticino comodo già preparato laggiù di solito si divertiva immensamente ad ascoltare i miei racconti sugli splendori della mia famiglia e sulla magnificenza di castle brady non si stancava mai di ascoltarmi o di ridere di quelle storie ma tenetevi attaccato alle carte ragazzo mio mi disse quando gli raccontai le mie disavventure in fatto di matrimonio e quanto prossimo ero stato a conquistare una delle più grandi fortune della germania fate qualunque cosa tranne che prendere moglie mio ingenuo contadinotto irlandese mi chiamava con una quantità di strani appellativi coltivate i vostri grandi talenti in fatto di gioco e state attento che una donna vi sconfiggerebbe io negavo questa possibilità citando numerosi esempi di casi in cui avevo conquistato tipi fra i più intrattabili del gentil sesso vi metteranno sotto a lungo andare mio caro alcibiade di tipperary appena uno è sposato è vinto fidatevi della mia parola guardate me io ho sposato mia cugina la più nobile la più grande ereditiera d'inghilterra l'ho sposata quasi contro la sua volontà e qui un'ombra cupa passò sulle fattezze di sir charles lindon è una debole donna la vedrete e vedrete quanto è debole eppure è la mia padrona ha armeggiato tutta la mia vita è una sciocca ma ha avuto la meglio su una delle migliori teste della cristianità è enormemente ricca ma in un certo senso io non sono mai stato tanto povero come da quando l'ho sposata pensavo di migliorare la mia posizione ed ella ha fatto di me un essere spreggevole mi ha ammazzato e farà altrettanto col mio successore quando io me ne sarò andato a un reddito molto forte sua signoria chiesi io a questa domanda sir charles scoppiò in una stridula risata che mi fece arrossire non poco della mia agosceri perché il fatto è vedendolo nelle condizioni in cui era io non potevo fare a meno di riflettere sulle possibilità che un uomo di spirito avrebbe potuto avere con la sua vedova no no disse lui seguitando a ridere non ve lo consiglio mister barry se ci tenete alla vostra tranquillità non pensate a mettervi le mie scarpe quando resteranno vuote inoltre io non credo che mi lady lindon a consentirebbe mai a sposare un un che cosa signore dissi io furioso non importa che cosa ma l'uomo che la prenderà se ne pentirà sulla mia parola che la peste la colga se non fosse stato per l'ambizione di mio padre e mia mio padre era suo zio e suo tutore e non volevamo lasciar uscire dalla famiglia un simile patrimonio io avrei potuto morire in pace almeno mi sarei trascinato tranquillamente la mia gotta fino alla tomba avrei vissuto nel mio modesto possedimento di mayfair e tutte le case d'inghilterra mi sarebbero state aperte e adesso invece adesso ne ho sei di mia proprietà e ognuna di esse è un inferno per me diffidate delle grandezze mister barry prendete esempio da me da quando mi sono sposato e sono diventato ricco sono stato il più meschino e sciagurato uomo del mondo guardatemi sto morendo povero storpio logoro e rattrappito all'età di 50 anni il matrimonio mi ha aggiunto almeno 40 anni quando presi lady lindon non c'era uomo della mia età che sembrasse giovane come me stolto che fui avevo entrate sufficienti col mio vitalizio completa libertà la miglior società d'europa rinunciai a tutto questo mi sposai e divenni un disgraziato prendete esempio da me capitano barry e tenetevi alle carte benché la mia intimità col cavaliere fosse diventata grande per un pezzo non penetra in altri appartamenti del suo albergo fuori di quelli che occupava lui stesso sua moglie viveva completamente divisa da lui e l'unica cosa strana era che viaggiassero in certo senso insieme lei era figlioccia della vecchia mary wortley montague e come quella famosa vecchia signora del secolo scorso aveva notevoli pretese di intellettualità e di bel esprit lady lindon scriveva poesie in inglese e in italiano che i curiosi possono ancora trovare nelle pagine delle riviste del tempo era in corrispondenza con numerosi sarvane europei su argomenti di storia di scienza di lingue antiche e specialmente di teologia il suo maggior piacere era di discutere punti controversi con abati e vescovi e i suoi adulatori dicevano che essa rivaleggiava con madame d'assietto nel sapere qualsiasi avventuriero che avesse fatto una scoperta nel campo della chimica o avesse un nuovo busto antico o avesse un piano per scoprire la pietra filosofale era sicuro di trovare in lei una protettrice c'erano innumerevoli lavori dedicati a lei e le venivano diretti infiniti sonetti da tutti i poetastri d'europa sotto il nome di lindonira o di calista le sue stanze erano ricolme di orribili scimmiotti cinesi e di ogni sorta ad oggetti di vertu nessun'altra donna si vantava dei suoi principi più di lei ma nessun'altra permetteva che le si profferisse amore più largamente l'abitudine al corteggiamento era praticata dai più distinti gentiluomini di quei tempi in forma poco comprensibile ai nostri giorni così rozzi e privi di ricercatezze e giovani e vecchi versavano fiumi di complimenti in lettere e madrigali che farebbero strabiliare una signora per bene se le venissero indirizzati oggi così completamente è scomparsa dalle nostre abitudini la galanteria del secolo scorso lady lindon andava attorno con una piccola corte personale nei suoi viaggi si muoveva con una mezza dozzina di carrozze nella propria viaggiava con la sua dama di compagnia qualche distinta signora decaduta i suoi uccelli i suoi barboncini e il savant favorito del momento in un'altra viaggiavano la sua segretaria e la sua cameriera personale le quali con tutte le loro carte non riuscivano mai a far avere alla loro padrona un aspetto decente sir charles lindon aveva la sua carrozza personale e i domestici della casa seguivano con altri veicoli occorre far menzione anche della carrozza in cui viaggiava il cappellano di sua signora mister rant che fungeva da istitutore di suo figlio il piccolo visconte di bullington un ragazzino melanconico e abbandonato del quale il padre non si curava affatto e che la madre non vedeva mai salvo un paio di minuti alla sua leve in cui gli faceva qualche domanda di storia o di grammatica latina dopodiché veniva rimandato ai suoi divertimenti o alle cure del suo istitutore per tutto il resto della giornata l'immagine di una simile minerva che io vedevo di tanto in tanto in qualche luogo pubblico circondata da nugoli di abati e di maestri di scuola miserabili per un certo tempo mi terrorizzò e non ebbe il minimo desiderio di fare la sua conoscenza non desideravo diventare uno dei miserabili adoratori aggiogati al carro di quella gran signora mezzo amici e mezzo lacchè che componevano versi scrivevano lettere e correvano a far commissioni contentandosi di essere ripagati con una poltrona nel palco di sua signoria a teatro o con un posto alla sua tavola a mezzogiorno non temete mi disse ser charles lindon il cui principale soggetto di conversazione e di scherzo era sua moglie la mia lindonira non avrà mai niente a che fare con voi a lei piace la parlata toscana non quella di carrie dice che voi sapete troppo di stalla per essere ammesso nella compagnia delle signore e due domeniche fa l'ultima volta che mi fece l'onore di parlarmi disse mi meraviglio ser charles lindon che un gentiluomo il quale è stato ambasciatore del re possa abbassarsi a giocare e a bere con scrocconi irlandesi di bassa nascita non andate sulle furie io non sono che uno storpio ed è stata lindonira che ha detto questo non io questo mi ferì e decisi di fare ad ogni modo conoscenza con lady lindon non fosse che per mostrare a sua signoria che il discendente di quei berri di cui essa deteneva ingiustamente la proprietà era un compagno non indegno di qualsiasi signora fosse pure la la più nobile del mondo per di più il mio amico cavaliere stava morendo e la sua vedova sarebbe stata la più ricca preda dei tre regni perché non avrei dovuto conquistarla conquistando con lei i mezzi per fare nel mondo quella figura che il mio genio e le mie tendenze desideravano sentivo di essere uguale per sangue e per nascita a qualsiasi lindon della cristianità e decisi di piegare quella superba signora e quando io prendo una decisione considero la cosa come già fatta mio zio ed io discutemmo sulla faccenda e stabilimmo rapidamente un sistema per fare i nostri approcci con l'altera signora di castle lindon mister rant l'istituzione del giovane lord bullington andava pazzo per i divertimenti per un bicchiere di vino del reno nei ritrovi all'aperto e per un rapido giro di dadi quando se ne presentava l'occasione ed io ebbi cura di fare amicizia con codesto individuo il quale essendo inglese e precettore era pronto a mettersi in ginocchio davanti a chiunque rassomigliasse ad una persona di alto rango avendo visto il mio seguito di domestici la mia vettura a due posti e le altre mie carrozze i miei domestici il mio ussaro e i cavalli avendomi visto vestito d'oro di velluto e di zibellino salutare i più grandi personaggi d'europa quando li incontravamo sul corso o a spa rant fu lusingato dai miei approcci e fu tutto mio appena alzai un dito non dimenticherò mai lo stupore di quel povero diavolo quando lo invitai a pranzare con due conti impiatti dal bordo dorato nella saletta del casino fu addirittura felice quando lasciamo che ci vincesse qualche moneta divenne un po alticcio cantò delle canzoni di cambridge e divertì tutta la compagnia raccontandoci nel suo orribile francese dello yorkshire storielle sui domestici del suo collegio e su tutti i lords che erano stati nel collegio io lo incoraggiai a venirmi a trovare più spesso e da portare con sé il suo piccolo visconte per il quale benché da ragazzo mi mostrasse antipatia ebbi cura di far trovare sempre pronti dolci balocchi e libri illustrati quando veniva cominciai poi ad entrare in discussione con mister rant e gli confidai alcuni miei dubbi e un'inclinazione molto ardente verso la chiesa di roma mi feci scrivere da un certo abate che conoscevo lettere sulla transustanziazione ed altre cose del genere lettere a cui l'onesto precettore era piuttosto imbarazzato a rispondere sapevo che sarebbero state comunicate a sua signoria come di fatto avveniva perché avendo chiesto il permesso di assistere al servizio secondo il rito inglese che veniva celebrato nei suoi appartamenti ed era frequentato dagli inglesi più distinti che si trovassero allora a spa la seconda domenica ella consentì a rivolgermi lo sguardo la terza si degnò di rispondere al mio profondo inchino con un lieve cenno del capo il giorno seguente io rafforzai la conoscenza rendendole omaggio sulla passeggiata pubblica e per raccontare in breve una lunga storia sua signoria ed io eravamo in attiva corrispondenza sul soggetto della transustanziazione prima che fossero trascorse sei settimane milady era venuta infatti in aiuto al suo cappellano ed allora io cominciai a comprendere tutto il peso dei suoi argomenti come del resto era da aspettarsi non c'è bisogno di riferire qui in dettaglio i progressi di questo piccolo e innocuo intrigo non dubito che tutti i miei lettori si siano serviti di stratagemmi del genere quando si trattava di una bella signora non dimenticherò mai la meraviglia di sir charles lindon quando una sera d'estate mentre tornava dalla sala da giuoco nella sua portantina secondo le sue abitudini la berlina a quattro di sua signoria con i suoi domestici a cavallo nella fulva livrea della famiglia lindon entrò nel cortile della casa in cui abitavano e in quella carrozza a lato di sua signoria sedeva null'altri che il volgare avventuriero irlandese come ella si era compiaciuta di chiamarlo voglio dire il sottoscritto redmond berry scudiero sir charles fece il più cortese dei suoi saluti e sventolò il cappello nella maniera più graziosa che la gotta gli permetteva e da parte nostra sua signoria ed io rispondemmo al saluto con la maggior cortesia ed eleganza possibile io non potei tornare al tavolo da giuoco ancora per qualche tempo perché lady lindon ed io avemmo una discussione sulla transustanziazione che si prolungò per tre ore ed in cui ella rimase come al solito vincitrice mentre la sua compagna l'onorevole miss flint skinner si addormentò ma quando infine raggiunsi sir charles al casino egli mi ricevette con uno scoppio di risa come era sua abitudine e mi presentò a tutta la compagnia come l'interessante giovane convertito da lady lindon era questo il suo modo di fare rideva e motteggiava su tutto rideva quando era in un parossismo di dolore rideva quando vinceva o quando perdeva il suo riso non era gioviale o piacevole ma piuttosto penoso e sardonico signori disse a colui che teneva banco il colonnello loder conte du carreau e da parecchi gioviali compagni di gioco con i quali soleva discutere su una bottiglia di champagne e un paio di trote del reno dopo la partita guardate questo simpatico giovane è stato turbato da scrupoli religiosi ed è corso a rifugiarsi nelle braccia del mio cappellano mister hunt che a sua volta ha chiesto consiglio a mia moglie lady lindon e tra tutti e due stanno rafforzando il mio giovane ed ingegnoso amico nella sua fede avete mai visto dottori simili e un simile discepolo in fede mia signore ribatte io se ho bisogno di imparare dei buoni principi è certamente meglio che mi rivolga per questo a vostra moglie e dal vostro cappellano che non a voi vuole mettersi nelle mie scarpe continuò il cavaliere felice l'uomo che ci riuscirà risposio purché dentro non ci siano sassi ser charse non fu molto soddisfatto di questa risposta e proseguì con crescente animosità perché parlava sempre con molta franchezza quando aveva bevuto un bicchiere di più e per dire la verità beveva un bicchiere di più assai più volte alla settimana di quanto non glielo avrebbe permesso il suo dottore non è un piacere signori disse per me che sono così vicino alla fine di trovare la mia casa così felice e mia moglie così innamorata di me che sta già pensando fin da adesso di nominarmi un successore non intendo alludere precisamente a voi mister berry voi state soltanto tentando la sorte con una decina di altri che potrai nominare non è una consolazione vedere che lei da brava massaia tiene tutto pronto per la dipartita di suo marito io spero che voi non pensiate di lasciarci tanto presto cavaliere dissi io con perfetta sincerità perché era un compagno tanto divertente che mi piaceva non così presto come potete immaginare forse mio caro seguitò lui diamine sono stato dato per spacciato diverse volte in questi ultimi quattro anni e c'era sempre un paio di candidati che aspettavano per impadronirsi del mio posto chissà quanto tempo posso farvi aspettare ancora e infatti mi fece aspettare per un tempo un po più lungo di quanto in quel momento ci fosse ragione di sospettare dato che mi ero dichiarato molto apertamente secondo i miei modi abituali e che gli autori sono soliti descrivere la persona delle signore di cui i loro eroi si innamorano in ossequio a quest'uso dovrei forse dire una parola o due sulle attrattive di milady lindon ma benché io le abbia celebrate in molti versi scritti da me ed altri e benché abbia riempito risme su risme di carta nell'appassionato stile dell'epoca di complimenti diretti a tutte le sue bellezze e dai suoi sorrisi in cui la paragonavo ad ogni fiore deità o famosa eroina di cui mai si fosse sentito parlare la verità mi costringe a dire che in lei non c'era assolutamente nulla di divino era una donna non c'è male ma niente di più aveva un volto fine capelli scuri occhi belli ma estremamente mobili le piaceva cantare ma cantava come tutte le gran signore del suo stampo con voce molto stonata aveva un'infarinatura di mezza dozzina di lingue moderne e come ho già detto prima di molte più scienze di quante io non ne conoscessi neppure di nome si piccava di conoscere il greco e il latino ma la verità è che mister rant soleva fornirle le citazioni che ella introduceva nella sua voluminosa corrispondenza essa aveva tanto desiderio di essere ammirata una così forte e sgradevole vanità e tanto poco cuore quanto qualsiasi donna che mai io abbia conosciuta altrimenti quando suo figlio lord bullington a causa dei suoi contrasti con me corse ma tutto questo verrà raccontato al momento opportuno infine milady lindon aveva circa un anno più di me benché fosse naturalmente disposta a giurare sulla bibbia che era più giovane di tre anni pochi uomini sono onesti come me perché pochi ammetterebbero i veri motivi delle loro azioni mentre a me non importa un fico di confessare i miei quello che diceva sir charles lindon era perfettamente vero io avevo fatto la conoscenza di lady lindon con ulteriori vedute signore gli dissi quando dopo la scena descritta e gli scherzi che mi rivolse ci ritrovammo da soli lasciate ridere quelli che vincono voi scherzaste molto sul mio conto alcune sere fa nonché sulle mie intenzioni circa la vostra signora bene e se anche sono quello che voi credete che siano se io desidero mettermi le vostre scarpe e con questo io non ho intenzioni diverse da quelle che avreste voi stesso potete giurare che io ho mostrato tanti riguardi per lady lindon quanti mai voi gliene avete mostrati e se io la conquisto e me la sposo quando voi sarete morto e seppellito corble cavaliere pensate forse che sarà la paura del vostro spettro a impedirmelo lindon si mise a ridere come al solito ma con aria un po più sconcertata in realtà io avevo evidentemente avuto la meglio su di lui nella discussione ed avevo esattamente tanto diritto di andare a caccia della mia fortuna quanto ne aveva avuto lui ma un giorno egli mi disse se sposerete una donna come lady lindon ricordatevi le mie parole ve ne pentirete rimpiangerete la libertà di cui godevate un tempo per san giorgio capitano berri aggiunse con un sospiro la cosa che io rimpiango di più nella vita forse perché sono vecchio blasé e moribondo e di non aver mai avuto una passione sincera la figlia di un lattaio dissi io ridendo di quella assurdità bene perché no ragazzo mio io sono stato innamorato in gioventù come molti gentiluomini della figlia del mio precettore elena una ragazza grande e robusta naturalmente più anziana di me questo mi fece ricordare i miei piccoli amori con nora bredi ai tempi della mia prima giovinezza e sapete signore che rimpiango di tutto cuore di non averla sposata non c'è nulla come l'avere a casa una schiava virtuosa signore è una cosa che dà sapore ai piaceri del mondo ve ne do la mia parola nessun uomo di buon senso sarà ridotto a limitarsi o negarsi un solo divertimento per amore di sua moglie all'opposto se sceglie accuratamente l'animale ne dovrà trovare una che non gli sia ad ostacolo al suo piacere ma gli sia di conforto nelle sue ore di noia per esempio io ho la gotta chi mi cura un domestico pagato che mi deruba tutte le volte che può che amici ho io non uno al mondo gli uomini di mondo come voi e come me non hanno amici e noi siamo zimbelli dei nostri guai fatevi un amico signore e che quest'amico sia una donna una buona massaia e una buona schiava che vi ami questo è il più prezioso genere di amicizia perché grava tutto sulla donna l'uomo non ha bisogno di contribuirvi in alcun modo se è un briccone lei giurerà che è un angelo se è un brutto a lei piacerà anche di più perché la maltratta a queste donne piace essere maltrattate signore sono nate per essere il nostro maggior conforto e la nostra più grande comodità per essere moralmente i nostri cavastivali e per uomini che fanno il nostro genere di vita credetemi persone simili non hanno prezzo io parlo soltanto per amore del vostro benessere mentale e materiale badate perché mai non ho sposato Elena Flower la figlia del curato io pensai che questi discorsi fossero osservazioni di un uomo indebolito e deluso benché forse in seguito abbia avuto qualche ragione di riconoscere la verità delle affermazioni di Sir Charles Lyndon il fatto è a parer mio che spesso noi comperiamo il denaro a troppo caro prezzo acquistare qualche migliaio di sterline all'anno a costo di una moglie odiosa è un pessimo investimento per un giovane di spirito e di talento e ci sono stati nella mia vita momenti in cui nel bel mezzo del mio più grande splendore e della mia massima opulenza con una mezza dozzina di lords alla mia levée con i più bei cavalli nelle mie stalle la più grande casa sulle mie spalle un credito illimitato dal mio banchiere e Lady Lyndon da servire avrei preferito essere di nuovo un semplice soldato sotto Biulov o qualsiasi altra cosa pur di liberarmi di lei ma ritorniamo alla nostra storia Sir Charles con tutte le sue complicate malattie stava morendo davanti ai nostri occhi a goccia a goccia capisco che non dovesse essere molto piacevole per lui vedere un bel giovanotto fare la corte alla sua futura vedova proprio davanti ai suoi occhi come facevo io dopo essere andato una volta in quella casa per la discussione sulla transustanziazione trovai una dozzina d'altre occasioni per coltivare la nostra intimità e finì per stare quasi sempre intorno a sua signoria il mondo chiacchierava e mormorava ma che cosa poteva importarmene gli uomini mostravano il loro disgusto per l'impudente avventuriero irlandese ma ho già raccontato in che modo chiudevo la bocca a simili invidiosi e a quell'epoca la mia spada si era fatta una tale reputazione in Europa che ben pochi desideravano di scontrarsi con essa una volta che io sia riuscito ad impadronirmi di un posto lo tengo a tutti i costi sono stato in parecchie case in cui ho visto gli uomini evitarmi oibò quel volgare irlandese dicevano bah quel grossolano avventuriero fuori dei piedi quell'insopportabile scroccone fantoccio e così via questo odio mi ha reso servigi non indifferenti nel mondo perché quando io metto la mira su una preda nulla può indurmi a lasciare la presa e se vengo lasciato a me stesso tanto meglio come dicevo in quei giorni a lady lindon con perfetta sincerità calista solevo chiamarla calista nella mia corrispondenza calista io ti giuro per l'immacolato candore dell'anima tua per lo splendore dei tuoi occhi spietati per tutto ciò che c'è di puro e di casto nel cielo e nel tuo cuore che non cesserò mai di seguirti io posso sopportare la beffa e il disprezzo e sopportarlo per mano tua posso superare l'indifferenza è una roccia che la mia energia scalerà un magnete attrae l'impavido ferro dell'anima mia ed era vero mai io l'avrei lasciata no neppure se mi avessero gettato fuori a calci ogni volta che mi presentavo alla sua porta è questo il mio modo di affascinare le donne che l'uomo è il quale deve far fortuna nella vita si ricordi di questa massima attaccare è il solo segreto osare e il mondo si arrende sempre o se qualche volta vi sconfigge osate ancora ed esso soccomberà a quei tempi il mio spirito era così alto che se mi fossi messo in mente di sposare una principessa del sangue ci sarei riuscito raccontai a calista la mia storia alterando solo di poco di pochissimo la verità il mio scopo era di spaventarla dimostrarle che ciò che io volevo l'osavo che ciò che osavo riuscivo a compierlo e nella mia storia ce n'era abbastanza di momenti impressionanti per convincerla della mia volontà di ferro e del mio indomito coraggio non sperate mai di sfuggirmi signora dicevo mostratevi disposta a sposare un altro uomo ed egli morrà sotto questa spada che non ha ancora incontrato chi la superi fuggite da me ed io vi seguirò fosse pure sino ai cancelli dell'ade e vi assicuro che questo era un linguaggio molto diverso da quello che ella aveva l'abitudine di udire dai suoi agghindati e profumati adoratori avreste dovuto vedere come li spaventavo e li allontanavo da lei quando affermavo così energicamente che avrei seguito Lady Lyndon anche attraverso lo stige se fosse stato necessario naturalmente intendevo dire che l'avrei fatto purché non si fosse presentato nel frattempo o nulla di più conveniente per esempio se Lyndon non fosse morto quale sarebbe stata l'utilità della mia corte alla contessa infatti verso la fine della stagione a spa debbo confessare con mia grande mortificazione che il cavaliere si riprese di nuovo sembrava proprio che nulla riuscisse ad ucciderlo mi dispiace per voi capitano Barry diceva ridendo come al solito sono dolente di far aspettare voi o qualche altro gentiluomo non fareste meglio a mettervi d'accordo col mio dottore o a dire al cuoco di condire la mia omelette con l'arsenico che probabilità c'è signori aggiunse che io riesca a vivere abbastanza da vedere il capitano Barry impiccato effettivamente i dottori lo riaggiustarono per un altro anno è la mia solita fortuna non potei fare a meno di dire a mio zio che era il mio confidente e il mio miglior consigliere in tutte le faccende di cuore ho sperperato tesori d'affetto in questo flirt con la contessa ed ecco che suo marito si rimette e probabilmente vivrà ancora non so quanti anni e come per accrescere la mia mortificazione ecco che proprio in quel periodo vennero a spa le rede di un candelaio inglese con un enorme patrimonio e madame cornue la vedova di un grosso mercante di bestiame con l'idropisia e 200.000 sterline l'anno a che serve che io segua i lindoni in inghilterra dissi io se il cavaliere non si decide a morire e tu non seguirli mio caro sempliciotto ribatte mio zio fermati qui e fa la corte alle nuove arrivate sì e così perderò per sempre calista e le più grandi proprietà di tutta l'inghilterra i giovani come te facilmente prendono fuoco e facilmente si scoraggiano resta in corrispondenza con lady lindon tu sai che non c'è nulla che le piaccia di più c'è quella abate irlandese c'è quella abate irlandese che scriverà per te le lettere più incantevoli a una corona luna lascia che se ne vada scrivile ma nel frattempo cerca se te ne capita qualcun'altra chissà potresti sposare la vedova normanna seppellirla prenderti il suo denaro ed essere pronto per la contessa prima che muoia il cavaliere e così dopo averle confermato il più profondo e rispettoso attaccamento e dopo aver dato 20 luigi alla cameriera di lady lindon per una ciocca dei suoi capelli cosa di cui naturalmente la donna informò la sua padrona presi congedo dalla contessa quando ciò divenne necessario a cagione del ritorno di lei nei suoi possedimenti in inghilterra giurando che l'avrei seguita appena una questione d'onore che avevo per le mani fosse stata condotta a termine tralascerò gli avvenimenti dell'anno che trascorse prima che io la rivedessi e la mi scrisse secondo la sua promessa con molta regolarità dal principio un po meno di frequente in seguito nel frattempo i miei affari al tavolo da gioco non andavano troppo male ed ero proprio sul punto di impalmare la vedova cornu eravamo a bruxelles in quell'epoca e quella povera creatura era pazzamente innamorata di me quando mi capitò in mano la london gazette ed io lessi il seguente annuncio deceduto a castellindon nel regno di irlanda il molto onorevole ser charles lindon cavaliere del bagno membro del parlamento per lindon nel devonshire e per molti anni rappresentante di sua maestà presso diverse corti europee lascia dietro di sé un nome caro a tutti i suoi amici per le numerose virtù e di suoi svariati talenti una reputazione giustamente acquistata al servizio di sua maestà ed una vedova inconsolabile che piange la sua perdita sua signoria la vedova contessa di lindon era a bath quando la raggiunse la terribile notizia della dipartita del suo consorte e si è affrettata a recarsi immediatamente in irlanda per compiere gli ultimi tristi doveri verso le adorate spoglie quella sera stessa ordinai la mia carrozza e partii per ostenda dove noleggiai un vascello per dover e viaggiando rapidamente verso ovest raggiunsi bristol da questo porto mi imbarcai per waterford e mi ritrovai dopo un'assenza di undici anni nel mio paese natale capitolo quattordicesimo ritorno in irlanda e faccio mostra del mio splendore e della mia generosità in quel regno come erano cambiati per me i tempi adesso quando avevo lasciato il mio paese ero un povero ragazzo senza un soldo soldato semplice in un miserabile reggimento di marcia e tornavo uomo compito con un patrimonio di circa 5000 guinee in mio possesso con uno splendido guardaroba e una cassetta di gioielli che valeva altre 2000 guinee dopo essermi mescolato a tutte le scene della vita ed aver agito in esse da attore tutt'altro che secondario dopo aver fatto la mia parte in guerra e in amore dopo essermi fatto strada con il mio genio e la mia energia dalla povertà e dall'oscurità alla giatezza e allo splendore nel guardare fuori dai finestrini della mia carrozza che rotolava pesantemente lungo le nude e squallide strade presso le miserabili casupole dei contadini che venivano fuori ravvolti nei loro stracci spalancando gli occhi sullo splendido equipaggio che passava e gridavano urrà in onore di sua signoria nel vedere il magnifico straniero nella sua carrozza dorata col mio gigantesco domestico personale fritz dritto dietro la carrozza coi suoi mustacchi arricciati e il suo lungo codino e la sua livrea verde dagli alamari d'argento non potevo fare a meno di pensare a me stesso con notevole compiacimento e ringraziare la mia stella che mi aveva dotato di tante buone qualità se non fosse stato per i miei meriti sarei rimasto un rozzo gentiluomo di campagna irlandese simile a quelli che vedevo vagare per le miserabili città attraverso le quali passava la mia carrozza percorrendo la strada verso dublino avrei potuto sposare nora bredi e benché grazie a dio non lo abbia fatto non ho mai pensato a quella fanciulla altro che con tenerezza e ricordai persino l'amarezza di averla perduta più chiaramente in quegli istanti di qualsiasi altro caso della mia vita avrei potuto essere ormai padre di dieci figli o fattore per mio conto o amministratore di un gentiluomo di campagna o avvocato ed eccomi invece uno dei più famosi gentiluomini d'europa ordinai al mio domestico di procurarsi un sacchetto di spiccioli e di gettarli alla folla mentre cambiavamo i cavalli e vi posso garantire che si levarono tante grida in mio onore quante se ne sarebbero levate se fosse passato lord townsend il lord luogotenente in persona la seconda giornata di viaggio perché le strade irlandesi erano molto cattive a quei tempi e le prozze dei gentiluomini potevano procedere solo molto lentamente mi portò a carlow dove mi fermai alla stessa osteria in cui mi ero fermato undici anni prima quando fuggivo da casa dopo la supposta uccisione di queen in duello come ricordo bene ogni istante della scena il vecchio padrone che mi era parsa tanto comoda appariva ora diroccata e miserabile ma il chiaretto era buono come ai vecchi tempi ed io invitai l'oste a dividerne con me un'anfora per sentire le novità del paese e gli fu tanto comunicativo quanto lo sono di solito gli osti mi parlò delle messi e dei mercati dei prezzi del bestiame all'ultima fiera di castle dermot dell'ultima storiella sul pastore e dell'ultimo scherzo del curato padre hogan mi raccontò che gli white boys avevano bruciato i covoni di grano dello squire scanlan e che i banditi avevano visto respinto il loro assalto alla casa di sir thomas mi disse dei soldati che c'erano in città e come miss biddy tool fosse scappata con il sottotenente mallins tutte le novità in fatto di sport tribunali e sessioni trimestrali mi furono riferite dettagliatamente da quel degno cronista in diciottesimo che si meravigliò molto che la mia signoria non ne avesse udito parlare in inghilterra o in altri paesi esteri dove egli credeva che la gente si interessasse quanto lui delle faccende di kilkenny e di carlow debbo ammettere che io ascoltai quei racconti con notevole piacere perché di quando in quando nella conversazione veniva a galla un nome che ricordavo dai tempi d'una volta portando con sé per associazione di idee un mucchio di antiche memorie avevo ricevuto da mia madre molte lettere che mi informavano delle vicende della famiglia di bready town mio zio era morto e mic il figlio maggiore lo aveva seguito nella tomba le ragazze bready si erano allontanate dal tetto paterno appena il fratello maggiore ne aveva preso la direzione alcune si erano sposate altre erano andate a stabilirsi con la loro vecchia e odiosa madre in luoghi di bagni fuori mano ulic benché fosse successo a suo padre nella proprietà aveva fatto bancarotta ed ora castle bready era abitato soltanto dai pipistrelli dai gufi e dal vecchio guardacaccia mia madre mistress harry berry era andata ad abitare a brei per far parte delle devote parrocchiane di mister jowls il suo predicatore favorito che aveva lì una cappella e alla fine l'oste mi disse che il figlio di mistress berry era andato all'estero si era arruolato al servizio dei prussiani ed era stato fucilato come disertore non mi vergogno di dire che dopo il pranzo presi a nolo dalla stalla dell'oste un grosso ronzino e al tramonto rifeci all'indietro 20 miglia verso la mia vecchia casa e il mio cuore batte forte nel rivederla barryville aveva ora uno stemma con un pestello ed un mortaio sulla porta e portava il nome di magazzino di esculapio del dottor mc shane un ragazzo dai capelli rossi stava intonacando il nostro vecchio salotto la vetrata della finestra della mia camera un tempo così pulita e splendente era incrinata in vari punti e tappata qua e là con pezzi di carta e stracci i fiori erano scomparsi dalle linde aiuole che la mia buona mamma teneva tanto in ordine nel terreno dietro la chiesa c'erano incisi sulla pietra altri due nomi sulla tomba della famiglia dei bredi erano quelli di mio cugino di cui mi importava assai poco e di mio zio al quale avevo sempre voluto bene chiesi al mio vecchio compagno di giochi il fabbro che mi aveva picchiato tanto spesso ai tempi di una volta di dare al mio cavallo un po di foraggio e una lettiera era un uomo dall'aspetto logoro e malaticcio con una dozzina di marmocchi stracciati che giocavano nella sua bottega e non riconobbe il distinto gentiluomo che aveva dinanzi non cercai di farmi riconoscere da lui fino al giorno dopo quando gli misi in mano dieci guinee dicendogli di berle alla salute del redmond inglese quanto a castle brady i cancelli del parco c'erano ancora ma nel viale i vecchi alberi erano stati abbattuti qua e là sporgeva un vecchio moncone che gettava lunghe ombre mentre io passavo alla luce della luna sul vecchio sentiero abbandonato e invaso dall'erba alcune vacche pascolavano qua e là il cancello del giardino non c'era più e il giardino era tutto un groviglio in selvaticchito mi sedetti sul vecchio banco di pietra dove m'ero seduto il giorno in cui nora si era presa gioco di me credo che i miei sentimenti fossero ancora forti allora come lo erano stati quando ero ragazzo dieci anni prima e fui quasi sul punto di rimettermi a piangere nel pensare che nora brady mi aveva abbandonato penso che un uomo non possa dimenticare nulla ho visto un fiore ho udito qualche comunissima parola che hanno risvegliato ricordi che erano rimasti addormentati per diecine d'anni e quando entrai nella casa in clarges street in cui ero nato era diventata una casa da gioco quando tornai per la prima volta a londra tutto ad un tratto mi ritornò la memoria della mia infanzia della mia vera infanzia ricordai mio padre vestito in verde e oro che mi sollevava per farmi vedere un cocchio dorato e mia madre in un abito a fiorami con i nei sulla faccia mi domando se un giorno tutto ciò che abbiamo visto e pensato e fatto passerà in un lampo attraverso la nostra mente in questo modo preferirei di no pure io provai tutto questo mentre stavo seduto sulla panchina di castle brady e pensavo ai tempi trascorsi la porta principale della casa era aperta era stato sempre così in quella casa la luna brillava sulle lunghe e vecchie finestre e tracciava linee spettrali sui pavimenti e le stelle occhieggiavano dall'altra parte nell'azzurro di una finestra che sbadigliava sul grande scalone di lì si poteva vedere la vecchia campana della stalla con le lettere che vi luccicavano ancora sopra c'erano stati bei cavalli in quelle stalle un tempo ed io potevo vedere l'onesta faccia di mio zio e udirlo parlare ai suoi cani quando venivano saltando e guaiolando e abbaiando intorno a lui in un'allegra mattina d'inverno noi sollevamo montare a cavallo lì e le ragazze ci guardavano dalla finestra del vestibolo là dove ero ora io che guardavo i vecchi luoghi tristi muffiti abbandonati una luce rossa brillava attraverso le fessure di una porta in un angolo del fabbricato e all'improvviso venne fuori un cane abbaiando forte e un uomo lo seguiva zoppicando con un fucile da caccia in mano chi è là disse il vecchio phil parcel non mi riconoscete gridai io sono redmond berry credo che se non avessi parlato il vecchio avrebbe fatto immediatamente fuoco su di me perché aveva puntato il fucile verso la finestra ma io gli gridai di metterlo giù e sceso dalla finestra corsi ad abbracciarlo poi boh non mi importa di raccontare il resto phil ed io trascorremmo una lunga nottata parlando di mille vecchie sciocchezze che ormai non hanno più interesse per anima viva perché quale anima viva c'è ancora che si curi di berry linton lasciai un centinaio di guinea al vecchio quando me ne tornai a dublino e gli fissai una pensione che gli permise di passare tranquillamente gli ultimi giorni della sua vecchiaia il povero phil parcel si stava divertendo a fare una partita con un mazzo di vecchie carte spaventosamente sudice in compagnia di una mia vecchia conoscenza la quale non era altri che tim colui che veniva chiamato il mio valletto in tempi remoti e che il lettore può ricordare infagottato nelle vecchie livree di mio padre che gli pendevano giù da tutte le parti a quei tempi e doveva rimboccarsene ai polsi e alle ginocchia ma tim benché protestasse di essere quasi morto di dolore quando io me ne ero andato era diventato enormemente grasso durante la mia assenza e si sarebbe trovato quasi a suo agio negli abiti di daniel lambert o in quelli del vicario di castle brady che egli serviva in qualità di sagrestano lo avrei preso al mio servizio se non fosse stato per le sue mostruose proporzioni che lo rendevano assolutamente inadatto al servizio di un gentiluomo di una certa condizione sicché egli regalai una bella somma e gli promisi di fare da padrino al suo prossimo figlio l'undicesimo da quando me ne ero andato non c'è paese al mondo in cui il lavoro di moltiplicarsi venga compiuto con tanta energia come nella mia isola natale mister team aveva sposato la cameriera delle mie cugine che era stata una mia ottima amica ai vecchi tempi il giorno dopo voglia andare a salutare la cara molly e la trovai ridotta a una povera donna sudicia e trascurata in una capanna di terra circondata da uno sciame di ragazzini quasi stracciati come quelli del mio fabbro da team e da phil parcel che così per caso avevo incontrati insieme appresi le notizie più recenti circa la mia famiglia mia madre stava bene in fede mia signore disse team forse voi siete arrivato in tempo per impedire un accrescimento della vostra famiglia signore esclamai pieno di indignazione nella forma di un padrino voglio dire signore si scusò team la signora sta per mettersi d'accordo con mister jowls il predicatore la povera nora aggiunse aveva fatto parecchi accrescimenti all'illustre razza dei queen mio cugino ulic era a dublino e non andava troppo bene temevano tutti e due i miei informatori e stava facendo in modo di mandare in malora anche gli scarsi residui di qualche valore della proprietà che il mio buon vecchio zio aveva lasciato vidi che avrei avuto non pochi membri della famiglia a cui provvedere e poi per concludere la serata phil tim ed io prendemmo una bottiglia di usquebo di cui avevo ricordato il sapore per undici interi anni e ci separammo con le più calde espressioni d'amicizia quando il sole era già da qualche tempo in cielo io sono troppo affabile questa è sempre stata una delle mie qualità caratteristiche non ho falso orgoglio come ne hanno molti uomini d'alto lignaggio come me e in mancanza di miglior compagnia mi metto a bere in compagnia di un contadino ignorante o di un soldato semplice con la stessa prontezza con cui mi metterei col primo nobile del paese la mattina dopo feci ritorno al villaggio e trovai un pretesto per visitare barryville con la scusa di voler acquistare certe droghe dal muro sporgevano ancora i ganci a cui solevo appendere la mia spada dall'elsa d'argento sul davanzale della finestra dove mia madre soleva appoggiare il suo whole duty of men stava un vescicante quell'odioso dottor mc shane aveva scoperto chi ero i miei compaesani scoprono sempre tutto e anche qualche altra cosa e ridendo sotto i baffi mi chiese come stava il re di prussia quando lo avevo lasciato e se il mio amico l'imperatore giuseppe era amato quanto lo era stata l'imperatrice maria teresa i campanari avrebbero certo suonato un concerto di campane in mio onore ma ce n'era soltanto uno tima troppo grasso per tirare le corde ed io mi allontanai a cavallo prima che il vicario il dottor bolter che era successo al vecchio mister texter che viveva ai miei tempi avesse il tempo di uscire a rendermi omaggio tutti i mascalzoncelli di quel miserabile villaggio si erano radunati in un sudicio gruppo a darmi il benvenuto e gridarono urrà per mister redmond mentre io mi allontanavo a cavallo la mia gente stava molto in pensiero per me quando tornai a carlo e il padrone della locanda era stato in gran timore mi disse che i briganti di strada si fossero impadroniti di me anche qui avevano appreso il mio nome e la mia posizione dal mio domestico frizza che non aveva risparmiato l'odi al suo padrone e aveva inventato storie meravigliose sul mio conto aveva detto che veramente io ero in intimità con metà dei sovrani d'europa e il favorito di molti loro in realtà io avevo fatto diventare ereditario l'ordine dello sperone di cui era insignito mio zio e viaggiavo sotto il nome di cavaliere di berri ciambellano del duca di hohenzollern sigmaringen mi diedero i migliori cavalli che ci fossero nella stalla per portarmi sulla strada di dublino e i migliori finimenti che potessero trovare e proseguimmo abbastanza bene e non ci fu alcuno scontro fra i briganti e le pistole di cui frizza ed io eravamo provvisti quella sera riposammo a kilcallen e il giorno dopo feci il mio ingresso nella città di dublino con quattro cavalli alla carrozza 5.000 guinee nella borsa ed una delle più brillanti reputazioni d'europa io che avevo lasciato quella città undici anni prima come un povero miserabile ragazzo i cittadini di dublino hanno un così grande e lodevole desiderio di conoscere gli affari dei loro vicini quanto ne ha la gente di campagna ed è impossibile per un gentiluomo per modesti che possano essere i suoi desideri e tali sono stati notoriamente i miei per tutta la mia vita entrare nella capitale senza che il suo nome venga stampato in tutti i giornali e riportato in tutti i circoli più importanti il mio nome ed i miei titoli si sparsero per tutta la città subito dopo il mio arrivo una gran quantità di gentili persone mi fecero l'onore di passare dal mio alloggio quando me ne fui scelto uno e fu questo un punto da sistemare immediatamente perché gli alberghi in città non erano che volgarissimi buchi assolutamente inadatti per un nobiluomo elegante e distinto come me ero già stato informato di questo fatto da altri viaggiatori sul continente e deciso a trovare immediatamente un alloggio convincente feci andare il cocchiere lentamente su e giù per le strade con la mia carrozza fino a che non ebbi scelto un posto quale si conveniva al mio rango questo modo di procedere e le singolari domande ed il contegno del mio tedesco fritz che aveva avuto l'ordine di fare le richieste del caso nelle diverse abitazioni fino a che non fosse venuto fuori un alloggio adatto richiamarono attorno alla mia carrozza una folla immensa e quando le nostre stanze furono scelte avreste potuto supporre che io fossi il nuovo comandante generale tanto grande era la moltitudine che ci seguiva alla fine fissai un bell'appartamento in couple street diedi agli stracciati postiglioni che mi avevano condotto fin lì una splendida mancia e dopo essermi installato in quelle stanze quel mio bagaglio e fritz chiesi al padrone di casa di trovarmi un altro domestico che portasse la mia livrea un paio di robusti e fidati portatori con la loro portantina e un cocchiere che avesse dei bei cavalli da tiro da darmi a nolo per la mia carrozza e dei buoni cavalli da sella da comprare gli diedi un buon anticipo e vi assicuro che l'effetto della mia richiesta fu tale che la mattina dopo ebbi in anticamera un vero e proprio ricevimento palafrenieri domestici e maggiordomi vennero ad offrirsi in gran numero per l'acquisto dei cavalli ebbi proposte sufficienti a montare un reggimento tanto da mercanti che da gentiluomini alla moda ser lowler caller venne a propormi la più elegante cavalla baia che mai si fosse vista lord dan doodle aveva un tiro a quattro che non sarebbe stato inadatto neppure al mio amico imperatore e il marchese di balli raggett mandò il suo valletto e di suoi complimenti affermando che se volevo recarmi alle sue stalle o fargli l'onore di fare la prima colazione con lui mi avrebbe mostrato i due più bei cavalli grigi d'europa io decisi di accettare gli inviti di dan doodle e di balli raggett ma di acquistare i miei cavalli dai mercanti che è sempre la cosa migliore inoltre a quei tempi in irlanda se un gentiluomo vi garantiva il suo cavallo e poi il cavallo non era perfetto o sorgeva qualche questione l'unico rimedio che vi si offriva era una pallottola nel panciotto io avevo giocato a quel giochetto delle pallottole troppo seriamente per farne uso senza necessità e posso dire con orgoglio che non mi sono mai impegnato in un duello se non avevo una ragione vera valida e saggia per farlo c'era in quella nobiltà irlandese una semplicità che mi divertì e mi meravigliò nello stesso tempo se raccontano più frottole che non i loro schietti vicini al di là del mare d'altra parte ne credono anche di più e in una sola settimana io mi feci a dublino una tale reputazione che ad acquistarsela a londra ci sarebbero voluti dieci anni e un mucchio di denaro io avevo vinto 500.000 sterline al gioco io ero il favorito dell'imperatrice caterina di russia ero la gente di fiducia di federico di prussia ero io che avevo vinto la battaglia di hochkirchen ero il cugino di madame du barry il favorito del re di francia e mille altre cose ancora io stesso a dire il vero avevo accennato un certo numero di queste storielle ai miei gentili amici balli raggett e gowler ed essi non avevano tardato ad ampliare i cenni dati da me dopo aver visto gli splendori della vita civile all'estero la vista di dublino nell'anno 1771 quando tornai laggiù suscitò in me tutto fuorché rispetto era quasi arretrata come varsavia senza la regale grandezza di quest'ultima la gente appariva più stracciata di qualsiasi altra popolazione che io avessi visto tranne le orde di zingari lungo le rive del danubio non c'era come ho già detto in tutta la città una locanda in cui un gentiluomo di una certa condizione potesse alloggiare quei disgraziati che non potevano tenere una carrozza e che camminavano a piedi per le strade di sera correvano continuamente il rischio di scontrarsi con i coltelli delle donne e dei ruffiani che erano lì in attesa vera una quantità di stracciati e barbari villanzoni che non conoscevano l'uso delle scarpe né del rasoio e quando un gentiluomo entrava nella sua carrozza o nella sua portantina per recarsi ad una riunione serale o a fare una partita le torce dei valletti illuminavano una tale sfilata di selvagge facce irlandesi che avrebbe spaventato qualsiasi persona dai nervi un po' sensibili fortunatamente io avevo un sistema nervoso a tutta prova e del resto avevo già conosciuto in precedenza i miei amabili compaesani so che questa descrizione che ne faccio susciterà una certa ira tra i patrioti irlandesi ai quali non piace che si riveli la miseria del nostro paese e che si arrabbiano se si dice tutta la verità in proposito ma va era proprio una miserabile cittaduzza di provincia dublino ai tempi di cui parlo e molte residenze tedesche di decimo ordine sono più raffinate c'erano in compenso in quel periodo circa 300 pari residenti una camera dei comuni un lord mayor e la sua municipalità ed un'allegra e rumorosa università i cui studenti facevano non poco chiasso la notte incrementavano l'attività delle prigioni giocavano brutti tiri agli stampatori e agli artigiani e dettavano legge al crow street theater ma ho visto troppa della miglior società d'europa per essere molto tentato dalla compagnia di quella rumorosa nobiltà ed era troppo poco da gentiluomo mescolarsi alle dispute politiche del lord mayor e dei suoi alderman alla camera dei comuni vi erano dozzine di questi simpatici individui e nel parlamento inglese non ho mai udito discorsi migliori di quelli fatti da flood e daily di galway dick sheridan benché non fosse una persona ben educata era un compagno di tavola divertente e spiritoso quanto qualsiasi altro che io abbia mai incontrato e benché durante gli interminabili discorsi di mr edmund burke al parlamento inglese io finissi sempre per addormentarmi pure ho sentito dire da persone ben informate che mr burke era una persona di notevole talento ed era persino considerato eloquente nei suoi momenti più favorevoli cominciai ben presto a godere pienamente di tutti i piaceri che consentono quei disgraziati luoghi e che erano nei limiti delle possibilità di un gentiluomo ranelagh e il ridotto mr mossop in crow street i ricevimenti del lord luogotenente dove si beveva troppo e si giocava troppo poco perché una persona che aveva abitudini eleganti e raffinate come me ci si trovasse a suo agio la dailies coffee house e le case dei nobili mi furono ben presto aperte ed io osservai con mio grande stupore nei circoli più elevati quello che già avevo sperimentato nella mia prima disgraziata visita a dublino una straordinaria mancanza di denaro ed una ridicola quantità di biglietti privati in circolazione contro cui non ero assolutamente disposto a puntare le mie guinee anche le signore andavano pazze per il gioco ma erano troppo poco disposte a pagare quando perdevano così quando la vecchia contessa di trumpington perdette contro di me 10 monete d'oro a quadriglio mi diede invece di denaro un biglietto con la sua firma per il suo amministratore di galway biglietto che io con grande gentilezza bruciai alla fiamma di una candela ma quando la contessa mi propose una seconda volta di giocare io dissi che appena fossero arrivate le rendite di sua signoria sarei stato lietissimo di incontrarmi ancora con lei ma che fino ad allora mi sarei limitato a presentarle i miei umili omaggi e mantenni questa risoluzione e questo particolare atteggiamento in tutta la società di dublino dichiarando da dailies che ero pronto a giocare con chiunque qualsiasi somma a qualsiasi gioco o a tirar di scherma con chiunque o a gareggiare con chiunque in fatto d'equitazione di tiro al volo o di tiro al bersaglio e in quest'ultimo genere di sport specialmente se si tratta di un bersaglio vivente i gentiluomini irlandesi di quell'epoca avevano un'abilità assolutamente fuori dall'ordinario naturalmente mandai un corriere vestito della mia livrea a castle lindon con una lettera personale per rant chiedendogli tutti i possibili particolari sullo stato d'animo e di salute della contessa di lindon e scrissi un eloquente e commovente lettera a sua signoria in cui la pregavo di ricordarsi dei giorni andati la suggellai con un capello della ciocca che avevo acquistato dalla sua cameriera e nella quale le dicevo che sylvander ricordava il suo giuramento e non avrebbe mai dimenticato la sua calista la risposta che ricevetti da lei fu estremamente poco soddisfacente e poco esplicita quella di mister rant abbastanza esplicita ma niente affatto soddisfacente come contenuto lord george poinings il figlio minore del marchese di tiptoff rendeva omaggi molto evidenti alla vedova era legato alla famiglia da vincoli di parentela ed era stato chiamato in irlanda quale esecutore testamentario del defunto sir charles lindon ora c'era a quei tempi in irlanda una specie di legge locale che riusciva di grande utilità alle persone desiderose di una giustizia sbrigativa e di cui i giornali dell'epoca contengono prove a centinaia individui che portavano i nomi di battaglia di capitano fireball luogotenente buffcott sottotenente steel mandavano ripetutamente lettere minatorie ai grandi proprietari e li ammazzavano se le richieste delle lettere non erano eseguite nelle contee del sud dettava legge il famigerato capitano thunder e sembrava che il suo compito fosse di procurare una consorte ai gentiluomini che non avevano mezzi sufficienti per piacere ai parenti delle signorine desiderate o forse non avevano tempo per lunghi e complicati corteggiamenti io avevo trovato a dublino mio cugino ulick divenuto molto grasso e molto povero perseguitato da ebrei e da creditori rifugiato in ogni sorta di strani angoletti da cui usciva al tramonto per recarsi al castello o a giocare alle carte nella sua taverna ma era sempre un tipo coraggioso e con lui feci allusione ai miei sentimenti verso lady lindon la contessa di lindon disse il povero ulick beh questa è magnifica anch'io ho avuto una forte inclinazione per una signorina una della famiglia dei killjoy's di bollyhawk che ha 10.000 sterline di patrimonio personale e che è sotto la tutela di sua signoria ma come può un povero diavolo che non ha nemmeno un mantello per coprirsi fare proposte a un'ereditiera in simile compagnia tanto varrebbe che io chiedessi la mano della contessa in persona faresti meglio a non farlo dissi io ridendo chiunque ci provi correrà il rischio di uscire prima dal novero dei viventi e gli spiegai le mie personali intenzioni nei riguardi di lady lindon l'onesto ulick il cui rispetto per me era divenuto prodigioso da quando aveva visto il mio splendido aspetto e udito le mie mirabile avventure e la mia grande esperienza della vita elegante si perdette nell'ammirazione della mia energia e del mio coraggio quando gli confidai il mio proposito di sposare la più grande ereditiera d'inghilterra ordinai ad ulick di uscire di città col pretesto che preferiva e di imbucare una lettera all'ufficio postale vicino a castle lindon lettera che preparai con una scrittura contraffatta ed in cui avvertivo solennemente lord george poinings di lasciare il paese dicendo che una meta così grandiosa non era destinata a lui e che c'erano ereditiere a sufficienza in inghilterra senza che egli venisse a rubarsele dai domini del capitano fireball la lettera era scritta su un pezzo di carta sudicia con ogni sorta di errori d'ortografia arrivò a milord a giro di posta e naturalmente egli essendo un giovane di spirito ne rise molto per sua disgrazia egli fece la sua comparsa a dublino poco tempo dopo fu presentato al cavaliere redmond barry alla tavola del lord luogotenente si recò con lui e con parecchi altri gentiluomini al club da deliz e lì in una discussione sulla genealogia di un cavallo in cui tutti dissero che ero io che avevo ragione volarono parole grosse e ne seguì uno scontro non avevo ancora avuto affari del genere dopo il mio arrivo a dublino e la gente era ansiosa di vedere se ero pari alla mia fama io non faccio mai vanterie in proposito ma quando viene il momento non mi tiro mai indietro e il povero lord george che aveva buona mano e occhio pronto ma che era stato allevato alla grossolana scuola inglese rimase in piedi davanti alla mia spada solo fino a che non ebbi deciso dove lo avrei colpito la mia spada penetrò sotto la sua guardia e gli uscì dalla schiena mentre cadeva col suo buon carattere egli mi stese la mano dicendo mister barry avevo torto io io non mi sentì troppo a mio agio quando il povero diavolo fece quella confessione perché la disputa era partita da me e per dire il vero io non avevo mai avuto intenzione di farla finire altrimenti che con uno scontro rimase quattro mesi a letto in seguito a quella ferita e la stessa posta che portò a lady lindon la notizia del duello le portò un messaggio del capitano fireball che diceva questo è il numero uno e tu ulick aggiunsi potresti essere il numero due in fede mia disse mio cugino basta uno ma io avevo i miei piani nei suoi riguardi e decisi immediatamente di beneficare quel bravo figliolo e di condurre a termine i miei progetti nei riguardi della vedova capitolo quindicesimo faccio la corte alla mia lady lindon dato che la condanna di mio zio mister balibari per essere uscito dall'irlanda col pretendente nel 1745 non era stata annullata sarebbe stato poco opportuno per lui accompagnare suo nipote nella terra dei nostri avi dove se non l'impiccagione almeno un fastidioso processo la prigionia è un dubbio perdono aspettavano il vecchio signore in ogni importante crisi della mia vita i suoi consigli erano stati sempre importantissimi per me ed io non mancai di andarne in cerca in quel frangente e di implorare per lettera i suoi consigli in quel che concerneva i miei corteggiamenti alla vedova gli raccontai la situazione in cui si trovava il cuore di lei come l'ho descritta nello scorso capitolo i progressi che il giovane poinings aveva fatto nel suo affetto e l'oblio in cui ella aveva posto il suo vecchio ammiratore e ne ricevetti in risposta una lettera piena di eccellenti suggerimenti di cui non mancai di profittare il gentile cavaliere apriva la lettera dicendo che in quel momento si trovava a pensione nel convento dei frati minori a bruxelles che pensava di cercare lì la sua salvezza e di ritirarsi per sempre dal mondo dedicandosi alle più severe pratiche della religione contemporaneamente mi scriveva circa l'amabile vedova era naturale che una persona della sua condizione finanziaria con un fisico non spiacevole avesse attorno molti adoratori ma poiché quando suo marito era ancora in vita si era mostrata non del tutto maldisposta a ricevere i miei omaggi non potevo aver dubbi sul fatto che io non ero il primo che ella avesse favorito in quel modo e che probabilmente non sarei stato neppure l'ultimo vorrei proprio caro figliolo aggiungeva che quella sgradevole condanna che mi opprime come un laccio al collo e la risoluzione che ho preso di ritirarmi da un mondo tutto vanità e peccato non mi impedissero di venire personalmente in tuo aiuto in questa delicata crisi che attraversano le tue faccende perché per condurli a buon fine esse richiedono non solo il coraggio indomabile l'audacia e la vanagloria che tu possiedi più di qualsiasi altro giovanotto che io abbia mai conosciuto quanto alla vanagloria come la chiamava il cavaliere la nego assolutamente essendo sempre stato molto modesto nel mio contegno ma benché tu abbia la vigoria per eseguirli non hai l'ingegno che suggerisce i piani di condotta per portare a termine un progetto che sarà probabilmente di esecuzione lunga e difficile avresti mai pensato tu a quel brillante progetto sulla contessa ida che fu sul punto di conquistarti il maggior patrimonio d'europa se non fosse stato per i consigli e l'esperienza di un povero vecchio che tira ora le somme dei suoi conti col mondo ed è sul punto di ritirarsi da esso per sempre bene per quel che riguarda la contessa di lindon il tuo modo di conquistarla è secondo me attualmente del tutto all'or né io posso consigliarti giorno per giorno come vorrei poter fare a mano a mano che si presentano le circostanze ma il tuo piano generale dovrebbe essere questo se ben ricordo le lettere che solevi ricevere da lei durante il periodo di corrispondenza che quella sciocca ebbe con te passarono tra voi espressioni molto elevate specialmente quelle scritte da sua signoria stessa che è una babble e va pazza per scrivere essa soleva fare dei suoi dissensi col marito il continuo tema della sua corrispondenza come fanno le donne io ricordo diversi passaggi delle sue lettere in cui essa deplorava amaramente il proprio destino che l'aveva unita ad un uomo così indegno di lei certamente nella massa di biglietti da lei inviati di cui sei in possesso deve esserci abbastanza per comprometterla studiateli bene scegli i passaggi adatti e minaccia di comprometterla scrivile da prima in un tono da non lasciar dubbi come un innamorato che ha tutti i diritti su di lei poi se lei tace fai le tue rimostranze alludendo alle sue precedenti promesse producendo le prove della sua precedente considerazione per te giurando disperazione distruzione vendetta se si mostra infedele spaventala stupiscila con qualche tratto temerario che le mostri la tua indomabile risoluzione sei uomo da farlo la tua spada ha una notevole reputazione in europa e tu hai un carattere abbastanza sfrontato questa fu la prima cosa che fece volgere su di te gli sguardi di lady lindon fa che la gente parli di te a dublino si splendido audace e stravagante quanto più possibile come vorrei esserti vicino tu non hai sufficiente immaginazione per farti una personalità come quella che ti creerei io ma perché parlare così non ne ho forse abbastanza del mondo e delle sue vanità c'era molto buonsenso e molta praticità in questi consigli che riporto qui senza accompagnarli con le lunghe descrizioni delle mortificazioni e delle devozioni a cui mio zio si dedicava terminando come al solito la sua lettera con le più fervide preghiere per la mia conversione alla vera fede ma egli era costante nella sua forma di convinzione religiosa ed io da uomo d'onore e di principi ero saldo nella mia e non ho alcun dubbio che l'una da questo punto di vista fosse tanto accettabile quanto l'altra attenendomi dunque a queste direttive scrissi a lady lindon al mio arrivo per chiederle quando al più rispettoso dei suoi ammiratori avrebbe potuto essere permesso di intromettersi nel suo dolore poi dato che la sua signoria restava silenziosa le chiesi se aveva forse dimenticato i tempi trascorsi e una persona che era stata favorita dalla sua intimità in quel periodo così felice aveva calista dimenticato eugenio contemporaneamente mandai per mezzo del mio domestico insieme a questa lettera il dono di una piccola spada a lord bullington e un biglietto personale al suo istitutore di cui fra l'altro possedevo un impegno scritto per una somma di cui non ricordo l'entità ma che era certo molto più di quanto il povero diavolo fosse in grado di pagare a questo punto mi venne una risposta dal segretario di lady lindon nella quale si affermava che sua signoria era ancora troppo turbata dal dolore per la sua recente terribile disgrazia per vedere chi che sia all'infuori dei suoi parenti è un biglietto del mio amico l'istitutore del ragazzo che dichiarava che lord george poinings era il giovane consanguineo che si accingeva a consolarla fu questo che cagionò la lite di cui ho già parlato fra me e quel giovane gentiluomo che io ebbi cura di sfidare non appena arrivò a dublino quando la notizia del duello fu portata alla vedova a castle lindon il mio informatore mi scrisse che lady lindon si mise a strillare gettando via il giornale ed esclamò quell'orribile mostro non arretrerebbe dinnanzi a un assassinio credo e il piccolo lord bullington traendo la spada la spada che gli avevo dato io a quel briccone dichiarò che avrebbe ucciso con quella l'uomo che aveva ferito il cugino george e quando mister hunt gli disse che ero io il donatore di quell'arma quel piccolo furfante giurò ancora che mi avrebbe ammazzato lo stesso in verità ad onta della mia gentilezza verso di lui sembrava che quel ragazzo mi detestasse sempre di più sua signoria mandava ogni giorno corrieri ad informarsi della salute di lord george e pensando tra me che probabilmente ella si sarebbe indotta a venire a dublino se avesse saputo che lui era in pericolo feci in modo di farle sapere che era in uno stato piuttosto precario che stava sempre peggio e che in seguito a questo redmond barry era scappato di questa fuga feci in modo che desse notizia anche il giornale mercury ma in realtà non andai più lontano della città di bray dove abitava la mia buona madre e dove trovandomi in difficoltà per un duello potevo star sicuro di essere il benvenuto quei lettori che hanno in mente un forte senso del dovere filiale si meraviglieranno che io non abbia ancora descritto il mio incontro con mia madre i cui sacrifici per me in giovinezza erano stati così notevoli e per la quale un uomo della mia calda ed affettuosa natura non poteva fare a meno di provare il più durevole e sincero riguardo ma un uomo che agisce nell'alta sfera della società in cui ora mi trovavo io ha i suoi doveri pubblici da compiere prima di pensare ai suoi sentimenti privati sicché appena arrivato io inviai un messaggero a mistress barry annunciandole il mio arrivo inviandole i sensi del mio rispetto e della mia devozione e promettendo di andare a rinnovarglieli di persona appena le occupazioni che avevo a dublino me lo avessero permesso queste non ho bisogno di dirlo erano molto importanti io avevo i miei cavalli da comprare il mio alloggio da sistemare la mia entré nella buona società da fare e avendo annunciato la mia intenzione di acquistare cavalli e di vivere con un certo stile in un paio di giorni fui talmente importunato da visite della nobiltà e del mondo elegante e così assillato da inviti a pranzo e a cena che per parecchi giorni divenne per me estremamente difficile andare a compiere la visita tanto desiderata a mistress barry mi risulta che quella buona creatura preparò un ricevimento appena ebbe saputo del mio arrivo e invitò a parteciparvi tutte le sue umili conoscenze di bray ma in seguito io mi trovai impegnato con milord ballerugget per il giorno fissato e fui naturalmente costretto a non tener fede alla promessa che avevo fatto a mia madre di essere presente al suo modesto festino cercai di addolcire il suo disappunto mandandole un bel mantello di seta e un abito di velluto che comperai dal miglior negoziante di stoffe di dublino anzi le dissi che li avevo portati da parigi apposta per lei ma il messaggero che inviai con i doni riportò indietro i pacchi con la pezza di seta stracciata proprio nel mezzo ed io non ebbi bisogno delle sue descrizioni per rendermi conto del fatto che qualche cosa aveva offeso la buona signora che era venuta fuori e gli disse e lo aveva ingiuriato sulla porta e gli avrebbe tirato le orecchie se ciò non le fosse stato impedito da un signore in nero che io conclusi giustamente dovesse essere il suo amico ecclesiastico mister jowls questo modo di ricevere i miei doni mi rese più timoroso che speranzoso di un incontro con mistress berry e fece rimandare ancora di qualche giorno la visita che intendevo farle descrissi una rispettosa e carezzevole lettera che non ricevette risposta benché le avessi raccontato che durante il mio viaggio verso la capitale ero stato a berryville e avevo visitato ancora una volta i luoghi della mia giovinezza non mi vergogno di ammettere che mia madre è l'unico essere umano che io abbia paura di affrontare ricordavo i suoi accessi di collera quando ero bambino come pure le riconciliazioni che seguivano e che erano di solito anche le più violente e penose sicché invece di andare di persona mandai il mio factotum ulic brady a trovarla ed egli tornò indietro dicendo che aveva avuto una tale accoglienza che non si sarebbe sentito di subirla un'altra volta neppure per venti guinee che era stato cacciato via dalla casa con la rigorosa ingiunzione di informarmi che mia madre mi rinnegava per sempre questo domestico anatema a dire il vero mi colpì profondamente perché io ero sempre stato il più rispettoso dei figli sicché decisi di andare personalmente appena possibile e di sfidare quella che sapevo sarebbe stata un'inevitabile scena di rimproveri e di collera in vista almeno lo speravo di una sicura riconciliazione una sera avevo dato un ricevimento in onore della compagnia più distinta di dublino e stavo accompagnando milord il marchese di giù per le scale con un paio di candelieri quando trovai una donna vestita di un mantello nero seduta sui gradini del mio portone e prendendola per una mendicante le porsi una moneta mentre i miei nobili amici che erano piuttosto altici le rivolgevano qualche frizzo mentre io chiudevo la porta e auguravo loro buonanotte fui piuttosto sorpreso e colpito scoprendo in seguito che quella donna incappucciata non era altri che mia madre che spinta dall'orgoglio aveva fatto voto di non varcare la soglia di casa mia ma i cui materni sentimenti le avevano ispirato il desiderio di rivedere ancora una volta il viso di suo figlio e che si era per questo così incappucciata e si era messa sulla mia soglia in realtà nella mia lunga esperienza ho constatato che queste sono le sole donne che non deludono mai un uomo e i cui affetti rimangono costanti attraverso tutte le prove pensate alle ore che quella cara anima deve aver passato sola nella strada ascoltando il frastuono e l'allegria nei miei appartamenti il tintinnio dei bicchieri le risate i canti e gli scherzi quando accade il mio duello con lord george divenne necessario per me per le ragioni che ho già esposte levarmi di mezzo ora pensai è il momento di fare la pace con la mia buona madre essa non mi rifiuterà un asilo ora che sono nei guai così facendola avvertire che stavo per arrivare e che avevo avuto un duello che mi aveva messo negli impicci e rendeva necessario che mi nascondessi seguì il mio messaggero a mezz'ora di distanza e vi posso assicurare che non mancai di essere ben ricevuto perché quando fui introdotto in una stanza vuota dalla domestica scalza che era al servizio di mrs berry la porta si aprì immediatamente e la povera madre si gettò fra le mie braccia con un grido e con trasporti di gioia tali che non tenterò neppure di descriverli ma che saranno certo compresi dalle donne che hanno tenuto fra le braccia il loro unico figlio dopo essere state dodici anni lontane da lui il reverendo mr jowls il direttore spirituale di mia madre fu la sola persona alla quale venne aperta la porta della sua abitazione durante il mio soggiorno perché non avrebbe ammesso di nieghi egli si preparò subito un bicchiere di pancia al rum che sembrava avesse l'abitudine di bere a spese della mia buona madre cominciò a borbottare forte e a farmi una predica sulla peccaminosità dei miei passati trascorsi e specialmente dell'ultima orribile azione che avevo commesso peccatore diceva mia madre arrabbiandosi fortemente nel sentire attaccare suo figlio certo noi siamo tutti peccatori siete proprio voi mr jowls che mi avete dato l'inesprimibile benedizione di farmi apprendere questo ma come avreste voluto che il povero ragazzo si comportasse altrimenti io avrei voluto che il signore qui presente evitasse tanto di bere che di attaccar briga e del pari quel dannato duello rispondeva l'ecclesiastico mia madre tagliò corto a questi discorsi dicendo che un simile tipo di condotta avrebbe potuto andare benissimo per una persona del suo abito e della sua nascita ma che non si addiceva né a un brady né a un berri in realtà ella era assolutamente incantata dall'idea che avevo ferito in duello il figlio di un marchese inglese e così per consolarla gliene raccontai un'altra decina in cui ero stato implicato e di cui ho già almeno in parte informato il lettore dato che il mio ultimo avversario era fuori di pericolo quando feci il resoconto del rischio che avevo corso non c'era nessuna particolare necessità che la mia reclusione fosse molto rigorosa ma la vedova non conosceva bene come me tutta la faccenda e tenne la sua casa addirittura barricata mettendo becchi la scalza servetta continuamente in sentinella per dare l'allarme se le guardie fossero venute a cercarmi ma la sola persona che io aspettavo era mio cugino ulic che doveva portarmi la desiderata notizia dell'arrivo di lady lindon e debbo ammettere che dopo due giorni di rigoroso confinamento a brei in cui raccontai a mia madre tutte le avventure della mia vita e riuscì a farle accettare gli abiti che prima aveva rifiutato ed una notevole aggiunta alle sue entrate che fui ben lieto di fare fui molto soddisfatto quando vidi quella reprobo di ulic brady come lo chiamava mia madre fermarsi alla porta della mia carrozza con le desiderate notizie per mia madre che il giovane lord era fuori pericolo per me che la contessa di lindon era arrivata a dublino avrei voluto redmond che quel giovane fosse stato in pericolo un po più a lungo disse la vedova con gli occhi pieni di lacrime così ti saresti trattenuto un po di più con la tua povera vecchia madre ma io asciugai le sue lacrime abbracciandola teneramente e promettendo di tornare a trovarla spesso e accennai che avrei potuto forse un giorno avere una casa mia propria ed una nobile nuora a darle il benvenuto e chi è caro redmond chiese la vecchia signora una delle più ricche e più nobili donne dell'impero madre mia risposio niente più bre di questa volta aggiunsi ridendo e con queste speranze lasciai mistress barry di ottimo umore nessun uomo è meno capace di me di serbar rancore e una volta che ho sostenuto il mio punto divento una delle persone più pacifiche al mondo mi ero trattenuto a dublino una settimana prima che ritenessi necessario lasciare quella capitale e in quel frattempo mi ero completamente riconciliato col mio rivale mi ero fatto un punto d'onore di andarlo a trovare e divenni ben presto il suo intimo consolatore al suo capezzale aveva un valletto con cui non mancai di mostrarmi molto gentile e verso il quale ordinai ai miei sottoposti di usare ogni riguardo perché ero naturalmente ansioso di apprendere qual era stata realmente la posizione di lord george verso la signora di castle linden se c'erano altri corteggiatori attorno alla vedova e come aveva accolto la notizia della ferita di lui fu il giovane gentiluomo in persona che mi illuminò in qualche modo sull'argomento che ero tanto desideroso di conoscere cavaliere mi disse una mattina che ero andato a rendergli omaggio trovo che voi siete una vecchia conoscenza della mia parente la contessa di linden essa mi scrive una pagina di insulti sul vostro conto qui in una lettera e la parte strana di questa storia è che un giorno quando si parlò di voi a castle linden e dello splendido equipaggio di cui facevate pompa a dublino la vecchia vedova giurò e protestò che non aveva mai sentito parlare di voi oh sì mamma disse il piccolo bullington quell'uomo alto e bruno che era a spa con quel tic all'occhio che faceva bere il mio istitutore e che mi mandò per regalo la spada si chiamava proprio barry ma milady ordinò al ragazzo di uscire dalla stanza e insistette nell'affermare che non vi conosceva e voi siete un parente ed amico di lady linden chiesi io in tono di profonda sorpresa sì certo rispose il giovane gentiluomo ho lasciato la sua casa solo per ricevere da voi questa brutta ferita e mi è capitata proprio in un momento disgraziato perché più disgraziato di un altro diamine vedete voi cavaliere io credo che la vedova non fosse del tutto insensibile alla mia corte credo che avrei potuto indurla a stringere maggiormente i nostri rapporti e in fede mia benché sia un po più vecchia di me è il più ricco parti che ci sia ora in inghilterra milord george dissi io volete permettermi di farvi una franca ma strana domanda volete mostrarmi le sue lettere no non farò davvero una cosa simile ribatte lui tutto arrabbiato perbacco non vi inquietate se io vi mostro delle lettere mandate da lady linden a me mi farete vedere le vostre che cosa intendete dire mister barry in nome del cielo esclamò il giovane intendo dire che io amavo appassionatamente lady linden intendo dire che io che io non le ero del tutto indifferente intendo dire che l'amo alla follia anche adesso che mi ucciderò ucciderò l'uomo che la possieda prima di me voi sposare la maggiore ereditiera è il più nobile sangue d'inghilterra esclamò alteramente lord george non c'è in inghilterra sangue più nobile del mio risposi io e vi dico che io non so se sperare o no ma questo so che ci furono giorni in cui povero come sono la grande ereditiera non sdegnò di abbassare lo sguardo sulla mia povertà e che chiunque voglia sposarla dovrà passare sul mio cadavere per farlo è una fortuna per voi aggiunsi fieramente che in occasione del mio scontro con voi io non sapessi quali erano le vostre mire su lady linden mio povero ragazzo voi siete coraggioso ed io vi voglio bene ma la mia è la prima spada d'europa e voi giacereste ora in un letto molto più stretto di quello che occupate adesso ragazzo esclamò lord george se non ho neanche quattro anni meno di voi avete 40 anni meno di me in fatto di esperienza io ne ho passate di tutti i generi nella vita ho fatto fortuna con la mia abilità e il mio coraggio ho partecipato a 14 battaglie campali in qualità di soldato semplice e sono sceso sul terreno 23 volte e non sono stato toccato che una volta ed è stato dalla spada di un maître d'arma francese che ho ucciso ho esordito nella vita a 17 anni povero come un mendicante ed ora a 27 anni possiedo 20.000 guinee immaginate che un uomo del mio coraggio e della mia energia non riesca a raggiungere tutto ciò a cui aspira e che avendo dei diritti sulla vedova non li farò valere questo discorso non era tutto vero alla lettera perché io avevo un po' moltiplicato il numero delle mie battaglie e dei miei duelli e specialmente le mie ricchezze ma vidi che aveva fatto l'impressione che desideravo sulla mente di quel giovane gentiluomo e gli ascoltò le mie affermazioni con particolare serietà e lo lasciai immediatamente solo a digerirle dopo un paio di giorni tornai di nuovo a trovarlo e portai con me alcune delle lettere che ci eravamo scambiati con lady lindon ecco dissi guardate ve la mostro in confidenza questa è una ciocca di capelli di sua signoria ecco le sue lettere firmate calista e indirizzate a eugenio ecco qua una poesia quando il sole abbellisce il prato con la sua luce e la pallida cinzia sparge i suoi raggi indirizzata da sua signoria al vostro umile servitore calista e eugenio il sole abbellisce il prato con la sua luce esclamò il giovane lord sto forse sognando diamine mio caro berri la vedova ha mandato anche a me proprio la stessa poesia rallegrandosi ai raggi del sole o meditando nella grigia sera non potei fare a meno di ridere mentre egli continuava la citazione effettivamente erano proprio le stesse parole che la mia calista aveva rivolto a me e paragonando le lettere trovammo che interi squarci deluquenza che figuravano in una delle due corrispondenze apparivano anche nell'altra guardate un po a che cosa porta fare la babble e avere la mania di scrivere lettere poi il giovane depose le lettere molto turbato bene sia ringraziato il cielo disse dopo una pausa di una certa durata sia ringraziato il cielo per questa liberazione mister berri che donna avrei potuto sposare se queste carte non fossero fortunatamente capitate sulla mia strada io pensavo che lady lindon avesse un cuore signore debbo confessarlo ma non un cuore così caldo e che almeno ci si potesse fidare di lei ma sposarla ora vorrei piuttosto mandare in strada il mio domestico a cercarmi una moglie che prendere una matrona di efeso come questa mi lord george dissi io voi conoscete poco il mondo ricordatevi che razza di marito aveva lady lindon e non meravigliatevi che ella da parte sua potesse essergli indifferente mi permetto di assicurarvi che non ha mai oltrepassato i limiti di una innocua galanteria ho peccato altrimenti che col comporre un sonetto o un billet du mia moglie disse il giovane lord non scriverà né sonetti né billet du e sono sinceramente lieto di pensare che ho penetrato in tempo la vera essenza di una strega senza cuore di cui ho creduto per un momento di essere innamorato il giovane ferito era come ho detto molto giovane ed inesperto nelle cose di questo mondo perché supporre che un uomo lasci andare 40.000 sterline all'anno soltanto perché la signora che la possiede ha scritto alcune lettere sentimentali ad un giovanotto è troppo assurdo oppure come propendo a credere era lieto di trovare una scusa per abbandonare completamente il campo non essendo in alcun modo ansioso di incontrare una seconda volta la invincibile spada di redmond berry quando l'idea del pericolo che correva poinings o i rimbrotti che probabilmente egli aveva rivolto alla vedova riferendosi a me ebbero portato a dublino quella troppo debole donna come io mi aspettavo ed il mio degno ulic mi ebbe informato dell'arrivo di lei io lasciai la mia buona madre completamente riconciliata con me era stato questo l'effetto del duello e trovai che la sconsolata calista aveva preso l'abitudine di recarsi a far visita al ferito innamorato con grande noia di codesto gentiluomo o così mi dissero i domestici gli inglesi sono spesso assurdamente alteri e sdegnosi su un puntiglio e dopo aver saputo della condotta della sua parente lord poinings aveva giurato che non avrebbe più avuto nulla a che fare con lei io ricevetti questa informazione dal valletto di sua signoria del quale come ho detto avevo avuto particolarmente cura di diventare amico e il suo portiere si rifiutò di farmi entrare quando decisi di andare ancora a fargli visita come prima milady aveva probabilmente dato come me una mancia a quel degno uomo perché era riuscita a salire di sopra benché le fosse stato da prima negato l'ingresso e di fatto io l'avevo tenuta ad occhio da quando era uscita da casa fino all'appartamento di lord george poinings e l'avevo vista discendere dalla sua portantina lì davanti ed entrare prima di seguirla io stesso mi proponevo di aspettarla tranquillamente nell'anticamera e di fare lì una scena rimproverandola della sua infedeltà se fosse stato necessario ma le cose andarono in modo molto più conveniente per me poiché entrando senza essere annunciato nell'anticamera degli appartamenti di sua signoria ebbi la felicità di udire nella cameretta vicina la cui porta era succiusa la voce della mia calista essa piangeva calde lacrime appellandosi al povero ammalato che giaceva confinato nel suo letto e parlando nel modo più appassionato che cosa può avervi condotto a dubitare della mia fedeltà george e la diceva come potete spezzare il mio cuore sbarazzandovi di me in questa mostruosa maniera volete trarre la vostra povera calista al sepolcro bene bene raggiungerò laggiù il caro angelo scomparso che vi è entrato solo da tre mesi disse lord george sogghignando c'è proprio da meravigliarsi che gli abbiate sopravvissuto così a lungo non trattate la vostra povera calista in questo modo crudele antonio esclamò la vedova bah disse lord george la mia ferita va male i miei dottori mi hanno proibito di parlare a lungo immaginate che il vostro antonio sia stanco mia cara non potete consolarvi con qualcun altro cielo lord george antonio consolatevi con eugenio disse il giovane gentiluomo amaramente e si mise a suonare il campanello al suono venne fuori il suo domestico che stava in una camera più interna ed egli gli ordinò di riaccompagnare sua signoria lady lindon uscì dalla camera con gran trambusto era vestita a lutto stretto con un velo sul viso e non riconobbe la persona che aspettava in anticamera ma mentre scendeva le scale io le corsi dietro agilmente e mentre il suo cocchiere le apriva la porta balzai fuori e le porsi la mano per farla salire in carrozza carissima vedova le dissi sua signoria ha parlato proprio bene consolatevi con eugenio e la era troppo spaventata anche per gridare mentre il cocchio la portava via rapidamente discese davanti a casa sua e potete essere certi che io ero allo sportello della carrozza come prima per aiutarla a discendere mostro e la mi disse vi prego di lasciarmi in pace madame sarebbe contrario al mio giuramento risposio ricordate la promessa che eugenio fece a calista se non ve ne andate chiamerò i domestici perché vi mettano fuori dalla porta cosa quando io sono venuto con le lettere della mia calista in tasca forse per restituirle voi volete prendermi con la dolcezza signora ma non potete spaventare redmond berry ma che cosa volete da me signore disse la vedova piuttosto agitata fatemi salire e vi dirò tutto risposio ed ella condiscese a porgermi la mano e da permettermi di condurla dalla sua portantina al salotto quando fumo soli le rivelai onestamente le mie intenzioni carissima signora dissi non fate in modo che la vostra crudeltà conduca uno schiavo disperato a misure estreme io vi adoro nei giorni andati voi mi permetteste di bisbigliarvi la mia passione senza restrizioni adesso mi cacciate dalla vostra porta lasciate le mie lettere senza risposta e preferite un altro a me la mia carne e il mio sangue non possono sopportare un trattamento simile riflettete alla punizione che sono stato costretto ad infliggere tremate al pensiero di quella che posso essere obbligato a somministrare a quello sfortunato giovane appena vi sposerà signora e gli morirà io disse la vedova non vi riconosco il minimo diritto di dettar legge alla contessa di lindon non comprendo minimamente le vostre minacce e non ne tengo alcun conto che cosa è mai passato fra me ed un avventuriero irlandese che possa autorizzare questa impertinente intrusione sono passate queste signora dissi io le lettere di calista ad eugenio possono essere state del tutto innocenti ma vorrà crederlo il mondo voi potete aver avuto soltanto l'intenzione di scherzare col cuore di un povero ingenuo gentiluomo irlandese che vi adorava e aveva fiducia in voi ma chi crederà la storia della vostra innocenza contro l'irrefragabile testimonianza della vostra stessa scrittura chi vorrà credere che abbiate scritto queste lettere per mera civetteria e non sotto l'influsso di un vero affetto ma scalzone gridò lady lindon osereste tirar fuori da quelle mie oziose lettere un significato diverso da quello che esse hanno realmente ne tirerò fuori qualsiasi cosa dissi io tanta è la passione che mi spinge verso di voi io l'ho giurato voi dovete essere mia e lo sarete avete mai saputo che io abbia giurato di fare una cosa e non l'abbia fatta che cosa preferite avere da parte mia un amore quale mai donna ebbe da un uomo o un odio di cui non esiste l'uguale una donna del mio rango signore non può temere nulla dall'odio di un avventuriero come voi ribatte la signora alzandosi con aria dignitosa e superba guardate il vostro poinings non era egli forse del vostro rango voi siete la causa della ferita di quel giovane signora e se non fosse che lo strumento della vostra selvaggia crudeltà si è egli stesso man suefatto sareste stata l'autrice della sua uccisione sì della sua uccisione perché se una moglie è infedele non è lei che arma il marito a punire il seduttore ed io vi considero come mia moglie onoria lindon marito moglie signore esclamò la vedova stupefatta sì moglie marito io non sono una di quelle povere creature con cui le civette possono scherzare per poi gettarle da un canto voi potrete aver dimenticato quello che è passato fra noi a spa calista potrà dimenticare e eugenio ma io non vi permetterò di dimenticarmi voi pensavate di scherzare col mio cuore vero ma una volta che esso è ferito è ferito per sempre onoria io vi amo vi amo tanto appassionatamente adesso come quando la mia passione era senza speranza ed ora che posso conquistarvi pensate che vi lascerò andare crudele crudele calista voi conoscete male il potere dei vostri vezi se credete che il loro effetto si possa dimenticare così facilmente voi conoscete male la costanza di questo puro e nobile cuore se credete che avendovi amato una volta esso possa mai cessare di adorarvi no giuro per la vostra crudeltà che vi punirò giuro per la vostra meravigliosa bellezza che la conquisterò e sarò degno di conquistarla adorabile affascinante mutevole crudele donna voi sarete mia lo giuro la vostra ricchezza può essere grande ma non ho io una natura abbastanza generosa per usarne degnamente il vostro rango è elevato ma non elevato come la mia ambizione voi vi siete gettata una volta tra le braccia di un debosciato freddo e privo di spirito datevi adesso ad un uomo onoria e ad un uomo che per elevato che possa essere il vostro rango lo eleverà ancora e vi si dinanzi a lei dominandola con la mia statura ed affascinandola col balenare dei miei occhi la vedevo diventare rossa e pallida per il timore e per la meraviglia vedevo che le lodi che tributavo al suo fascino e l'esposizione della mia passione non le tornavano sgraditi e constatavo con calma trionfale il dominio che stavo prendendo su di lei il terrore siatene certi non è un cattivo ingrediente dell'amore un uomo che vuole decisamente conquistarsi il cuore di una debole e svaporata donna deve riuscire se ha occasioni sufficienti uomo terribile disse lady lindon ritraendosi da me non appena ebbi terminato di parlare in vero mi trovavo a corto di parole e stavo pensando ad un altro discorso da farle uomo terribile lasciatemi vedi che le avevo fatto una certa impressione proprio da queste parole se mi lascia rientrare in casa domani pensai fra me è mia quando discesi misi dieci guinee nelle mani del portiere che appariva assolutamente stupefatto di un simile dono è per compensarvi del disturbo di aprirmi la porta dissi io dovrete farlo tanto spesso capitolo sedicesimo elargisco nobiltà alla mia famiglia e raggiungo il culmine della mia apparente fortuna il giorno dopo quando ritornai i miei timori si realizzarono mi fu rifiutato l'ingresso la signora non era in casa sapevo che era falso avevo tenuto d'occhio per tutta la mattina la porta da una camera che avevo preso in affitto nella casa di rimpetto la vostra padrona non è fuori casa dissi è lei che vi ha detto di non farmi entrare ed io non posso naturalmente farmi strada a forza ma ascoltatemi voi siete inglese sapevo che lo era e che perciò potevo offrirgli una mancia uno straccione di domestico irlandese a cui non fosse stato pagato il salario da mesi vi avrebbe probabilmente tirato il denaro in faccia ascoltatemi dunque dissi le lettere della vostra padrona passano per le vostre mani vero una corona per ogni lettera che mi portate per farmela leggere c'è uno spaccio di whisky qui nella strada vicina portatemele lì quando andate a bere un goccetto e chiamatemi col nome di dermot mi ricordo di vostro onore a spa disse quell'individuo sogghignando sette è il massimo è e molto orgoglioso di questo ricordo dissi addio al mio nuovo sottoposto io non approvo questa pratica di aprire le lettere altrui nella vita privata salvo che in casi della più urgente necessità quando siamo costretti a seguire gli esempi dei nostri migliori gli statisti di tutta europa e per amore di un bene più grande a violare una piccola questione d'etichetta alle lettere di lady lindon non accadde nulla di male per essere state aperte e questo fece invece un mondo di bene perché la conoscenza ottenuta attraverso l'attenta lettura delle sue molteplici epistole mi mise in grado di diventare un intimo conoscitore del suo carattere in mille modi e di ottenere un potere di cui non tardai a approfittare con l'aiuto delle lettere del mio amico inglese a cui offrivo sempre li cuori della migliore qualità e facevo doni in denaro a lui anche più graditi solevo indossare anch'io una livrea per questi incontri e mettermi una parrucca rossa sotto la quale era impossibile riconoscere il distinto ed elegante redmond berry riuscì ad ottenere una conoscenza così intima dei movimenti della vedova da meravigliare lei stessa sapevo in precedenza in quali luoghi pubblici sarebbe andata erano assai pochi a causa della sua vedovanza ma dovunque faceva la sua comparsa in chiesa o nel parco c'ero sempre io pronto a porgerle il suo libro o a scortare a cavallo la sua carrozza molte lettere di sua signoria contenevano le più fantastiche rodomontate che mai babble abbia scritto era una donna che prendeva e lasciava un numero di cari amici e di amiche più grande di quanto io abbia mai visto ad alcune di queste amiche femmine cominciò immediatamente a scrivere circa la mia indegna persona e con un sentimento di estrema soddisfazione trovai che la vedova cominciava ad avere una terribile paura di me mi chiamava la sua bete noir il suo spirito malvagio il suo sanguinario adoratore e con centinaia di altri nomi che rivelavano la sua estrema inquietudine ed il suo terrore come quel furfante ha pedinato la mia carrozza attraverso tutto il parco oppure il mio incubo mi ha seguito in chiesa e il mio inevitabile adoratore mi ha porto la mano per scendere dalla portantina davanti alla bottega del merciaio e non so che altro la mia intenzione era di accrescere nel suo seno questo sentimento di terrore e di farle credere che io ero una persona alla quale era impossibile sfuggire a questo scopo corruppi un veggente che la consultò contemporaneamente a parecchie altre sciocche e distintissime persone di dublino in quei giorni e che benché ella si fosse vestita come una delle sue dame non mancò di riconoscere la sua vera posizione e di descriverle come suo futuro marito il suo perseverante adoratore redmond berry scudiero questo incidente la turbò molto ed ella ne scrisse in termini di grande meraviglia e terrore alle sue corrispondenti di genere femminile può questo mostro scriveva fare davvero quello di cui si vanta e piegare persino il fato alla sua volontà può egli far sì che io lo sposi benché io lo detesti cordialmente e ridurmi schiava ai suoi piedi l'orribile sguardo dei suoi neri occhi di serpente mi affascina e mi spaventa mi sembra che mi segua quando chiudo gli occhi quello sguardo spaventoso penetra attraverso le mie ciglia ed è ancora su di me quando una donna comincia a parlare di un uomo in questo modo costui è un asino se non riesce a conquistarla e da parte mia io solevo seguirla in giro e mettermi sempre di fronte a lei per affascinarla col mio sguardo come soleva dire più assiduamente che mi fosse possibile lord george poinings il suo antico ammiratore era sempre trattenuto in casa dalla sua ferita e sembrava deciso a rinunciare a qualsiasi pretesa ai di lei favori perché non la faceva entrare quando andava a trovarlo non rispondeva alla sua ripetuta corrispondenza contentandosi di dire in generale che il chirurgo gli aveva proibito di ricevere visite o di rispondere alle lettere così mentre lui si ritirava io mi facevo avanti e facevo ben attenzione che non si presentassero altri rivali con una qualche probabilità di successo perché appena sentivo dire che ce n'era uno mi procuravo una disputa con lui in questo modo ne ferì altri due oltre alla mia prima vittima lord george prendevo sempre un altro pretesto per attaccar briga e non quello vero delle sue attenzioni verso lady lindon in modo che non ne sorgesse in conseguenza alcuno scandalo e che i sentimenti di sua signoria non ne fossero feriti ma ella sapeva benissimo qual era il significato di questi duelli ed anche i giovanotti di dublino mettendo assieme due più due cominciavano a subodorare che c'era un cotal dragone a guardia della ricca ereditiera e che dovevano vincere il dragone prima di arrivare alla dama e vi garantisco che dopo i primi tre non si trovarono molti campioni che rivolgessero i loro omaggi alla dama ed ho riso spesso dentro di me nel vedere parecchi dei giovani bè di dublino che cavalcavano a lato della carrozza di lei squagliarsela appena apparivano la mia cavalla baia e le mie livree verdi io desideravo fare impressione su di lei con qualche grande e terribile dimostrazione della mia potenza e a questo fine avevo deciso di elargire un grande beneficio al mio onesto cugino ulick portando via per lui il dolce oggetto dei suoi sospiri miss killjoy proprio sotto gli occhi della sua tutrice ed amica lady lindon e alla faccia dei cavalieri fratelli della signorina che trascorrevano la stagione mondana a dublino e facevano tanto chiasso sulle diecimila sterline irlandesi della sorella quanto ne avrebbero fatto se avesse avuto un'immensa fortuna la ragazza non era affatto contraria a mio cugino brady e questo dimostra soltanto quanto siano deboli di spirito certi uomini e come un genio superiore possa immediatamente superare difficoltà che sembrano insuperabili a mentalità comuni voglio dire il fatto che egli non avesse mai pensato di fuggirsene con lei come io feci immediatamente e arditamente miss killjoy era stata sotto la tutela del tribunale dei minori fino a che non aveva raggiunto la maggiore età e prima di questo periodo sarebbe stato pericoloso per me mettere in esecuzione il progetto che meditavo a proposito di lei ma benché ora fosse libera di sposare chi le piaceva era una signorina di carattere piuttosto timido e aveva paura dei suoi fratelli e dei parenti come se non fosse stata assolutamente indipendente da loro essi avevano in vista un qualche loro amico per la signorina ed avevano respinto sprezzantemente la proposta di ulic brady il gentiluomo decaduto che era assolutamente indegno a quanto pensavano quei rustici maschi della mano di un'ereditiera così prodigiosamente ricca com'era la loro sorella trovandosi sola nella sua grande casa di dublino la contessa di lindon invitò la sua amica miss amelia a venire a passare la stagione con lei a dublino e in uno slancio di amore materno mandò a prendere anche suo figlio il piccolo bullington e il mio vecchio amico istitutore perché venissero nella capitale a farle compagnia una carrozza di famiglia portò il ragazzo l'ereditiera e l'istitutore da castle lindon a dublino ed io decisi di cogliere la prima occasione per mettere in esecuzione il mio piano per l'occasione non dovetti aspettare molto ho già detto in un precedente capitolo della mia biografia che il regno d'irlanda era in quel periodo infestato da diverse bande di briganti i quali sotto il nome di white boys oak boys steel boys con alla testa diversi capi uccidevano i funzionari davano fuoco ai fienili tagliavano i garretti al bestiame mutilavano la selvaggina e amministravano la legge a loro modo una di queste bande od anche più di una per quel che ne sapevo io era comandata da un misterioso personaggio chiamato capitano thunder il cui principale compito sembrava fosse quello di far sposare le persone con o senza il loro consenso o quello dei genitori le dublin gazette ed in mercuris di quell'epoca l'anno 1772 abbondano di proclami del lord luogotenente che offrono ricompense per la cattura di questo terribile capitano thunder e della sua banda e descrivono per esteso diverse imprese di questo selvaggio aiutante di campo del dio imene io ho decisi di approfittarne se non dei servigi almeno del nome del capitano thunder e di far entrare mio cugino ulick in possesso della sua dama e delle sue 10.000 sterline lei non era una gran bellezza e immagino che fosse il denaro che gli amava più che la sua proprietaria a causa della sua vedovanza lady lindon non poteva ancora frequentare i balli e le serate che l'ospitale nobiltà di dublino aveva l'abitudine di dare ma la sua amica miss killjoy non aveva un'eguale ragione per vivere ritirata e fu lieta di partecipare a tutte le riunioni a cui poteva essere invitata io feci dono a dulick brady di un paio di eleganti abiti di velluto e mediante la mia influenza gli procurai inviti a parecchie tra le più eleganti di queste riunioni ma egli non aveva le mie attrattive o la mia esperienza sul modo di corteggiare una donna era timido con le signore come un giovane puledro e non era più abile nel danzare il minuetto di quanto lo sia un asino nel mondo elegante fece quindi poca strada nel cuore della sua bella in effetti io potei vedere che ella preferiva diversi altri giovani gentiluomini che si trovavano più a casa loro nella sala da ballo di quanto non lo fosse il povero ulick egli aveva fatto impressione sull'ereditiera soltanto la prima volta ed aveva provato i primi ardori per lei nella casa di suo padre a balli killjoy dove era solito andare a caccia ed ubriacarsi col vecchio gentiluomo quelle sono cose che potrei fare abbastanza bene dovunque diceva ulick con un sospiro e se si trattasse di bere o di attraversare tutto il paese a cavallo non c'è uomo in irlanda che potrebbe avere maggiori possibilità con amalia non aver paura ulick fu la mia risposta avrai la tua amalia o non mi chiamo più redmond berry lord charlmont che era uno dei più eleganti e compiti nobili d'irlanda in quell'epoca un distinto letterato e un uomo di spirito un gentiluomo che aveva viaggiato molto all'estero dove io avevo avuto l'onore di conoscerlo diede un magnifico ballo mascherato nella sua casa di marino a poche miglia da dublino sulla strada di dan leary e fu a quella festa che io decisi di rendere felice ulick per tutta la vita al ballo mascherato era invitata miss killjoy ed il piccolo lord bullington che desiderava assistere a un simile spettacolo e fu stabilito che egli vi sarebbe andato sotto la sorveglianza dell'istitutore il mio vecchio amico ranta io sapevo qual era l'equipaggio in cui la compagnia doveva essere portata al ballo e presi le mie misure in conseguenza ulick brady non era presente la sua fortuna ed il suo rango non erano sufficienti a procurargli un invito in un luogo così distinto ed io avevo diffuso sin da tre giorni prima la voce che era stato arrestato per debiti cosa che non sorprese nessuno di quelli che lo conoscevano quella notte io feci la mia apparizione sotto le spoglie di un personaggio con cui ero molto familiare un soldato semplice della guardia del re di prussia mi ero fatto fare una grottesca maschera con un immenso naso e due baffoni parlavo un misto di corrotto inglese e tedesco in cui quest'ultimo predominava nettamente ed avevo attorno un mucchio di gente che rideva del mio ridicolo accento e la cui curiosità era ulteriormente accresciuta dal fatto che conoscevano la mia storia passata mischiljoy era vestita da principessa antica ed aveva seco il piccolo bullington che le faceva da paggio vestito come ai tempi della cavalleria con i capelli incipriati ed il costume in verde rosa e argento ed era molto carino e impertinente mentre camminava in giro tutto tronfio con la mia spada al fianco quanto a harant egli si aggirava per le sale molto gravemente in domino e andava ogni momento a far visita al buffet dove mangiava pollo freddo e beveva punch e champagne a sufficienza per soddisfare una compagnia di granatieri il lord luogotenente venne e se ne andò in pontamagna il ballo fu magnifico mischiljoy ebbe cavalieri in abbondanza fra cui io stesso che ballai con lei un minuetto se il goffo barcollare dell'ereditiera irlandese può essere chiamato con un simile nome e colsi l'occasione per perorare la mia passione per lady lindon nei termini più patetici e per chiedere l'intromissione della sua amica in mio favore erano le tre dopo mezzanotte quando la compagnia di lindon house se ne andò il piccolo bullington si era addormentato da un pezzo in uno dei gabinetti di porcellane di lady charlmont rant era anche troppo sovrabbondante nel parlare e tutt'altro che franco nell'incedere una signorina di oggi si allarmerebbe nel vedere un gentiluomo in simili condizioni era invece uno spettacolo molto comune in quegli antichi allegri tempi quando un gentiluomo era considerato un pezzo di pan molle se di tanto in tanto non era un po brillo vidi mischiljoy avvicinarsi alla sua carrozza accompagnata da parecchi cavalieri e guardando attraverso la folla di stracciati portatorce cocchieri e mendicanti ubriaconi maschi e femmine che solevano invariabilmente mettersi davanti alle porte dei gran signori quando si davano delle feste vidi la carrozza allontanarsi fra gli applausi della folla poi tornai immediatamente nella stanza della cena dove parlai tedesco favori i tre o quattro ubriaconi che erano ancora lì con una canzone in olandese antico e attaccai i piatti e il vino con grande risolutezza ma come fate a bere con quel nasone disse uno dei presenti andate a farvi impiccare dissi io con un magnifico accento tedesco dedicandomi di nuovo al vino al che gli altri risero ed io seguitai la mia cena in silenzio era presente un gentiluomo che aveva visto il gruppo di casa lindon andarsene e con cui avevo fatto una scommessa che perdetti e il mattino dopo passai da casa sua a pagargliela il lettore sarà sorpreso di sentirmi enumerare tutti questi particolari ma il fatto è che non fui io che ritornai alla festa ma il mio nuovo domestico tedesco che aveva la mia identica statura e che vestito col mio costume poteva perfettamente passare per me ci scambiamo gli abiti in una carrozza da nolo che era vicina alla carrozza di lady lindon ed io correndo le dietro la sorpassai rapidamente il fatale veicolo che portava l'adorato oggetto della passione di ulick brady non aveva camminato molto quando nel mezzo di un profondo solco della strada affondò improvvisamente con un sobbalzo il domestico balzando giù dal dietro della carrozza gridò ferma al cocchiere avvisandolo che era uscita una ruota e che sarebbe stato pericoloso andare avanti con tre sole i parafanghi non erano ancora stati inventati a quei tempi come lo sono stati in seguito dagli ingegnosi costruttori di long acre e come fosse uscito il chiodo della ruota io non pretendo di saperlo ma probabilmente era stato tirato fuori da qualche briccone tra la folla davanti ai cancelli di lord cherelmont mischil joy sporse il capo fuori dal finestrino strillando come fanno sempre le signore il capellano rant si svegliò dal suo sopore dubriaco e il piccolo bullington balzando in piedi e tirando fuori la sua piccola spada disse non abbiate paura miss amelia se ci sono dei briganti io sono armato quel mascalzoncello aveva proprio lo spirito di un leone a dire la verità debbo riconoscerlo nonostante tutte le dispute che ebbi con lui in seguito la carrozza da nolo che aveva seguito quella di lady lindon la raggiunse in quel momento e il cocchiere vedendo il disastro scese giù di cassetta e molto educatamente chiese a sua signoria se voleva fargli l'onore di salire sul suo veicolo che era pulito ed elegante quanto qualsiasi persona di elevato rango avrebbe potuto desiderare dopo qualche minuto d'esitazione questo invito fu accettato dai passeggeri della carrozza mentre il cocchiere prometteva di condurli a dublino in un fiat teddy il domestico si offrì di accompagnare il padroncino e la signora e il cocchiere che aveva accanto a cassetta un amico apparentemente ubriaco con un sogghigno disse a teddy di salire pure dietro però siccome il predellino posteriore era coperto di chiodi per difenderlo dai monelli di strada chiamano troppo le passeggiate gratis la fedeltà di teddy non giunse al punto di sfidare i chiodi ed egli si persuase a rimanere nella carrozza sfasciata a cui lui ed il cocchiere si misero a fabbricare un perno di ricambio con un ramo di una siepe lì prossima nel frattempo benché il cocchiere della carrozza da nolo andasse rapidamente pure alle persone che erano dentro la distanza da dublino cominciava a sembrare eccessiva e quale fu lo stupore di miss killjoy quando guardando finalmente fuori dal finestrino vide attorno a sé una landa abbandonata in cui non c'erano tracce di fabbricati né di città e la cominciò immediatamente a gridare al cocchiere di fermarsi ma a quel chiasso l'uomo si limitò a frustare più forte i cavalli e pregò sua signoria di avere pazienza perché aveva preso una scorciatoia miss killjoy continuò a strillare il cocchiere a frustare i cavalli a galoppare fino a che uscirono improvvisamente da una siepe due o tre uomini a cui la bella chiese aiuto gridando e il giovane bullington aprendo la porta della carrozza salto giù coraggiosamente facendo un bel capitombolo nel cadere ma si rialzò in un attimo tirò fuori la sua piccola spada e correndo verso la carrozza esclamò da questa parte signori fermate quel furfante ferma gridarono gli uomini e a quest'ordine il cocchiere fermò con straordinaria obbedienza in tutto questo tempo rant giaceva ubriaco nella carrozza rendendosi conto solo a metà come in sogno di tutto quello che succedeva i nuovi campioni della rapita da migella tennero ora un consulto durante il quale guardavano il giovane lord ridendo allegramente non abbiate paura disse il capo avvicinandosi allo sportello uno dei miei uomini salirà a cassetta accanto a questo infido furfante e col permesso di vostra signoria io ed il mio compagno entreremo in carrozza e vi difendervi in caso di pericolo e con ciò senza aggiungere altro valzò dentro la carrozza seguito dal suo compagno state al vostro posto voi gridò il piccolo bullington con indignazione fate posto al lord visconte bullington e si mise davanti all'alta persona del nuovo venuto che era sul punto di entrare nella carrozza levatevi di mezzo mi lord disse l'uomo nel suo rozzo dialetto spingendolo da una parte a questo il ragazzo gridando ladri ladri tirò fuori la sua piccola arma e si lanciò sull'uomo e lo avrebbe ferito perché una spada piccola ferisce bene quanto una grande ma il suo avversario che era armato di un lungo bastone con una botta fece saltar via l'arma di mano al ragazzo la spada volò al di sopra della sua testa e lo lasciò sbigottito e mortificato per la sua sconfitta poi l'uomo si tolse il cappello fece un profondo inchino a sua signoria ed entrò nella carrozza il cui sportello fu chiuso dal suo degno socio che stava per salire a cassetta mischi il gioia avrebbe voluto gridare ma ritengo che le sue strida fossero fermate dalla vista di un enorme pistola d'arcione che uno dei suoi campioni tirò fuori dicendo non abbiamo intenzione di farvi alcun male signora ma se gridate dovremo imbavagliarvi e a questo ella divenne immediatamente muta come un pesce tutti questi avvenimenti si svolsero in uno spazio di tempo brevissimo e quando i tre assalitori ebbero preso possesso della carrozza il povero piccolo bullington era rimasto per terra sconvolto e stupefatto uno di loro tirò fuori la testa dal finestrino e disse una parola a milord che c'è chiese il ragazzo cominciando a piangere aveva soltanto 11 anni e fino ad allora si era mostrato coraggiosissimo vi trovate a sole due miglia da marino tornate indietro fino a che non giungerete ad una gran pietra li voltate a destra e camminate diritto fino alla strada maestra dove troverete facilmente la strada del ritorno e quando vedete sua signoria la vostra mamma portatele i complimenti del capitano thunder e ditele che miss amelia sta per sposarsi o cielo sospirò la signorina la carrozza si allontanò rapidamente e il povero piccolo visconte fu lasciato lì a terra proprio quando stava cominciando a spuntare il giorno era terribilmente spaventato e non c'è da meravigliarsene pensò di correre dietro alla carrozza ma gli mancò il coraggio e gli mancarono le gambe così si mise a sedere su un sasso e pianse di rabbia in questo modo ulick brady fece quello che io chiamo un matrimonio alla sabina quando si fermò con i suoi due testimoni presso il cottage dove si doveva compiere la cerimonia rant il cappellano da prima rifiutò di prestarsi ma venne puntata una pistola alla fronte del disgraziato precettore e gli fu detto con terribili bestemmie che gli avrebbero fatto scoppiare il suo miserabile cervello sicché egli dovette consentire a celebrare il servizio l'adorabile amelia fu molto probabilmente incoraggiata con mezzi simili ma di questo io non so nulla perché me ne tornai in città col cocchiere non appena avemmo accompagnato la comitiva nuziale e debbi la soddisfazione di trovare che fritz il mio domestico tedesco era arrivato prima di me era tornato nella mia carrozza e con i miei vestiti senza che il travestimento fosse scoperto e dopo aver fatto tutto secondo i miei ordini il povero rant ritornò il giorno dopo in uno stato pietoso serbando il silenzio sulla parte da lui avuta negli avvenimenti della sera precedente e con una terribile storia di aver bevuto di essere stato preso in agguato e legato di essere stato abbandonato sulla strada e raccolto da un carro di Wicklow che veniva a far provviste a dublino e che lo aveva trovato abbandonato sulla strada non c'era alcuna possibilità di stabilire che parte avesse avuto nella congiura il piccolo Bullington che aveva trovato anche lui il modo di ritornare a casa era incapace di identificarmi in alcun modo ma Lady Lyndon seppe che io ero a parte del complotto perché la incontrai il giorno dopo che tornava in tutta fretta al castello mentre tutta la città era sottosopra per l'enlevement e io la salutai con un sorriso diabolico cioè le feci comprendere che io avevo avuto una parte in quell'audace e ingegnoso piano così ripagai le gentilezze fatemi molti anni prima da Ulick Brady ed ebbi la soddisfazione di risollevare le decadute fortune di un ramo così meritevole della mia famiglia e gli portò la sua sposa a Wicklow dove visse con lei nella più stretta clausura finché tutta la storia non venne fuori i Killjoy frugarono in vano da ogni parte per scoprire il suo rifugio per un certo tempo non seppero neppure chi era il fortunato che aveva rapito l'ereditiera solo dopo che essa ebbe scritto una lettera alcune settimane dopo firmandola Amelia Brady e dicendo che era perfettamente felice nella sua nuova condizione e raccontando che era stata unita in matrimonio dal cappellano di Lady Lyndon Rant si seppe la verità e il mio degno amico confessò la parte che aveva avuto nella faccenda e poiché la sua indulgente padrona non lo licenziò dal suo posto in conseguenza di questa storia tutti continuarono a supporre che la povera Lady Lyndon facesse parte del complotto e la storia dell'appassionato attaccamento di sua signoria per me guadagnò sempre maggior credito io non tardai potete esserne certi approfittare di queste voci tutti pensarono che io avessi avuto parte nel matrimonio di Brady benché nessuno potesse provarlo tutti pensarono che io ero in buoni termini con la contessa vedova benché nessuno potesse dimostrare che io avevo mai detto una cosa simile ma c'è un modo di provare una cosa anche quando la negate ed io solevo ridere e scherzare così a propos che tutti gli uomini cominciarono a farmi rallegramenti per la mia grande fortuna e da considerarmi come il promesso sposo della più grande ereditiera del regno i giornali si impadronirono della cosa le amiche di Lady Lyndon le fecero le loro rimostranze e gridarono poi boh anche i giornali e le riviste inglesi che a quei tempi erano così diffamatori parlarono della faccenda e bisbigliarono che una bella e compita vedova con un titolo e vastissime proprietà nei due regni era sul punto di concedere la sua mano ad un giovane gentiluomo alla moda di alta nascita che si era distinto al servizio di sua maestà il re di prussia non ho bisogno di dire chi era l'autore di questi trafiletti o come apparvero due ritratti uno che rappresentava me col titolo l'irlandese prussiano e l'altro Lady Lyndon come la contessa di efeso nel town and country magazine pubblicato a londra e che conteneva i pettegolezzi quotidiani del mondo elegante Lady Lyndon rimase così stupefatta e atterrita di questo continuo dominio esercitato su di lei che decise di lasciare il paese ebbene se ne andò ma chi credete che fosse il primo a riceverla quando sbarcò a holyhead il vostro umile servitore redmond berry scudiero e per colmo di misura il Dublin Mercury che annunciò la partenza di sua signoria aveva annunciato la mia il giorno prima non ci fu anima viva che non pensasse che essa mi aveva seguito in inghilterra mentre cercava soltanto di fuggirmi vana speranza ad un uomo risoluto come me non era facile sfuggire con una fuga fosse pure volata fino agli antipodi io mi sarei trovato colà sì l'avrei seguita come orfeo seguì euridice sua signoria aveva una casa in berkeley square a londra più splendida ancora di quella che possedeva a Dublino e sapendo che vi si sarebbe recata la precedetti nella capitale inglese e presi bell'alloggio in hill street lì presso nella casa di londra avevo lo stesso servizio di sorveglianza che mi ero procurato a Dublino lo stesso fedele portiere era lì per darmi tutte le informazioni che desideravo gli promisi di triplicare il suo salario appena si fosse verificato un certo avvenimento mi conquistai anche la dama di compagnia di Lady Lyndon con un dono di 100 guinee alla mano e la promessa di altre 2000 quando fossi sposato e mi i favori della sua cameriera favorita con un dono parimenti notevole la mia reputazione mi aveva preceduto a londra tanto che al mio arrivo una quantità di nobili erano pronti a ricevermi alle loro riunioni mondane noi non abbiamo idea in quest'epoca monotona e volgare di quanto gaia e splendida fosse londra allora e che passione per il gioco ci fosse tra giovani e vecchi maschi e femmine quante migliaia di sterline si perdessero e si vincessero in una notte quali bellezze ci fossero allora gaie brillanti risplendenti tutti erano deliziosamente perversi i duchi reali di Gloucester e Camberland davano l'esempio e i nobili li seguivano da presso era di moda vivere allo sbaraglio che piacevoli tempi e felice colui che aveva entusiasmo giovinezza e denaro e poteva vivere allora io avevo tutto questo e i vecchi frequentatori di whites wattiers e goose trees potrebbero raccontare un bel po di storie sul coraggio lo spirito e l'eleganza del capitano berry lo svolgimento di una storia d'amore è tedioso per tutti coloro che non vi hanno parte ed io lascio questi argomenti ai poveri scrittori di romanzi e alle signorine dei pensionati per cui essi le scrivono non è mia intenzione seguire qui passo passo gli incidenti del mio corteggiamento o narrare tutte le difficoltà che dovetti affrontare e il mio trionfale modo di superarle basti dire che vinsi tutte queste difficoltà sono del parere d'accordo in questo col mio defunto e ingegnoso amico wilkes che tali impedimenti non hanno nessuna importanza nella vita di un uomo di spirito e che egli può convertire l'indifferenza e l'avversione in amore se ha perseveranza ed abilità sufficienti all'epoca in cui terminò il lutto della contessa io avevo trovato il mezzo per farmi ricevere in casa sua avevo le sue donne che parlavano continuamente in mio favore magnificando la mia reputazione e lodando il mio successo e la mia popolarità nel mondo elegante per di più i migliori amici che ebbi nel perseguire il mio tenero scopo furono i nobili parenti della contessa i quali erano ben lungi dal comprendere il servizio che mi rendevano e dai quali chiedo licenza di rivolgere i miei più cordiali ringraziamenti per gli oltraggi di cui allora mi caricarono e dai quali significò il mio profondo disprezzo per le calunnie e l'odio con cui in appresso mi perseguitarono la capintesta di queste amabili persone era la marchesa di tiptoff madre del giovane gentiluomo la cui audacia io avevo punito a dublino questa vecchia brontolona appena la contessa arrivò a londra andò a trovarla e la gratificò di una tale tempesta di insulti per avermi incoraggiato che io credo che essa giovasse alla mia causa più di quanto non avessero fatto sei mesi di assiduo corteggiamento o il ferire in duello una mezza dozzina di rivali in vano la povera lady lindon sostenne la sua completa innocenza e giurò che non mi aveva mai incoraggiato mai incoraggiato strillò quella vecchia furia non avete forse incoraggiato quel mascalzone persino a spa quando era ancora vivo il povero sir charles non avete forse maritato una vostra giovane amica ad uno dei dissoluti e bancarottieri cugini di costui quando egli partì per l'inghilterra non l'avete seguito come una pazza il giorno dopo non ha egli preso alloggio quasi alla vostra porta e questo non lo chiamate incoraggiamento vergogna signora vergogna voi che avreste potuto sposare mio figlio il mio caro e nobile george ma egli non volle intromettersi nella vostra vergognosa passione per quello straccione di villan rifatto da cui lo faceste assassinare e il solo consiglio che io posso dare a vostra signoria è questo di legittimare il legame che avete contratto con quello svergognato avventuriero di rendere legale questo rapporto che di fatto qual è ora è ad un tempo contro il decoro e contro la religione e di risparmiare alla vostra famiglia e da vostro figlio la vergogna della vostra attuale condotta e con questo quella vecchia furia della marchesa lasciò la stanza e lasciò l'edilindon in lacrime io conobbi tutti i particolari della conversazione dalla dama di compagnia di sua signoria e mi augurai che ne seguissero i migliori risultati in mio favore così grazie alla saggia influenza di lady tiptoff gli amici naturali e la famiglia della contessa di lindon la privarono della loro compagnia persino quando lady lindon si recò a corte la più augusta signora del regno la ricevette con una freddezza così marcata che la disgraziata vedova tornata a casa si mise a letto per il dispiacere così posso dire la regalità stessa divenne un agente attivo nel far progredire la mia corte e nel favorire i piani del povero soldato di ventura irlandese così il fatto lavora con mezzi grandi e piccoli e con mezzi sui quali essi non hanno alcun controllo si compiono i destini degli uomini e delle donne considererò sempre la condotta di mistress bridget la cameriera favorita di lady lindon in quell'epoca come un capolavoro di ingegnosità e in realtà avevo una tale opinione della sua abilità diplomatica che nell'istante stesso in cui divenni padrone delle proprietà dei lindon le ebbi pagato la somma promessa sono un uomo d'onore e pur di mantenere la mia parola con quella donna presi in prestito la somma dagli ebrei ad un interesse esorbitante appena dico ebbi conseguito il mio trionfo presi per mano bridget e le dissi madam voi avete mostrato una così esemplare fedeltà al mio servizio che sono lieto di ricompensarvi secondo la mia promessa ma voi avete dato prova di una così straordinaria abilità e di simulazione che debbo rinunciare a tenervi nella casa di lady lindon e vi prego di lasciare il servizio oggi stesso cosa che la fece aggregandosi alla fazione dei tiptoff e dicendo dall'ora in poi sempre male di me ma ora debbo raccontarvi che cosa e la aveva fatto di tanto abile diamine fu la cosa più semplice del mondo come sono tutti i colpi da maestro un giorno che lady lindon si lamentava del suo destino e del mio come si compiaceva di chiamarlo vergognoso modo d'agire bridget disse perché vostra signoria non scrive a quel giovane gentiluomo accennandogli al male che vi sta facendo fate appello ai suoi sentimenti che sono ottimi a quanto ho sentito dire tutta la città eccheggia di racconti del suo spirito e della sua generosità e pregatelo di desistere da una persecuzione che cagiona tante pene alla migliore delle dame scrivetegli signora io so che il vostro stile è così elegante che io per parte mia sono scoppiata molte volte in lacrime leggendo le vostre incantevoli lettere e non ho alcun dubbio che mister barry farà qualsiasi sacrificio piuttosto che ferire i vostri sentimenti e naturalmente quella bigale ci giurava sopra credete proprio che sia così bridget chiese sua signoria e la mia adorata mi scrisse immediatamente una lettera alla sua affascinante seducente maniera perché signore mi perseguitate così perché mi avviluppate in una ragnatela di intrighi così terribile che il mio spirito ne è sopraffatto vedendo che non c'è speranza di scampo dalle vostre spaventose diaboliche arti dicono che voi siete generoso verso gli altri siatelo verso di me conosco il vostro ardire anche troppo bene esercitatelo su uomini che possono incontrare la vostra spada non su una povera donna che non può resistervi ricordate l'amicizia che una volta mi professaste ed ora vi scongiuro vi imploro di darmene una prova ribattete voi stesso le calunnie che avete diffuso sul conto mio e ponete riparo se potete se avete ancora una briciola d'onore ai guai che avete cagionato alla desolata onoria lindon che scopo poteva avere quella lettera se non che io vi rispondessi di persona la mia eccellente alleata mi disse dove potevo incontrare lady lindon e in base a questo io la seguì e la trovai al panteon ripetei ancora una volta la scena già fatta a dublino le mostrai quanto fosse prodigioso il mio potere umile come ero e che la mia energia era ancora in esausta ma aggiunsi io sono grande nel bene come nel male e affezionato e fedele come amico tanto quanto sono terribile come nemico farò tutto ciò che mi chiederete aggiunsi purché non mi proibiate di amarvi questo è superiore alle mie possibilità e finché il mio cuore batte io debbo seguirvi è il mio destino il vostro destino cessate di lottare contro di esso e siate mia voi siete la più adorabile creatura del vostro sesso solo con la morte avrà termine la mia passione per voi e in vero solo morendo per ordine vostro io posso essere indotto a obbedirvi volete che io muoia ella disse allora ridendo perché era una donna allegra e vivace che non voleva che commettessi un assassinio su me stesso ed io sentì che da quel momento era mia così a un anno di distanza da quel giorno il 15 di maggio dell'anno 1773 io ebbi l'onore e la felicità di condurre all'altare onoria contessa di lindon vedova del defunto molto onorevole ser charles lindon knight bachelor la cerimonia fu compiuta nella chiesa di san giorgio in annover square dal reverendo samuel rant cappellano di sua signoria fu data una magnifica cena e un ballo nella nostra casa di berkeley square e la mattina dopo ebbi un duca quattro conti tre generali ed una folla di personaggi più distinti di londra alla mia levee walpole compose una satira sul matrimonio e selwyn trinciò arguzie al cocoa tree la vecchia lady tiptoff benché ce lo avesse raccomandato lei stessa si morse le dita dalla rabbia e quanto al giovane bullington che era diventato un bel ragazzo di 14 anni quando fu invitato dalla contessa ad abbracciare il suo papà mi scosse il pugno davanti al viso e disse lui mio padre chiamerei piuttosto papà uno dei domestici di vostra signoria ma io potevo permettermi di ridere dell'ira del ragazzo e della vecchia signora e degli scherzi di tutti i belli spiriti di saint james mandai uno scintillante resoconto delle nostre nozze a mia madre e dal buon cavaliere mio zio quindi essendo giunto all'apice della prosperità ed essendo arrivato a 30 anni ad una delle più alte posizioni sociali che un uomo possa occupare in inghilterra decisi di godermela da uomo di qualità per tutto il resto della mia vita dopo che avemmo ricevuto le congratulazioni dei nostri amici di londra perché a quei tempi la gente non si vergognava di sposarsi come sembra che avvenga adesso io ed onoria che era tutta allegria e la più graziosa vivace piacevole delle compagne ci recammo a visitare le nostre proprietà nell'ovest dell'inghilterra in cui io non avevo ancora messo piede lasciamo londra in tre carrozze a quattro cavalli ciascuna e mio zio sarebbe stato molto soddisfatto se avesse potuto vedere dipinta sui nostri sportelli la corona irlandese e lo scudo dei berri accanto alla corona e dallo splendido stemma della nobile famiglia dei lindon prima di lasciare londra io mi procurai da sua maestà il grazioso permesso di aggiungere il nome della mia graziosa signora al mio ed assunsi quindi il nome ed il titolo di berri lindon come l'ho scritto a capo di questa autobiografia capitolo diciassettesimo faccio la mia comparsa come ornamento della società inglese tutto il viaggio fino ad acton castle il più grande ed il più antico dei nostri possessi nel devonshire fu compiuto con la lentezza e la solennità che si addicevano a persone che occupano una posizione di primordine nel regno un battistrada con la mia livrea ci precedeva e predisponeva il nostro alloggio di città in città e così ci fermammo in forma solenne ad andover a il minster e ad exeter e la quarta sera arrivammo proprio in tempo per la cena davanti all'antico maniero baronale che aveva un portale di un'odiosa foggia gotica che avrebbe fatto impazzire di gioia il signor walpole i primi giorni di matrimonio sono abitualmente molto difficili ed io ho conosciuto coppie che hanno vissuto insieme come colombi per tutto il resto della loro vita ma che sono state sul punto di cavarsi gli occhi durante la luna di miele io non sfuggì alla sorte comune nel nostro viaggio verso ovest lady lindon stabilì di bisticciarsi con me perché tirai fuori una pipa avevo preso l'abitudine di fumare in germania quando ero soldato nell'esercito di biulov e non ho mai potuto liberarmene e mi misi a fumare in carrozza e sua signoria decise anche di prendersela a male tanto ad il minster che ad andover perché la sera quando ci fermammo io vogli invitare gli albergatori della campana e del leone a stappare una bottiglia con me lady lindon era una donna altera ed io invece odio la superbia ma vi assicuro che in tutti e due i casi domai questo suo difetto nel terzo giorno del nostro viaggio mi feci accendere la pipa da lei con le sue stesse mani ed essa me la consegnò con le lacrime agli occhi e alla locanda del cigno ad exeter l'avevo sottomessa così completamente che ella mi chiese umilmente se non volevo invitare anche l'albergatrice oltre all'albergatore a cenare con noi io non avrei avuto obiezioni a questa proposta perché per la verità mistress bonny face era proprio una donna di bell'aspetto ma aspettavamo una visita da sua signoria il vescovo che era un parente di lady lindon e le bien sons non permettevano di appagare la richiesta di mia moglie io feci la mia comparsa con lei al servizio della sera per porgere i miei complimenti al nostro molto reverendo cugino e misi la firma di mia moglie per 25 guinee e la mia per cento alla sottoscrizione per il famoso organo nuovo che stavano allora fabbricando per la cattedrale questo modo di comportarmi proprio all'alba della mia carriera in quella contea mi rese non poco popolare e il canonico residente che mi fece il favore di cenare con me alla locanda se ne andò dopo la sesta bottiglia formulando fra i singhiozzi i più solenni voti per la felicità di un gentiluomo così io prima di arrivare ad acton castle dovemmo attraversare per dieci miglia le proprietà dei lindon dove la gente usciva fuori per vederci le campane delle chiese si mettevano a suonare i parroci ed i fittavoli si radunavano vestiti dei loro abiti migliori sui lati della strada maestra e gli scolari e i contadini gridavano rumorosi urrà a sua signoria io gettavo spiccioli a quelle brave persone mi fermavo ad inchinarmi a sua reverenza e a fare due chiacchiere con i fittavoli e se trovavo che le ragazze del devonshire erano tra le più carine del regno è forse colpa mia queste osservazioni in particolare lady lindon le fece con grande sdegno ed io credo che fosse molto più adirata per la mia ammirazione delle rosse guance di miss betsy quarrington di clampton che per qualsiasi altra mia precedente azione o discorso durante il viaggio ah ah mia brava signora siete gelosa vero pensai io e riflettei non senza un profondo dispiacere quanto leggermente essa si era comportata quando era vivo il suo primo marito e che i più gelosi sono proprio quelli che danno agli altri maggior cagione di gelosia attorno al villaggio di hackton la scena delle accoglienze fu particolarmente gaia avevano fatto venire una banda musicale da plymouth ed erano stati innalzati archi e bandiere specialmente davanti alle case dell'avvocato e del dottore che erano tutti e due dipendenti diretti della famiglia c'erano parecchie centinaia di persone acclamanti sotto il grande porticato che col muro del parco circonda uno dei lati di hackton green e da cui per tre miglia si snoda o piuttosto si snodava un viale di nobili olmi fino alle torri del vecchio castello avrei voluto che fossero state querce quando tagliai quegli alberi nel 79 perché avrebbero fruttato tre volte tanto non conosco niente di più biasimevole della trascuratezza degli antenati nel piantare nei loro terreni legname di scarso valore quando avrebbero potuto piantare altrettanto facilmente delle querce sicché ho sempre detto che il roundhead lindon di hackton che piantò quegli olmi al tempo di carlo secondo mi frodò di 10.000 sterline per i primi giorni dopo il nostro arrivo il mio tempo fu speso piacevolmente nel ricevere le visite della nobiltà e delle persone più distinte che venivano a porgere i loro omaggi alla nobile coppia di novelli sposi e come la moglie di barba blu nella favola a passare in rivista ai tesori la mobilia e le numerose camere del castello è esso un vasto e vecchio maniero costruito almeno ai tempi di enrico quinto assediato e martellato dai seguaci di cromwell al tempo della rivoluzione e alterato e rimesso malamente insieme con un gusto odioso e antiquato dalla testa rotonda lindon che successe nella proprietà alla morte di un fratello che aveva principi eccellenti quali deve averli un vero cavaliere ma che si rovinò soprattutto bevendo giocando ai dadi e conducendo una vita dissoluta e in piccola parte anche per sostenere il re il castello si elevava nel mezzo di una bella riserva di caccia che era magnificamente popolata di cervi e non posso fare a meno di ammettere che da principio la mia soddisfazione era grande quando sedevo nel salotto dalle pareti di quercia nelle sere d'estate con le finestre aperte i piatti d'oro ed argento splendenti di cento magnifici colori sulle credenze una dozzina di allegri compagni attorno alla tavola e guardavo fuori nel vasto parco verdeggiante e negli ondeggianti boschi e vedevo il sole tramontare sul lago e udivo i cervi chiamarsi l'un l'altro l'esterno era quando vi arrivai per la prima volta una singolare composizione di tutti i generi d'architettura di torri feudali e di cortine a frontone nello stile della regina bessa e di rustici muri tirati su per riparare i danni fatti dai cannoni delle teste rotonde ma non c'è bisogno che io ne parli a lungo avendo dato a tutto il castello un aspetto nuovo con considerevole spesa su progetto di un architetto alla moda e rifatto la facciata nel più recente e più classico stile greco francese c'erano fossati e ponti levatoi e mura esterne ma io li feci togliere tutti e trasformare in eleganti terrazze e in belle aiuole secondo i progetti di messie cornichon il grande architetto parigino che visitò l'inghilterra appunto a questo scopo dopo aver salito la scalinata esterna si entrava in un antico vestibolo di vaste dimensioni rivestito di quercia nera scolpita e ornato dei ritratti dei nostri antenati dalla larga barba di brooke lindon il grande giurista dei tempi della regina bess alle maniche rigonfie dai riccioli di lady saccarissa lindon che van dick dipinse quando essa era da migella d'onore della regina enrichetta maria giù giù fino a sir charles lindon col nastro di cavaliere del bagno e da milady dipinta da hudson in un mantello di seta bianca e con i diamanti di famiglia come fu presentata al vecchio re giorgio secondo quei diamanti erano molto belli io dapprima li feci rimontare da boomer quando comparimmo davanti ai reali di francia e a versailles e finalmente li misi impegno per 18.000 sterline dopo quell'infernale giro di mala sorte al goose trees quando gemmi twitcher come chiamavano lord sandwich carlisol charlie fox ed io giocammo a ombre per 48 ore san desemparé archi e picche immense teste di cervo e arnesi da caccia e vecchie e rugginose armature che dovevano essere state indossate ai tempi di gog e magog per quel che immagino formavano gli altri antichi ornamenti di quella vasta dimora ed erano disposti attorno ad un caminetto dove avreste potuto far girare un tiro a sei questo lo lasciai proprio nella sua forma originaria ma feci definitivamente rimuovere le vecchie armature confinandole nei ripostigli ai piani superiori sostituendole con bizzarre statuette di porcellana divani dorati venuti dalla francia ed eleganti marmi in cui i nasi e le membra rotte e le bruttezze provavano innegabilmente l'antichità e che un agente aveva acquistato per me a roma ma il gusto di quell'epoca e forse la furfanteria del mio agente erano tali che 30.000 sterline di quei capolavori d'arte non ne fruttarono che 300 in seguito quando fui costretto a realizzare in denaro le mie collezioni da questo vestibolo principale si dipartiva da una parte e dall'altra una lunga serie di stanze di rappresentanza scarsamente ammobiliate con seggioloni dall'alta spalliera e lunghi e strani specchi veneziani quando io giunsi per la prima volta nelle proprietà ma che in seguito resi splendide con damaschi dorati di lione e le magnifiche tappezzerie gobelen che avevo vinto al gioco al maresciallo di richelieu c'erano 36 camere da letto de maître di cui ne conservai solo tre nelle loro precedenti condizioni la stanza stregata come la chiamavano in cui era stato compiuto un assassinio al tempo di giacomo secondo il letto dove dormì guglielmo dopo aver approdato a torbè e la stanza di parata della regina elisabetta tutto il resto fu ridecorato dal bravo cornichon col gusto più elegante e con non poco scandalo di alcune delle vecchie posate matrone di campagna perché io feci decorare gli appartamenti principali con pitture di boucher e di vanloo in cui i cupidi e le veneri erano dipinti in modo veramente naturale mi ricordo che la vecchia e grinzosa contessa di frampington appuntò con spilli le cortine del suo letto e mandò sua figlia lady blanche whalebone a dormire con la cameriera piuttosto che permetterle di dormire in una camera tutta tappezzata di specchi esattamente come lo spogliatoio della regina a versaille di molti di questi ornamenti non debbo rispondere tanto io quanto cornichon che mi fu prestato da l'orangue e che fu intendente dei miei palazzi per tutto il periodo in cui fui all'estero io avevo dato a costui carte blanche e quando cadde si ruppe una gamba mentre era intento a decorare un teatro nella camera che era stata la vecchia cappella del castello la gente del paese pensò che fosse un anatema del cielo su di lui nella sua furia di miglioramenti quell'individuo osò di tutto senza mio ordine tagliò il vecchio bosco delle cornacchie che era considerato sacro nel paese e sul quale c'era una profezia che affermava quando cadrà il bosco delle cornacchie cadrà anche hackton all le cornacchie se ne andarono a colonizzare i boschi dei tiptoff che si stendono vicino a noi possano finire impiccati e cornichon costruì al posto già da loro occupato un tempio a venere e due deliziose fontane le veneri e i cupidi erano la passione di quel furfante egli avrebbe voluto togliere gli scranni gotici e mettere dei cupidi anche nei nostri seggi in chiesa ma il rettore il vecchio dottor huff venne fuori con un grosso bastone di quercia e si rivolse al disgraziato architetto in latino di cui costui non comprendeva neppure una parola riuscendo tuttavia a fargli capire che gli avrebbe fracassato le ossa se si fosse permesso di toccare soltanto con un dito quel sacro edificio cornichon fece le sue lamentele a proposito dell'abbè huff come lo chiamava lui e che l'abbè grandieu aggiunse assolutamente sconcertato un abbè avec deux enfants ma io difesi la chiesa sotto questo punto di vista e pregai cornichon di esercitare i suoi talenti soltanto sul castello c'era una magnifica collezione di piatti antichi a cui io ne aggiunsi diversi del più splendido genere moderno una cantina che quantunque ben fornita richiedeva di essere continuamente rimessa in ordine ed una cucina che io riformai completamente il mio amico jack wilkes mi mandò un cuoco della mansion house per la cucina inglese dipartimento della cacciagione e delle testugini e mi feci venire anche uno chef che fra l'altro domandò soddisfazione al collega inglese e si lamentò tristemente del gros cochon che desiderava scontrarsi con lui a coupe de poing ed un paio di head da parigi ed un pasticcere italiano come miei officier de bouche tutti questi sono accessori naturali per un uomo di un certo stile ma quell'odioso vecchio taccagno di un tiptof mio parente e vicino affettava di osservarli con orrore e andava spargendo in tutto il paese la voce che io mi facevo cuocere le vivande dai papisti vivevo di ranocchi e facevo mettere in fricassea e questo lo credeva veramente dei bambini piccoli e teneri nonostante questo i signori dei dintorni mangiavano i miei pranzi con entusiasmo e il vecchio dottor huff in persona fu costretto ad ammettere che la mia cacciagione e la mia zuppa di tartaruga erano assolutamente ortodosse del resto la nobiltà di cui parlo sapevo come conciliarmela anche in altri modi nel paese c'era stata sin lì soltanto una muta comune di cani per la caccia alla volpe e poche miserevoli coppie di vili bracchi con cui il vecchio tiptof si aggirava per i suoi terreni io costruì un canile e delle stalle che costarono 30.000 sterline e li riempì in modo degno dei miei antenati i re irlandesi avevo due mute di cani e nella stagione della caccia uscivo quattro volte la settimana seguito da tre cacciatori che portavano la mia uniforme e tenevo casa aperta a hackton per tutti coloro che avevano qualche cosa a che fare con la caccia questi mutamenti e questo tran de vivre richiedevano come si può immaginare non poca spesa ed io debbo confessare che in me c'è ben poco di quello spirito d'economia che taluni praticano ed ammirano per esempio il vecchio tiptof accumulava denaro per rimediare le stravaganze fatte da suo padre e liberare dalle ipoteche i suoi possedimenti e una buona quantità di denaro che egli pagava per togliere le ipoteche il mio agente se lo procurava mettendo ipoteche sul mio del resto bisogna tener presente che io avevo sulla proprietà di lindon un interesse che non oltrepassava la probabile durata della mia vita che avevo sempre avuto una certa facilità a trattare con gli strozzini e che dovevo spendere un bel po anche per assicurare un degno andamento di vita a sua signoria al termine di un anno lady lindon mi fece dono di un figlio lo chiamai brian lindon in omaggio al mio regale antenato ma che altro avevo da lasciargli all'infuori di un nobile nome non erano forse le proprietà di sua madre destinate tutte a quell'odioso ragazzaccio lord bullington di cui a proposito non ho ancora parlato benché vivesse ad acton affidato ad un nuovo istitutore l'insubordinazione di quel ragazzo era spaventosa egli era solito citare a sua madre passaggi dell'amleto che la rendevano assolutamente furiosa una volta che io presi una frusta da cavalli per castigarlo lui tirò fuori un coltello e credo che mi avrebbe accoltellato e in fede mia io mi ricordai della mia giovinezza che era stata altrettanto ardente e tendendogli la mano scoppia in una risata e gli proposi di diventare amici ci riconciliamo quella volta ed anche la seguente la seguente ancora ma non c'era affetto tra noi ed il suo odio per me sembrava crescere insieme con lui cosa che avveniva a vista d'occhio decisi quindi di dotare il mio caro figliolino brian di una proprietà e a questo scopo feci tagliare per 12.000 sterline di legname sulle proprietà dello yorkshire ed irlanda di lady lindon all'annuncio di questa mia azione tiptoff che era il tutore di bullington si mise a strillare come al solito e giurò che io non avevo il diritto di toccare neppure un fuscello di quegli alberi ma gli alberi furono abbattuti ed io incaricai mia madre di ricomprare le antiche terre di belli berry e di berry hog che una volta avevano fatto parte delle immense proprietà della mia casata essa le ricomprò con grande avvedutezza e con estrema gioia perché il suo cuore si rallegrava all'idea che mi era nato un figlio che avrebbe portato il mio nome e al pensiero delle mie meravigliose fortune a dire la verità io avevo un certo timore ora che vivevo in un ambiente così diverso da quello in cui essa era abituata a muoversi che venisse a farmi una visita facendo stupire i miei amici inglesi con le sue millanterie e col suo modo di esprimersi in dialetto col suo rossetto e le sue sottane a cerchi e di suoi falpalà del tempo di giorgio secondo che le si addicevano molto al tempo della sua giovinezza ma che era appassionatamente convinta essere ancora all'ultima moda così ogni tanto le scrivevo rimandando la sua visita pregandola di venirci a trovare quando fosse stata ultimata l'ala sinistra del castello o ultimate le stalle e così via ma non c'era alcun bisogno di precauzioni del genere a me basta un cenno redmond rispondeva la vecchia signora non verrò a disturbarti tra i tuoi altolocati amici inglesi con le mie maniere irlandesi fuori moda è una benedizione per me pensare che il mio caro ragazzo ha raggiunto la posizione che ho sempre pensato gli fosse dovuta e per prepararlo alla quale ho fatto tanti sacrifici però devi portarmi un giorno il piccolo brian perché la sua nonna possa baciarlo presenta le mie rispettose benedizioni a sua signoria la sua mamma dille che ha trovato in suo marito un tesoro che non avrebbe avuto neppure se avesse preso per marito un duca e che i berri ed i bredi benché non abbiano titoli hanno il migliore sangue nelle vene io non avrò requie finché non vedrò te e conte di belli berri e mio nipote lord visconte berriog strano che per la mente di mia madre e per la mia passassero proprio le stesse idee gli stessi titoli che essa aveva scelto erano stati scelti anche cosa abbastanza naturale da me e non mi vergogno a confessare che avevo riempito una dozzina di fogli di carta con la mia firma sotto i nomi di belli berri e di berriog e che avevo deciso con la mia impetuosità abituale di conseguire il mio scopo mia madre andò a stabilirsi a belli berri in casa del parroco in attesa che venisse costruita una dimora padronale e datava le sue lettere da belli berri castle ed io potete esserne certi feci correre voce che era un posto di non poca importanza tenevo nel mio studio una pianta della proprietà tanto ad acton che a berkeley square ed i progetti per l'ampliamento di belli berri castle la residenza a vita di berry lindon scudiero con i miglioramenti progettati in cui il castello era rappresentato pressa poco della grandezza di windsor con maggior numero di ornamenti nell'architettura ed essendo stati messi in vendita 800 acri di terreno acquitrinoso li acquistai a tre sterline l'acro sicché sulla pianta la mia proprietà sembrava tutt'altro che insignificante nota dell'editore su questa proprietà garantendo sul suo onore che non era ipotecata berri lindon prese in prestito 17.000 sterline nell'anno 1786 dal giovane capitano pigeon figlio di un mercante della city che era appena entrato in possesso della propria eredità quanto alle proprietà e miniere polwellen causa di liti interminabili bisogna riconoscere che il nostro eroe le comperò ma non pagò mai più nulla oltre le prime 5.000 sterline del prezzo d'acquisto di cui la lite di cui egli si lamenta e il famoso processo alla cancelleria di trekotic contro lindon in cui mister john scott si distinse grandemente in quell'anno condussi anche trattative per l'acquisto della proprietà e delle miniere di polwellen in cornovaglia da ser john trekotic per 70.000 sterline un affare imprudente che in seguito mi fu causa di dispute e liti interminabili i guai del possedere la bricconeria degli amministratori i pasticci dei legulei sono senza fine la gente modesta invidiano i grandi uomini e immagina che le nostre vite siano tutte piaceri più d'una volta durante la mia prosperità io ho sospirato i giorni della più modesta fortuna ed ho invidiato i buoni camerati che avevo alla mia tavola senza altri abiti indosso che quelli che il mio credito forniva loro senza una ghinea all'infuori di quelle che venivano dalla mia tasca ma anche senza neppure una delle tormentose preoccupazioni e responsabilità che sono i fastidiosi accessori della proprietà e dell'alto rango nel regno di irlanda io feci poco più che una comparsa per assumere la direzione delle mie proprietà ricompensando generosamente coloro che erano stati gentili con me nelle mie precedenti avversità e prendendo il posto che mi spettava tra l'aristocrazia del paese ma in verità avevo pochi allettamenti a rimanere lì dopo aver gustato i piaceri più aristocratici e completi della vita inglese o continentale sicché passavamo l'estate a buxton a bath e ad harrogate mentre hackton castle veniva abbellito nell'elegante modo già da me descritto e la stagione mondana nel nostro castello di berkeley square è meraviglioso come il possesso della ricchezza faccia venire alla luce le virtù di un uomo o comunque dia loro vernice o lustro e metta in evidenza il loro splendore e di loro colore in modo mai conosciuto quando l'individuo stagnava nella grigia atmosfera della povertà vi assicuro che ci volle assai poco tempo perché diventassi proprio un personaggio di primordine e facessi una certa sensazione nei caffè di paul mall e in seguito nei più famosi clubs il mio stile i miei equipaggi ed i miei eleganti ricevimenti erano sulla bocca di tutti ed erano descritti in tutti i giornali del mattino la parte più modesta dei parenti di lady lindon e tutti quelli che erano rimasti offesi dall'intollerabile altezzosità del vecchio tiptoff cominciarono a comparire ai nostri ricevimenti e dalle nostre riunioni serali e quanto alle mie parentelle personali trovai a londra e in irlanda più cugini di quanti mi fossi mai sognato di avere e che proclamavano la loro parentela con me ce n'erano naturalmente di quelli che erano nati nel mio stesso paese e di cui non ero particolarmente orgoglioso e ricevetti visite da tre o quattro stracciati ed orgogliosi tipi del temple con merletti sciupati e millanterie alla tea prairie che si guadagnavano da vivere al tribunale di londra di parecchi giocatori ed avventurieri nei luoghi di bagni tutta gente che rimisi al suo posto in 4 e 4 8 e di altri più elevata condizione tra questi posso citare mio cugino lord kilbury che in omaggio alla nostra parentela prese a prestito da me 30 monete d'oro per pagare la sua pensione in suolo street per ragioni mie personali permisi di conservare e di dar credito a una parentela a cui il collegio araldico non riconosceva alcun fondamento kilbury aveva sempre un posto alla mia tavola puntava al gioco e pagava quando ne aveva voglia il che avveniva raramente contrasse una notevole intimità e notevoli obbligazioni col mio sarto e si vantava sempre di suo cugino il grande barry lindon del west dopo un certo tempo sua signoria ed io vivevamo molto separati quando eravamo a londra e la preferiva la quiete o meglio a dire il vero ero io che la preferivo per lei poiché ritengo che alla donna si addica un contegno tranquillo e modesto e il gusto delle gioie domestiche la incoraggiavo quindi a pranzare in casa con le sue dame il suo cappellano e qualche amica permettevo a tre o quattro persone discrete adatte ad accompagnarla all'opera o ai concerti in occasioni adatte e declinavo per lei le troppo frequenti visite di amici e di parenti preferendo riceverli solo due o tre volte nel corso della stagione durante i nostri grandi ricevimenti ufficiali inoltre essa era madre e le era di grande conforto vestire educare e vezzeggiare il nostro piccolo brian per amore del quale conveniva che essa rinunciasse ai piaceri e dalle frivolezze del mondo sicché lasciava che quella parte dei doveri di ogni famiglia distinta venisse compiuta da me per dire la verità la figura e l'aspetto di lady lindon a quell'epoca non erano tali da permettere alla loro proprietaria di fare una brillante figura nel mondo elegante era diventata molto grassa di vista corta di colorito pallido si curava poco dei suoi vestiti aveva un contegno scialbo le sue conversazioni con me erano caratterizzate da una stupida disperazione o da sciocchi grossolani tentativi di tenerezza forzata anche più sgradevole sicché i nostri rapporti erano del tutto insignificanti e il mio desiderio di portarla in società o di rimanere in sua compagnia era logicamente assai scarso del resto anche in casa e la metteva alla prova la mia pazienza in mille modi quando le chiedevo spesso in modo un po brusco lo ammetto di intrattenere la compagnia con la sua conversazione il suo spirito e la sua cultura tutte cose in cui era versatissima o con un po di musica di cui era ottima esecutrice quasi sempre cominciava a piangere e lasciava la stanza da questo naturalmente la mia compagnia arguiva che io mi comportassi con lei come un tiranno laddove ero soltanto il custode severo e diligente di una donna sciocca di cattivo carattere e di debolemente per fortuna voleva molto bene al figliolo più piccolo e per mezzo suo avevo su di lei un dominio effettivo e completo perché in una delle sue collere o in uno dei suoi accessi di superbia quella donna era insopportabilmente orgogliosa e da principio nelle nostre dispute osò rinfacciarmi ripetutamente la mia povertà originaria e la mia bassa nascita se dico nelle nostre dispute pretendeva di avere la meglio di affermare la sua autorità contro la mia di rifiutarsi di firmare delle carte che io potevo ritenere necessarie per l'amministrazione della nostra vasta ed intrigata proprietà io portavo via brian a cischic per un paio di giorni e vi garantisco che la sua signora madre riusciva a tener duro a lungo e finiva per essere d'accordo su tutto ciò che mi veniva in mente di proporre i domestici che la circondavano ebbi cura che fossero stipendiati da me e non da lei specialmente la prima bambinaia del bambino era ai miei ordini e non a quelli di miledi ed era una civetta proprio carina e impudente con le sue guance rosse e mi fece impazzire un bel po questa donna contava in casa molto più della poco briosa signora che ne era la padrona dettava legge ai domestici e se io usavo qualche particolare attenzione a qualcuna delle signore che venivano a trovarci quella sgualdrina non si faceva scrupolo di mostrare la sua gelosia finché trovava il modo di far fare fagotto a tutte il fatto è che un uomo di cuore generoso si fa sempre prendere in giro da una donna o dall'altra e questa aveva una tale influenza su di me che poteva rigirarmi come voleva nota dell'editore da queste strane confessioni risulta evidente che mister lindon maltrattava sua moglie in tutti i modi possibili che rifiutava la sua compagnia che la trattava tirannicamente alienando le sue proprietà spendendo il denaro di lei al gioco e nelle taverne e che le era apertamente infedele e quando lei si lamentava minacciava di toglierle il bambino né in verità egli è il solo marito che abbia agito in un modo simile e sia passato per non essere nemico di nessuno fuorché di se stesso cioè un compagnone gioviale ed allegro il mondo rappresenta queste simpatiche persone e in verità proprio perché ad esse non è stata ancora fatta giustizia abbiamo pubblicato questa autobiografia se fosse stata quella di un puro e semplice eroe da romanzo uno di quegli eroici giovani che figurano nei romanzi di scott e di james non ci sarebbe stato bisogno di presentare al lettore un personaggio già così spesso e così ben raffigurato barry lindon non è ripetiamo un eroe di modello comune ma che il lettore si guardi attorno e si chieda non è forse vero che molti bricconi hanno nella vita tanto successo quanto gli uomini onesti e gli sciocchi più che gli uomini di talento e non è forse giusto che la vita di questa classe di individui venga descritta dallo studioso dell'umana natura al pari delle azioni di quei principi delle favole di quegli eroi perfetti e impossibili che i nostri scrittori amano descrivere c'è qualche cosa di ingenuo e di semplice nello stile dei romanzi in voga oggi nei quali il principe grazioso al termine delle sue avventure entra in possesso di tutte le ricchezze di questo mondo come in precedenza è stato dotato di tutte le qualità morali e fisiche il romanziere pensa di non poter fare di più per il suo beneamato eroe che farlo diventare lord non è questa una ben misera misura del summam bonum il maggior bene nella vita non è di essere lord e forse neppure di essere felice povertà infermità persino una gobba possono essere ricompense e condizioni di bene tanto quanto quella prosperità fisica che tutti noi inconsciamente siamo tratti ad adorare ma questo sarebbe soggetto per un saggio e non per una nota ed è meglio permettere a mister lindon di riprendere la candida e ingegnosa narrazione delle sue virtù e dei suoi difetti il suo infernale carattere il nome di quella sgualderinella era mister stammer e il penoso abbattimento di mia moglie rendevano la mia casa non troppo piacevole e da questo fui tratto ad andarmene un bel po all'estero dove poiché il gioco era di moda in ogni circolo taverna e riunione io fui costretto naturalmente a riprendere le mie vecchie abitudini e da ricominciare an amateur quei giochi in cui una volta non avevo rivali in europa ma sia che il carattere di un uomo cambi con la prosperità sia che la sua abilità lo abbandoni quando privo di un socio e non coltivando professionalmente il gioco si dedica ad esso come tutto il resto della gente per passatempo non so certo è che nelle stagioni 1774 e 1775 perdetti molto denaro al whites e dal cocoa tree e fui costretto a far fronte alle mie perdite attingendo numerosi prestite sulle numerosi prestiti sulle rendite annuali di mia moglie sull'assicurazione sulla vita di sua signoria e così via le condizioni a cui presi a prestito queste somme a me necessarie e le spese che richiedevano i miglioramenti da me ordinati erano naturalmente molto onerose e usavano notevolmente la proprietà e furono proprio alcune di queste carte che emilè di lindon che era di carattere ristretto timido e taccagno rifiutò occasionalmente di firmare fino a che io non la persuasi nel modo che ho esposto precedentemente i miei rapporti col turf dovrebbero anche essere ricordati qui dato che fanno parte della mia storia di quei tempi ma in verità non mi fa particolarmente piacere ricordare le mie imprese a new market venivo imbrogliato e frodato in un modo infernale in quasi tutti gli affari che vi facevo benché io montassi a cavallo tanto bene quanto qualsiasi altra persona in inghilterra ma non c'era corsa in cui i nobili inglesi montassero loro stessi 15 anni dopo che il mio cavallo bay bulow di sophie hardcastle discendente di eclipse aveva perso le corse di new market in cui era il primo tra i favoriti seppi che un nobile conte che non nominerò qui era entrato nella sua stalla la mattina prima che corresse e la conseguenza fu che vinse un cavallo forestiero e che il vostro umile servitore rimase fuori per la somma di 15.000 sterline gli estranei non avevano probabilità di vittoria a quei giorni sulla pista e benché abbagliato dallo splendore e dall'eleganza lì radunati e circondato dai più grandi personaggi del paese i duchi reali con le loro consorti e di loro splendidi equipaggi il vecchio grafton con la sua strana brigata d'amici e uomini come ancaster sandwich lorna uno lì avrebbe potuto considerarsi sicuro che vi si giocava correttamente ed essere non poco orgoglioso della compagnia in cui si trovava eppure io vi assicuro che non c'era accolta di uomini in europa che sapesse come rubare imbrogliare un estraneo corrompere un fantino propinare droghe a un cavallo o manipolare un libro di scommesse in modo più distinto neppure io riuscivo a far fronte a questi perfezionatissimi biscazzieri delle più nobili famiglie d'europa era la mia personale mancanza di stile o la mia mancanza di fortuna io non lo so ma ora che ero arrivato al colmo delle mie ambizioni sembrava che tanto la mia abilità quanto la mia fortuna mi avessero abbandonato tutto ciò che toccavo andava in briciole fra le mie mani tutte le speculazioni che facevo andavano male tutti gli agenti di cui mi fidavo mi ingannavano la verità è che io sono uno di quegli uomini nati per fare e non per mantenere le fortune perché le qualità e l'energia che portano un uomo a farsi largo nel primo caso sono spesso proprio la cagione della sua rovina nel secondo e davvero non trovo altra ragione alla sfortuna che alla fine piombò su di me nota dell'editore sembra che queste memorie siano state scritte verso l'anno 1814 nel ritiro che la fortuna aveva scelto per l'autore al termine della sua vita ho sempre avuto una particolare simpatia per gli uomini di lettere e forse se si deve dire la verità non mi riesce difficile rappresentare la parte del gentiluomo distinto e del mecenate fra gli uomini di spirito le persone di quel genere sono di solito bisognose e di bassa nascita e danno un rispetto ed un aspetto istintivo per i gentiluomini e per i loro abiti guarniti di pizzi come devono aver notato tutti quelli che hanno frequentato la mia compagnia il famoso reynolds che in seguito fu fatto cavaliere ed era certamente il più elegante pittore dei suoi tempi era anche un abile cortigiano della tribù degli uomini di spirito per mezzo di questo signore che dipinse un quadro rappresentante me lady lindone ed il nostro piccolo brian che fu molto ammirato alla mostra io ero rappresentato nell'atto di congedarmi da mia moglie nel costume dei cavalieri yeomen di tippleton di cui ero maggiore ed il bambino indietreggiava spaventato del mio elmo come quel come si chiama il figlio di ettore come è descritto da pope nella sua iliade per mezzo dunque di reynolds venni presentato a parecchi di quei gentiluomini e al loro capintesta il celebre johnson ho sempre pensato che questo loro capo fosse un grande orso venne a prendere il tè in casa mia due o tre volte comportandosi molto grossolanamente trattando le mie opinioni con rispetto non molto maggiore che se fossero state quelle di uno scolaretto e dicendomi di pensare ai miei cavalli e ai miei sarti e di non impicciarmi con la letteratura il suo domatore d'orsi scozzese mister boswell era di una comicità di primo ordine non ho mai visto un'altra figura come quella di quell'individuo in ciò che egli chiamava un costume corso ad uno dei balli di mrs cornelli a carly's hall house soho se non fosse per il fatto che le storie che si riferiscono a questa istituzione non sono proprio tra le più educative di questo mondo potrei narrare migliaia di cose strane che accaddero lì tutte le persone di dubbia reputazione di alta e bassa nascita della città si radunavano colà da sua grazia di ancaster giù giù fino al mio compaesano il povero oliviero goldsmith il poeta e dalla duchessa di kingston giù fino all'uccello di paradiso o a kitty fisher qui ebbi occasione di incontrare tipi molto originali che fecero anche qualche fine piuttosto strana il povero hackman che in seguito fu impiccato per aver ucciso miss rei e di contrabbando sua reverenza il dottor simoni che il mio amico san fut del little theater fece rivivere anche dopo che i suoi falsi ed una bella corda al collo ne avevano troncato la carriera di parroco era un simpatico luogo londra a quei tempi a dir proprio la verità io ne scrivo ora nella mia gottosa vecchiaia quando la gente è diventata enormemente più morale più positiva di quel che non fosse alla fine del secolo scorso quando il mondo era giovane con me c'era una grande differenza tra un gentiluomo e un individuo qualunque a quei tempi noi allora portavamo seta e ricami ora tutti gli uomini hanno lo stesso aspetto da cocchieri con i loro cravattoni e di loro sopraabiti con la mantellina e non c'è alcuna differenza esteriore fra un lord e il suo lacchè allora ad un uomo elegante occorrevano un paio d'ore per fare la sua toilette ed egli poteva mostrare un po di gusto e di genialità nello sceglierla che sfolgorio di splendori era un salotto da ricevere o un'opera o una serata di gala che somme di denaro si perdevano e si vincevano a quei deliziosi tavoli di faraone il mio cocchio dorato con i suoi domestici a cavallo risplendenti in verde e oro era qualche cosa di molto diverso a vedere dagli equipaggi che si vedono oggi sui viali con quei minuscoli lacchè dietro un uomo era capace di bere quattro volte di più di quanto siano capaci di mandar giù gli smidollati di oggi ma è inutile insistere sull'argomento i veri gentiluomini sono morti per sempre la moda adesso è favorevole ai soldati e ai marinai ed io divento malinconico e di pessimo umore quando penso a 30 anni fa questo capitolo è dedicato alle reminiscenze di quello che fu per me un'epoca splendida e felice ma che presenta poco di notevole in fatto di avventure mi sembrerebbe ozioso riempire pagine e pagine con i resoconti delle occupazioni quotidiane di un uomo elegante le belle signore che gli sorridevano gli abiti che portava i giochi a cui giocava e vinceva o perdeva oggi che i più giovani sono occupati a tagliare la gola ai francesi in spagna e in francia dormono nei bivacchi e sono avvezzi a nutrirsi della galletta e della carne conservata dell'arancio essi non comprenderebbero neppure la vita che conducevano i loro antenati sicché tralascerò ogni ulteriore discorso sui piaceri dei tempi in cui anche il principe era un bamboccio sotto tutela quando Charles Fox non era ancora diventato un uomo politico e buona parte era un marmocchio stracciato nella sua isola natale mentre nelle mie proprietà procedevano i miglioramenti e la mia casa da antico castello normanno veniva mutata in un elegante tempio o palazzo greco e i miei giardini e i miei boschi perdevano il loro aspetto rustico e venivano accomodati nel più raffinato stile francese mentre il mio bambino cresceva sulle ginocchia di sua madre e la mia influenza nel paese aumentava non si deve immaginare che in tutto quel tempo io me ne stessi nel devonshire e che trascurassi le visite a londra e nelle mie diverse proprietà di inghilterra e di irlanda risiedetti per qualche tempo nella proprietà di trekotic e alle miniere di polwelland dove trovai invece di guadagno ogni sorta di cavillosi intrighi attraversai in gran pompa i nostri territori in irlanda dove ricevetti la nobiltà in uno stile a cui lo stesso lord luogotenente non avrebbe potuto stare a pari diedi il tono a dublino che era proprio una miserabile selvaggia città a quei tempi e dal tempo in cui c'è stato uno scompiglio circa l'unione e le disgrazie che ne sono seguite io sono rimasto molto imbarazzato a spiegare le folli lodi del vecchio ordine di cose che gli appassionati patrioti irlandesi hanno inventato dico che dettai legge in fatto di moda a dublino e questa non è gran lode per me perché a quei tempi era un ben povero luogo qualunque cosa possa dire il partito irlandese in un precedente capitolo ne ho già fatto la descrizione era la varsavia della nostra parte del mondo e vi era una nobiltà splendida rovinata e semi civilizzata che dettava legge ad una popolazione semi selvaggia dico di proposito semi selvaggia la gente nelle strade era disordinata con la barba lunga e vestita di stracci la maggior parte dei luoghi pubblici non offrivano alcuna sicurezza dopo il tramonto il collegio gli edifici pubblici e le case dell'alta nobiltà erano splendide ma queste ultime per la maggior parte non erano finite ma la popolazione era più miserabile di qualsiasi altra che io avessi mai conosciuto l'esercizio della loro religione era permesso solo per metà il loro clero era costretto a ricevere la sua istruzione fuori del paese l'aristocrazia era completamente divisa dal popolo c'era una nobiltà protestante e nelle città le miserabili insolenti corporazioni dei protestanti con un rovinoso seguito di sindaci funzionari e ufficiali municipali che figuravano tutti nelle petizioni e che esprimevano la voce pubblica nel paese ma non c'era né simpatia né rapporti tra l'alto e il basso popolo d'irlanda una persona che come me era stata per tanto tempo all'estero era doppiamente colpita dalla differenza tra cattolici e protestanti e benché fermo come una roccia nella mia fede pure io non potevo fare a meno di ricordare che mio nonno aveva avuto una fede diversa e di meravigliarmi che potesse esistere una simile differenza politica fra le due tra i miei vicini passavo per un pericoloso livellatore dato che conservavo ed esprimevo opinioni simili e specialmente perché invitavo il prete della parrocchia alla mia tavola a castle linden costui era un gentiluomo che aveva studiato a salamanca ed era a mio avviso un compagno molto più educato e piacevole del suo collega il rettore che aveva soltanto una dozzina di protestanti per la sua congregazione che era figlio di un lord effettivamente ma parlava malissimo e di cui i principali campi di attività erano il canile e l'arena da combattimento dei galli io non estesi ed abbellì gli edifici di castle linden come avevo fatto nelle altre nostre proprietà ma mi contentai di farvi di tanto in tanto una visita occasionale esercitandovi un'ospitalità quasi regale e tenendo casa aperta durante il mio soggiorno quando ero assente davo a mia zia la vedova brady e dalle sue sei figliole zitelle benché esse mi detestassero ancora il permesso di abitarvi poiché mia madre preferiva il mio nuovo castello di berriog e poiché lord bullington a quell'epoca era diventato troppo grande e turbolento decisi di lasciarlo affidato alle cure di un istitutore adatto in irlanda con miss brady e le sue sei figliole a prendersi cura di lui e sarebbe stato il benvenuto se si fosse innamorato di tutte quelle vecchie signore magari ne avesse avuto voglia e avesse imitato su questo punto l'esempio del suo padrigno quando era stanco di castle linden sua signoria era pienamente libero di andare a risiedere nella mia casa con la mia mamma ma tra loro non c'era simpatia anzi io credo che a causa di mio figlio brian ella lo odiasse tanto cordialmente quanto avrei potuto farlo io la contea di devon non è fortunata come la vicina contea di cornwall e non le spetta lo stesso numero di rappresentanti che possiede quest'ultima dove ho visto un modesto gentiluomo di campagna con poche centinaia di sterline l'anno di reddito triplicare le sue entrate mandando al parlamento tre o quattro membri e grazie all'influenza presso i ministri che questi seggi gli conferivano gli interessi parlamentari della casata dei lindon erano stati grossolanamente trascurati durante la minore età di mia moglie e l'incapacità del conte suo padre o per parlare con maggiore esattezza era stata sottratta completamente alla famiglia lindon da quell'abile vecchio ipocrita di tiptoff castle che si comportava come fanno la maggior parte dei parenti e tutori verso i loro pupilli e parenti e li derubava di tutto il marchese di tiptoff invitò al parlamento quattro membri due per la cittadina di tipleton che come tutti sanno giace ai piedi della nostra proprietà di hackton ed è limitata dall'altra parte di tiptoff park da tempo immemorabile eravamo noi che avevamo mandato i membri per quella cittadina finché tiptoff approfittando dell'imbecillità del defunto lord mise al loro posto degli altri nominati da lui quando il suo figliolo maggiore fu in età da essere eletto naturalmente milord si prese il seggio di tipleton quando rigby il nababbo rigby che aveva fatto la sua fortuna sotto clive in india morì il marchese ritenne conveniente tirar fuori il suo secondo figlio milord george poinings che ho già presentato al lettore nei capitoli precedenti e decise nella sua mente alta e potente che anche lui sarebbe dovuto andare ad ingrossare le file dell'opposizione i grossi e vecchi wigs dalla parte dei quali si era messo rigby era stato per qualche tempo in cattive condizioni di salute prima della sua scomparsa e potete star certi che la circostanza della sua cattiva salute non era passata inosservata alla nobiltà del paese che era costituita per la maggior parte da uomini fedeli al governo e odiava i principi di lord tiptoff come pericolosi e rovinosi è un pezzo che cerchiamo un uomo per combattere contro di lui mi dissero quei gentiluomini di campagna noi possiamo tener testa tiptoff solo al di fuori di hackton castle voi signor lindon siete il nostro uomo e alla prossima elezione della contea vi dichiareremo nostro candidato io odiavo tanto i tiptoff che li avrei combattuti in qualsiasi elezione non solo essi non ci facevano visita ad hackton ma rifiutavano di ricevere coloro che facevano visita a noi esortavano le signore della contea a non ricevere mia moglie inventavano almeno la metà delle folli storie sulla mia prodigalità e stravaganza con cui si divertiva il vicinato dicevano che avevo indotto mia moglie al matrimonio terrorizzandola e che essa era ormai una donna finita insinuavano che la vita del giovane bullinton non era sicura sotto il mio tetto che lo trattavo in maniera odiosa e che desideravo toglierlo di mezzo per far posto a mio figlio brian a me riusciva difficile avere un amico e un informatore ad hackton ma essi invece contavano le bottiglie che si bevevano alla mia tavola e strappavano tutti i segreti delle mie trattative con i miei legali ed i miei agenti d'affari se un creditore non era pagato tutte le voci del suo conto erano conosciute a tiptoff hall se davo un'occhiata alla figlia di un contadino si diceva che l'avevo rovinata io ho molti difetti lo confesso e come capo famiglia non posso certo vantarmi del mio carattere né di essere molto regolato ma lei di l'indone di io non ci bisticciavamo più di quanto facciano le altre persone di un certo rango e da principio tiravamo avanti proprio bene io sono un uomo pieno di colpe certamente ma non quel demonio che raffiguravano quegli odiosi maldicenti dei tiptoff nei primi tre anni di matrimonio non picchiai mia moglie altro che quando ero ubriaco quando tirai il trinciante al giovane bullington avevo bevuto come possono testimoniare tutti quelli che erano presenti ma quanto ad avere un qualsiasi piano sistematico contro quel povero ragazzo posso dichiarare solennemente che all'infuori del semplice fatto di odiarlo e non si può comandare alle proprie inclinazioni naturali io non sono colpevole di avergli fatto alcun male avevo dunque sufficienti motivi di nemicizia contro i tiptoff e non sono un uomo da lasciarli inattivo un sentimento di questo genere benché fosse wig o forse proprio perché era wig il marchese era uno degli uomini più altezzosi che ci fossero al mondo e trattava le persone di grado inferiore al suo come soleva trattarle il suo idolo il gran conte cioè come altrettanti vilissimi vassalli che potevano essere orgogliosi di leccargli le fibbie delle scarpe quando il sindaco ed il consiglio comunale di tipolton andavano a trovarlo li riceveva a capo coperto non offriva mai una sedia al sindaco anzi si ritirava quando venivano portati i rinfreschi o li faceva servire agli onorevoli funzionari nella stanza del maggior domo quegli onesti britanni non si ribellarono mai contro un simile trattamento fino a che non vi furono indotti dal mio patriottismo no a quei cani piaceva essere trattati tirannicamente e nel corso della mia lunga esperienza ho conosciuto ben pochi inglesi che non la pensassero allo stesso modo soltanto quando aprì loro gli occhi essi riconobbero la propria degradazione invitai ad acto nel sindaco e la sindacessa che tra l'altro era una formosa e graziosa drogheria feci sedere lei accanto a mia moglie e li condussi tutti e due alle corse nella mia carrozza lady lindon si oppose violentemente a quella concessione ma io avevo come si dice il mio modo di trattarla e se lei aveva un carattere io ne avevo uno anche peggiore un caratteraccio un gatto selvatico ha un caratteraccio ma un buon guardiano riesce ad averne ragione ed io conosco ben poche donne al mondo che non sarei capace di dominare bene teni in gran conto il sindaco e il consiglio comunale mandai della cacciagione ai loro pranzi e li invitai ai miei mi feci un punto d'onore di assistere alle loro riunioni di ballare con le loro mogli e con le loro figlie di compiere in breve tutti quegli atti di cortesia che sono necessari in simili occasioni e benché il vecchio tiptof dovesse essere al corrente dei miei procedimenti pure aveva la testa talmente nelle nuvole che non riuscì neppure una volta a immaginare che la sua dinastia potesse essere sconfitta nella sua stessa città di tipton e dava i suoi ordini con la stessa sicumera che se fosse stato il gran turco e gli abitanti di tipton null'altro che gli umilissimi schiavi delle sue volontà ogni arrivo di posta che ci portava la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute di rigby era la sicura occasione di un banchetto dato da me sicché alla fine i miei amici e compagni di caccia solevano dire ridendo rigby sta peggio c'è un pranzo del consiglio comunale ad acton così nel 1776 quando scoppiò la guerra con l'america entra in parlamento milord chatam di cui il suo partito soleva dire in quei giorni che era di una saggezza sovrumana levò la sua voce di oracolo alla camera dei pari contro la protesta americana e il mio compaesano burke un gran filosofo ma oratore noiosissimo e prolisso si fece campione dei ribelli ai comuni dove tuttavia grazie al patriottismo britannico riuscì a tirarsene dietro pochi il vecchio tiptof avrebbe giurato che il nero era bianco se glielo avesse detto il gran conte e indusse suo figlio a rinunciare al suo grado di ufficiale delle guardie ad imitazione di lord pitt che rinunciò al suo grado piuttosto che combattere contro coloro che egli chiamava i suoi fratelli americani ma questo era un tipo di patriottismo assai poco apprezzato in inghilterra dove sin dallo scoppio delle ostilità il nostro popolo odiava gli americani con tutto il cuore e dove quando udimmo della battaglia di lexington e della gloriosa vittoria di bunker hill come eravamo soliti chiamarla a quei tempi la nazione esplose in una delle sue solite bollenti collere dopo questo tutti i discorsi furono contro i filosofi e la gente era più che mai indomabilmente fedele solo dopo che venne aumentata la tassa sui terreni la piccola nobiltà cominciò a mormorare un po ma il mio partito nell'ovest era molto forte contro i tiptof allora decisi di scendere in campo e di vincere come era mio solito il vecchio marchese trascurava tutte le solite precauzioni che si richiedono per una campagna elettorale annunciò al consiglio e dai liberi proprietari la sua intenzione di presentare il figlio lord george e il suo desiderio che quest'ultimo fosse eletto loro deputato al parlamento ma innaffiò a malapena con un bicchiere di birra alla devozione dei suoi seguaci mentre io non c'è bisogno di dirlo avevo impegnato tutte le taverne di tippleton a mio favore non è il caso di rifare qui il racconto già fatto venti volte di un'elezione io salvai la città di tippleton dalle mani di lord tiptof e di suo figlio lord george provai anche una specie di selvaggia soddisfazione nell'obbligare mia moglie che era stata anche troppo offesa dal suo parente come ho già raccontato a parteggiare contro di lui e ad indossare a distribuire i miei colori quando giunse il giorno dell'elezione e quando parlammo in contraddittorio io dissi alla folla che avevo battuto lord george in amore che lo avevo battuto sul terreno e che ora lo avrei battuto in parlamento e così feci come provano i fatti perché con indicibile furore del vecchio marchese barry lyndon scudiero fu eletto membro del parlamento per tippleton al posto di john rigby scudiero deceduto ed io lo minacciai di sbalzarlo da entrambi i suoi seggi alla prossima elezione dopodiché mi recai a compiere i miei doveri in parlamento fu allora che decisi seriamente di acquistare per me un grado di pari di irlanda di cui godesse dopo di me il mio adorato figliolo ed erede capitolo diciottesimo la mia buona fortuna comincia a vacillare ed ora se qualcuno fosse disposto a pensare che la mia storia è immorale perché ho sentito qualcuno affermare che io non ero uomo meritevole da raggiungere una simile prosperità pregherò qualcuno di questi individui che trovano sempre da ridire di farmi il favore di leggere la conclusione delle mie avventure in cui vedranno che non era un premio tanto grande quello che avevo vinto e che ricchezza splendori 30.000 sterline l'anno e un seggio in parlamento sono spesso pagati troppo a caro prezzo quando si debbono acquistare questi piaceri a prezzo della propria libertà personale rincarando la dose col peso di una moglie fastidiosissima sono una cosa diabolica queste mogli moleste questa è la pura verità nessun uomo lo sa finché non prova quanto pesante e scoraggiante possa essere il fardello di una di esse e quanto la seccatura cresca ed aumenti di anno in anno e il coraggio divenga troppo poco per sopportarle sicché questo guaio che sembrava lieve e di poco conto il primo anno divenne intollerabile dopo dieci anni conosco la storia di uno di quei tipi classici del dizionario che cominciò col portare un vitellino su in cima ad una collina ogni giorno e che continuò così fino a che l'animale non fu diventato un toro sicché riusciva ancora a portarlo agevolmente sulle spalle ma vi do la mia parola cari giovanotti non ancora sposati che una moglie è un fardello molto più pesante a portare sul dorso della più grossa giovenca di smithfield e se posso trattenere anche uno solo di voi dal prendere moglie le memorie di barry lindon scudiero non saranno state scritte in vano non che miledi fosse una borbottona o d'una spilorcia come sono alcune mogli avrei trovato il modo di curarla da queste malattie ma era di un carattere timido piagnucoloso melanconico ipersensibile cosa che è per me anche più odiosa qualunque cosa si facesse per farle piacere non era mai contenta o di buon umore dopo un po lasciai perdere e poi che come era naturale nel mio caso i dispiaceri familiari mi costringevano a cercare fuori di casa compagnia e divertimento aggiunse a tutti gli altri suoi difetti una bassa detestabile gelosia per qualche tempo io non potei porgere la più comune attenzione ad una qualsiasi altra donna senza che miledi lindon si mettesse a piangere a torcersi le mani a minacciare di suicidarsi e non so che altro e la sua morte non sarebbe stata certo una cosa comoda per me come lascio immaginare a qualsiasi persona di buon senso perché quel briccone del giovane bullington che cresceva e stava diventando un ragazzone alto goffo e millantatore nonché la mia peggior piaga e seccatura avrebbe ereditato le proprietà fino all'ultimo penny ed io sarei rimasto notevolmente più povero di quando avevo sposato la vedova perché spendevo il mio patrimonio personale con tutta la rendita di miledi per conservare un livello di vita pari al nostro rango ed ero sempre troppo generoso e di spirito per risparmiare anche un centesimo delle entrate di lady lindon lasciamo chiacchierare i miei detrattori i quali dicono che non avrei mai potuto danneggiare tanto le sostanze dei lindon se non mi fossi fatto un piccolo patrimonio privato o credono che anche nella mia penosissima situazione attuale abbia dei mucchi d'oro nascosti da qualche parte io non ho preso a prestito neppure uno scellino sulla proprietà di mia moglie senza spenderlo da uomo d'onore oltre ad incorrere in innumerevoli obbligazioni personali in denaro che andava tutto nella massa comune indipendentemente dalle ipoteche ed intrighi ho fatto debiti per almeno 120.000 sterline che spesi nel tempo in cui occupavo delle proprietà di mia moglie sicché ben a ragione posso dire che la proprietà è in debito verso di me della somma summenzionata benché io abbia descritto il profondo disgusto e l'antipatia che ben presto si impadronirono di me verso lady lindon e benché non mi preoccupassi particolarmente perché io sono tutto franchezza e sincerità di nascondere i miei sentimenti pure ella era di spirito così servile che mi perseguitava con le sue dimostrazioni d'affetto ad onta della mia indifferenza verso di lei e si rianimava alla minima parola gentile che le rivolgevo il fatto è sia detto fra me ed il mio rispettabile lettore che io ero a quei tempi uno dei più attraenti e vivaci giovani d'inghilterra e che mia moglie era violentemente innamorata di me e benché io dica qui quello che non dovrei dire lasciamo correre la penna mia moglie non era certo l'unica donna di un certo rango che avesse un'opinione favorevole dell'umile avventuriero irlandese che enigma sono queste donne mi è venuto spesso di pensare ho visto le più eleganti creature di saint james diventare pazze d'amore per l'uomo più grossolano e volgare le donne più intelligenti ammirare appassionatamente i più illetterati del nostro sesso e così via non c'è limite all'incoerenza di quelle sciocche creature e benché io non intenda davvero insinuare con questo che io sono volgare o illetterato come gli individui nominati più sopra taglierei la gola a chiunque osasse soltanto sussurrare una parola sulla mia nascita o sulla mia educazione pure ho mostrato che Lady Lyndon aveva pienamente ragione di non amarmi più se voleva ma come le altre del suo stolto sesso ella era guidata dall'infatuazione e non dalla ragione e fino all'ultimo giorno della nostra convivenza era disposta a riconciliarsi con me ed avezzeggiarmi in tutti i modi se le rivolgevo una sola parola gentile diceva in quei momenti di tenerezza ma Redmond se tu fossi sempre così e in quegli accessi d'amore era la creatura più facile del mondo a persuadere ed avrebbe alienato con una firma anche tutto il suo patrimonio se fosse stato possibile debbo confessare che bastava la più piccola attenzione da parte mia a farla diventare di buon umore passeggiare con lei sul mall o a Ranelach accompagnarla alla chiesa di St. James acquistare qualche piccolo dono o sciocchezza per lei era sufficiente per lusingarla tale è l'incoerenza femminile il giorno dopo probabilmente mi avrebbe chiamato Mr. Berry e si sarebbe lamentata del suo miserabile destino che l'aveva unita ad un simile mostro così ella si compiaceva di chiamare uno degli uomini più brillanti dei tre regni di sua maestà mentre vi garantisco che altre signore avevano di me un'opinione ben più lusinghiera poi minacciava di lasciarmi ma io avevo un assoluto dominio su di lei grazie a suo figlio che amava appassionatamente non so perché dato che aveva sempre trascurato il suo figliolo maggiore lord bullington e non si era mai data pensiero della sua salute del suo benessere o della sua educazione il nostro ragazzo dunque era la creatura che formava il grande legame tra me e sua signoria e non c'era piano ambizioso che io proponessi a cui ella non si unisse a vantaggio del povero bambino né spesa a cui non andasse incontro volentieri se si poteva dimostrare in qualche modo che sarebbe stata a suo vantaggio posso dirvi che ne furono dispensate di regalie ed anche a persone di grado assai elevato così vicino alla regale persona di sua maestà che restereste stupefatti se io raccontassi quali grandi personaggi accondiscesero a ricevere le nostre elargizioni io trassi dai libri araldici di inghilterra e d'irlanda una descrizione ed un dettagliato albero genealogico della baronia di berriog e chiesi rispettosamente di essere reintegrato nei titoli dei miei antenati ed anche di essere insignito della viscontea di belli berri questa testa avrà una corona diceva a volte miledi nei suoi momenti di tenerezza carezzando dolcemente i miei capelli e veramente vi sono parecchi giovani rampolli di nobile casata che non hanno né il mio coraggio né la mia prosapia né alcun altro dei miei meriti la lotta per ottenere questo titolo di pari ritengo sia stata una delle più sfortunate tra tutte le mie sfortunate iniziative di quel periodo feci sacrifici inauditi per portarla avanti prodigai danaro qua e diamanti là comperai terreni a dieci volte il loro valore acquistai quadri oggetti d'arte a prezzi rovinosi diedi numerosi ricevimenti a tutti quei sostenitori della mia richiesta che essendo prossimi a personalità regali potevano favorirla perdetti più di una scommessa con i duchi reali fratelli di sua maestà ma dimentichiamo queste faccende perché io non voglio mancare di lealtà verso il mio sovrano a causa dei danni subiti personalmente la sola persona che nominerò apertamente fra tutte quelle che ebbero parte in quest'affare è quel vecchio furfante truffatore di gustavo adolfo tredicesimo conte di krabs questo signore era uno dei gentiluomini di camera di sua maestà ed una delle persone con cui il nostro riverito monarca era in termini di notevole intimità tra loro si era stabilito uno stretto legame al tempo del vecchio re quando sua altezza reale giocando alla racchetta e al volano col giovane lord sul ripiano della grande scalinata q il principe di galles dico in un momento di irritazione buttò giù dalla scalinata a calci il giovane conte che cadendo si ruppe una gamba il sincero pentimento del principe per il suo atto violento fu l'origine della salda amicizia che sterinse con colui che l'aveva offeso e quando sua maestà salì al trono non ci fu persona si disse di cui il conte di but fosse geloso quanto di lord krabs quest'ultimo era povero e stravagante e but se lo tolse dai piedi mandandolo in russia e in altre ambasciate ma quando fu licenziato questo favorito krabs tornò di gran corsa dal continente ed ottenne quasi immediatamente un posto presso la persona stessa di sua maestà proprio con questo indegno gentiluomo contrassi una disgraziata intimità quando nuovo dell'ambiente senza alcun sospetto mi stabilì per la prima volta in città dopo il mio matrimonio con lady lindon e dato che krabs era certamente uno dei compagni più piacevoli del mondo provai un sincero piacere della sua compagnia oltre al desiderio interessato che avevo di coltivare l'amicizia di un gentiluomo che era vicino alla persona del più alto personaggio del regno a starlo a sentire avreste immaginato che non ci fosse faccenda importante in cui non avesse parte mi disse per esempio che charles fox sarebbe stato rimosso dal suo posto un giorno prima che il povero charles stesso fosse al corrente del fatto mi disse quando sarebbero tornati dall'america gli how e chi doveva succedere loro nel comando laggiù senza stare a moltiplicare ancora gli esempi fu su costui che feci il maggiore assegnamento per appoggiare la mia richiesta della baronia di barrioge e del titolo di visconte che mi proponevo di ottenere una delle principali spese che questa mia ambizione mi impose fu di equipaggiare e di armare una compagnia di fanti dai possessi di castle lindon e di hackton in irlanda che offrì al mio grazioso sovrano per la campagna contro i ribelli d'america queste truppe superbamente vestite ed equipaggiate si imbarcarono a portsmouth nell'anno 1778 e il patriottismo del gentiluomo che le aveva armate fu così accetto dalla corte che quando fui presentato dal lord north sua maestà si degnò di notarmi particolarmente e disse molto bene signor lindon armate un'altra compagnia e andate con loro anche voi ma questo come il lettore può immaginare non era assolutamente nelle mie intenzioni un uomo con 30.000 sterline all'anno sarebbe uno sciocco a rischiare la vita come un mendicante qualsiasi e in questa maniera ho sempre ammirato la condotta del mio amico jack bolter che era il più attivo e coraggioso degli alfieri e in questa sua qualità si impegnava in ogni imbroglio e in ogni scaramuccia che gli capitasse ma proprio prima della battaglia di minden ricevette la notizia che suo zio il grande appaltatore militare era morto e gli aveva lasciato 5.000 sterline all'anno jack chiese immediatamente di essere congedato e siccome questo gli fu rifiutato in vista dell'azione che stava per aver luogo quel bravo ragazzo non sparò più neanche un colpo di pistola tranne che contro un ufficiale il quale aveva messo in dubbio il suo coraggio e che egli affrontò con tanta freddezza e decisione da dimostrare a tutti che solo per prudenza e per desiderio di godersi il suo denaro e non per vigliaccheria lasciava la professione delle armi quando fu armata questa compagnia di hackton il mio figliastro che aveva allora 16 anni insistette molto perché gli fosse permesso di unirsi ad essa ed io sarei stato ben contento di acconsentire per liberarmi del ragazzo ma il suo tutore lord tiptoff che mi si opponeva in tutto rifiutò il permesso e le tendenze militari del ragazzo vennero nettamente contrastate se si fosse unito alla spedizione il fucile di un ribelle avesse messo termine alla sua vita credo a dire il vero che non mi sarei afflitto molto e avrei avuto il piacere di vedere l'altro mio figlio diventare l'erede del patrimonio che suo padre si era conquistato con tante pene l'educazione di quel giovane gentiluomo era stata lo confesso tra le più disordinate e forse la verità è che io avevo trascurato il ragazzo era di natura selvaggia ribelle e disordinata ed io non avevo mai il minimo riguardo per lui davanti a me a sua madre almeno era così cupo e scontroso che io pensai che l'istruzione fosse sprecata con lui e lo lasciai libero di cavarsela da sé per la maggior parte del tempo per due interi anni egli rimase in irlanda lontano da noi e quando tornò in inghilterra lo tenemmo principalmente ad acton non desiderando di avere quel ragazzo goffo e sgraziato nella nobile compagnia della capitale a cui ci trovavamo naturalmente mescolati all'opposto di lui brian il mio figliolino era il bambino più gentile ed attraente che si fosse mai visto era un piacere trattarlo con gentilezza e distinzione e prima ancora che avesse raggiunto i cinque anni quel piccino era un modello di eleganza bellezza e buona educazione sta di fatto che non avrebbe potuto essere altrimenti con le cure che tutti e due i genitori gli prodigavano e le attenzioni che gli venivano mostrate in ogni modo quando brian aveva quattro anni io ebbi una disputa con la bambinaia inglese che lo aveva allevato e di cui mia moglie era stata tanto gelosa e gli procurai una governante francese che aveva vissuto con famiglie di primordine a parigi e che naturalmente doveva anch'essa ingelosire lady lindon sotto la guida di quella giovane il mio briconcello imparò a parlottare in francese nel modo più incantevole vi avrebbe rallegrato il cuore sentire quel caro furfantello dire morde ma vi e vederlo battere il piedino e mandare quei manon e canai dei domestici a tron mi il diablo era precoce in tutto imparò prestissimo a fare la caricatura di tutti a cinque anni stava a tavola e beveva il suo bicchiere di champagne come tutti noi e la sua bambinaia gli insegnava canzoncine francesi e le ultime romanze parigine di vad e collar anche quelle erano graziose e facevano scoppiare dalle risa tutti quelli dei suoi ascoltatori che capivano il francese mentre scandalizzavano vi assicuro alcune delle vecchie matrone che erano ammesse alla compagnia della sua mamma non che ce ne fossero molte perché io non incoraggiavo le visite di quella che si chiama la gente rispettabile ale di lindon tutti i rapaci di professione gente pettegola invidiosa e di mentalità ristretta che mettono zizzania fra marito e moglie ogni volta che qualcuno di questi gravi personaggi faceva la sua comparsa ad acton o in berkeley square il mio più grande piacere consisteva nel farlo scappare spaventato e incoraggiavo il mio piccolo brian a ballare a cantare e a fare il diabla catr unendomi a lui in modo da spaventare quelle vecchie bisbetiche non dimenticherò mai le solenni rimostranze di quel vecchio smorfioso del nostro rettore ad acton che fece uno o due vani tentativi di insegnare il latino al piccolo brian permettevo qualche volta al nostro ragazzo di accompagnarsi con i suoi innumerevoli figlioli essi impararono da brian qualcuna delle sue canzoni francesi e la loro madre una povera creatura che si intendeva più di torte e di conserve che di francese li incoraggiava affettuosamente a cantare ma un giorno che il padre li sentì mandò miss sarah nella sua camera a pane e acqua per una settimana e frustò solennemente jacob in presenza di tutti i suoi fratelli e sorelle nonché di brian a cui sperava che questa punizione sarebbe servita di ammonimento ma il mio birbantello si precipitò fra le gambe del vecchio parroco scalciando fino a che questi non fu costretto a chiamare il sacrestano per fargli lasciare la presa mentre sacramentava per ottenere che il suo amico jacob non fosse picchiato dopo questa scena il reverendo proibì a brian di tornare al rettorato io giurai che il suo figliolo maggiore che studiava anche lui per diventare ministro non avrebbe mai avuto la successione del beneficio di hackton che avevo avuto l'intenzione di concedergli ma suo padre disse con quell'aria ipocrita e lamentosa che io non posso soffrire che si facesse pure la volontà del cielo ma che non avrebbe permesso che i suoi figlioli diventassero disobbedienti e corrotti neppure per amore di un vescovato e mi scrisse una lettera pomposa e solenne piena di citazioni latine prendendo congedo da me e dalla mia casa lo faccio con rimpianto aggiungeva il vecchio signore perché ho ricevuto tante gentilezze dalla famiglia di hackton che allontanarmi da essa è cosa che affligge profondamente il mio cuore temo che i miei poveri soffriranno in conseguenza della mia separazione da voi e del fatto che d'ora in poi io non potrò farvi riconoscere le preghiere della povertà e dell'afflizione che quando giungevano a vostra conoscenza la vostra generosità debbo dirlo per amor di giustizia era sempre pronta a soccorrere può essere che ci fosse una certa verità in questo perché il vecchio signore mi affliggeva continuamente con richieste e so di certo che a causa delle sue personali elemosine lui stesso di frequente non aveva un soldo in tasca ma sospetto anche che i buoni pranzi di hackton avessero una parte notevole nel suo dispiacere per la fine delle nostre relazioni e so che sua moglie fu dolentissima di rinunciare ai suoi rapporti con la gouvernante di brian mademoiselle louison che aveva sulla punta delle dita tutte le ultime novità della moda francese e che non andava mai al rettorato senza che la domenica seguente si vedessero le ragazze della famiglia uscire con nuovi abiti e mantelli io pensai di punire il vecchio ribelle russando sonoramente nel mio banco la domenica durante il sermone e presi subito un istitutore per brian ed un cappellano personale quando il bambino fu diventato abbastanza grande per toglierlo alla compagnia e dalla sorveglianza femminile feci sposare la sua bambinaia inglese al mio capo giardiniere con una bella dote e concessi in moglie la gouvernante francese al mio fedele tedesco fritz non dimenticando la dote neppure in quest'ultimo caso questi due misero su una trattoria francese a soho e credo che nel momento in cui scrivo siano più ricchi di beni di questo mondo che non il loro generoso e liberale ex padrone per brian presi un giovane gentiluomo di oxford il reverendo edmund lavender che fu incaricato di insegnargli il latino quando il ragazzo era ben disposto e di dargli qualche base in storia in grammatica ed in altre materie necessarie ad un gentiluomo lavender fu una preziosa aggiunta alla nostra compagnia di hackton perché ci fornì il mezzo per una quantità di scherzi era il bersaglio di tutte le nostre burle e le sopportava con l'ammirevole pazienza di un martire apparteneva a quel genere di uomini che preferirebbero essere presi a calci da un gran personaggio piuttosto che non essere notati da lui gli ho gettato spesso la parrucca nel fuoco davanti a tutta la compagnia e lui rideva dello scherzo come tutti gli altri presenti era un gran divertimento metterlo su un cavallo molto focoso e mandarlo dietro ai cani pallido madido di sudore mentre ci gridava di farlo fermare per amor del cielo attaccato con tutte le sue forze alla criniera e alla groppa del cavallo per salvarsi la vita come sia andata che costui non si sia mai ammazzato non lo so davvero ma suppongo che una corda da impiccato sarà il modo in cui si romperà il collo non ebbe mai un incidente degno di essere riferito durante le nostre partite di caccia e potevate star sicuri che lo avreste sempre trovato al suo posto in fondo alla tavola a preparare il punch e che sarebbe stato portato via da lì ubriaco per metterlo a letto prima della fine della serata più di una volta brian ed io gli abbiamo tinto la faccia di nero in quelle occasioni lo mettevamo in una stanza stregata e lo spaventavamo con gli spiriti fino a fargli uscire l'anima dal corpo gli liberavamo una quantità di topi sul letto gridavamo al fuoco e gli riempivamo gli stivali d'acqua tagliavamo le zampe al suo pulpito e gli riempivamo il libro dei sermoni di tabacco da fiuto il povero lavender sopportava tutto con pazienza e nelle nostre feste o quando andavamo a londra ne veniva ampiamente ripagato col permesso di sedere accanto ai nobili ospiti e di inebriarsi della compagnia dei gentiluomini alla moda faceva piacere sentire con che disprezzo parlava del nostro rettore a un figlio che studia gratuitamente signore e studia in un collegio secondario diceva come potreste pensare caro signore di dare la successione di hackton ad una persona di così modesta istituzione dovrò parlare ancora dell'altro figlio o meglio del figlio di lady lindon voglio dire del visconte bullinton lo teni in irlanda per qualche anno sotto la sorveglianza di mia madre che avevo installato a castle lindon e grande ve lo assicuro era la sua dignità nell'occuparlo e prodigiosi lo splendore ed il superbo contegno di quella buona creatura con tutte le sue stranezze la proprietà di castle lindon era il meglio amministrato di tutti i nostri possessi i fitti venivano pagati regolarmente e le spese d'amministrazione erano minori di quello che sarebbero state in mano di qualsiasi maggior domo era stupefacente la modestia delle spese della buona vedova benché ella tenesse alto l'onore delle due famiglie come soleva dire aveva tutta una serie di domestici per servire il giovane lord lei stessa usciva di casa in un vecchio cocchio dorato tirato da sei cavalli la casa era tenuta pulita e in ordine la mobilia e i giardini nelle migliori condizioni e nelle nostre occasionali visite in irlanda non abbiamo mai trovato alcuna casa tra quelle che visitavamo in condizioni migliori della nostra c'erano sempre una decina di domestiche pronte e cinque o sei giardinieri in sottordine attorno al castello e tutto era nelle migliori condizioni in cui potesse tenerlo una buona massaia tutto questo essa lo faceva senza farci spendere quasi nulla perché allevava nei giardini pecore e bestiame e ne traeva un bel profitto a ballinaslow riforniva non so quante città di burro e di prosciutto e la frutta e le verdure degli orti di castle linden raggiungevano prezzi altissimi sul mercato di dublino non faceva sprechi in cucina come si suol fare in molte delle nostre case irlandesi e non si consumavano i vini delle cantine perché la vecchia signora beveva acqua e riceveva a poco punto tutta la sua compagnia erano un paio di figliole della mia vecchia fiamma nora brady diventata mrs queen lei e suo marito avevano dissipato quasi tutto il loro patrimonio e una volta nora venne a trovarmi a londra aveva un'aria molto vecchia grassa e malmessa con due sudici marmocchi al fianco pianse molto nel vedermi mi chiamò sir e mister lindon cosa che non mi dispiacque e mi pregò di aiutare suo marito cosa che io feci ottenendogli per mezzo del mio amico lord krabs un posto alle dogane in irlanda e pagando il villaggio fin lì a lui e da tutta la sua famiglia trovai che era diventato un sudicio volgare e piagnucoloso ubriacone e guardando la povera nora non potei fare a meno di pensare con stupore ai tempi in cui l'avevo considerata come una divinità ma semmai ho degnato della mia attenzione una donna io le rimango amico per tutta la vita e potrei citare un migliaio di simili esempi delle mie generose e fedeli disposizioni il giovane bullington però era quasi la sola persona fra le tante con le quali aveva a che fare di cui mia madre non riuscisse ad assicurarsi l'obbedienza i resoconti che la mi mandò su di lui sin dal principio erano tali da affliggere notevolmente il mio cuore paterno egli respingeva ogni disciplina ed ogni autorità si assentava da casa per settimane per andare a caccia o per altre spedizioni quando stava a casa era silenzioso e strano rifiutava di fare una partita di picchetto con mia madre la sera sprofondandosi invece in ogni sorta di vecchi libri muffiti con cui si confondeva il cervello si trovava molto più a suo agio a ridere a ciarlare con i pifferai e con le domestiche nelle stanze di servizio che con la gente distinta nella sala da ricevere lanciava continuamente frizzi a mrs berry e lei che era piuttosto lenta nel fare a botta e risposta andava violentemente in collera in sostanza il ragazzo conduceva a una vita di insubordinazione e di scandalo poi per colmo quel cattivo soggetto prese a frequentare la compagnia del parroco cattolico della parrocchia un miserabile briccone proveniente da qualche seminario papista di francia o di spagna a preferenza del vicario di castle linden un gentiluomo del trinity college che teneva i suoi cani da caccia e beveva le sue due bottiglie al giorno la considerazione dovuta alla religione del ragazzo mi tolse allora qualsiasi esitazione sul modo di comportarmi verso di lui se c'è un principio che mi ha guidato nella vita è il rispetto per la chiesa anglicana e un cordiale disprezzo e antipatia per tutte le altre forme di credenza mandai quindi il mio domestico personale a dublino con l'incarico di riportare alla ragione il giovane reprobo mi venne riferito che questi aveva passato tutta l'ultima serata del suo soggiorno in irlanda in chiesa col suo amico papista e che lui e mia madre avevano avuto una violenta disputa proprio l'ultimo giorno che invece aveva baciato biddi e dosi le due nipoti di lei le quali sembravano molto dolenti che se ne andasse e che sollecitato ad andare a trovare il rettore aveva rifiutato risolutamente dicendo che era un malvagio vecchio fariseo in casa del quale non avrebbe mai messo piede il dottore mi scrisse una lettera mettendomi in guardia contro i deplorevoli errori di quel giovane vaso di perdizione come lo chiamava lui e da quella lettera potei vedere che non c'era grande simpatia tra loro ma risultò che se non era simpatico alla nobiltà del paese il giovane bullington aveva una vasta popolarità tra la gente comune c'era una vera folla che piangeva davanti al cancello quando la sua carrozza si allontanò decine di ignoranti e rustici vagabondi corsero per miglia e miglia accanto alla carrozza e alcuni giunsero al punto di correre avanti prima della sua partenza e di presentarsi alla pigeon house a dublino per dargli un ultimo saluto con notevole difficoltà si dissuase qualcuno di questi individui dal nascondersi sulla nave per accompagnare il loro giovane signore in inghilterra per rendere giustizia a quel giovane briccone quando egli giunse fra noi era un ragazzo dall'aspetto nobile e virile e tutto nei suoi modi e nel suo comportamento attestava il nobile sangue da cui discendeva era il vero ritratto di qualcuno dei bruni cavalieri della razza dei lindon i cui ritratti erano appesi nella galleria di hackton dove il ragazzo era felice di passare la maggior parte del suo tempo immerso nei vecchi libri polverosi che tirava fuori dalla biblioteca e sui quali mi è così odioso veder sgobbare un giovanotto di spirito in mia compagnia egli conservava sempre il più rigoroso silenzio e un contegno altero e sprezzante che era tanto più spiacevole in quanto in realtà non c'era nulla nel suo contegno a cui io potessi appigliarmi per trovare qualche cosa a ridire benché tutta la sua condotta fosse in complesso insolente e arrogante al più alto grado sua madre si mostrò molto agitata nel riceverlo al suo arrivo quanto a lui se anche provava un'agitazione simile certo non la dimostrò le fece un inchino estremamente profondo e formale nel baciarle la mano e quando io gli porsi la mia mise tutte e due le mani dietro la schiena mi guardò ben fisso in faccia e fece un cenno col capo dicendo il signor Barry Lyndon credo poi voltò i tacchi e cominciò a parlare del tempo che faceva con sua madre a cui si rivolgeva sempre chiamandola vostra signoria a lei dispiacque questo contegno insolente e quando furono soli lo rimproverò aspramente di non avere stretto la mano a suo padre mio padre signora ribatte lui certamente voi sbagliate mio padre era il molto onorevole Sir Charles Lyndon se lo hanno dimenticato gli altri io almeno non l'ho dimenticato era una dichiarazione di guerra contro di me come compresi immediatamente mentre posso dichiarare che sarei stato abbastanza ben disposto a fare buona accoglienza alla ragazzo al suo arrivo fra noi e a vivere con lui in termini di buona amicizia ma io tratto le persone come loro trattano me chi potrebbe biasimarmi per i miei successivi litigi con quel giovane reprobo o addossare a me i guai che successero in seguito forse io perdetti la pazienza e in seguito lo trattai con durezza ma fu lui che cominciò la disputa e non io e le dannose conseguenze che ne derivarono dipesero interamente da lui poiché è meglio distruggere il vizio quando è ancora in germe e un padre di famiglia deve esercitare la propria autorità in modo che non ci possano essere dubbi in proposito io colsi la prima occasione per venire alle strette col signor bullington e il giorno dopo il suo arrivo fra noi in seguito al suo rifiuto di fare qualche cosa che gli chiedevo lo feci venire nel mio studio e lo frustai sonoramente quest'operazione lo confesso da principio mi agitò molto perché non avevo mai frustato un lord prima d'allora ma poi mi abituai rapidamente a questo esercizio e la sua schiena e la mia frusta fecero una così intima conoscenza che vi garantisco che dopo un po' fra noi si fecero ben poche cerimonie se volessi riportare qui tutti gli esempi di insubordinazione di cattiva condotta da parte del giovane bullington stancherei il lettore la sua perseveranza nel resistermi era credo anche più grande della mia nel correggerlo perché un uomo anche se è deciso a compiere il suo dovere di padre non può frustare i suoi figli ogni giorno né per tutte le colpe che commettono e benché mi sia fatta la fama di essere stato verso di lui un patrigno quanto mai crudele posso dare la mia parola che gli ho risparmiato più correzioni quando le meritava di quante non gliene abbia date inoltre c'erano otto interi mesi all'anno in cui egli restava libero di me durante la mia presenza a londra al mio posto in parlamento e alla corte del mio sovrano in quel periodo io non ebbi difficoltà a permettergli di approfittare del greco e del latino del vecchio rettore che lo aveva battezzato ed aveva una notevole influenza su quell'ostinato ragazzo dopo una scenata o un litigio fra noi generalmente il giovane ribelle correva al rettorato per rifugio e per consiglio e debbo riconoscere che il parroco era un arbitro giustissimo tra noi nelle nostre dispute una volta ricondusse per mano il ragazzo ad acton e lo portò proprio alla mia presenza benché avesse fatto voto di non passare mai più la porta di casa nostra finché io ero vivo e disse che aveva indotto sua signoria a riconoscere il proprio errore ed a sottomettersi a qualsiasi punizione io ritenessi opportuno infliggergli dopodiché lo bastonai alla presenza di due o tre miei amici con i quali in quel momento ero seduto a bere e per rendergli giustizia egli sopportò una punizione molto severa senza recalcitrare né lamentarsi minimamente e questo servirà a dimostrare che io non ero troppo severo nel trattare il ragazzo dato che avevo l'autorizzazione del parroco stesso ad infliggergli le correzioni che ritenevo opportune due o tre volte anche lavender il precettore di brian tentò di punire lord bullington ma vi assicuro che quel briccone era troppo forte per lui estese al suolo l'uomo di oxford con una sedia con gran divertimento del piccolo brian che gridava bravo bulli picchialo picchialo forte e bulli lo fece davvero con profonda indignazione del precettore che in seguito non tentò mai più di infliggergli personalmente correzioni ma si contentò di riportare i resoconti delle malefatte di sua signoria a me suo naturale protettore e tutore col bambino bullington era strano a dirsi gentilissimo aveva una grande simpatia per il piccolo come per la verità tutti quelli che lo conoscevano e gli voleva anche più bene diceva perché era un mezzo lindon e doveva ben essergli affezionato perché più di una volta all'intercessione di quel caro angelo papà non frustare bulli oggi io mi trattenevo e gli risparmiavo una dose di quelle frustate che avrebbe ampiamente meritato con sua madre da principio si degnava appena di avere rapporti diceva che non apparteneva più alla famiglia perché avrebbe dovuto volerle bene dato che non era mai stata una madre per lui ma servirà a dare un'idea dell'accanita ostinatezza e tetraggine di carattere del ragazzo se io ricorderò un fatto che lo riguarda mi è stato rinfacciato spesso di avergli negato l'istruzione che si conveniva a un gentiluomo e di non averlo mai mandato in un collegio o in una scuola ma sta di fatto che fu proprio di sua scelta che non andò né nell'uno né nell'altra io gliene feci ripetutamente l'offerta poiché avrei desiderato assistere alle sue imprudenze il meno possibile ma egli la rifiutò ripetutamente e per lungo tempo non riuscì a scoprire qual era l'incanto che lo faceva restare in una casa in cui doveva trovarsi tutt'altro che bene alla fine però venne fuori tra lady lindon e me c'erano dispute molto frequenti in cui qualche volta aveva torto lei qualche volta io e che salivano molto di tono dato che nessuno dei due aveva un carattere troppo angelico io ero spesso un po alticcio e qual è il gentiluomo che riesce a padroneggiarsi quando è in quello stato forse quando ero in quelle condizioni trattavo miledi piuttosto ruvidamente le tiravo qualche bicchiere la chiamavo con nomi non troppo complimentosi posso anche averla minacciata di ammazzarla ciò che evidentemente non era affatto nel mio interesse e in una parola averla spaventata molto dopo una di queste liti durante la quale ella corse strillando per i corridoi ed io ubriaco come un lord le correvo dietro barcollando sembra che bullinton uscisse dalle sue stanze attratto dal rumore e siccome stavo per raggiungerla a quell'ardito briccone mi diede uno sgambetto per di dietro approfittando del fatto che non ero troppo sicuro sulle gambe poi raccogliendo tra le braccia la madre svenuta la portò nelle proprie stanze dove su ardente preghiera di lei giurò che non avrebbe mai lasciato la casa finché ella fosse rimasta unita a me io non seppi nulla del voto né del ghiribizzo da ubriaco che ne aveva fornito l'occasione fui raccolto un po partito come su al dirsi dai domestici e messo a letto e la mattina dopo non mi ricordavo di quel che era accaduto più che se fosse successo quando ero ancora lattante lady lindon mi raccontò la faccenda alcuni anni dopo ed io la riporto qui unicamente perché mi permette di discolparmi onorevolmente di una delle assurde accuse di crudeltà lanciate contro di me a proposito del mio figliastro pensino i miei detrattori a trovare scuse se l'osano per la condotta di un disgraziato mascalzone che fa lo sgambetto al suo naturale custode e patrigno dopo il pranzo quest'occasione servì ad unire per un poco madre e figlio ma i loro caratteri erano troppo diversi io credo che ella fosse sempre troppo innamorata di me perché egli potesse riconciliarsi sinceramente con lei a mano a mano che bullington cresceva e si faceva uomo il suo odio verso di me raggiungeva un'intensità addirittura scandalosa a pensarci e vi assicuro che io la ricambiavo con tutti gli interessi all'età di 16 anni credo quell'impudente giovane mascalzone un'estate al mio ritorno dal parlamento quando mi proponevo di bastonarlo come al solito mi fece comprendere che non si sarebbe sottoposto a nessun ulteriore castigo da parte mia e disse digrignando i denti che mi avrebbe sparato se gli mettevo ancora le mani addosso lo guardai bene di fatto era cresciuto ed era diventato un giovanotto alto e robusto sicché tralasciai definitivamente quella necessaria parte della sua educazione fu pressa poco in quell'epoca che equipaggiai la compagnia che doveva andare in america e i nemici che avevo nel paese e dopo la mia vittoria sui tiptoff non ho bisogno di dire che ne avevo parecchi cominciarono a diffondere le più vergognose notizie sulla mia condotta verso quel prezioso scavezza collo del mio figliastro e ad insinuare che desideravo liberarmi immediatamente di lui così la mia fedeltà verso il sovrano venne trasformata in un orribile e snaturato pensiero da parte mia di attentare contro la vita di bullington si disse che avevo equipaggiato quel corpo di spedizione in america al solo scopo di mandare il giovane visconte a comandarlo e così liberarmi di lui non sono sicuro che non avessero stabilito anche il nome dell'uomo a cui nella compagnia era stato ordinato di levarlo di mezzo alla prima azione in grande stile e il premio che gli avrei dato per rendermi in questo delicato servigio ma la verità è che io ritenevo allora e se l'adempimento della mia profezia è stato ritardato non ho alcun dubbio che essa si avvererà a non lunga scadenza che lord bullington non aveva nessun bisogno del mio aiuto per mandarlo all'altro mondo ma che aveva una felice tendenza a trovare da sé la via per andarci e ci sarebbe riuscito di sicuro in vero cominciò presto a mettersi su quella via di tutti i violenti arditi e disobbedienti scavezzacolli che abbiano mai afflitto un affezionato genitore egli era certamente il più incorreggibile non serviva a nulla picchiarlo o lusingarlo o correggerlo per esempio quando l'istitutore portava il mio brian nella stanza in cui stavamo finendo la nostra bottiglia dopo il pranzo milord cominciava a rivolgermi indirettamente i suoi violenti e indocili sarcasmi caro piccino diceva cominciando ad accarezzarlo e avezzeggiarlo che peccato che io non sia morto per amor tuo i lindon avrebbero così un ben più degno rappresentante e godrebbero di tutto il beneficio dell'illustre sangue dei berri di berriog non è vero signor berri lindon sceglieva sempre i giorni in cui non c'era compagnia o di gente del clero o di nobili del vicinato per rivolgermi questi insolenti discorsi un altro giorno era il compleanno di brian davamo un gran ballo e un ricevimento di gala ad acton ed era arrivato il momento che il mio piccolo brian facesse la sua comparsa tra noi come faceva di solito nel più delizioso abitino di gala che si fosse mai visto povero me mi vengono ancora le lacrime agli occhi vecchio come sono a ripensare al radioso aspetto di quell'adorato visino tutti si affollarono e ridacchiarono quando il piccolo entrò condotto dal suo fratellastro che si presentò nella sala chi lo crederebbe con le sole calze conducendo per mano il piccolo brian che sguazzava nelle grandi scarpe del fratello maggiore non vi sembra che le mie scarpe gli stiano molto bene sir richard wargrave disse a uno dei presenti il giovane reprobo e a queste parole gli invitati cominciarono a scambiarsi sguardi ironici sghignazzando ma sua madre avvicinandosi a lord bullington con grande dignità si prese in braccio il piccino e disse dall'affetto che ho per questo bimbo milord voi dovreste comprendere quanto avrei amato il suo fratello maggiore se si fosse mostrato degno di affetto materno e scoppiando in lacrime lady lindon lasciò la sala e il giovane lord fu sconfitto una volta tanto alla fine in una certa occasione il suo contegno verso di me fu così insolente eravamo a caccia e in numerosa compagnia che io perdetti del tutto la pazienza lanciai il mio cavallo verso quel monello lo tirai giù di sella con tutte le mie forze e gettandolo ruvidamente al suolo balzai io stesso di sella e somministrai una tale correzione sulla testa e sulle spalle di quel giovane furfante con la mia frusta che avrei finito per ammazzarlo se non fossi stato trattenuto in tempo perché la mia collera si era proprio scatenata ed ero in tale stato che avrei commesso un assassino come qualsiasi altro delitto il ragazzo fu portato a casa e messo a letto dove stette per un giorno o due con la febbre più per la rabbia e l'umiliazione che per il castigo che gli avevo somministrato e tre giorni dopo quando mandammo a chiedergli nella sua stanza se voleva venire a tavola con la famiglia fu trovato il suo letto vuoto e freddo e un biglietto sul suo tavolo quel giovane furfante era scappato ed aveva avuto l'audacia di scrivere su di me a sua madre mia moglie nei seguenti termini signora diceva ho sopportato per quanto era possibile ad un mortale i maltrattamenti di quell'insolente villan rifatto irlandese che avete preso nel vostro letto non soltanto la bassezza della sua nascita e la generale brutalità delle sue maniere mi disgustano e debbono farmelo odiare fino a tanto che avrò l'onore di portare il nome di lindon di cui egli è indegno ma la vergognosa natura della sua condotta verso vostra signoria il suo contegno brutale e indegno di un gentiluomo la sua aperta infedeltà le sue abitudini di stravaganza e di ubriachezza le sue vergognose truffe e ruberie sulle mie proprietà e sulle vostre questi insulti fatti a voi mi colpiscono e mi turbano più ancora che l'infame condotta di quel furfante verso di me sarei rimasto a fianco di vostra signoria come vi avevo promesso ma in questi ultimi tempi sembra che voi abbiate preso le parti di vostro marito e siccome non posso castigare personalmente quel mascalzone screanzato che dobbiamo dirlo per nostra vergogna è il marito di mia madre ma non posso neppure sopportare di assistere al modo in cui vi tratta e abborrisco la sua orribile compagnia come se fosse la peste ho deciso di lasciare il mio paese natio almeno finché viva quell'essere detestabile o finché viva io stesso posseggo una piccola rendita che mi viene da mio padre e di cui non ne dubito il signor berri mi defrauderebbe se potesse ma che se a vostra signoria resta ancora qualche sentimento materno voi vorrete forse concedermi potete dare ai signori chiles i nostri banchieri l'ordine di pagarmela di volta in volta se però non riceveranno quest'ordine non ne sarò minimamente sorpreso sapendo che siete nelle mani di un furfante che non si farebbe scrupolo di rubare sulla strada maestra e cercherò di trovare il modo di farmi nella vita una strada più onorevole di quella per la quale quell'avventuriero irlandese squattrinato è giunto a privarmi dei miei diritti e della mia casa questa pazza lettera era firmata a bullington tutti i vicini giurarono che io avevo avuto parte nella sua fuga per trarne poi profitto ma io dichiaro sul mio onore che il mio più vero e sincero desiderio dopo aver letto l'infame lettera di qui sopra era stato di avere il suo autore non più distante di un braccio da me per fargli sapere quello che pensavo di lui ma non ci fu modo di sradicare quest'idea dalla mente della gente che insisteva che io volevo uccidere bullington mentre l'assassinio come ho già detto non fu mai una delle mie cattive qualità ed anche se avessi voluto fare tanto male al mio giovane amico la più comune prudenza mi avrebbe calmato poiché sapevo benissimo che si sarebbe rovinato con le sue stesse mani passò parecchio tempo prima che sentissimo parlare di quel che era avvenuto di quella audace giovane vagabondo ma dopo una quindicina di mesi che se la era svignata ebbi il piacere di trovarmi in grado di confutare qualcuna delle infami calunnie che erano state lanciate contro di me mostrando un biglietto con la firma dello stesso bullington spedito dall'esercito del generale tarleton in america dove la mia compagnia si comportava nel modo più glorioso ed in essa mi lord serviva come volontario tuttavia alcuni dei miei buoni amici insistettero ancora nell'attribuirmi ogni sorta di malvagie intenzioni lord tiptoff non volle mai credere che avessi ricevuto un biglietto e tantomeno un biglietto di lord bullington la vecchia lady betty grimsby sua sorella insistette nel dichiarare che il biglietto era falso e che il povero caro lord era morto fino a che non giunse a sua signoria una lettera di lord bullington in persona che era stato al quartier generale a new york ed escriveva per esteso la splendida festa data dagli ufficiali della guarnigione ai due valorosi comandanti gli howie comunque se io avessi effettivamente ucciso mi lord ben difficilmente avrei potuto ricevere biasimi e calunnie più di quanti mi seguivano in città e in campagna sentiremo presto parlare della morte del ragazzo statene certi esclamava uno dei miei amici e poi seguirà quella di sua moglie aggiungeva un altro quanto a lui sposerà jenny jones aggiungeva un terzo e così via nota di traduzione così scherzosamente jenny jones gli inglesi chiamano la forca lavender mi riportava tutte queste dicerie che correvano sul mio conto il paese mi era ostile gli agricoltori nei giorni di mercato si toccavano ossequiosamente il cappello ma poi cambiavano strada per evitarmi i signori che prima venivano a caccia con me ora all'improvviso se ne astennero e smisero di portare i miei colori e al ballo della contea quando diedi il braccio a lady susan coppermore e presi il mio posto come terzo nella contraddanza dopo il duca e il marchese come era mia abitudine tutte le coppie si voltarono quando andavamo verso di loro e fumo lasciati soli a ballare sa chi coppermore aveva una tale passione per la danza che avrebbe ballato anche a un funerale se l'avessero invitata ed io avevo troppo spirito per ritirarmi a questo palese insulto rivoltomi pubblicamente sicché ballammo con la gente più bassa e ordinaria della scala sociale i nostri farmacisti mercanti di vino avvocati e gentaglia qual è quella a cui è permesso di partecipare alle nostre pubbliche riunioni il vescovo parente di lady lindon non ci invitava più a palazzo alle riunioni e in una parola mi furono inflitti tutti gli oltraggi che si possono riversare su un innocente ed onorevole gentiluomo a londra dove portai allora mia moglie e la mia famiglia fui ricevuto in modo appena più cordiale quando andai a porgere il mio omaggio al mio sovrano a saint james sua maestà mi chiese esplicitamente quando avevo avuto notizie di lord bullington al che io con una presenza di spirito fuor dall'ordinario risposì signore lord bullington sta combattendo contro coloro che si sono ribellati alla corona di vostra maestà in america desidera forse vostra maestà che io mandi un altro reggimento ad aiutarlo a questa risposta il re mi voltò le spalle ed io dovetti fargli la riverenza fuori della sala di ricevimento quando lady lindon si presentò a baciare la mano alla regina nel suo salone seppi che a sua signoria era stata fatta esattamente la stessa domanda ed ella venne a casa molto agitata dai rimproveri che le erano stati rivolti così veniva ricompensata la mia fedeltà in questo modo erano considerati i miei sacrifici in favore del mio paese partì allora bruscamente per andare a stabilirmi a parigi dove fui ricevuto in modo ben diverso ma il mio soggiorno fra gli incantevoli piaceri di quella capitale fu estremamente breve perché il governo francese che era da un pezzo connivente con i ribelli americani ora riconobbe apertamente l'indipendenza degli stati uniti ne seguì una dichiarazione di guerra a tutti noi bravi inglesi fu ordinato di allontanarci da parigi ed io credo di aver lasciato lì due o tre belle signore inconsolabili parigi è il solito posto in cui un gentiluomo possa vivere a suo piacimento senza essere seccato da sua moglie la contessa ed io durante il nostro soggiorno non ci vedevamo quasi mai salvo che in occasioni pubbliche a versailles o al tavolo da gioco della regina e il nostro caro piccolo brian faceva progressi in mille eleganti finezze che lo rendevano la delizia di tutti quelli che lo conoscevano non debbo dimenticare di raccontare qui il mio ultimo incontro con quel bravuomo di mio zio il cavaliere di balibari che avevo lasciato a bruxelles con la ferma intenzione di pensare alla sua salute spirituale come su al dirsi e che si era ritirato in convento laggiù in seguito però era rientrato nel mondo con suo grande dispiacere e pentimento perché si era innamorato disperatamente nella sua vecchiaia di un'attrice francese che aveva fatto tutto quello che fanno la maggior parte delle donne del suo genere lo aveva rovinato lo aveva lasciato e gli aveva riso in faccia il suo pentimento era adesso veramente edificante sotto la guida dei padri del collegio irlandese aveva rivolto una volta ancora il suo pensiero alla religione e la sola preghiera che mi fece quando lo vidi e gli chiesi in che cosa potevo giovargli fu di beneficare con una bella somma il convento in cui si proponeva di entrare cosa che naturalmente io non feci perché i miei principi religiosi mi proibivano di incoraggiare la superstizione in qualsiasi modo ed il vecchio signore ed io ci separamo piuttosto freddamente in conseguenza disse lui del mio rifiuto di rendere più comodi i giorni della sua vecchiaia il fatto è che all'epoca io ero molto povero e entre nous la rosemont dell'opera francese una ballerina di nessun valore ma con una figurina e caviglie incantevoli mi stava rovinando a forza di diamanti equipaggi e conti di fornitori si aggiunga a questo che avevo una passata di sfortuna al gioco e che dovevo far fronte alle mie perdite con le più vergognose concessioni agli strozzini mettendo impegno una parte dei diamanti di lady lindon quella disgraziata piccola rosemont mi sedusse al punto da farsene dare qualcuno anche lei e con un migliaio di altri modi di far denaro ma quando è in causa l'onore io non ho mai potuto rifiutarmi di rispondere al suo richiamo e chi può dire che barry lindon abbia perduto una scommessa senza pagarla quanto alle mie ambiziose speranze per un titolo di pari irlandese cominciai a scoprire al mio ritorno che ero stato grossolanamente tratto in inganno da quel furfante di lord krabs al quale piaceva prendersi il mio denaro ma che non aveva più influenza per procurarmi un titolo nobiliare di quanta non ne avesse per darmi la tiara pontificale il sovrano al mio ritorno non si mostrò per nulla più grazioso verso di me di quanto non lo fosse stato prima della mia partenza seppi da uno degli aiutanti di campo dei reali duchi suoi fratelli che la mia condotta e le mie distrazioni a parigi erano state riportate in maniera odiosa da alcune spie ed erano state oggetto di regali commenti e che il re sotto l'influenza di quelle calunnie aveva detto niente meno che io ero l'uomo più screditato dei tre regni io screditato io un disonore per il mio nome per il mio paese quando udì queste falsità mi arrabbiai talmente che esplosi immediatamente con lord north facendo le mie rimostranze al ministro insistendo perché mi fosse permesso di comparire alla presenza di sua maestà e di discolparmi delle accuse rivoltemi di sottolineare i servigi da me resi al governo votando in suo favore e di chiedere quando avrei ricevuto la ricompensa che mi era stata promessa cioè quando il titolo dei miei antenati sarebbe rivissuto nella mia persona c'era una sonnolenta freddezza in quel grasso lord north che era la cosa più provocante che l'opposizione dovesse affrontare in lui mi stette a sentire con gli occhi mezzi chiusi quando io ebbi finito un lungo e violento discorso che feci misurando in su e in giù la stanza in downing street e gesticolando con tutta l'energia di cui può essere capace un irlandese aprì un occhio sorrise e mi chiese gentilmente se avevo finito quando ebbi risposto affermativamente di sé bene mister barry vi risponderò punto per punto il re è estremamente contrario a creare dei pari come sapete gli sono state presentate le vostre rivendicazioni come le chiamate voi e la graziosa risposta di sua maestà è stata che voi eravate l'uomo più sfacciato che ci fosse nei suoi domini e che meritavate una corda piuttosto che un titolo quanto a ritirarci il vostro appoggio siete perfettamente libero di mettervi voi e il vostro voto dalla parte che preferite e adesso siccome ho molto da fare vorreste forse farmi il favore di ritirarvi così dicendo levò pigramente la mano al campanello e mi salutò con un cenno del capo chiedendomi calmo calmo se poteva essermi utile in nessun altro modo andai a casa in preda ad un accesso di collera indescrivibile e siccome avevo a pranzo da me lord krabs proprio quel giorno assalì sua signoria tirandogli via di testa la parrucca e scaraventandogliela in faccia e lo colpì in quella parte della persona che a quanto si riferiva era già stata colpita da sua maestà il giorno dopo la storia circolava per tutta la città e nei circoli e nelle botteghe dei giornalai furono esposti dei quadretti che mi raffiguravano nell'atto di compiere l'operazione a cui ho fatto allusione qui sopra tutta la città rise del quadro del lord e dell'irlandese e non ho bisogno di dire che li riconobbe benissimo tutti e due quanto a me in quei giorni ero uno dei personaggi più famosi di londra i miei abiti il mio stile di miei equipaggi erano conosciuti quanto quelli di qualsiasi altro esponente della moda e del gran mondo e la mia popolarità se non era grande e nelle altissime sfere era almeno considerevole dovunque la gente mi applaudiva in gordon rowe all'epoca in cui quella folla fu sul punto di uccidere il mio amico gemmi twitcher e diede fuoco alla casa di lord mansfield in realtà ero conosciuto come un fedele protestante e dopo la mia disputa con lord north virai direttamente nei ranghi dell'opposizione e lo tormentai con tutti i mezzi mio potere disgraziatamente questi mezzi non erano molto grandi perché io ero un cattivo oratore e la camera non volle ascoltarmi e quasi subito nel 1780 dopo le sommosse per gordon fu sciolta ed ebbero luogo le elezioni generali questo mi capitò come del resto avevano l'abitudine di capitarmi tutti i miei guai nel momento più disgraziato fui costretto a prendere in prestito altro denaro a tassi rovinosissimi per affrontare quelle disordinate elezioni ed ebbi contro di me sul campo i tiptoff più attivi e virulenti che mai mi ribolle ancora il sangue quando penso alla furfantesca condotta dei miei nemici in quelle scellerate elezioni fui rappresentato come il barbablu irlandese e furono stampati libelli e messe in giro grossolane caricature che mi rappresentavano intento a frustare lady lindon a somministrare sferzate al lord bullington a metterlo fuori in una notte di tempesta e non so che altro circolarono disegni di una capanna di mendicanti in irlanda da cui si pretendeva che provenissi altri nei quali ero rappresentato come un lacchè e un lustrascarpe fu riversato su di me un torrente di calunnie da cui qualunque uomo dotato di spirito e meno pronto sarebbe stato sommerso ma benché affrontassi arditamente i miei accusatori benché profondessi nell'elezione grandi somme di denaro benché spalancassi le porte di hackton hall e facessi scorrere champagne e borgogna a fiumi proprio come l'acqua tanto lì che in tutte le osterie della città l'elezione mi fu sfavorevole quei mascalzoni della nobiltà si erano rivoltati tutti contro di me e si erano uniti alla fazione tiptoff fu persino detto che tenevo rinchiusa a forza mia moglie e benché la mandassi in città sola indossando i miei colori con brian in grembo e la mandassi a far visita alla moglie del sindaco e alle signore più importanti del luogo niente servì a persuadere la gente che essa non viveva nel terrore tremando di me e quella folla brutale ebbe il coraggio di chiederle se avrebbe osato tornare indietro e se le piacevano le frustate per cena rimasi sconvolto dalla mia mancata elezione poi mi piovero addosso i conti tutti insieme tutti gli impegni che avevo firmato per anni dal mio matrimonio e che i creditori con ribalda unanimità mi mandarono fino a ricoprire il mio tavolo a mucchi non ne riporterò qui l'ammontare era spaventoso i miei amministratori ed i miei legali resero la faccenda ancora peggiore io fui preso in un'inestricabile tela di cambiali e di debiti di ipoteche e di assicurazioni con tutti gli orribili guai che ne derivano avvocati su avvocati mi denunciavano da londra si faceva un accomodamento dopo l'altro e le entrate di lady lindon venivano quasi totalmente incamerate per soddisfare quegli avvoltoi per renderle giustizia e la si comportò con molta gentilezza in quel periodo di guai poiché ogni volta che avevo bisogno di denaro dovevo persuaderla con moine e carezze e ogni volta che ricorrevo alle moine e alle carezze ero sicuro di mettere di buon umore quella donna debole svaporata aveva un carattere tanto debole ed era così terrorizzata che per assicurarsi una settimana tranquilla con me avrebbe firmato mille cambiali all'anno e quando cominciarono i miei guai a hackton ed io mi decisi per l'unica soluzione che ci era rimasta cioè di ritirarci in irlanda a fare economia versando la maggior parte delle mie rendite ai creditori fino a che le loro richieste non fossero state soddisfatte mi ledi fu lietissima all'idea di andare e disse che se ce ne fossimo stati tranquilli era sicura che tutto sarebbe andato bene anzi era contenta della relativa povertà in cui avremmo dovuto vivere in vista dell'isolamento e della probabile quiete domestica di cui sperava di godere partimmo quasi all'improvviso per bristol lasciando quegli odiosi ed ingrati mascalzoni a vilipenderci indubbiamente ad hackton nella nostra assenza i miei puro sangue ed i miei cani furono venduti immediatamente e quelle arpie sarebbero state liete di attaccarsi anche alla mia persona ma per fortuna era fuori dalla loro portata con la mia abile amministrazione io avevo preso a prestito sulle mie miniere e sulle mie proprietà private una somma pari almeno al loro valore sì che su questo punto almeno i furfanti furono delusi e quanto al vasellame e a tutto ciò che era contenuto nella casa di londra non potevano toccar nulla perché erano di proprietà degli eredi di casa lindon passai dunque in irlanda e presi di mora a castle lindon per qualche tempo mentre tutti immaginavano che io fossi un uomo completamente rovinato e che il famoso e brillante barry lindon non sarebbe mai più riapparso nei circoli di cui era stato l'ornamento ma non fu così nel bel mezzo dei miei imbarazzi la fortuna mi riservava ancora una grande consolazione dall'america giunsero in patria dispacci che annunciavano la disfatta del generale gate per opera di lord cornwallis nella carolina e la morte del giovane lord bullington che partecipava allo scontro nella sua qualità di volontario dei miei desideri personali di possedere un miserabile titolo irlandese poco mi importava mio figlio brian era adesso l'erede di una contea inglese ed io gli feci assumere immediatamente il titolo di lord visconte di castle lindon il terzo dei titoli della famiglia mia madre divenne quasi pazza di gioia nel salutare il suo nipotino col titolo di milord ed io sentì che tutte le mie sofferenze e le mie privazioni erano ricompensate dal fatto di vedere quel caro fanciullo giunto ad una simile onorifica posizione capitolo diciannovesimo conclusione se il mondo non fosse composto di una razza di ingrati bricconi che condividono la vostra prosperità finché dura ma poi quando si sono rimpinzati con la vostra cacciagione e con i vostri vini oltraggiano colui che generosamente ha pagato la loro festa sono sicuro che avrei meritato un buon nome ed un'elevata reputazione almeno in irlanda dove la mia generosità fu senza limiti e lo splendore della mia casa e dei miei ricevimenti non fu eguagliato da alcun altro nobile dell'epoca fino a che durò la mia magnificenza tutto il paese fu libero di parteciparvi avevo nelle mie stalle cavalli da caccia sufficienti per montare un reggimento di dragoni e nelle mie cantine tante botti di vino da ubriacare per anni intere contee castle lindon divenne il quartier generale di decine di gentiluomini bisognosi ed io non uscivo mai per una partita di caccia senza avere una dozzina di giovani del miglior sangue della contea che cavalcavano con me come scorta e come compagni di caccia mio figlio era un vero principe la sua educazione e i suoi modi mostravano anche a quella tenera età che era degno delle due nobili famiglie da cui discendeva non saprei dire quali e quante elevate speranze avevo per quel ragazzo mi lasciavo andare a mille tenere previsioni sui suoi futuri successi e sulla figura che avrebbe fatto nel mondo ma il crudele destino aveva stabilito che non avrei lasciato dietro di me nessuno della mia razza ed aveva decretato che avrei finito la mia carriera come lo vedo ora povero abbandonato e senza discendenti posso avere avuto i miei difetti ma nessuno oserebbe dire di me che non sia stato un padre buono e tenero io amavo appassionatamente quella ragazzo forse con una parzialità cieca certo è che negavo nulla sarei stato contento contentissimo lo giuro di morire per scongiurare la sua sorte prematura credo che non sia trascorso un giorno da quando l'ho perduto in cui la sua faccia ridente ed il suo bel sorriso non mi fissino giù dal cielo dov'è ora ed il mio cuore non abbia anelato a lui quel caro fanciullo mi fu tolto all'età di nove anni quando era nel pieno della sua bellezza e delle sue promesse e la sua memoria mi domina in modo così potente che non mi è mai riuscito di dimenticarlo il suo piccolo spirito mi appare nelle notti che trascorro sul mio solitario cuscino senza riposo e più di una volta nelle più folli compagnie mentre circolano le bottiglie e deccheggiano risa e canti io penso a lui ho ancora appesa al petto una ciocca dei suoi morbidi capelli bruni ed essa mi accompagnerà nell'inonorato sepolcro dei poveri dove presto senza dubbio giaceranno le mie vecchie logore ossa di Barry Lyndon il mio Brian era un ragazzo di un coraggio stupefacente e come avrebbe potuto essere altrimenti date le sue origini insofferente persino del mio controllo contro il quale quel caro bricconcello si ribellava spesso e arditamente tanto più dunque si ribellava a quello di sua madre e delle donne dei cui tentativi di guardarlo rideva con disprezzo persino mia madre mistress Barry Lyndon si faceva chiamare ora quella buona creatura in omaggio alla mia nuova famiglia era assolutamente incapace di contrariarlo e da questo potete immaginare quale volontà propria avesse il ragazzo se non fosse stato per questo potrebbe essere vivo ancora oggi potrebbe ma che lamentarsi non è egli forse in un luogo migliore e a che cosa potrebbe servirgli l'eredità di un mendicante è meglio dunque che il cielo ci aiuti che io suo padre sia stato lasciato a rimpiangerlo fu nel mese di ottobre io ero stato a dublino allo scopo di vedere un avvocato ed una persona ben provvista di denaro che era venuta sino in irlanda per consultarsi con me circa la vendita di certe miniere e il taglio del legname di hackton di cui dato che odiavo quel luogo e avevo grande necessità di denaro ero deciso a tagliare fino all'ultimo fuscello la questione aveva presentato qualche difficoltà era stato detto che io non avevo diritto di toccare quel legname i rozzi contadini dei dintorni erano stati incitati ad un tale odio contro di me che quei furfanti rifiutavano assolutamente di posare l'ascia sugli alberi e il mio agente quel furfante di larkins dichiarò che correva pericolo di vita in mezzo a se avesse tentato qualsiasi ulteriore spoliazione così la chiamavano della proprietà a quell'epoca ogni oggetto della splendida mobilia del castello era stato venduto non c'è bisogno di dirlo e quanto all'argenteria avevo avuto cura di portarla con noi in irlanda dove ora era affidata alla migliore custodia quella del mio banchiere che mi aveva già anticipato 6.000 sterline su di essa somma della quale mi era presto capitato di aver bisogno andai a dublino dunque per incontrare questi uomini d'affari inglesi e riuscii così bene a persuadere splint un gran costruttore di navi e mercante di legname di plymouth dei miei diritti sul legname di hackton che egli convenne di acquistarlo per contanti ad un terzo circa del suo valore e mi diede 5.000 sterline una sull'altra somma che essendo in quel periodo presso dai debiti fui pronto ad accettare lui non trovò difficoltà ad abbattere il legname ve lo assicuro prese un reggimento di legnaiuoli e segatori dai suoi cantieri e da quelli del re a plymouth e in due mesi hackton park era nudo di alberi come il sahara ma quella disgraziata spedizione e quel dannato denaro mi portarono solo sfortuna del denaro ne perdetti la maggior parte in due notti al gioco al dailies sicché i miei debiti rimasero esattamente come prima e prima che la nave che portava via quel vecchio furbo del mio mercante di legname salpasse per holyhead tutto quel che mi restava del denaro che mi aveva dato erano un paio di centinaia di sterline con cui ritornai a casa molto sconsolato e molto alla svelta anche perché i miei fornitori di dublino mi stavano alle calcagna avendo sentito dire che avevo già speso il mio incasso e due dei miei fornitori di vino avevano mandati d'esecuzione contro di me per qualche migliaio di sterline tuttavia a dublino comperai secondo la mia promessa perché quando faccio una promessa la mantengo a costo di qualsiasi sacrificio un cavallino per il mio caro piccolo brian doveva essere il regalo per il suo decimo compleanno che stava per arrivare era un grazioso animale e mi costò una bella somma non avevo mai badato al denaro per quel caro figliolo il cavallo era ancora assai indomito prese a calci uno dei miei garzoni di stalla che tentò per primo di montarlo e gli ruppe una gamba e benché nel viaggio verso casa cavalcassi o l'animale furono solo il mio peso e la mia abilità che tennero tranquilla quella bestiaccia quando arrivamo a casa mandai il cavallo con uno dei servitori presso uno dei nostri contadini per domarlo completamente e dissi a brian che era tutto ansioso di vedere il cavallino che sarebbe arrivato per il giorno del suo compleanno e che quel giorno lo avrei portato a caccia sul cavallino con i miei cani mi ripromettevo un gran piacere nel portare sul campo il mio piccino quel giorno speravo già di vederlo una volta o l'altra condurre la caccia al posto del padre che tanto lo amava come infelice mai quell'ardito ragazzo avrebbe condotto una caccia alla volpe mai avrebbe preso tra la nobiltà di quei luoghi il posto che la sua nascita e la sua genialità gli avevano assegnato benché io non creda nei sogni e negli auguri pure non posso fare a meno di ammettere che quando ad un uomo sovrasta una grande disgrazia egli ne ha spesso strani e terribili presagi mi meraviglio ora di quanti ne ebbi lady lindon specialmente sognò due volte la morte di suo figlio ma siccome era ormai diventata insolitamente nervosa e ipocondriaca trattai con scherno i suoi timori e naturalmente anche i miei in un momento di distrazione sulla mia bottiglia dopo pranzo dissi al povero brian che mi assediava sempre di domande sul cavallino che esso era arrivato e che era alla fattoria di dulan dove mick il domestico lo stava domando promettimi brian gridò sua madre che non cavalcherai quel cavallo altro che in compagnia di tuo padre ma io dissi soltanto signora siete una sciocca perché la sua sciocca timidezza mi fece rabbia dato che ora ne faceva sempre mostra in mille spiacevoli modi e volgendomi a brian dissi prometto a vostra signoria che lo frusterò ben bene se lo monterà senza il mio permesso immagino che al povero ragazzo non importasse di ricevere questo castigo in cambio del piacere che si riprometteva o forse pensò che un padre indulgente avrebbe condonato completamente il castigo perché la mattina dopo quando mi levai piuttosto tardi essendo rimasto alzato a bere fino a tarda ora la sera prima trovai che il fanciullo era uscito all'alba scivolando silenziosamente fuori della camera del suo istitutore che era redmond queen nostro cugino che avevo preso ad abitare con noi e non ebbi alcun dubbio che fosse andato alla fattoria di dulan afferrai una lunga frusta da cavalli e gli galoppai dietro furioso giurando che avrei mantenuto la mia promessa ma che il cielo mi perdoni non ci pensai più davvero quando a tre miglia da casa incontrai una triste processione che mi veniva incontro contadini che gemevano e gridavano come si fa da noi in irlanda il cavallino nero condotto per la cavezza e sul battente di una porta trasportata da tre o quattro persone il mio povero caro piccino lì egli giaceva con i suoi stivaloncini e i suoi speroni e la sua giacchettina di scarlatto e d'oro il suo caro viso era bianco come un panno lavato ed egli sorrise nel porgermi la mano dicendo a fatica non mi frusterai vero papà per tutta risposta io non potei che scoppiare in lacrime avevo visto morire tanti uomini e i morenti hanno negli occhi uno sguardo su cui non ci si può ingannare c'era un piccolo tamburino a cui volevo molto bene che fu colpito davanti alla mia compagnia a kunesdorf quando corsi a dargli un po d'acqua aveva esattamente lo stesso aspetto che aveva allora il mio piccolo brian non è possibile sbagliarsi su quella spaventosa espressione degli occhi lo portamo a casa e perlustrammo tutto il paese in cerca di dottori che venissero a vedere che cosa si era fatto ma che vale un dottore contro la cupa invincibile nemica tutti quelli che vennero poterono solo rafforzare la nostra disperazione con le loro diagnosi sul povero bambino brian era montato coraggiosamente a cavallo ed era rimasto bravamente in sella mentre l'animale scalpitava e tirava calci e avendo superato il suo primo accesso di ribellione gli aveva fatto saltare una barriera a lato della strada ma sulla barriera c'erano delle pietre smosse e il piede del cavallo le aveva urtate e lui ed il suo piccolo e bravo cavaliere erano ruzzolati tutti e due insieme dall'altra parte la gente disse che aveva visto il nobile fanciullo rialzarsi dopo la caduta e correre a prendere il cavallo che si era allontanato da lui sembra dandogli un calcio nella schiena quando erano in terra tutti e due ma il povero brian fece solo pochi passi e poi ricadde disteso come colpito da una fucilata il viso gli si coprì di pallore e tutti credettero che fosse morto ma poi gli versarono in bocca del whisky e il povero bambino si rianimò però non si poteva muovere era stato offeso alla spina dorsale e la metà inferiore del corpo era già morta quando a casa lo misero a letto anche il resto non durò a lungo che dio mi aiuti rimase con noi ancora per due giorni ed era una consolazione ben triste pensare che non soffriva durante quel breve periodo il carattere di quel caro angelo sembrò cambiare completamente chiese perdono a me e a sua madre di tutti gli atti di disobbedienza di cui si era reso colpevole verso di noi diceva spesso che gli sarebbe piaciuto vedere suo fratello bullington bullington era migliore di te papà diceva non bestemmiava tanto e mi diceva e mi insegnava tante belle cose quando tu non c'eri poi prendendo la mano di sua madre e la mia nelle sue manine sudate ci pregava di non litigare ma di amarci l'un l'altro in modo che ci potessimo ritrovare di nuovo in cielo dove bulli gli aveva detto che la gente che litigava non andava mai sua madre fu molto colpita da quegli ammonimenti che uscivano dalla bocca di quel povero angioletto sofferente ed anch'io vorrei proprio che la mavesse reso possibile di seguire i consigli che il fanciullo morente ci diede alla fine dopo due giorni morì lì giaceva la speranza della mia famiglia l'orgoglio della mia virilità il legame che aveva tenuto uniti me e lady lindon o redmond e la disse inginocchiandosi accanto al corpo del caro fanciullo diamo ascolto ti prego alle verità che sono uscite da quella bocca benedetta correggi la tua vita e tratta la tua povera moglie che ti vuole tanto bene come ti ha pregato il suo bimbo che moriva io le promisi che l'avrei fatto ma ci sono promesse che ad un uomo è impossibile mantenere specialmente con una donna come lei tuttavia dopo quel triste avvenimento ci riavvicinammo e fumo buoni amici per parecchi mesi non sto a dirvi con quale splendore lo seppellimmo ma a che valgono le piume del corteggio funebre e le trombe degli araldi mi trassi in disparte e ammazzai con una fucilata il fatale cavallino nero che lo aveva fatto morire proprio alla porta della cappella in cui avevamo deposto il mio bambino ero impazzito a tal punto che mi sarei sparato anch'io e se non fosse che a una colpa sarebbe stato meglio che l'avessi fatto forse perché che cosa è mai stata la mia vita da quando quel dolce fiore è stato strappato dal mio seno un seguito di miserie di guai di disastri di sofferenze mentali e fisiche quali mai si riscontrarono nel destino di nessun altro essere vivente in tutta la cristianità lady lindon sempre ipocondriaca e nervosa dopo la catastrofe del nostro benedetto figliolo divenne più agitata che mai e si sprofondò nella devozione con tale fervore che a momenti l'avreste creduta quasi impazzita immaginava di avere visioni disse che un angelo dal cielo le aveva detto che la morte di brian era una punizione per lei perché aveva trascurato il suo primo genito poi dichiarò che bullington era vivo lo aveva visto in sogno poi ricadde di nuovo in accessi di dolore per la sua morte e si afflisse per lui così violentemente come se fosse stato lui quello dei suoi figli che era morto per ultimo e non il nostro adorato brian che paragonato a bullington era quello che è un diamante in confronto di una volgarissima pietra i suoi attacchi di nervi erano penosissimi ad assistervi e difficili a padroneggiare in paese si cominciò a dire che la contessa stava diventando pazza quei furfanti dei miei nemici non mancarono di confermare e di ingrandire queste voci aggiungendo che ero io la causa della sua pazzia io l'avevo fatta impazzire io avevo ucciso bullington io avevo assassinato persino mio figlio non so di che cos'altro ancora mi accusassero le loro odiose calunnie mi raggiunsero anche in irlanda i miei amici si allontanarono da me cominciarono a disertare le mie cacce come facevano in inghilterra e quando mi recavo alle corse o al mercato trovavano improvvise ragioni per non starmi vicino ricevetti i nomi di berri il malvagio di lindon il diavolo e non so che altro i contadini mettevano in giro stranissime dicerie sul mio conto i preti dicevano che avevo massacrato non so quante monache tedesche nella guerra dei sette anni e che lo spirito dell'assassinato bullington infestava la mia casa una volta alla fiera di una città vicina mentre mi accingevo a comprare una robusta camicia per uno dei miei dipendenti un individuo che mi stava vicino disse sta comprando la camicia di forza per lady lindon e da questa circostanza sorse una vera leggenda sulle mie crudeltà verso mia moglie e si narrarono molti circostanziati particolari circa i miei modi e la mia ingegnosità nel torturarla la perdita del mio caro figliolo non solo affliggeva il mio cuore di padre ma danneggiava i miei interessi personali in misura notevolissima perché dato che ora non c'era più un erede diretto della proprietà e lady lindon era di salute piuttosto cagionevole e si supponeva assolutamente improbabile che lasciasse altri figli i primi della successione quella detestabile famiglia dei tiptof cominciarono a darsi da fare in mille modi per infastidirmi e si misero a capo del partito dei miei nemici che riportavano voci a mio discredito essi si frapponevano fra me e la mia amministrazione della proprietà in mille modi diversi lanciando alte grida se tagliavo un fuscello o scavavo una buca o vendevo un quadro o mandavo a rimodellare qualche oncia d'argenteria mi tormentavano con incessanti citazioni mi facevano mandare ingiunzioni dalla cancelleria intralciavano i miei agenti nell'esecuzione del loro lavoro a tal punto che si sarebbe pensato che il mio non fosse mio ma loro e che potessero farne quel che volevano e quel che è peggio ho ragione di credere che avessero pasticci e traffici anche con i miei domestici sotto il mio stesso tetto perché non potevo scambiare una parola con Lady Lyndon senza che in qualche modo si risapesse al di fuori e non potevo neanche prendermi una sbornia col cappellano e con gli amici senza che qualche bigotto mascalzone si impadronisse della notizia e facesse il conto di tutte le bottiglie che avevo bevuto e di tutte le bestemmie che avevo detto che non fossero poche lo riconosco io sono della vecchia scuola sono sempre stato libero nelle mie espressioni e nelle mie abitudini ma perlomeno se dicevo e facevo quello che mi piaceva non ero cattivo come tanti bricconi ipocriti che ricoprono insospettati le loro imperfezioni e di loro peccati con la maschera della santità dato che sto facendo una chiara confessione di tutto e non sono un ipocrita posso benissimo confessare che tentai di stornare i propositi dei miei nemici con un artificio che non era forse strettamente lecito tutto dipendeva dal fatto che io avessi un erede per la proprietà perché se Lady Lyndon che era di salute cagionevole fosse morta il giorno dopo io sarei stato un mendicante e tutti i sacrifici in denaro eccetera che avevo fatto sulla proprietà non sarebbero stati valutati un centesimo tutti i debiti sarebbero stati lasciati sulle mie spalle e i miei nemici avrebbero trionfato su di me cosa che per un uomo del mio spirito era la cosa peggiore di tutte come dice un qualche poeta confesso dunque che era il mio desiderio soppiantare quei bricconi e dato che non potevo farlo senza avere un erede alle mie proprietà decisi di trovarne uno se lo avessi già portata di mano e del mio stesso sangue benché della mano sinistra non è qui il caso di dire fu allora che scoprì le ribalde macchinazioni dei miei nemici perché avendo esposto questo piano a Lady Lyndon che avevo fatto diventare almeno esteriormente la più obbediente delle mogli benché non lasciassi mai che una lettera sua o destinata a lei partisse o arrivasse senza essere esaminata da me benché io non le permettessi di vedere nessuno all'infuori di quelle persone che ritenevo fossero compagnia adatta per lei con la sua salute delicata pure quegli infernali tiptoff ebbero sentore del mio progetto protestarono immediatamente contro di esso non solo per lettera ma in vergognosi e diffamatori fogli pubblici e mi additarono al pubblico odio come falsificatore e di bambini così mi chiamavano naturalmente io negai l'accusa non potevo fare altrimenti e mi offrì di incontrare uno qualsiasi dei tiptoff sul campo dell'onore per provare che era un furfante e un mentitore come era di fatto benché forse non in questo caso ma essi si contentarono di rispondermi per mezzo di un avvocato e rifiutarono un invito che qualsiasi uomo di onore avrebbe accettato le mie speranze di avere un erede furono così completamente distrutte infatti lady lindon benché come ho già detto io non tenessi in alcun conto la sua opposizione aveva resistito a questo proposito con tanta energia quanta poteva manifestarne una donna debole come lei diceva che aveva commesso un gran delitto per causa mia ma che sarebbe morta piuttosto che commetterne un altro io avrei comunque potuto ricondurre facilmente in sentimenti sua signoria ma ormai il mio progetto si era divulgato ed era inutile tentare di metterlo in esecuzione avremmo anche potuto avere una dozzina di figli in onesto connubio e la gente avrebbe detto che erano falsi quanto a trarre danaro dalle sue rendite annuali debbo dire che avevo usato in anticipo tutte le sue rendite ai miei tempi esistevano ancora poche di quelle società di assicurazioni che sono poi spuntate come funghi nella city di londra alcuni firmatari di polizza d'assicurazioni facevano tutti gli affari e la vita di mia moglie era nota tra loro credo più di quella di qualsiasi altra donna della cristianità l'ultima volta che vogli prendere in prestito una somma sulla sua vita quei mascalzoni ebbero l'impudenza di rispondermi che il modo in cui la trattavo non dava loro neppure la garanzia di un anno come se fosse stato mio interesse ucciderla se il mio ragazzo fosse vissuto la cosa sarebbe stata diversa lui e sua madre avrebbero potuto tagliarsi fuori una bella parte di proprietà vincolata da dividersi fra loro e i miei affari avrebbero potuto essere messi in ordine ora invece ero veramente in cattive condizioni tutti i miei tentativi si erano risolti in altrettanti fallimenti le mie terre che erano state acquistate con denaro preso a prestito non mi davano alcun reddito ed io ero costretto a pagare interessi rovinosi per le somme con cui le avevo acquistate il mio reddito benché molto elevato era carico di centinaia di sterline di tasse di migliaia di spese d'avvocato ed io sentivo la rete stringermi si attorno sempre più saldamente e non trovavo il mezzo di districarmi dalla tela ad aggravare tutte le mie perplessità due anni dopo la morte del mio povero bambino mia moglie di cui avevo sopportato le stravaganze di carattere le capricciose follie mostrò il desiderio di lasciarmi e fece tentativi d'ogni sorta per quel che essa chiamava sfuggire alla mia tirannia mia madre che era la sola persona che mi fosse rimasta fedele nelle mie disgrazie e per la verità ella ha sempre parlato di me nella vera luce come di un martire della furfanteria degli altri e di una vittima del mio carattere generoso e troppo fiducioso scoprì il primo progetto che stavano cercando di attuare e di cui come al solito quegli astuti e maliziosi tiptoff erano i principali promotori mia madre a dire il vero benché il suo carattere fosse violento e di suoi modi un po originali era per me una persona di valore inestimabile in casa mia che sarebbe andata in rovina e in sfacelo molto tempo prima se non fosse stato per il suo spirito d'ordine e per la sua ottima economia nel governo della mia famiglia quanto a lady lindon essa povera creatura era una signora troppo fine per occuparsi di ciò che riguardava le faccende di casa e passava le sue giornate col dottore o con i suoi libri di pietà e non compariva mai tra noi salvo che in seguito a mie insistenze e allora mia madre e lei avevano immancabilmente qualche discussione mistress barry all'opposto aveva un vero talento per l'amministrazione in tutti i campi faceva lavorare le domestiche e teneva i domestici al loro posto sorvegliava il vino nella cantina e il fieno e l'avena nella stalla sorvegliava la salatura la preparazione delle conserve le patate e il pollame la macellazione dei maiali e la loro conservazione e tutte le diecimila minuzie di un menage molto in grande se tutte le massaie irlandesi fossero come lei vi garantisco che splenderebbero molti focolari là dove oggi ci sono soltanto ragnatele e ci sarebbero molti parchi pieni di pecore e di bestiame laddove oggi i principali occupanti sono i cardi e le spine se qualche cosa avesse potuto salvarmi dalle conseguenze della scelleratezza altrui e lo confesso perché non ho mai rifiutato di riconoscere i miei difetti del mio carattere troppo facilone generoso e trascurato sarebbe stata l'ammirevole previdenza di quella degna creatura ella non andava mai a letto finché tutta la casa non era tranquilla e tutte le candele spente e potete immaginare che era cosa di una certa difficoltà con un uomo delle mie abitudini che aveva regolarmente una dozzina di allegri compagni e la maggior parte erano abili furfanti e falsi amici a bere con sé tutte le sere e raramente da parte mia andavo a letto senza essere ubriaco molte e molte sere quando io non mi accorgevo neppure della sua assistenza quella buona creatura mi ha tolto gli stivali ed ha sorvegliato i domestici che mi mettevano a letto ed ha portato via lei stessa la candela ed è anche stata la prima al mattino a portarmi il mio bicchiere di birra dolce nota di traduzione la birra leggera era adoperata come rimedio per i mali allo stomaco e le indigestioni i miei non erano davvero tempi di pappemolli ve lo assicuro io un gentiluomo non pensava che fosse vergogna scolarsi la sua mezza dozzina di bottiglie e quanto ai vostri caffè ed altri tipi d'acqua sporca li lasciavamo a lady lindon al suo dottore e alle altre vecchie era l'orgoglio di mia madre che io bevessi più di qualsiasi altro uomo del paese quanto beveva prima di me mio padre diceva lei che lady lindon la detestasse era abbastanza naturale non è davvero lei la prima donna del genere umano che abbia odiato sua suocera io avevo incaricato mia madre di esercitare una stretta sorveglianza sui capricci di sua signoria e questa potete esserne certi era una delle ragioni per cui mia moglie non la poteva soffrire a me di questo non importava nulla però l'assistenza e la sorveglianza di mrs barry avevano per me un valore inestimabile e se avessi pagato 20 spie per sorvegliare mi lady non avrei potuto essere servito neppure la metà così bene come lo ero dalla cura e dalla vigilanza della mia eccellente madre essa dormiva con le chiavi di casa sotto il cuscino ed aveva l'occhio a tutto seguiva tutti i movimenti della contessa come un'ombra faceva in modo di sapere dalla mattina alla sera tutto ciò che faceva mi lady se passeggiava nel giardino e la teneva un occhio vigile sul cancello e se decideva di uscire in carrozza la accompagnava e un paio di domestici nella mia livrea cavalcavano ai lati della carrozza per vedere che non le succedesse nulla benché ella si opponesse e si trattenesse in camera sua in imbronciato silenzio io mi facevo un punto d'onore di comparire insieme a lei in chiesa nel nostro tiro a sei tutte le domeniche volevo che partecipasse ai balli in occasione delle corse in mia compagnia tutte le volte che la via era libera da quei furfanti di ufficiali giudiziari che mi perseguitavano questo per smentire tutti quei maligni che dicevano che io intendevo tener prigioniera mia moglie il fatto è che conoscendo la sua leggerezza e vedendo la insana avversione per me che aveva cominciato ora a sostituire quella che forse era stata una passione ugualmente insana ero costretto a stare in guardia perché ella non mi sfuggisse se mi avesse lasciato io sarei stato rovinato il giorno dopo questo e mia madre lo sapeva ci costringeva a tenerla sotto una stretta sorveglianza ma quanto ad imprigionarla respingo con disprezzo questa accusa ogni uomo imprigiona fino ad un certo punto sua moglie il mondo sarebbe in un bello stato se alle donne fosse permesso di lasciare la loro casa e di ritornarvi tutte le volte che ne hanno voglia nel sorvegliare mia moglie lady lindon io non facevo altro che esercitare la legittima autorità che esige che ogni marito debba essere onorato e obbedito tali e tanti sono tuttavia gli artifici femminili che nonostante tutta la mia cura nel sorvegliarla è probabile che mi lady mi sarebbe sfuggita se io non avessi avuto una persona furba quanto lei a sorvegliarla come mia alleata perché come il proverbio dice che il miglior modo di catturare un ladro è di mettergli appresso un altro ladro così il miglior modo per avere la meglio su una donna è di incaricare un'altra dello stesso astuto sesso di sorvegliarla si sarebbe potuto pensare che eseguita com'era con tutte le lettere aperte e tutte le sue relazioni strettamente sorvegliate da me vivendo in una remota parte dell'irlanda lontana dalla sua famiglia lady lindon non avesse nessuna possibilità di comunicare con i suoi alleati o di rendere pubblici quelli che le piaceva chiamare i torti che le venivano fatti eppure per un certo tempo e la intrattenne una corrispondenza proprio sotto il mio naso e organizzò astutamente una cospirazione per sfuggirmi come si dirà adesso e la aveva sempre avuto un'insana passione per gli abiti e dato che non veniva mai ostacolata in nessun capriccio del genere che le passasse per la mente perché io non risparmiavo denaro per farla contenta e tra i miei debiti ci sono conti di modiste per l'ammontare di parecchie migliaia di sterline di solito viaggiavano continuamente scatoloni da e per dublino con ogni sorta di abiti e mantelli falpalà e guarnizioni come il suo capriccio li richiedeva con esse arrivavano lettere della modista in risposta a numerose missive del genere inviate da miledi e passarono tutte per le mie mani senza il minimo sospetto per qualche tempo eppure proprio in quelle carte col semplice mezzo dell'inchiostro simpatico era contenuta tutta la corrispondenza di sua signoria e sai il cielo perché ci volle qualche tempo come ho detto prima che scoprissi il giochetto quali accuse contro di me l'abile missis barry scoprì che la mia signora moglie prima di mettersi a scrivere lettere alla sua modista aveva sempre bisogno di limoni per farsi una bibita così almeno diceva lei questo fatto mi fu riportato e mi faceva riflettere sicché provai a mettere una di quelle lettere davanti al fuoco e venne in luce tutto il piano di quella birbonata darò qui un esempio delle orribili e astute lettere di quella disgraziata con una calligrafia larga e alta a grandi spazi erano scritte le indicazioni alla sua sarta in cui venivano elencati tutti gli articoli di vestiario di cui miledi aveva bisogno le loro particolarità di taglio le stoffe che sceglieva eccetera faceva in questo modo lunghe liste scrivendo ogni voce in una riga separata in modo da avere più spazio per narrare in dettaglio tutte le mie crudeltà e di terribili torti che le facevo tra quelle righe teneva il diario della sua prigionia che avrebbe fatto la fortuna di uno scrittore di romanzi a quei tempi solo a tenerne copia e a pubblicarlo sotto il titolo di l'adorabile prigioniera o il feroce marito o con qualche altro titolo altrettanto avvincente ed assurdo il diario si presentava pressa poco così lunedì ieri fui costretta ad andare in chiesa quell'odioso mostruoso volgare dragone femmina di mia suocera in seta gialla e nastri rossi aveva il posto d'onore nella carrozza e mister l cavalcava al suo fianco col cavallo che non ha mai pagato al capitano hardlestone quel malvagio ipocrita mi condusse al mio banco col cappello in mano e l'aria sorridente e mi baciò la mano mentre risalivo in carrozza dopo il servizio divino carezzando il mio levriero italiano tutto questo perché le poche persone raccolte lì intorno potessero vedere la sera mi fece scendere a preparare il alla sua compagnia tre quarti della quale lui compreso erano come al solito ubriachi tinsero di nero la faccia del parroco quando sua reverenza era arrivata alla settima bottiglia ed era nel solito stato di insensibilità e lo legarono sulla cavalla grigia con la faccia rivolta verso la coda il dragone lesse per tutta la sera i doveri dell'uomo fino all'ora di andare a letto quando vide che ero rientrata nei miei appartamenti mi chiuse dentro e si accinse ad occuparsi del suo abominevole figlio che ella adora per la sua malvagità credo come sicorace adorava calibano avreste dovuto vedere la furia di mia madre quando le lessi questo brano a dire la verità ho sempre avuto un certo gusto per gli scherzi quello che fu fatto al parroco e che è descritto più sopra è lo confesso un ottimo esempio e sceglievo con gran cura per fargli sentire a mrs berry tutti i complimenti che le rivolgeva lady lindon dragone era il nome con cui veniva indicata in quella raffinata corrispondenza ma era anche indicata a volte col titolo la strega irlandese quanto a me ero designato come il mio carceriere il mio tiranno il cupo spirito che ha ottenuto il dominio del mio essere e così via in termini che erano sempre un complimento per il mio potere per quanto fossero poco lusinghieri per la mia amabilità ecco un altro estratto dal suo diario di prigionia dal quale si vedrà come miledi benché pretendesse di essere indifferente ai miei trascorsi aveva un acuto occhio femminile e poteva essere gelosa quanto un'altra mercoledì oggi si compiono due anni dal giorno in cui la mia ultima speranza e gioia nella vita mi fu strappata e il mio caro piccino fu chiamato in cielo a egli raggiunto lassù quel suo tanto trascurato fratello che io permisi crescesse al mio fianco non curato e negletto e che la tirannia del mostro a cui sono unita spinse all'esilio e forse alla morte o il ragazzo è vivo come il mio cuore di madre a volte crede charles bullington viene in aiuto di una madre indegna e sventurata che ora riconosce le sue colpe la sua freddezza verso di te e sconta amaramente il suo errore ma no non può essere vivo io sono pazza la mia sola speranza è in voi cugino mio in voi che una volta avevo pensato di salutare con un titolo anche più affettuoso mio caro george poinings o siate il mio cavaliere il mio protettore il vero essere cavalleresco che siete sempre stato e riscattatemi dalla tirannia del fellone miserabile che mi tiene prigioniera riscattatemi da lui e da sicorace la vile strega irlandese sua madre seguono qui alcuni versi che sua signoria aveva l'abitudine di comporre a centinaia ed in cui paragonava se stessa a sabra nei sette campioni e incitava il suo george a liberarla dal dragone intendendo mrs berry ometto i versi e proseguo anche al mio povero bimbo che perì immaturamente in questo triste anniversario il tiranno che mi governa aveva insegnato a disprezzarmi e a non amarmi fu disobbedendo ai miei ordini e alle mie preghiere che egli uscì per quella fatale gita quali sofferenze quali umiliazioni ho dovuto sopportare da quel giorno in poi sono prigioniera nella mia stessa casa dovrei temere il veleno se non fosse che so che quel furfante ha un suo sordido interesse nel mantenermi in vita e che la mia morte sarebbe il segnale della sua rovina ma non oso muovermi senza la mia odiosa spregevole e volgare carceriera quella orribile irlandese che segue ogni mio passo la sera vengo chiusa a chiave nella mia camera come una criminale e mi viene permesso di lasciarla solo quando mi viene ordinato di recarmi alla presenza di milord a me ordinare per essere presente alle sue orge con i suoi allegri camerati e per udire la sua odiosa conversazione quando scivola nella disgustosa follia dell'ubriachezza egli ha abbandonato persino l'apparenza della fedeltà lui che aveva giurato che io sola potevo attrarlo o affascinarlo e adesso mi porta fin sotto gli occhi le sue volgari amanti e avrebbe preteso che io riconoscessi come erede della mia proprietà il figlio che ha avuto da un'altra no a questo non mi sottometterò mai tu e soltanto tu mio george mio amico d'un tempo sarai l'erede delle proprietà dei lindon perché il fatto non mi ha unito a te invece che all'odioso uomo che mi tiene sotto la sua odiosa influenza e non ha resa felice la povera calista così le lettere continuavano un foglio dopo l'altro nella calligrafia più minuta e contorta ed io lascio al lettore senza preconcetti di dire se colei che scriveva questi documenti non doveva essere la creatura più sciocca e più vana che sia mai esistita e se non c'era bisogno di sorvegliarla io potrei copiare chilometri di rapsodie dirette a lord george poinings la sua antica fiamma in cui ella si rivolgeva a lui coi nomi più affettuosi e lo implorava di trovarle un rifugio contro i suoi oppressori ma il lettore si stancherebbe a leggerli quanto io a copiarli il fatto è che quella disgraziata aveva l'abilità di scrivere molto più di quello che intendeva dire stava sempre a leggere romanzi e bacia del genere impersonava se stessa in protagonisti immaginari e si sdilinguiva in eroismi e sentimentalismi aveva meno cuore di quanto ne avesse qualsiasi donna che io abbia mai conosciuta eppure mostrava la più violenta disposizione ad essere innamorata scriveva sempre come se fosse avvolta dalla fiamma della passione io conservo un'elegia sul suo cagnolino il pezzo più tenero e patetico che la abbia mai scritto e i più teneri biglietti di rimostranze abetti la sua cameriera favorita alla sua governante per bisticciarsi con lei a una mezza dozzina di conoscenze a ciascuna delle quali si rivolgeva come fosse stata la più cara amica del mondo per dimenticarla nel momento stesso in cui prendeva un altro direzione quanto al suo amore per i figli i passaggi riportati sopra serviranno a dimostrare quanto fosse capace di reali sentimenti materni la frase stessa con cui riporta la morte di uno dei figli serve a tradire il suo egoismo e a sfogare il suo fiele contro di me e mostra desiderio di richiamarne un altro dal sepolcro unicamente perché egli possa arrecarle qualche vantaggio personale se io ho trattato severamente questa donna tenendola lontana dai suoi adulatori i quali avrebbero seminato discordia fra noi e tenendola chiusa al sicuro dai raggiri chi potrà dire che avessi torto se c'è una donna che avrebbe meritato la camicia di forza quella era lady lindon e dai miei tempi io ho conosciuto gente tenuta sulla paglia con le mani legate e la testa rasata senza aver commesso neppure la metà delle pazzie che faceva quella creatura sciocca vana e infatuata mia madre era così infuriata per le accuse contro di me e contro di lei che contenevano quelle lettere che solo con grande difficoltà potei trattenerla dal rivelare a lady lindon che ne eravamo a conoscenza mentre il mio scopo era naturalmente di tenerla all'oscuro del fatto che noi eravamo a giorno dei suoi disegni perché ero ansioso di sapere fino a qual punto arrivassero e in qual pozzo di raggiri sarebbe sprofondata le lettere come dicono nei romanzi aumentavano di interesse a mano a mano che seguitavano venivano fatti dei miei maltrattamenti quadritali che vi avrebbero fatto balzare il cuore in petto non so di quali mostruosità non mi accusasse e a quali miserie non dichiarasse di essere sottoposta compreso il tentativo di affamarla tutto questo mentre viveva anche troppo grassa e soddisfatta almeno all'apparenza nella nostra casa di castle lindon la lettura di romanzi e la vanità le avevano voltato il cervello io non potevo rivolgerle una parola un po rude e se ne sarebbe meritata migliaia ogni giorno ve lo dico io senza che dichiarasse che la mettevo alla tortura e mia madre non poteva farle una rimostranza senza che lei si facesse venire un attacco isterico di cui dichiarava che la degna dama era stata la causa alla fine cominciò a minacciare di uccidersi e benché io non le vassi affatto di mezzo i coltelli non le lesinassi legacci e giarrettiere e lasciassi completamente a sua disposizione tutta la bottega del farmacista conoscendo benissimo il suo carattere e sapendo che in tutta la cristianità non c'era donna da cui fosse meno probabile aspettarsi che attentasse alla sua preziosa vita pure quelle minacce ebbero evidentemente un certo effetto nel luogo a cui erano rivolte perché ora i pacchetti della modista cominciarono ad arrivare con maggiore frequenza e i biglietti che le venivano mandati contenevano l'assicurazione che l'aiuto stava per arrivare il cavalleresco lord george poinings si accingeva a venire a liberare sua cugina e mi faceva il complimento di dire che sperava di affrancare la sua cara cugina dagli artigli del più atroce furfante che mai avesse afflitto l'umanità e che quando lei fosse stata libera sarebbero stati presi dei provvedimenti per il divorzio sulla base della crudeltà e di ogni sorta di maltrattamenti da parte mia io conservavo accuratamente copia di tutti questi preziosi documenti spediti dall'una e dall'altra parte copie fatte dal già nominato mio parente nipote e segretario redmond queen che era attualmente il degno amministratore delle proprietà di castle lindon era un figlio della mia antica fiamma nora che avevo preso con me in un accesso di generosità promettendole di occuparmi della sua istruzione al trinity college e di provvedere a lui per tutta la vita ma dopo che il ragazzo fu rimasto per un anno all'università i professori decisero di non ammetterlo alle riunioni universitarie o alle conferenze fino a che i suoi conti di collegio non fossero stati pagati e offeso da questo insolente modo di richiedere la vile somma dovuta io ritirai a quella scuola la mia protezione e ordinai che il giovane venisse a castle lindon dove mi si rese utile in cento modi fino a che fu vivo il mio caro figliolo gli fece da insegnante per quanto poteva ma vi assicuro che il povero caro brian si dava sempre assai poco da fare con i libri poi tenne i conti di mister sbredi copiava la mia interminabile corrispondenza personale con i miei avvocati e con gli amministratori di tutte le mie svariate proprietà la sera faceva un giro di picchetto di sbaraglino con me e con mia madre oppure essendo un ragazzo abbastanza intelligente benché di spirito meschino e rustico come ci si poteva aspettare dal figlio di un simile padre accompagnava la spinetta di lady lindon col suo zufolo e leggeva in francese e in italiano con lei di tutte e due queste lingue sua signoria era una buona conoscitrice ed anche lui imparò a conversare perfettamente in entrambe era una cosa che faceva inquietare moltissimo la mia vecchia e sospettosa madre sentirli conversare in quelle lingue perché non comprendendo una parola né dell'una né dell'altra mister sberry era furiosa quando le parlavano gli altri e diceva sempre che se ne servivano per qualche piano che stavano macchinando era quello il modo abituale di lady lindon per far indispettire la vecchia signora quando quei tre si trovavano soli insieme rivolgersi a queen nell'uno o nell'altro di quegli idiomi io ero perfettamente sicuro della fedeltà del ragazzo perché lo avevo allevato e coperto di benefici ed inoltre avevo avuto diverse prove della sua fidatezza era lui che mi aveva portato tre delle lettere di lord george in risposta ad alcune delle lamentele di miledi lettere che erano nascoste in mezzo alla rilegatura di un libro mandato in lettura a sua signoria dalla biblioteca circolante anche lui e miledi avevano frequenti dispute lei nei suoi momenti di buon umore gli faceva il verso e quando aveva una passata di superbia diceva che non voleva sedere a tavola col nipote di un sarto mandatemi chiunque altro per compagnia ma non quello di oso queen diceva quando le proponevo di mandarglielo perché la divertisse con i suoi libri e il suo zuffolo perché per quanto attaccabrighe fossimo non si deve credere che litigassimo di continuo di tanto in tanto io le rivolgevo anche delle attenzioni a volte restavamo in buona amicizia anche per un mese poi ci tenevamo il broncio per 15 giorni poi lei restava chiusa nelle sue stanze per un mese e tutti questi avvenimenti domestici venivano annotati nel modo che era particolare a sua signoria nel suo diario di prigionia come lo chiamava lei e vi assicuro che era proprio un grazioso documento a volte essa scriveva il mio mostro è stato quasi gentile oggi o il mio furfante si è degnato di sorridere poi esplodeva in espressioni di odio selvaggio ma per la mia povera madre era sempre odio era il dragone ammalato oggi volesse il cielo che morisse oppure quell'odiosa vecchia zanaiola irlandese mi ha minacciato con il suo linguaggio da pescivendola oggi e così via tutte queste espressioni lette a mistress barry o tradotte dall'italiano o dal francese in cui molte di esse erano scritte non mancavano di mantenere la vecchia signora perpetuamente infuriata contro la persona affidatale e così io avevo il mio cane da guardia come la chiamavo sempre allerta nel tradurmi quelle lingue il giovane queen mi era di grande utilità perché io avevo un'infarinatura di francese e naturalmente quando ero nell'esercito conoscevo bene l'olandese ma di italiano non ne sapevo neppure una parola ed ero contento dei servigi di un interprete così fedele e a buon mercato ma questo interprete fedele a buon mercato questo nipote parente sul quale e sulla famiglia del quale avevo profuso tanti benefici in realtà stava cercando di tradirmi e per diversi mesi almeno fu in lega col nemico contro di me credo che la ragione per cui essi non si mossero prima fu la mancanza del più grande propulsore di tutti i tradimenti il denaro di cui in tutte le parti della nostra amministrazione c'era una maledetta scarsità ma anche di questo essi fecero in modo da avere un rifornimento attraverso quel furfante di mio nipote che poteva andare e venire senza destare assolutamente sospetti tutto il piano fu preparato proprio sotto il nostro naso e la carrozza di posta era stata ordinata e tutti i mezzi per la fuga erano pronti mentre io non sospettavo neppure i loro disegni fu un semplice incidente a farmi venire a conoscenza dei loro progetti uno dei miei operai aveva una graziosa figliola e quella bella ragazzotta aveva per promesso come lo chiamano in irlanda un ragazzo che portava il sacco della posta a castle linden e c'erano un bel po' di solleciti di pagamento in quel sacco per me dio ne è testimone e questo ragazzo della posta disse alla sua bella che portava un sacchetto di denaro dalla città per master queen e che tim il garzone della posta dei cavalli gli aveva detto che doveva portare una carrozza giù presso il fiume ad una certa ora miss rooney che non aveva segreti per me tirò fuori tutta la storia e mi chiese che cosa stavo progettando e quale povera disgraziata ragazza stavo per portar via con la carrozza che avevo ordinato e ingannare col denaro che mi ero fatto venire dalla città allora mi svelò in un baleno tutto il segreto che colui che mero allevato in seno stava per tradirmi pensai tutto in una volta di cogliere la coppia nell'atto di fuggire di annegarli nel battello che dovevano prendere per raggiungere la carrozza o di sparare sul giovane traditore davanti agli occhi di lady lindon ma poi ripensandoci era assolutamente chiaro che la notizia della fuga avrebbe fatto rumore in paese ed eccitato contro di me le confuse idee di giustizia della gente del posto e non sarebbe finita bene per me così fui costretto a soffocare la mia legittima indignazione e a contentarmi di mandare a monte quella pazza cospirazione proprio nel momento in cui stava per compiersi andai a casa e in mezz'ora con qualche guardataccia ebbi lady lindon in ginocchio che mi pregava di perdonarla confessando tutto per filo e per segno pronta a giurare e a spergiurare che non avrebbe ripetuto mai più un simile tentativo e dichiarò anzi che era stata 50 volte sul punto di svelarmi ogni cosa ma che temeva il mio sdegno contro il povero ragazzo suo complice che era in realtà l'autore e l'ideatore di tutto il raggiro benché sapessi che tale dichiarazione era assolutamente falsa mi mostrai di buon grado disposto a crederlo sicché la pregai di scrivere a suo cugino lord george che le aveva fornito il denaro come la mise subito e con cui era stato preparato il progetto dichiarando brevemente che aveva cambiato parere circa il viaggio in città già progettato e che siccome il suo caro marito non stava troppo bene in salute preferiva restare a casa a curarlo io aggiunsi un secco poscritto in cui dichiaravo che sarei stato lietissimo se sua signoria fosse venuto a trovarci a castle lindon e che desideravo rinnovare una conoscenza che in passato mi aveva dato tante soddisfazioni aggiungevo che avrei fatto ricerca di lui non appena per caso mi fossi trovato nelle sue vicinanze e che mi immaginavo anticipatamente il piacere di un incontro con lui credo che egli comprendesse perfettamente che cosa intendevo con queste parole e cioè che lo avrei infilzato alla prima occasione se avessi potuto mettergli le mani addosso poi ebbi una scenata con quel perfido furfante di mio nipote e in essa il giovane reprobo mostrò un'audacia ed uno spirito a cui io ero assolutamente impreparato quando lo accusai di ingratitudine ma che cosa vi debbo disse lui ho lavorato per voi quanto nessun altro ed ho fatto di tutto senza un soldo di stipendio siete stato voi stesso che mi avete messo contro di voi affidandomi un compito contro cui l'anima mia si rivoltava facendo di me una spia ai danni della vostra disgraziata moglie la cui debolezza è da compatire quanto le sue disgrazie per i furfanteschi maltrattamenti che le infliggete la mia carne e il mio sangue non potevano sopportare di vedere il modo in cui la trattavate ho cercato di aiutarla a sfuggirvi e lo rifarei di nuovo se ne avessi ancora l'opportunità e ve lo dico in faccia quando dissi che mi proponevo di fargli saltare le cervella per la sua insolenza può disse lui uccidere l'uomo che una volta salvò la vita del vostro povero figliolo e che stava tentando di trarlo dalla rovina e dalla perdizione a cui lo stava conducendo un padre malvagio quando un potere divino si interpose e lo tolse da questa casa di peccato vi avrei lasciato già da qualche mese ma speravo che ci fosse qualche possibilità di liberare quell'infelice signora giurai che l'avrei tentato il giorno in cui vivi di batterla uccidere me voi tiranno e tormentatore di donne lo fareste se osaste ma non ne avete il coraggio persino i vostri domestici vogliono più bene a me che a voi toccatemi e insorgeranno e vi manderanno nella galera che meritate io interruppi questo chiaro discorso tirando in testa a quel giovane gentiluomo una bottiglia e mandandolo a finire disteso per terra poi andai a meditare su ciò che mi aveva detto era vero che costui aveva salvato la vita al povero piccolo brian e il ragazzo gli era rimasto teneramente affezionato fino al giorno della sua morte si buono con redmond papà erano state quasi le ultime parole che aveva detto ed io avevo promesso al povero bimbo sul suo letto di morte che avrei fatto ciò che mi chiedeva era anche vero che se l'avessi trattato rudemente questo sarebbe piaciuto poco alla mia servitù di cui egli aveva fatto in modo di diventare il favorito mentre non so come benché io mi ubriacassi spesso con quei furfanti e concedessi loro molta più familiarità di quanta non ne dia di solito un uomo del mio rango pure sapevo che non mi erano affatto affezionati e che quei mascalzoni borbottavano continuamente contro di me ma avrei potuto risparmiarmi il disturbo di discutere con me stesso quale sarebbe stata la sua sorte perché quel giovane gentiluomo mi tolse di mano la possibilità di disporne nel modo più semplice del mondo cioè levandosi e fasciandosi la testa appena ritornò in sé ritirando dalla stalla il suo cavallo e siccome era assolutamente libero di andare e venire dentro e fuori dalla casa e dal parco a suo piacimento disparve senza il minimo indugio od ostacolo e lasciandosi dietro il cavallo quando si imbarcò sul battello se ne andò nella stessa carrozza di posta che stava aspettando Lady Lyndon io non lo vidi più e non sentii più parlare di lui per parecchio tempo e adesso che era fuori di casa mia non lo considerai più un nemico molto preoccupante ma il sottile artificio della donna è tale che a lungo andare io credo non ci sia uomo fosse gli machiavelli in persona che possa sfuggirgli e benché io avessi ampie prove della cospirazione narrata qui sopra ed in cui i perfidi disegni di mia moglie furono resi vani dalla mia previdenza e nella sua propria scrittura della doppiezza del suo carattere e del suo odio per me pure ella in realtà fece in modo da ingannarmi ad onta di tutte le mie precauzioni e della vigilanza di mia madre in mio favore se io avessi seguito i consigli di quella buona dama che fiutava il pericolo da lungi quando ce n'era non sarei mai caduto nella trappola preparata da me e che fu organizzata in modo che ebbe successo proprio in ragione della sua semplicità i rapporti di Lady Lyndon con me erano di un genere piuttosto singolare la sua vita trascorreva in una specie di cervellotica alternativa tra amore e odio per me se io ero ben disposto verso di lei come accadeva qualche volta non c'era nulla che non avrebbe fatto per propiziarmi sì maggiormente ed era tanto assurda nelle sue espressioni di affetto quanto in altri momenti lo era nelle sue dimostrazioni di odio non sono davvero i mariti deboli e accondiscendenti i più amati al mondo secondo la mia esperienza in proposito credo che alle donne piaccia una certa violenza di carattere e che non siano particolarmente mal disposte verso un marito che eserciti la propria autorità in modo energico io avevo portato Milady ad un tale stato di terrore verso di me che quando le sorridevo si apriva addirittura un'era di felicità per lei e quando le facevo un cenno veniva da me con ogni sorta di moine come un cagnolino ricordo benissimo come nei pochi giorni che andai a scuola i miei vili e codardi compagni ridessero se per caso il nostro severo maestro diceva qualche scherzo lo stesso accadeva al reggimento ogni volta che un tirannico sergente era disposto a mostrarsi faceto non una recluta osava fare il viso scuro ebbene un marito saggio e deciso metterà sua moglie in queste stesse condizioni di disciplina ed io avevo portato la mia nobile moglie a baciarmi la mano a sfilarmi gli stivali a compiere per me i più umili servigi al pari di una domestica e da farsi sempre una festa anche del fatto che io fossi di buon umore confidavo forse troppo nella durata di questa disciplinata obbedienza e dimenticavo che proprio l'ipocrisia che ne fa parte tutte le persone timide sono bugiarde in cuor loro può essere adoperata per ingannarvi in un modo che vi riuscirà alla fine tutt'altro che gradevole dopo l'insuccesso della sua ultima avventura che mi fornì infinite occasioni di farmi beffe di lei si potrebbe pensare che io stessi in guardia sulle sue effettive intenzioni ma essa faceva in modo da fuorviarmi con arte della dissimulazione assolutamente ammirevole e mi cullava in una fatale sicurezza circa le sue intenzioni tanto che un giorno in cui stavo scherzando con lei e chiedendole quando si sarebbe imbarcata un'altra volta se aveva trovato un altro corteggiatore e così via e la scoppiò improvvisamente in lacrime e afferrando la mia mano gridò appassionatamente ah Barry tu sai benissimo che io non ho mai amato altri che te sono io mai stata così avvilita che una parola gentile da parte tua non mi abbia reso felice e mai così adirata che la minima offerta di pace da parte tua non mi abbia portato al tuo fianco non ti ho dato una prova sufficiente del mio affetto per te affidandoti uno dei primi patrimoni d'Inghilterra ti ho mai afflitto o rimproverato per il modo in cui lo hai dissipato no ti amavo troppo e troppo teneramente ti ho sempre amato sin dal primo momento che ti ho visto mi sono sentita irresistibilmente attratta verso di te ho visto le tue cattive qualità ed ho tremato per la tua violenza ma non ho potuto fare a meno di amarti ti ho sposato benché sapessi che suggellavo il mio destino nel farlo e a dispetto della ragione del dovere che sacrificio desideri tu da me sono pronta a farli tutti purché tu mi ami o se questo non è possibile perché almeno mi tratti gentilmente quel giorno ero particolarmente di buon umore e così ci fu tra noi una specie di riconciliazione benché mia moglie quando udì questo discorso e mi vide intenerirmi verso sua signoria mi mettesse solennemente in guardia dicendo sta pur sicuro che quell'abile briccona ha in mente qualche altro progetto adesso la vecchia signora aveva ragione ed io mandai giù l'esca che sua signoria aveva preparato per intrappolarmi con la stessa semplicità con cui un pesciolino a bocca all'amo avevo cercato di negoziare con un tale per una certa somma di denaro di cui avevo urgente necessità ma dopo la nostra lite circa la faccenda della successione milady aveva rifiutato risolutamente di fermare qualsiasi documento in mio favore e senza il suo nome mi rincresce di dirlo il mio aveva poco valore sul mercato ed io non potevo ottenere neppure una sterlina da un qualsiasi agente di cambio e prestatore di denaro di londra o di dublino e neppure potevo ottenere che quei furfanti di quest'ultima città venissero a trovarmi a castle linden in seguito a quel disgraziato affare che avevo avuto con l'avvocato sharp quando lo avevo indotto a prestarmi il denaro che aveva ritirato e con il vecchio ebreo salmon che era stato derubato dell'obbligazione che gli avevo firmato subito dopo aver lasciato casa mia la gente non si fidava più di venire da me a quell'epoca anche le nostre rendite erano nelle mani dei curatori ed era molto se riuscivo a ottenere denaro sufficiente da quei mascalzoni per pagare i miei fornitori di vino le nostre proprietà inglesi come ho già detto erano ugualmente vincolate e tutte le volte che mi rivolgevo ai miei legali e ai miei amministratori per denaro arrivava una risposta che chiedeva denaro da me per debiti e pretesi diritti che quei rapaci furfanti dicevano di avere con un certo senso di piacere dunque ricevetti una lettera dal mio uomo di fiducia in crazy in londra il quale diceva in risposta ad una mia novantanovesima richiesta che pensava di potermi procurare del denaro e conteneva una lettera di una rispettabile ditta della city di londra che si interessava di affari minerari ed offriva di riscattare e di concludere un lungo affitto per una nostra proprietà che era ancora abbastanza libera da impegni con la firma della contessa e purché fosse loro garantito che essa aveva firmato di sua libera e spontanea volontà dicevano che avevano sentito dire che essa viveva nel terrore di essere uccisa da me e che meditava una separazione nel qual caso avrebbe potuto rifiutarsi di riconoscere qualsiasi contratto da lei firmato durante la sua prigionia e costringerli ad ogni modo ad una controversia dubbia e dispendiosa chiedevano pertanto di essere garantiti della perfetta libertà di volere di sua signoria nell'affare prima di pagare un solo scellino di capitale le loro condizioni erano così dure che pensai che la offerta doveva essere sincera e dato che miledi era di buon umore non ebbi difficoltà a persuaderla a scrivere una lettera di suo pugno in cui dichiarava che i resoconti dei nostri malintesi erano assolutamente calunnosi che noi vivevamo in perfetta unione e che lei era prontissima a firmare qualsiasi documento legale che suo marito desiderasse farle firmare questa proposta era quanto mai tempestiva e mi riempì di grandi speranze non ho voluto annoiare i miei lettori con troppi resoconti dei miei debiti e delle mie traversie legali che a quell'epoca erano tanto vasti e complicati che neppure io stesso li conoscevo per intero ed ero diventato mezzo pazzo per il loro incalzare basti dire che tutto il mio denaro se n'era andato e che non avevo più alcun credito vivevo a castle lindon del mio manzo e del mio montone del pane delle verdure e delle patate delle mie proprietà e dovevo far la guardia a lady lindon all'interno e agli ufficiali giudiziari all'esterno da due anni dopo l'ultima volta che ero andato a dublino a riscuotere denaro che disgraziatamente avevo perduto al gioco sul posto con grande disappunto dei miei creditori non mi avventuravo più a mostrarmi in quella città e potevo permettermi di fare qualche apparizione nel capoluogo stesso della nostra contea a rari intervalli solo perché conoscevo gli sceriffi e giuravo palesemente che li avrei ammazzati se mi fosse capitato qualche guaio la probabilità di un buon prestito dunque era per me la più ben accetta di tutte le prospettive possibili ed io la salutai con tutto l'entusiasmo che si può immaginare il riscontro alla lettera di lady lindon venne a giro di posta una risposta di quei dannati mercanti di londra dichiarante che se sua signoria avesse confermato a viva voce nei loro uffici di birkin lane a londra quanto diceva nella sua lettera essi avendo tutelato i propri interessi avrebbero concluso senza altro l'affare ma che rifiutavano di correre il rischio di una visita a castle lindon per trattare essendo a conoscenza del modo in cui vi erano state trattate altre rispettabili persone come i signori sharp e salmon di dublino questo fu un vero colpo per me ma ci sono situazioni in cui uno non può dettare le proprie condizioni e in fede mia io avevo in quel momento un così urgente bisogno di denaro che avrei firmato un prestito col diavolo in persona se fosse venuto da me provvisto di una somma un po rotondetta decisi dunque di andare a londra portando con me la contessa in vano mia moglie mi pregò e mi scongiurò di non farlo sta pur certo mi disse che c'è sotto qualche tranello una volta che tu sia andato in quella dannata città non ti salverai più qui puoi vivere per anni ed anni nel lusso e nello splendore sia pure senza chiaretto e con tutte le finestre rotte ma appena riusciranno ad averti a londra avranno la meglio sul mio povero e fiducioso ragazzo e la prima cosa che sentirò dire di te sarà che sei nei pasticci perché andare redmond mi disse mia moglie io sono felice qui finché tu sei gentile con me come lo sei adesso a londra noi non possiamo fare quella figura che dovremmo il poco denaro che otterrai sarà speso subito come lo è stato tutto il resto ridiventiamo pastore e pastorella guardiamo le nostre greggi e stiamo ce ne contenti mi prese per mano e la baciò mentre mia madre disse soltanto io credo proprio che in fondo a questo affare ci sia lei questa dannata impostora io dissi a mia moglie che era una pazza pregai mistress barry di non essere inopportuna e mi mostra impaziente di andare non avrei ascoltato posizioni né dall'una né dall'altra la questione più importante era come mi sarei procurato il denaro per andare ma questo particolare fu risolto dalla mia buona mamma che era sempre pronta ad aiutarmi nel bisogno e che tirò fuori da una calza 60 sterline questo era tutto il patrimonio in contanti di cui barry lindon di castle lindon esposato ad un patrimonio di 40.000 sterline all'anno poteva disporre tale era stata la rovina prodotta in quel magnifico patrimonio dalle mie stravaganze debbo confessarlo ma soprattutto dalla mia fiducia mal riposta e dalla furfanteria altrui non partimmo in gran pompa potete starne certi non facciamo sapere a nessuno in paese che stavamo per andarcene e non ci scambiamo né biglietti né visite da dio con i nostri vicini il famoso barry lindon e la sua nobile consorte viaggiarono in carrozza da nolo a due cavalli fino a waterford sotto il nome di mister e mrs jones di lì ci imbarcammo per bristol dove arrivamo senza nessun incidente quando uno sta andando in ma allora com'è facile piacevole il viaggio il pensiero del denaro mi teneva di ottimo umore e mia moglie con la testa appoggiata sulla mia spalla nella carrozza di posta che ci conduceva a londra disse che era il viaggio più felice che avesse fatto da quando ci eravamo sposati la sera ci fermammo a reading di dove io spedì un biglietto al mio agente di grazing dicendo che sarei stato da lui in giornata e pregandolo di procurarmi un alloggio e di affrettare i preparativi del prestito miledi ed io convenimmo insieme che ce ne saremmo andati in francia e che ci saremmo fermati lì in attesa di tempi migliori e quella sera a cena facemmo un mucchio di progetti di divertimenti e di economie si sarebbe potuto pensare che fossimo filomene e bauci a cena insieme o donne donne quando ricordo i sorrisi e le carezze di lady lindon come sembrava felice quella sera che aria di fiducia innocente c'era nel suo contegno e con quali affettuosi nomi mi chiamava resto addirittura stupefatto dalla profondità della sua ipocrisia chi si meraviglierà dunque che una persona incapace di sospetti come me abbia potuto restare vittima di un'ingannatrice così consumata alle tre del pomeriggio eravamo a londra e mezz'ora prima dell'ora fissata la nostra carrozza si diresse in grace inn io trovai facilmente le stanze di mister tapewell che cupa spelonca era quella e in quale disgraziato momento vi entrai mentre salivamo per le sudici scalette illuminate da una fioca lampada e dal cupo cielo di un buio pomeriggio londinese mia moglie mi apparve debole e agitata redmond disse mentre ci fermavamo davanti alla porta non entrare sono sicura che c'è qualche pericolo siamo ancora in tempo torniamo indietro in irlanda dovunque e si mise davanti alla porta in una delle sue pose teatrali prendendomi la mano ma io la tirai da parte lady lindon dissi voi siete una vecchia pazza vecchia pazza ripete lei e si precipitò a tirare il campanello a cui rispose rapidamente un signore dall'aria ammuffita con una parrucca senza cipria al quale ella gridò dite che lady lindon è qui e si avviò maestosamente per il corridoio borbottando vecchia pazza vecchia pazza era stato vecchia l'epiteto che l'aveva colpita avrei dovuto chiamarla in qualsiasi altro modo fuorché in quello il signor teipuel era nella sua stanza che sapeva di rinchiuso circondato da scartoffi e da scrigni si fece avanti e si inchinò pregò sua signoria di sedersi a me indicò una seggiola che io presi piuttosto meravigliato della sua insolenza poi si ritirò uscendo da una porta laterale e dicendo che sarebbe tornato in un attimo e in un attimo ritornò portando con sé chi credete un altro leguleio sei ufficiali giudiziari in giubba rossa con bastoni piombati e pistole lord george poinings e sua zia lady jane peckover quando lady lindon vide la sua antica fiamma volò tra le sue braccia in un isterico accesso di passione lo chiamò suo salvatore suo difensore suo galante cavaliere poi voltandosi verso di me mise fuori un torrente di ingiurie che mi lasciò assolutamente stupefatto benché sia una vecchia pazza disse ho messo nel sacco il più abile e infido mostro che ci sia sotto il sole sì sono stata una pazza quando ti ho sposato ed ho rinunciato ad altri e ben più nobili cuori per amor tuo sì sono stata una pazza quando ho dimenticato il mio nome e il mio lignaggio per unirmi ad un avventuriero di bassa nascita una pazza a sopportare senza lamentarmi la più mostruosa tirannia che mai donna abbia sofferto e permettere che il mio matrimonio venisse dilapidato a vedere donne basse e volgari quanto te stesso per l'amor del cielo calmatevi gridò l'avvocato e poi si rifugiò dietro gli ufficiali giudiziari vedendo nei miei occhi uno sguardo minaccioso che non piacque a quel mascalzone effettivamente lo avrei fatto a pezzi se mi fosse venuto vicino nel frattempo miledi continuava in un impeto di furia incoerente gridando contro di me e contro mia madre all'indirizzo della quale lanciava insulti degni proprio di billingsgate cominciando e terminando sempre le frasi con la parola pazza voi non dite tutto miledi dissi io amaramente io ho detto vecchia pazza non ho alcun dubbio che voi abbiate detto e fatto tutto quello che un volgare mascalzone può dire e fare signore si intromise il piccolo poinings questa signora è adesso sana e salva sotto la protezione dei suoi parenti e della legge e non deve temere più a lungo le vostre infami persecuzioni ma voi non siete sano e salvo rugì io e quanto è vero che io sono un uomo d'onore ho già assaggiato il vostro sangue una volta lo avrò fino all'ultima goccia adesso prendete nota delle sue parole signori testimonierete davanti al giudice contro di lui strillò il piccolo avvocato di dietro agli ufficiali dello sceriffo non isozzerò la mia spada col sangue di un simile birbante strillò milord rifugiandosi sotto la stessa nobile protezione se questo furfante rimane a londra solo un altro giorno sarà arrestato come un comune truffatore e per la verità questa minaccia mi fece trasalire perché sapevo che in città c'erano decine di mandati esecutivi contro di me e che una volta in prigione il mio caso sarebbe stato senza speranza e dov'è l'uomo che mi arresterà gridai impugnando la spada e appoggiando la schiena alla porta venga pure questo tizio voi voi vi le spaccamontagne venite per primo se avete l'anima di un uomo ma noi non intendiamo arrestarvi disse l'avvocato e sua signoria la zia e tutta la divisione di ufficiali dello sceriffo si allontanarono mentre parlava caro signore noi non abbiamo nessuna intenzione di arrestarvi vi daremo invece una bella somma se lascerete il paese purché lasciate in pace sua signoria così il paese sarà finalmente liberato di un insigne criminale esclamò milord indietreggiando anche lui niente affatto spiacente di uscirmi di portata e quel furfante di avvocato lo seguì lasciandomi padrone dell'appartamento e in compagnia di quei bravacci della polizia che erano tutti armati fino ai denti io non ero più ormai quello che ero a vent'anni quando avrei caricato quei mascalzoni spada alla mano e avrei dato il fatto suo ad almeno uno di loro avevo lo spirito disfatto ero completamente preso dalla ragnatela completamente sconfitto e battuto da quella donna era forse sul punto di rinunciare al suo piano quando sulla porta si era fermata e mi aveva pregato di tornare indietro provava forse ancora un residuo d'amore per me cominciai a riflettere che almeno la sua condotta lo dimostrava quella ormai era la sola possibilità che mi rimanesse al mondo sicché deposi la mia spada sul tavolo dell'avvocato signori dissi non ricorrerò alla violenza potete dire al signor teipuel che sono pronto a parlare con lui quando avrà tempo e mi misi a sedere incrociando le braccia abbastanza pacificamente che cambiamento dal barry lindon dei vecchi tempi ma come ho letto in un vecchio libro su annibale il generale cartaginese quando egli invase il territorio di roma le sue truppe che erano le più prodi del mondo e spazzavano tutto davanti a loro si accantonarono in una città dove si saziarono così completamente degli agi e dei piaceri della vita che nella successiva campagna furono facilmente battute così era per me adesso le mie forze di mente e di corpo non erano più quelle del coraggioso giovane che aveva colpito il suo primo avversario a 15 anni e aveva combattuto una dozzina di battaglie nei sei anni successivi oggi nella prigione della fleet dove scrivo queste pagine c'è un ometto che mi deride sempre e si fa sempre gioco di me mi chiede di combattere con lui ed io non ho il coraggio di toccarlo ma non voglio anticipare i cupi e disgraziati avvenimenti della mia storia di pene e di umiliazioni e sarà meglio che proceda con ordine presi alloggio in un caffè vicino a grazing ed ebbi cura di informare mister tapewell del luogo in cui mi trovavo e gli aspettai ansiosamente una sua visita e gli venne e mi portò le condizioni che proponevano gli amici di lady lindon una miserabile somma annua di 3000 sterline da pagarsi a condizione che io restassi all'estero fuori dai tre regni e da sospendere immediatamente in caso di un mio ritorno mi disse cosa che io sapevo benissimo che se mi fossi trattenuto a londra sarei finito immancabilmente in galera che c'erano innumerevoli mandati esecutivi contro di me tanto lì che nell'ovest dell'inghilterra che il mio credito era così scaduto che non potevo sperare di trovare neppure uno scellino in prestito e mi lasciò una notte per riflettere sulle sue proposte dicendo che se le avessi rifiutate la famiglia avrebbe proceduto legalmente contro di me se accettavo mi sarebbe stato pagato un trimestre della mia annualità in qualsiasi porto estero avessi preferito che cosa doveva fare un povero uomo abbandonato col cuore infranto io presi la somma e fui dichiarato fuori legge nella settimana successiva alla fine trovai che era stato quel furfante di queen la causa della mia rovina era stato lui che aveva architettato il piano per farmi venire a londra suggellando la lettera dell'avvocato con un sigillo che era stato convenuto in precedenza tra lui e la contessa anzi era sempre stato del parere di provare questo piano e lo aveva proposto sin dal principio ma sua signoria col suo eccessivo amore per le cose romanzesche aveva preferito il progetto di fuga tutto questo me lo scrisse poi mia madre nel mio solitario esilio offrendosi nello stesso tempo di venire a dividerlo con me proposta che io rifiutai essa lasciò castle lindon pochissimo tempo dopo che lo avevo lasciato io e tutto fu silenzio in quel castello che quando ne ero io il padrone aveva sfoggiato tanta ospitalità e tanto splendore mia madre credette che non mi avrebbe mai più rivisto e mi rimproverò amaramente di trascurarla ma sbagliava in questo e nel giudizio che dava di me ora è molto vecchia e proprio in questo istante è seduta qui al mio fianco a lavorare a una stanza per dormire in fleets market dall'altra parte della strada e con la sua rendita di 50 sterline all'anno che ha messo da parte con saggia prudenza riuscimmo a tirare avanti in una miserabile esistenza assolutamente indegna del famoso e tanto elegante barry lindon il racconto personale di barry lindon finisce qui perché la mano della morte interruppe ben presto l'ingegnoso autore dopo il periodo in cui le memorie furono compilate aveva vissuto per 19 anni ospite della prigione della fleet i cui registri affermano che morì di delirium tremens sua madre raggiunse un'età prodigiosamente avanzata e coloro che abitavano in quel luogo ai suoi tempi ricordano chiaramente i giornalieri litigi che avevano un luogo fra madre e figlio fino a che quest'ultimo a causa della sua abitudine di ubriacarsi cadde in uno stato di rimbambimento quasi completo e fu curato da sua madre pur così vecchia era come un bambino in fasce e piangeva se era privato del bicchiere di brandy che gli era ormai necessario la sua vita sul continente non abbiamo avuto modo di seguirla in dettaglio sembra che riprendesse la sua antica professione di giocatore senza avere però il successo di un tempo dopo qualche tempo egli tornò segretamente in inghilterra e fece un infruttuoso tentativo di estorcere del denaro a lord george poinings con la minaccia di pubblicare la corrispondenza di lui con lady lindon e di impedire così il matrimonio di sua signoria con miss driver una grande ereditiera di principi rigidissimi proprietaria di un immenso numero di schiavi nelle indie occidentali barry sfuggì per un pelo alla cattura da parte degli ufficiali dello sceriffo che gli furono sguinzagliati dietro da sua signoria che avrebbe anche voluto sospendergli la pensione ma sua moglie non acconsentì mai a quest'atto di giustizia e anzi ruppe definitivamente i suoi rapporti con lui nel momento stesso in cui il lord sposò la ricca signora delle indie occidentali sta di fatto che la vecchia contessa credeva che il suo fascino fosse intramontabile e forse non aveva cessato mai di essere innamorata di suo marito si era stabilita a bath ed il suo patrimonio veniva amministrato con grande cura dai suoi nobili parenti tiptoff che dovevano succederle in mancanza di eredi diretti e tali erano l'abilità di barry e il dominio che aveva ancora su quella donna che ad un certo punto era quasi riuscito a persuaderla a tornare a vivere con lui quando i loro piani furono interrotti dalla comparsa di una persona che era stata ritenuta morta per parecchi anni questa altri non era che il visconte bullington che si presentò con grande sorpresa di tutti e specialmente dei suoi parenti della casa dei tiptoff il giovane nobile fece la sua comparsa a bath con la lettera di barry a lord george in mano lettera con cui il primo minacciava di rendere pubblica la relazione del lord con lady lindon relazione che non abbiamo bisogno di affermarlo non disonorava in alcun modo nessuna delle due parti in causa e dimostrava soltanto che quella signora aveva l'abitudine di scrivere lettere molto sciocche cosa che molti signori e signore hanno fatto prima e dopo di lei per aver messo in dubbio l'onorabilità di sua madre lord bullington assalì il suo padrigno che viveva a bath sotto il nome di mister jones e gli inflisse una tremenda punizione nella sala dei bagni la storia del giovane bullington dopo la sua partenza era stata molto romanzesca ma non ci sentiamo di raccontarla qui era stato ferito nella guerra d'america dato per morto rimasto prigioniero e fuggito le rimesse in denaro che gli erano state promesse non furono mai inviate il pensiero di essere così trascurato spezzò quasi il cuore di quel selvaggio e romantico giovane ed egli decise di rimanere morto per il mondo e per quella madre che lo aveva rinnegato nei boschi del canada tre anni dopo che il fatto si era verificato egli vide la morte del suo fratellastro riportata nel gentleman's magazine sotto il titolo di fatale accidente al lord visconte di castle lindon sicché decise di ritornare in inghilterra dove benché cercasse di farsi riconoscere fu solo con grande difficoltà che persuase lord tiptoff dell'autenticità dei suoi diritti si era recato a bath a far visita a milè di sua madre quando riconobbe il ben noto viso di barri lindon adonta del modesto travestimento che questo signore indossava e vendicò sulla persona di lui gli insulti dei tempi trascorsi lady lindon si infuriò quando sentì della baruffa rifiutò di vedere suo figlio ed era sul punto di precipitarsi immediatamente nelle braccia del suo adorato barri ma nel frattempo questo gentiluomo era stato portato via di prigione in prigione fino a che non fu affidato alle mani di mister bendigo di chancery lane assistente dello sceriffo di middlesex e dalla casa di costui passò nella prigione della fleet lo sceriffo e il suo assistente il prigioniero e la non sono ormai più di questo mondo fino a che visse lady lindon barri godette del suo assegno e fu forse felice in prigione come lo era stato in qualsiasi altro periodo della sua esistenza ma quando sua signoria morì il suo successore sospese immediatamente l'assegno devolvendo la somma in opere di misericordia dicendo che così ne sarebbe stato fatto un uso ben più nobile che non potesse farne quel briccone che ne aveva goduto fino allora alla morte di bullington nella campagna di spagna dell'anno 1811 il suo patrimonio fu ereditato dalla famiglia dei tiptoff e il suo titolo si spense assorbito da loro che era superiore non risulta che il marchese dei tiptoff lord george successe nel titolo alla morte di suo fratello abbia seguitato a versare né l'assegno di barri né la somma assegnata dal defunto lord alle opere di misericordia la proprietà migliorò considerevolmente sotto l'attenta amministrazione di sua signoria gli alberi di hackton park hanno tutti circa 40 anni ormai e le proprietà di irlanda sono tutte affittate sotto forma di appezzamenti molto piccoli ai contadini del luogo che ancora intrattengono i forestieri coi loro racconti sull'audacia le diavolerie la cattiveria e la caduta finale di barry lindon di barri lindon 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 lindon